La seduta è aperta. Invito il senatore segretario a dare lettura del processo verbale della seduta del 14 gennaio 2021. Verbale della seduta del 14 gennaio 2021 numero 292. Presidenza della vicepresidente Larussa, Calderoli e Taverna. Aperta la seduta alle ore 9.30 si legge e si approva il processo verbale della seduta del 13 gennaio 2021. Il presidente dà le comunicazioni specificate in allegato al resoconto. Il senato passa allo svolgimento di interrogazioni. Il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali, Labate, risponde alle interrogazioni numero 1165, 1127, 1563 e 1825. Replicano i senatori Calandrini, Comicini, Binetti e Corrado. Sull'ordine dei lavori intervengono i senatori Balboni, Arrigoni, Malan e Perilli, ai quali risponde il presidente. Il presidente dichiara concluso lo svolgimento di interrogazioni. Il presidente informa quindi che la convocazione della conferenza dei capigruppo e sospende la seduta. La seduta sospesa alle ore 10.16 e ripresa alle ore 15. Il presidente comunica che la conferenza dei capigruppo ha convenuto di non svolgere le interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151 bis del regolamento e sospende nuovamente la seduta. La seduta sospesa alle ore 15.01 e ripresa alle ore 20.29. Il presidente dà lettura della missiva con la quale il presidente del Consiglio dei Ministri annuncia l'accettazione delle dimissioni del ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Bellanova, del ministro per le pari opportunità e la famiglia Bonetti e del sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Scalfarotto. Il presidente dà annuncio al Tresì della presentazione del disegno di legge numero 2066 di conversione in legge del decreto legge numero 2 del 2021 e comunica la parola ai senatori Corrado, Lannutti e Devecchis. Il presidente avverte quindi che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 19 gennaio 2021 alle ore 9.30, con l'ordine del giorno di cui dà lettura. La seduta è tolta alle ore 20.54. Poiché non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuti dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato via resoconto della seduta odierna. Formo che all'inizio della seduta il presidente del gruppo Movimento 5 Stelle ha fatto pervenire i sensi dell'articolo 113,2 del regolamento la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. Ha chiesto di parlare il senatore Marcucci, ne ha facoltà. Sento però troppo brusio, per cortesia. Grazie, signora Presidente. Solo per comunicare all'Aula e ai colleghi che pochi momenti fa abbiamo saputo che l'onorevole senatore Emanuele Macaluso, senatore per quattro legislature, ci ha lasciati. Quindi sarei a chiederle di fare immediatamente un minuto di silenzio e poi nell'arco della giornata di poterlo commemorare. Grazie, signora Presidente. Grazie. 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 Nel forgere le condoglianze ai familiari del senatore Macaluso, sicuramente noi stabiliremo una giornata per poterlo commemorare qui in Aula del Senato. L'ordine del giorno recca comunicazioni del Presidente del Consiglio sulla situazione politica in atto. Avverto che è in corso la diretta televisiva con la RAI. Alla parola il Presidente del Consiglio dei Ministri, Professor Conte. Gentile Presidente, gentili senatrici e gentili senatori, anch'io mi associo a nome del Governo innanzitutto a questo ricordo del Senatore Emanuele Macaluso che è stato qui per tantissimi anni e ha svolto l'attività. Da questi scranni e poi per tantissimi altri anni come stimato giornalista. Io credo che anche chi non ne ha condiviso le idee politiche possa convenire che è stato un grande protagonista della vita politica italiana, della vita culturale italiana. All'inizio di questa esperienza di Governo, il 9 settembre 2019, prefigurai proprio in quest'Aula un chiaro progetto politico per il Paese. Precisai subito che il programma sul quale mi accingevo a chiedere la fiducia al Parlamento non si risolveva e non poteva risolversi in una mera elencazione di proposte eterogene, né tantomeno in una sterile sommatoria delle posizioni assunte da ciascuna delle forze politiche che avrebbero sostenuto la maggioranza. Già allora ero consapevole che un'alleanza tra formazioni politiche provenienti da storie, tradizioni, esperienze, culture differenti, che per giunta si erano anche contrapposte a tratti anche in maniera molto aspra nel più recente passato. Ecco, non poteva nascere questa alleanza solo sulla base di due discriminanti fondamentali. La prima, non una estrinseca adesione, ma un convinto ancoraggio ai valori costituzionali, tra cui primato della persona, lavoro, l'uguaglianza nella duplice veste formale sostanziale, tutela dell'ambiente e poi ancora la solida vocazione europeista del nostro Paese, in modo da realizzare anche più appieno l'interesse nazionale, da consentire all'Italia di tornare protagonista nello scenario europeo e contribuire a far recuperare all'Unione Europea intera la posizione di leadership nell'attuale contesto geopolitico internazionale. E sin dal momento dell'elaborazione del programma, alla quale mi dedicai anch'io insieme alle delegazioni delle forze politiche di maggioranza, perché feci in modo, facciamo tutti in modo insieme, che si delineasse la prospettiva di un disegno riformatore ampio e coraggioso. Affermai allora che quel progetto politico avrebbe segnato l'inizio di una nuova, che abbiamo sperato tutti e speriamo ancora risolutiva, stagione riformatrice, orientata all'edificazione di una società più equa e più inclusiva, capace di coniugare l'obiettivo primario della crescita economica, del rilancio e della modernizzazione, con le esigenze imprescindibili della sostenibilità, della coesione sociale e territoriale nell'orizzonte del pieno sviluppo della persona umana. E ancora oggi, dopo più di un anno, a riguardare quei 29 punti programmatici, ravviso che nel progetto di Paese che abbiamo condiviso e delineato insieme, seppure in circostanze e condizioni complesse, c'era visione, c'era una forte spinta ideale, c'era un chiaro investimento di fiducia. All'inizio del 2020 le condizioni per l'attuazione di quel progetto si sono misurate, purtroppo, con l'uragano della pandemia. È stato un uragano ed è un uragano che ha sconvolto e sta sconvolgendo in profondità la nostra società, le nostre abitudini di vita, il nostro destino collettivo. La pandemia ci ha costretto a ridefinire priorità, a ripensare il nostro modello di sviluppo, la dinamica stessa delle nostre relazioni. Stiamo affrontando una sfida di portata epocale, ci stiamo misurando con l'esigenza di definire le linee ricostruttive di una società che è segnata di nuovo, sembra un riprecipitare al passato, da paure primordiali, spesso conosciute appunto da generazioni del passato, paure legate al rischio di perdere beni essenziali, come la vita, la salute, di tornare a sentirci tutti profondamente fragili. Alcune nostre pur radicate certezze sono state improvvisamente messe in discussione. La politica stessa è stata costretta a misurarsi pressoché quotidianamente, come forse mai aveva fatto prima, con la scienza, con la tecnica, nella difficoltà di offrire risposte efficaci, rapidi, rispetto a una travolgente emergenza sanitaria, a una severa recessione economica. Anche le nostre più consolidate cognizioni giuridiche sono state severamente interrogate. In virtù dello stato di emergenza siamo stati costretti a introdurre, primi in occidente, con tutti i dubbi, le perplessità, le difficoltà, ovviamente poco dopo, seguiti da tutti gli altri paesi, abbiamo dovuto introdurre misure restrittive dei diritti della persona, operando delicatissimi, faticosissimi bilanciamenti dei principi dei diritti costituzionali. In questi mesi così drammatici, pur a fronte di una complessità senza precedenti, questa maggioranza è riuscita a dimostrare grande responsabilità, raggiungendo, certo, con fatica, convergenze di vedute e risolutezza di azione come era richiesto, soprattutto nei passaggi più critici. Abbiamo coltivato un costante, serato dialogo con tutti i livelli istituzionali del nostro ordinamento, a partire dalle autorità regionali fino a quelle comunali, nella consapevolezza che solo praticando, in modo, direi, indefesso il principio di leale collaborazione sarebbe stato possibile perseguire strategie di intervento efficaci, considerato, a tacere d'altro, che le competenze in materia di gestione sanitaria sono rimesse nel nostro ordinamento primariamente alle regioni. Non solo. L'esperienza della pandemia ha rafforzato nelle forze politiche che hanno con lealtà sostenuto il Governo la consapevolezza del valore del dialogo, del confronto dialettico tra posizioni anche distanti, che è un presupposto ineludibile per compiere le scelte più giuste, per operare quelle sintesi superiori e superiore interesse collettivo, per assumere le decisioni fondamentali alle quali, per la gravità dell'ora, non potevamo sottrarci. Abbiamo operato sempre le scelte migliori? Abbiamo assunto sempre le decisioni più giuste? Ciascuno, sul punto, esprimerà le proprie valutazioni. Siamo nel campo dell'opinabile. Per parte mia, posso dire che il Governo ha operato i delicati bilanciamenti e gli interessi costituzionali di volta in volta coinvolti con il massimo scrupolo, con la massima attenzione nella consapevolezza delle conseguenze di mane portata che si sarebbero prodotte nella vita dei singoli e per il futuro della nostra comunità. E se oggi a voi che siete qui in quest'Aula e i cittadini che ci seguono da casa posso parlare a testa alta, non è per l'arroganza di chi ritiene di non avere mai sbagliato, ma per la consapevolezza di chi insieme a tutta la squadra di Governo ha impegnato tutte le proprie energie fisiche e intellettive per offrire la migliore protezione possibile alla comunità nazionale. In tutti questi mesi si è elevato un dibattito politico, un dibattito politico anche di un certo spessore che riguarda il ruolo della politica. Ci siamo tutti interrogati sul ruolo della politica. Ecco, io ho già rilevato che chiaramente il dialogo tra politica e scienza è diventato particolarmente intenso, particolarmente fitto, dicevo pressoché quotidiano, ma in realtà mai come in questo periodo la politica è stata chiamata ad assolvere alla sua più nobile missione, di operare scelte per il bene comune, alcune delle quali di portata tragica. è stata la politica la scelta di tutelare in via prioritaria la salute e questa è stata un'intuizione e una convinzione che si è subito radicata nel governo, non solo in quanto la salute è diritto fondamentale della persona a interesse primario della collettività, ma anche nella consapevolezza che solo tutelando quel bene primario si potesse preservare e si può preservare il tessuto produttivo del Paese. Tutta politica, poi, è stata la scelta di destinare, anche ricorrendo a ripetuti progressivi scostamenti di bilancio ingenti risorse più di cento miliardi di euro in termini di indebitamento netto a sostegno di lavoratori, imprese, famiglie, categorie fragili, corristori, in qualche misura correlati rispetto alle perdite subite, anche se, come ho precisato ieri, non volevo certo e non intendo certo dire che questi risori sono sufficienti a compensare integralmente le perdite subite. E sono questi interventi che ci hanno concesso di poter erigere una cintura di protezione sociale ed economica. È stata apprezzata anche dai lusti economisti come il premio Nobel Krugman. Poi, fortemente politica, ancora, è stata la determinazione con la quale il Governo, primo fra i governi europei, ha chiesto, ha promosso un'iniziativa e ha chiesto all'Unione Europea di rispondere alla crisi in modo radicalmente diverso rispetto al passato, di farsi promotrice di politiche espansive finanziate da strumenti di debito comune orientate al raggiungimento di strategie condivise. È lo storico accordo sul programma Next Generation EU per il raggiungimento del quale l'Italia ha avuto un ruolo propulsivo e decisivo spendendosi a ogni livello in ogni sede formale e informale non solo vedete ci consente di disporre di 209 miliardi di euro ma impresso e questo è ancora forse più importante è ancora più importante in prospettiva perché impresso alla politica europea una svolta irreversibile inaugurando un nuovo corso suscettibile di mutare profondamente i paradigmi delle politiche economiche e il volto stesso dell'Unione Europea e ne discuteremo e ne discuteremo di questa svolta prossimamente nell'ambito della conferenza sul futuro dell'Europa non è questo l'esito anch'esso evidentemente politico della scelta europeista che ha rappresentato una delle ragioni fondative di questa alleanza di governo ancora politica è stata la scelta di accompagnare le misure emergenziali con interventi strutturali suscettibili nel medio e lungo periodo di generare effetti virtuosi anche nei momenti più complessi dell'emergenza sanitaria ed economica infatti non abbiamo mai rinunciato a porre le basi per il rilancio del paese e già con la legge di bilancio del 2020 ricordo il governo ha introdotto il taglio del cuneo fiscale a beneficio dei lavoratori che poi ha reso strutturale pensate anche al taglio del super ticket sanitario e bonus per gli asili nido e bonus edilizi di vari interventi per la sostenibilità ambientale la rigenerazione urbana e taccio di altre misure quindi abbiamo subito raccolto la sfida di trasformare le difficoltà in opportunità consapevoli delle deficienze strutturali del nostro paese abbiamo posto le basi per un deciso rilancio della crescita realizzando un ambiente più favorevole agli investimenti privati più propenso alla ricerca all'innovazione più attento alla costruzione al rafforzamento delle competenze e se esaminate e andiamo con la mente a tutti i decreti legge emanati durante le prime fasi dell'emergenza e sino all'ultima legge di bilancio troveremo misure anche strutturali che si leggono e possono essere interpretate in questa prospettiva pensate ai 21 miliardi dal 2020 al 2026 di risorse disponibili al fine di potenziare la rete di assistenza ospedaliera territoriale valorizzare il personale medico-infermieristico assumere personale sanitario investire nella formazione di medici e infermieri pensate alle misure per la scuola e l'università abbiamo rafforzato qui ulteriormente gli interventi sugli organici sulla digitalizzazione gli investimenti nell'edilizia scolastica universitaria nella ricerca abbiamo ampliato la no tax area per gli studenti universitari per il personale scolastico e abbiamo già i primi risultati per quanto riguarda l'inversione nel numero è un segnale importante il numero di immatricolati nelle università meridionali era sempre negativo è cresciuto al 6,7% a partire dal prossimo luglio partirà una grande riforma all'assegno unico mensile per ciascun figlio a carico fino a 21 anni d'età che coinvolgerà 12 milioni e mezzo di bambini e di ragazzi è una misura che si colloca in una cornice più ampia di interventi volta ad alleggerire la pressione economica sulle famiglie e a ridurre il carico di cura che grava in particolare sulle donne stimolando anche l'occupazione femminile abbiamo introdotto robusti incentivi privati incentivi per gli investimenti privati privilegiando in particolare la transizione verde digitale l'occupazione femminile quella giovanile anche in quest'ottica si comprende il rafforzamento del pacchetto transizione 4.0 con particolare attenzione all'investimento in nuove tecnologie digitali anche in quest'ottica aveva interpretato il super bonus al 110% per l'efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico degli edifici abbiamo azzerato per tre anni i contributi per le assunzioni dei giovani sotto i 35 anni in tutta Italia e abbiamo introdotto una decontribuzione totale per l'assunzione delle lavoratrici donne abbiamo introdotto e portato al regime fino al 2029 la fiscalità di vantaggio per tutte le imprese che operano nel mezzogiorno noi non siamo meridionalisti per vocazione intellettuale per colmare il gap che non fa correre l'Italia perché se non corre il mezzogiorno l'abbiamo chiarito sempre non può correre l'Italia abbiamo quindi introdotto un taglio dei contributi previdenziali del 30% per i primi cinque anni e poi ancora vorrei ricordare due misure per dare il senso di interventi che guardano e danno una visione per il paese volte a migliorare la competitività del nostro tessuto produttivo che è fatto soprattutto di piccole e medie imprese ma ovviamente anche le grandi imprese stentano in questo contesto di crisi mi riferisco al fondo patrimonio PMI gestito da Invitalia che favorisce la capitalizzazione di piccole e medie imprese che investono sul proprio rilancio e al patrimonio destinato gestito da Cassa Depositi e Prestiti che potrà contribuire non solo al sostegno ma anche alla crescita delle imprese con fatturato superiore a 50 milioni di euro e poi anche in vista della grande sfida del recovery plan abbiamo voluto ridefinire con chiarezza il quadro normativo a supporto degli investimenti in particolare in quelli infrastrutturali il decreto legge semplificazioni è volto proprio a preparare l'ambiente giuridico più idoneo per dare la possibilità a queste nuove misure questi nuovi investimenti di poter essere messi a terra efficacemente abbiamo definito infatti un percorso accelerato per la realizzazione delle opere pubbliche siamo intervenuti a ridefinire in modo molto accorto il regime di responsabilità della pubblica amministrazione con particolare riguardo alla ridefinizione della responsabilità erariale alla delimitazione del reato di abuso di ufficio cioè abbiamo creato le premesse perché i funzionari gli incaricati di pubblici servizi possano operare in un quadro di maggiori certezze giuridiche secondo logiche quindi di maggiore efficienza e a questo riguardo viene sento spesso sollevata l'obiezione devo dire il vero è successo anche ieri alla Camera secondo cui a distanza di alcuni mesi le opere pur ritenute prioritarie nel quadro del decreto semplificazioni sarebbero ancora bloccate perché mancherebbe la designazione dei relativi commissari a parte che adesso i commissari la lista c'è ma non è così queste opere non sono mai state bloccate perché è stato applicato l'articolo 2 del decreto semplificazioni che attribuisce poteri speciali propri dei commissari ai rupe responsabili unici di progetto e lo testimonia il fatto che nel 2020 pensate pur in questo contesto economico così difficile gli appalti soprattutto quelli di ANAS e RFI sono cresciuti siamo arrivati a un totale di 43,3 miliardi rispetto ai 39,4 del 2019 non avremmo potuto realizzare tutto questo e ovviamente è un piccolo florileggio delle misure introdotte se non ci fosse stata condivisione collaborazione responsabilità in ciascuna forza politica ciascuna forza politica perché vedete questa pandemia quando si soffre quando il paese soffre così tanto il paese è più unito il senso di comunità si è risvegliato e si è rafforzata anche l'unità del governo si è elevato il tenore della nostra alleanza si sono rafforzate le ragioni anche del nostro stare insieme in questa prospettiva è stato fondamentale il senso di responsabilità dimostrato anche dalle forze politiche di opposizione che pur nella differenziazione dei ruoli delle posizioni politiche hanno avete contribuito ad affrontare con responsabilità alcuni passaggi molto critici penso ad esempio alle varie occasioni in cui avete votato lo scostamento di bilancio avete avanzato proposte concrete qualificanti alcune delle quali sono state convintamente accolte e condivise anche dalla maggioranza e grazie a questo dialogo con le opposizioni che abbiamo potuto tutti insieme potenziare in occasione dell'ultima legge di bilancio ad esempio le misure di sostegno per i lavoratori autonomi le partite iva è proprio nei momenti più critici della storia di un paese che dobbiamo ritrovare le ragioni alte alte della politica quelle che ispirano le scelte più autentiche le ragioni che muovono l'impegno di chi di chi crede che la politica sia essenzialmente servizio alla comunità nazionale non la politica come esercizio del potere la politica quale gestione del contingente ma la politica come pensiero come azione orientati all'uomo ai suoi bisogni alle sue aspettative dopo dopo aver attraversato questo tornante della storia umana che alla nostra generazione è capitato di vivere nulla sarà come prima il governo deve essere all'altezza di questo elevato compito purtroppo però al culmine di alcune settimane di attacchi mediatici molto aspri a tratti anche scomposti alcuni esponenti di Italia Viva hanno anticipato poi confermato di volersi smarcare dal percorso comune nel seguito è storia recente cronaca recente un'astenzione delle ministri di Italia Viva al momento dell'approvazione in consiglio dei ministri del piano nazionale di ripresa e resilienza con la motivazione sostanziale o comunque principale che non contempla le risorse del MES che tuttavia come sapete tutti è uno strumento di finanziamento che nulla ha a che vedere con le risorse del recovery fund da ultimo poi lo scorso 13 gennaio è stata indetta una conferenza stampa nel corso della quale sono state annunciate poi confermate per iscritto le dimissioni delle ministre si è aperta quindi una crisi che oggi deve trovare in questa sede istituzionale il proprio chiarimento secondo i principi di trasparenza del confronto linearità di azione che hanno sin qui caratterizzato il mio mandato e che sono canoni essenziali di una democrazia parlamentare è una crisi che avviene in una fase cruciale del nostro paese a pandemia ancora in corso con tante famiglie che stanno ancora soffrendo la perdita dei propri cari e io l'ho confessato ieri ho confessato di avvertire un certo disagio perché sono qui oggi sono qui oggi non per illustrare se mai discutere con voi le misure di sostegno per i cittadini per l'impresa non per se mai illustrare e discutere con voi la versione aggiornata del recovery plan ma per provare a spiegare una crisi di cui immagino i cittadini e io stesso non ravviso alcun plausibile fondamento le nostre energie che dovrebbero essere tutte sempre concentrate sulle risposte urgenti alla crisi cattenale del paese appaiono così agli occhi dei cittadini dissipate in contrapunti polemici anche sterili del tutto incomprensibili agli occhi dei medesimi cittadini che ogni giorno si misurano con la paura della malattia con lo spetto dell'impoverimento con il disagio sociale anche psicologico con l'angoscia del futuro l'ho detto anche ieri con questa crisi noi tutti la classe politica tutta rischia di perdere il contatto con la realtà c'era davvero bisogno di aprire una crisi politica in questa fase ritengo di no infatti i ministri gli alliati di governo che hanno potuto seguire anche da vicino le vicende di queste ultime settimane sono testimoni del fatto che abbiamo compiuto ogni sforzo con la massima disponibilità per evitare che questa crisi potesse esplodere nonostante le continue pretese le critiche sempre più incalzanti i continui rilancio rilanci concentrati spesso e certo non casualmente su temi palesemente divisivi rispetto alle varie sensibilità delle forze di maggioranza di qui poi le accuse rivolte a tutto il governo ma in particolare anche al mio ruolo ad un tempo di immobilismo e di correre troppo di accentrare i poteri e di non avere la capacità di decidere vi assicuro che è complicato molto complicato governare in queste condizioni con chi continuamente dissemina mine sul percorso comune e mira allogorare un equilibrio politico pazientemente raggiunto dalle forze di maggioranza questa è una crisi che ha aperto una ferita profonda all'interno della combagine di governo tra le forze di maggioranza ma ha provocato anche sgomento nel paese è una crisi che rischia anche di produrre danni alla nostra immagine ha tirato l'attenzione dei media internazionali delle cancellerie straniere arrivati quindi a questo punto non si può cancellare quel che è accaduto pensare di poter recuperare quel clima di fiducia quel senso di affidamento che sono fondamentali imprescindibili per poter lavorare tutti insieme nell'interesse del paese quindi adesso bisogna voltare pagina questo paese merita un governo coeso dedito a tempo pieno a lavorare esclusivamente per il benessere dei cittadini per favorire per favorire una pronta ripartenza della nostra vita sociale e una incisiva ripresa della nostra economia e i compiti che attendono il governo sono molteplici tutti urgenti innanzitutto bisogna continuare a lavorare tutti insieme per mettere in sicurezza il paese e portarlo fuori da questa pandemia il piano dei vaccini non vi sfugge sta procedendo speditamente siamo i primi in Europa ma dobbiamo continuare a lavorare con la massima determinazione in attesa che si rendano disponibili nuovi vaccini e di potere poi sperimentare speriamo quanto prima le nuove terapie degli anticorpi monoclonali tra le altre cose nei prossimi mesi sarà importante rafforzare la politica di testing anche dando seguito all'ultima risoluzione approvata dal Senato dobbiamo poi secondo punto dobbiamo assolutamente completare il recovery plan con urgenza abbiamo inviato al Parlamento il documento aggiornato aggiornato in virtù del contributo di tutte le forze di maggioranza che le ringrazio per questo miglioramento e adesso restiamo in attesa di ricevere le preziose indicazioni contenute che saranno contenute nelle risoluzioni del Parlamento e voglio approfittare anche di questa occasione per rivolgere un pensiero di ringraziamento al nome del governo a tutte le associazioni che rappresentano le categorie produttive al sindacato italiano durante questa pandemia tutte queste associazioni stanno offrendo un contributo indispensabile a rendere i nostri interventi ancora più efficaci e ho dato atto anche che stanno contribuendo a una funzione importantissima di questi tempi la tenuta sociale del Paese peraltro con i protocolli di sicurezza insieme al CTS da ultimo con la disponibilità a collaborare per velocizzare la somministrazione dei vaccini hanno posto tutte le associazioni le premesse perché tutela della salute sicurezza dei luoghi di lavoro ripresa economica possano marciare all'unisono ecco anche loro saranno coinvolte in questo processo immagino da voi in audizione e anche dal Parlamento dal Governo perché illustreremo anche a loro questa nuova versione aggiornata del Recovery Plan ci aspettiamo anche da loro un contributo e tengo poi a sottolineare che una volta poi ricevute le preziose indicazioni del Parlamento contenute nelle risoluzioni noi lavoreremo alla versione definitiva del Recovery Plan lo riporteremo in Parlamento per l'approvazione definitiva quindi ci sarà ampia possibilità di interloquire e di raccogliere tutte le vostre indicazioni attenzione però perché questo sforzo collettivo possa produrre i suoi effetti e non dobbiamo abbassare la soglia di attenzione perché è uno sforzo per il nostro Paese non da poco dovremo anche accompagnare il piano con un provvedimento normativo contenente percorsi procedurali in grado di superare ostacoli burocratici e di assicurare tempi celeri e certi alla realizzazione degli investimenti e del piano di riforme insomma dovremo rinforzare quei presidi che ci consentono di rispettare i tempi di monitorare attentamente l'esecuzione dei lavori ancora dobbiamo lavorare con urgenza nei prossimi giorni già da domani per varare il nuovo decreto ristori il Parlamento sarà chiamato a pronunciarsi sulla nuova richiesta di scostamento sapete si è resa necessaria in ragione anche dell'attuale evoluzione della curva epidemiologica che prefigura nuove restrizioni per le attività economiche la somma che troverete indicata nella nostra richiesta nella nostra relazione è molto consistente 32 miliardi di euro di indebitamento netto sono risorse di tutti dei cittadini dobbiamo programmare le misure con la massima oculatezza per offrire un'ulteriore cintura di protezione sociale ed economica e di rilancio per il paese e dobbiamo ovviamente tra queste somme lo dico già anticipatamente accantonare le riserve necessarie ad attivare gli ammortizzatori sociali per tutto l'anno del 2021 ancora l'Italia ha bisogno di una serie di interventi di riforma in campo economico sociale che prevedono un rinnovato impegno del governo da qui alla fine della legislatura non voglio entrare nel dettaglio per non tediarvi però bisognerà intervenire per il lavoro dobbiamo completare la razionalizzazione del sistema degli ammortizzatori sociali una grande impegnativa riforma complessiva dobbiamo offrire solide proposte di politiche attive del lavoro marzo è già domani e sapete che la gas integrazione del blocco dei licenziamenti vale fino alla fine di marzo dobbiamo ancora rafforzare la salute e gli interventi sulla salute non mi soffermo ancora lavorare per l'istruzione la ricerca la rivoluzione verde sostenibilità ambientale tutela del territorio dobbiamo accelerare la decarbonizzazione della produzione di energia elettrica dobbiamo promuovere il rinnovo del parco rotabile pubblico dei mezzi di trasporto privati e commerciali rafforzare la rete idrica la messa in sicurezza del territorio rigenerazione urbana tanti altri capitoli la politica industriale qui meriterebbe una digressione ma semplifico dobbiamo continuare in questo periodo di recessione a proteggere a presidiare quelli che sono gli investimenti più strategici del paese dobbiamo favorire una strategia industriale volta a rilanciare la competitività del sistema produttivo finalizzata a generare un cambiamento strutturale verso attività economiche ad alto valore aggiunto dobbiamo evitare di concentrare gli interventi secondo una logica agevole accessibile degli incentivi che rischiano però di essere distribuiti in modo indiscriminato senza apportare adeguato valore aggiunto dobbiamo rafforzare politiche di intervento sulla base di filiere produttive quelle che sono la nostra forza penso ad esempio al turismo automotiva agroindustriale ancora altre dobbiamo favorire il partenariato pubblico e privato dobbiamo rafforzare in una prospettiva di economia sociale anche il terzo settore le attività del terzo settore l'intervento degli enti non profit in modo da calibrare meglio gli interventi sui bisogni sociali che restano ancora non pienamente soddisfatti penso ai servizi abitativi servizi per l'infanzia le famiglie servizi di cura a beneficio delle vulnerabilità e degli anziani grande attenzione costante attenzione continueremo a riporre alle persone con disabilità alle fasce della popolazione più fragili e alle loro famiglie e quindi e quindi dobbiamo rafforzare le politiche di vita per la vita autosufficiente lavorare e finalmente riconoscere ci sono già iniziative in Parlamento la figura del caregiver gli strumenti tutti tutti gli strumenti di iniziative utili a rafforzare l'inclusione sociale e poi politiche di genere empowerment femminile dobbiamo contrastare dobbiamo contrastare i divari di genere promuovendo azioni volte a incrementare l'occupazione femminile livellare i gap salariari liberare le donne dagli squilibri dei carichi di cura rafforzare il sostegno delle donne vittime di violenza imprimere una svolta nei paradigmi culturali educativi per quanto riguarda la questione di genere favorire una più trasversale integrata partecipazione delle donne all'interno della società un grande capitolo di riforma sarà la riforma fiscale qui c'è già una discussione avviata c'è un concreto progetto di riforma dobbiamo pervenire a questo per razionalizzare il quadro esistente essenziale anche per ricostruire appieno la fiducia tra cittadini e imprese e le istituzioni nonché per orientare il nostro sistema fiscale alla competitività alla crescita sostenibile dobbiamo proseguire nel percorso della digitalizzazione del paese abbiamo fatto grandi passi avanti nel settembre 2019 Speed che è l'identità digitale era conosciuta ed era stata attivata solo da 4 milioni di cittadini adesso siamo a 16 milioni e 100 mila l'app Io che è quell'app che consente di avere i servizi digitalizzati con la pubblica amministrazione quindi comodamente stando a casa non esisteva nel settembre 2019 siamo adesso a 9 milioni 365 mila cittadini vedete il nostro obiettivo è ridurre queste diseguaglianze le varie diseguaglianze anche per tendere all'uguaglianza dei punti di partenza tra queste diseguaglianze oltre a quelle di genere menzionate territoriali generazionali vi è una grande diseguaglianza un grande fattore di diseguaglianza il digital divide che ha la possibilità di accedere o meno agli strumenti infotelematici dobbiamo lavorare in questa direzione e poi cultura e turismo qui c'è tanto da fare sono tre i settori più in sofferenza più colpiti da questa pandemia dobbiamo valorizzare i principali asset culturali del paese dobbiamo lavorare per formare il personale rafforzare l'offerta turistica anche attraverso l'attrazione dei nuovi investimenti ieri alla camera abbiamo applaudito tutti alla notizia di Procida l'isola di Arturo è la nuova capitale italiana della cultura del 2022 vedete su tutti questi temi io chiaramente ho operato una sintesi c'è la possibilità tra le forze parlamentari di operare una convergenza di proposte riformatrici di proposte concrete sulle quali orientare per il rilancio del paese l'azione futura di governo lavoreremo nei prossimi mesi per realizzare queste riforme questi interventi per consentire all'Italia di percorrere un sentiero di crescita con l'obiettivo di ridurre le disuguaglianze esistenti a crescere la concorrenza contrastando anche le rendite di posizione lavoreremo su questa in questa direzione occorre poi dedicare un particolare impegno per proseguire convintamente anche il percorso delle riforme istituzionali precondizione essenziale per modernizzare il paese e la maggiore funzionalità delle sue istituzioni tanto più a seguito della storica riforma costituzionale che ha determinato una riduzione consistente del numero dei parlamentari approvata dalla decisa maggioranza dei cittadini in sede di referendum confermativo ieri ho annunciato anche alla camera in materia di legge elettorale l'impegno anche del governo ma ovviamente rispettando le autonome determinazioni delle forze parlamentari di promuovere e contribuire a pervenire a una riforma elettorale per quanto di competenza a una riforma elettorale di impianto proporzionale quanto più possibile condivisa perché si tratta di una legge di sistema che possa coniugare efficacemente le ragioni del pluralismo della rappresentanza con l'esigenza pur ineludibile di assicurare una complessiva stabilità al sistema politico e vorrei chiarire su questo punto perché leggo delle interpretazioni diciamo così maliziose negli anni passati noi abbiamo vissuto una frantumazione della rappresentanza il quadro delle forze politiche si è venuto differenziando sono emersi nuovi processi che si sono affermati in modo completamente nuovo anche prorompente se vogliamo ricomporre questo quadro non è possibile farlo con una legge elettorale che costringa in uno stesso involucro sensibilità pur così diverse questo artificio badate condurrebbe alla instabilità alla precarietà politica non stabilizzerebbe il quadro piuttosto mi appare urgente quindi offrire uno strumento contribuire ovviamente per quanto di ragione a perseguire uno strumento che possa dispiegarsi che possa dispiegare appieno anche la sua capacità di favorire la rappresentanza democratica di tutte le differenze che sono sul campo in modo che le varie forze politiche possano esprimere tutte le loro potenzialità che recuperino anche dall'astenzionismo i cittadini sfiduciati che definiscano il loro profilo certo credibile ovviamente poi queste forze politiche per governare saranno chiamate a definire accordi programmatici di alto profilo di forte contenuto ideale in modo da generare governi fondati su programmi chiari in grado di offrire una prospettiva solida feconda a tutti i cittadini alla modifica del sistema elettorale potranno essere efficacemente affiancate anche alcune innovazioni del sistema istituzionale tanto più necessarie alla luce dell'avvenuta riduzione del numero dei parlamentari in coerenza peraltro degli indirizzi già condivisi dai gruppi parlamentari di maggioranza nell'accordo raggiunto nell'ottobre 2019 occorre poi introdurre alcuni correttivi alla forma di governo ispirati al modello di un parlamentarismo razionalizzato che garantisca una più sicura stabilità all'esecutivo e al contempo restituisca al Parlamento un ruolo centrale nella definizione dell'indirizzo politico nazionale vedete per quanto attiene in particolare al procedimento legislativo potranno essere introdotte alcune previsioni volte a razionalizzare l'iter di approvazione delle leggi anche allo scopo di ridurre in ricorso alla decretazione di urgenza che peraltro proprio in quest'ultimo anno in regione della pandemia ha ancora di più sensibilmente accresciuto condizionato l'attività parlamentare l'esperienza poi della pandemia impone un'attenta riflessione pacata attenta meditata riflessione riguardante la revisione del titolo quinto della parte seconda della Costituzione lavoriamo tutti insieme meditiamo insieme sull'attuale riparto delle competenze legislative di Stato regioni come pure lavoriamo tutti insieme per l'individuazione di meccanismi istituti che consentano di coordinare più efficacemente il rapporto tra i diversi livelli di governo in questo contesto occorre garantire tutelare con la massima intensità anche le autonomie speciali e le minoranze linguistiche l'interesse nazionale e più che mai attenzione l'interesse nazionale è più che mai connesso nel solco della nostra migliore tradizione storica e costituzionale a un sistema che valorizzi nel quadro dell'unità della Repubblica le specifiche esigenze economiche e sociali delle diverse realtà territoriali alcune delle quali per ragioni vuoi geografiche per specificità linguistiche e culturali indubbiamente meritano tutta la nostra attenzione tutta la nostra cura sul piano internazionale l'Italia si è mossa in piena coerenza con i tradizionali pilastri della propria politica estera a partire dall'appartenenza all'Unione Europea e all'alleanza atlantica insieme alle quali abbiamo svolto un'azione di impulso e di mediazione all'altezza all'altezza del nostro ruolo per cortesia per cortesia sta parlando il Presidente del Consiglio prego in seno principale alleato fondamentale partire strategico guardiamo con grande attenzione alla presidenza Biden con la quale inizieremo a lavorare subito in vista anche del nostro G20 della nostra presidenza del G20 abbiamo una fitta agenda in comune che spazia da un multilateralismo che vogliamo entrambi efficace ai cambiamenti climatici alla transizione verde quella digitale l'inclusione sociale con gli Stati Uniti e con gli altri partner dell'Unione Europea ci adopereremo poi anche al fine di avere rapporti con la Cina che è un player di rilievo globale che siano coerenti coerentemente ancorati al nostro sistema di valori e di principi e appena iniziata la presidenza italiana l'ho già menzionata il G20 avremo la possibilità di indirizzare l'agenda globale sulle priorità che abbiamo già anticipato e che ruotano sulla triade persona pianeta prosperità come ho già ricordato in diverse occasioni porremo al centro dell'attenzione dei leader del mondo tra gli altri temi anche il tema dell'empowerment femminile dell'Africa del digital divide quest'anno poi avremo anche la responsabilità di condividere con il Regno Unito l'organizzazione della COP26 a Milano avremo due eventi veramente molto importanti in questa direzione uno è la Pre-Cop e l'altro è il Youth for Climate per la prima volta parteciperanno centinaia centinaia di giovani saranno direttamente coinvolti in quello che è l'evento più importante in materia di cambiamenti climatici di tutela dell'ambiente ugualmente forte e coerente la nostra poi è stata e sarà la nostra azione sul piano regionale anch'essa in linea con il nostro interesse consolidato alla stabilizzazione e allo sviluppo del Mediterraneo con particolare riguardo a una soluzione politica alla crisi della Libia nel pieno rispetto della sua sovranità e al processo di integrazione dei Balcani occidentali nella convinzione di un destino legato alla loro appartenenza alla famiglia europea specifico rilevo abbiamo infine riservato ad una intensa azione di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e il nostro sistema economico generale attraverso un impegno collettivo del governo ma in particolare della Farnesina abbiamo inoltre il privilegio di ospitare un altro evento significativo globale il Global Health Summit il prossimo 21 maggio qui a Roma è un evento che ci consentirà di rimarcare solennemente davanti a tutti i leader la rilevanza di un coordinamento globale degli sforzi per affrontare malattie e pandemie per garantire la più efficace tutela della salute ovviamente ci accingiamo a dare il nostro contributo forte chiaro programmatico strategico per in vista della imminente conferenza per il futuro dell'Europa ci offrirà l'occasione di dare un nuovo impulso all'evoluzione della nostra casa comune europea vedete è un calendario fitto di impegni di alta densità anche di alto rilievo politico non possiamo farci trovare impreparati distratti siamo tutti chiamati a compiere ciascuno per il proprio ruolo uno sforzo collettivo per essere all'altezza di tutte queste sfide ed è per questo che il governo ha bisogno della massima coesione possibile e anche del più ampio consenso in Parlamento per fare tutto questo servono un governo forze parlamentari volenterose consapevoli delle difficoltà che stiamo attraversando e della delicatezza dei compiti servono persone disponibili a riconoscere l'importanza della politica nella parte iniziale del mio intervento ho rivendicato il carattere politico delle scelte operate delle decisioni assunte la politica è la più nobile tra le arti e tra i saperi perché se declinata nel giusto spirito se indirizzata sempre e comunque al benessere dei cittadini al miglioramento della qualità di vita diventa uno strumento molto efficace anche per comporre i conflitti della società per riconoscere e far convivere le differenze per interpretare le istanze anche quelle più diverse anche quelle più distanti quando la politica si eclissa queste istanze finiscono per restare margini con il rischio che rimangano afone e quindi inascoltate o che si traducano peggio in rabbia sfocino nello scontro violento abbiamo l'urgenza di fare politica tanto più in questo contesto di diffuse privazioni di profonda sofferenza perché solo la politica ci offre la possibilità di interpretare il malessere della società impedendo che esso esploda in contrapposizioni distruttive la politica può contribuire a rendere questo malessere un elemento addirittura produttivo positivo fattore di avanzamento della nazione aspetta a noi promuovere contribuire a mettere in forma politica le contraddizioni le aspirazioni i bisogni la volontà da parte di tutti di esprimere le proprie potenzialità penso innanzitutto anche i lavoratori a tutte le forze produttive che sono le componenti decisive da incoraggiare e promuovere per il futuro della Repubblica e questo governo intende perseguire un progetto politico chiaro e preciso che mira a modernizzare il Paese migliorando le sue infrastrutture materiali e immateriali compiendo la transizione energetica digitale potenziando l'inclusione sociale il tutto nel segno dello sviluppo sostenibile sarà la nostra stella polare chi ha idee progetti volontà di farsi costruttore insieme a noi di questa alleanza votata per seguire lo sviluppo sostenibile sappia che questo è il momento giusto per contribuire a questa prospettiva questa alleanza sarà chiamata a esprimere una imprescindibile vocazione europeista ne potranno far parte solo le forze politiche disponibili a operare questa chiara scelta di campo contro le derive nazionaliste le aspirazioni sovraniste questa alleanza esiste già perché c'è già una base solida di dialogo alimentata dal Movimento 5 Stelle dal PD dall'EU è una base di dialogo che sta dimostrando la saldezza del suo ancoraggio l'ampiezza del suo respiro proprio in occasione della temperie generata da questa crisi sarebbe un arricchimento per questa alleanza voglio affermarlo molto chiaramente poter acquisire anche il contributo politico di formazioni che anche storicamente si collocano nel solco delle migliori tradizioni europeiste penso a quella liberale popolare socialista ma chiedo un appoggio ma voi attenzione però chiediamo un appoggio limpido e trasparente che si fondi sulla convinta adessione a un progetto politico abbiamo certo i numeri sono importanti oggi ancora di più questo è un passaggio fondamentale nella vita istituzionale del nostro paese ma la qualità i numeri sono importanti ed oggi lo sono in modo particolare però ancora più importante è la qualità del progetto politico e noi chiediamo a tutte le forze politiche e parlamentari anche che hanno a cuore il destino dell'Italia aiutateci a ripartire con la massima celerità aiutateci a rimarginare più presto la ferita che la crisi ha prodotto nel patto di fiducia instaurato con i cittadini perché patto di fiducia con i cittadini perché la fiducia tra le istituzioni e i cittadini deve essere reciproca un moto perpetuo deve svilupparsi in una relazione più univoca noi abbiamo chiesto e ancora stiamo chiedendo ai cittadini tanti sacrifici grandi piccoli perché abbiamo detto ne siamo tutti convinti sono necessari a superare la pandemia e i cittadini hanno offerto una grande risposta una risposta di grande responsabilità che ha dimostrato la grandezza la resilienza della nostra nazione rispettando le regole accettando di fare i sacrifici richiesti hanno dimostrato di riporre anche grande fiducia nelle istituzioni ecco con il voto di oggi io confido che anche le istituzioni sappiano ripagare la fiducia dei cittadini in modo a porsi alle spalle il più rapidamente possibile il grave gesto di responsabilità il grave gesto di responsabilità che ci ha precipitato in questa condizione di oggettiva incertezza alle forze di maggioranza che sostengono questo governo voglio preannunciare peraltro che nei prossimi giorni chiederò vi chiederò di completare il confronto che abbiamo già avviato per definire un fatto di fine legislatura e concordare insieme in un clima di piena lealtà di piena fiducia le condizioni le forme più utili per rafforzare anche la squadra di governo per parte mia ieri ho già preannunciato che viste le nuove sfide che mi attendono gli impegni anche internazionali quest'anno quest'anno sono fittissimi fittissimi e pressanti non intendo mantenere la delega se non per lo stretto necessario dell'agricoltura e mi avvarrò anche della facoltà che la legge mi accorda di designare un'autorità delegata di mia fiducia come prescrive la legge che possa seguire l'operato quotidiano delle donne e degli uomini del comparto di intelligence su questo rivolgo a tutti l'invito l'ho rivolto già ieri ai parlamentari della camera evitiamo polemiche strumentali sulle donne e sugli uomini che coinvolgono anche solo indirettamente le donne degli uomini del comparto di intelligence voi siete tutti i parlamentari se avete dei dubbi delle perplessità legittime in democrazia anzi vi invito a assumere iniziativa però avete due possibilità una se il percorso normativo attuale la regolamentazione attuale non vi soddista c'è il percorso normativo di un iter normativo per eventuali modifiche la seconda se avete delle perplessità su profili gestionali c'è una sede il copasi rivolgetevi ai vostri colleghi del copasi hanno l'obbligo di vigilare e controllare da parte mia assicuro la massima disponibilità e l'impegno a guidare con il contributo di tutti questa fase così decisiva per il rinnovamento del paese il presidente della repubblica Sergio Mattarella nel suo messaggio di fine anno al paese ha detto la fiducia di cui abbiamo bisogno si costruisce così tenendo connesse le responsabilità delle istituzioni con i sentimenti delle persone se il parlamento vorrà accordare la fiducia al governo garantisco a voi tutti a tutti i cittadini che non solo continueremo a impiegare tutte le nostre energie fisiche intellettive per assolvere il nostro compito ma ci aggiungeremo anche come sempre il nostro cuore perché la politica senza i greci la chiamavano simpatia quel sentimento di reale condivisione rimane una disciplina senza anima dobbiamo costruire un nuovo vincolo politico rivolto alle forze parlamentari che hanno sostenuto con lealtà il governo aperto a tutti coloro che hanno a cuore il destino dell'Italia io sono disposto a fare la mia parte viva l'Italia grazie grazie avverto che le proposte di risoluzioni certesiane avverto che le proposte di risoluzioni dovranno essere presentate entro la discussione entro la conclusione della discussione generale dichiaro aperta la discussione generale ha chiesto di parlare il senatore Casini ne ha facoltà per dieci minuti per cortesia niente assembramenti per cortesia state tutti seduti avanti non parlate fuori dal microfono e state seduti senatore Casini deve poter parlare per cortesia non si riesce ad individuare chi sta fischiando sotto le mascherine abbiate la cortesia di star seduti e di ascoltare perché siamo in discussione in discussione generale prego senatore Casini signor presidente del consiglio senatori e senatrici colleghi anzitutto vorrei nell'annunciare il mio voto favorevole al governo esprimere il rispetto per lei signor presidente per i ministri per tutti i componenti dell'esecutivo per gli sforzi che io definisco onesti e leali che avete messo in campo nell'affrontare la pandemia io credo che abbiate fatto un buon lavoro soprattutto nella prima fase e credo comunque che le sue parole siano state parole di verità ammettendo che ci sono state cose che probabilmente potevano essere fatte in modo diverso e migliore ma questo è stato quello che avete potuto fare credo che nessuno come hanno dimostrato gli altri governi nel mondo possa avere il pregio della infallibilità davanti a una vicenda drammatica come questa presidente dopo queste parole e dopo l'annuncio del mio voto di fiducia credo che questo rimarranno per lei le considerazioni diciamo più gradevoli del mio intervento perché io sono molto preoccupato e ho il dovere di esprimere questa preoccupazione in questa sede del Senato della Repubblica sono preoccupato perché non condivido in alcun modo il trionfalismo di chi si accontenta del palottoliere e dimentica le ragioni della politica questa crisi è stata aperta da Italia Viva riportiamo le cose nella giusta dimensione non mi piace sentir parlare di alcuni esponenti di Italia Viva per me Italia Viva ha un segretario ed è un partito a ritirare a questo partito si deve rispetto la mia valutazione è che questa crisi sia stata aperta in modo sbagliato e frettoloso però vi devo aggiungere non inaspettato se è vero come lei ha ricordato in quest'aula che da mesi erano evidenti le ragioni del dissenso all'interno del governo si è traccheggiato si è ritardati ci si è dilungati su una crisi che andava affrontata con risolutezza e oggi tutto è coperto dalla soddisfazione di fondo di un antirenzismo che diventa una specie di ordalia di autocompiacimento guardate io credo che il problema sia diverso per noi che sosteniamo il governo per noi che sosteniamo il governo è capire se da questa crisi politica il governo ci esce più forti o più debole perché già le difficoltà sono immense nel rapporto col paese io non so se prenderemo 161 voti 158 150 le voglio dire che al di là della maggioranza che va presa non mi interessa sapere se abbiamo due voti in più o due voti in meno perché il problema sono i sentimenti del paese e c'è la necessità che io ho richiamato da mesi che questo governo allarghi la base di condivisione non la restringa addirittura questo problema l'abbiamo posto nel rapporto con l'opposizione il governo rischia di uscire da questa vicenda con i numeri indeboliti e con una ricerca affiannosa di qualche responsabile apro parentesi e la chiudo la politica c'ha degli elementi di tragedia l'abbiamo visto nella vicenda Covid c'ha anche degli elementi di umorismo perché io ricordo come si parlava di volta gabbana di trasformisti di delinquenti io quasi quando Berlusconi raccattava i responsabili oggi sono diventati tutti i santi allora io 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 che credo io che credo scusate scusate io vi risparmio le citazioni per favore le ho qua le citazioni di alcuni anche colleghi che sono nei banchi del governo su questo punto per cui credo che sia meglio che mi lasciate parlare senza che io vada prendere le citazioni allora io credo alla serietà dei parlamentari credo anche ai loro propositi costruttivi però quello che denuncia il doppio pesismo se le cose valevano prima in un modo devono valere oggi e viceversa ma io credo che tutti voi che siete persone responsabili e vi rivolgo soprattutto a chi sostiene questo governo col voto che è l'atto che conta capite perfettamente che un conto è avere una formazione politica costituente di un patto su cui si è formato il governo un conto è avere un insieme di parlamentari rispettabilissimi che per ragioni loro anche di convinzione profonda vengono a sostenere il governo allora il tema è che sono stati posti problemi in modo strumentale colleghi io ho qui delle dichiarazioni e io queste sì le vorrei leggere io ho le dichiarazioni del segretario del PD si va avanti se il governo fa le cose se si ferma la bicicletta cade da mesi sollecitiamo una ripartenza della nostra coalizione che deve affrontare con maggiore solidità la ricostruzione dell'Italia è il 6 gennaio le forze sociali ed economiche l'Andini le organizzazioni sindacali non hanno avuto la possibilità di dialogare sulla strategia la prima bossa si riferisce alla prima bossa del recovery fund era pessima inadeguata bonomi confindustria nessuno parla più della realtà ma la realtà bussa le porte e presenta il conto il governo è molto chiuso in se stesso e non ha visioni i principali esponenti della comunità finanziaria leggete l'intervista di Bini Smaghi ieri non voglio continuare nelle citazioni colleghi colleghi saluto la senatrice Segre che è qui presente allora colleghi continuando e terminando perché il discorso è molto breve io voglio dirle Presidente lei ha dimostrato in tutte queste vicende una sua solidità devo dire che ha dimostrato anche una sua capacità oggi ha citato Biden ma ha collaborato bene con Trump è iniziato il governo suo il primo governo Conte con Salvini nessuno avrebbe mai detto che ci sarebbe stato un governo Conte con il PD bene allora non dica che ci sono cose incancellabili che ci sono stati incancellabili come la sua esperienza dimostra non c'è niente allora cerchiamo e lei si sforzi secondo me questo è quello che le dico nel consegnare il mio voto favorevole dopodiché naturalmente lei può respingere al mittente le mie valutazioni ma io mi sento in dovere di farle recuperiamo un cammino comune con chi ha fatto prevalere ragioni divisive perché noi oggi saremo forse anche soddisfatti del palottoliere ma domani rimarranno le macerie di un rapporto col paese che sarà ancora più difficile da ricostruire lei ha parlato contro il sovranismo condivido io sono europeista il mio sovranismo è quello europeo guardate che andando avanti zoppicando quando ci sono le ragioni di una ricostruzione che deve partire anche da un'autocritica dei colleghi di Italia Viva quando noi andiamo avanti zoppicando e magari appellandoci ai numeri avremo fatto alle forze sovraniste italiane il più grande favore che loro si possono mai aspettare perché il nostro rapporto col paese sarà ulteriormente indebolito già le difficoltà sono tante io credo che lei è chiamato e mi rendo conto che può anche essere difficile però colleghi ho imparato nella mia attività politica guardo il mio amico Dario Franceschini che fin dai tempi del movimento giovanile condividevamo tante cose io ho imparato due cose due cose che le cose fatte in fretta sono e che quando in politica si fa prevalere il ressentimento le scelte che si producono sono sempre dannose in particolare per chi le fa allora io chiedo a tutti i protagonisti della politica lo chiedo da senatore semplice che non ha alcun ruolo salvo la propria esperienza di recuperare il filo comune passata la giornata di oggi dove peraltro il voto di astensione di taglia vita consente in ogni caso di avere una relativa tranquillità riannodiamo chi ha più intelligenza l'adoperi come si dice in questo caso e cerchiamo di andare avanti assieme recuperando come diceva il suo illustre e mai dimenticato corregionale Aldomoro le ragioni del comune percorso meglio sbagliare assieme che avere ragione da soli credo che a questa lezione di un grande statista democratico cristiano veramente ci sarebbe bisogno di attingere oggi grazie ha chiesto di parlare il senatore Monti ne ha facoltà per sei minuti signor presidente signor presidente signori colleghi prego senatore Monti grazie signor presidente del consiglio la fiducia che lei chiede al Parlamento e oggi al Senato è una richiesta di fiducia particolare se il Parlamento se oggi il Senato le concede la fiducia le conferisce un onore ma soprattutto una responsabilità eccezionale pesantissima per lei e per noi quella di fare di lei persona certamente qualificata ma la cui esistenza non era nota quando questa legislatura è nata fare di lei probabilmente il terzo uomo di Stato dopo due molto rilevanti e molto diversi tra loro Alcide De Gasperi e Silvio Berlusconi che sarà stato Presidente del Consiglio dei Ministri per un'intera legislatura di cinque anni questo è uno scenario che con la fiducia oggi diventerebbe possibile questo è sicuramente un suo merito ma è anche una grande responsabilità perché nessuno avrà avuto quasi nessuno la possibilità che lei sta avendo di cambiare il paese infatti lei parla esplicitamente di patto di legislatura e invita a collaborare con lei a sostenerla a sostenere il suo governo chi ha a cuore l'Italia chi ha a cuore l'Italia ci aiuti lei ha detto più volte e a me sembra un appello onesto importante e molto responsabile ma cosa vuol dire avere a cuore l'Italia vuol dire avere a cuore il voto degli italiani alle prossime elezioni o vuol dire avere a cuore il futuro degli italiani e il futuro dei figli nostri dei figli degli italiani sappiamo bene che c'è spesso un netto contrasto tra le due prospettive lei secondo me avrà un compito estremamente impegnativo come l'ha avuto finora ma ancora di più in questo disegno che comincia a diventare storico e avrà il dovere di aiutare il paese a rendersi conto della realtà non di aiutarlo a deluderla in una fiera delle ipocrisie come ascoltiamo spesso nelle aule parlamentari e spessissimo nel dibattito politico vengono pronunciate cose che il pronunciante sa essere infondate o se applicate delle terrie per il paese ma forse utili ad avere il voto la prossima volta ecco il linguaggio della verità e credo che lei abbia anche un debito verso il linguaggio della verità perché i provvedimenti come quota 100 come il reddito di cittadinanza recano la sua firma ho fatto un test anche negli ultimi due giorni domenica ho indicato per trasparenza in un articolo a quali criteri mi sarei attenuto oggi ascoltate le sue comunicazioni nel decidere della mia fiducia e un punto per me fondamentale come lo è diventato anche per lei è un forte ancoraggio alla scelta di campo europeista oggi lei ha detto una cosa importante che non mi pare abbia detto ieri alla Camera in modo l'ancoraggio europeista in modo da realizzare ancora più appieno l'interesse nazionale questa è la cosa da spiegare a chi non ha ancora superato del tutto il sovranismo perché è in questo modo che l'Italia realizza appieno il suo interesse nazionale ebbene lei ha anche fatto appello alle forze popolari liberali e socialiste per coerenza lei deve anche e sono sicuro che intellettualmente c'è già riconoscere che il modello che con tante varianti guida i paesi dell'Europa è quello dell'economia sociale di mercato sostenibile e altamente competitiva e qui si riconoscono in Europa sia la componente liberale che darà un po' più di peso al mercato sia la componente popolare e socialista che darà un po' più di peso alla socialità e naturalmente la componente verde per qualche misteriosa ragione purtroppo in Italia trasfiguratasi in forme stellari ma che dovrebbe tornare a dare un grande impulso nella stagione intestata alla sostenibilità ebbene le scelte concrete in cui questa impostazione europeistica e che deve però dare impulso all'Italia perché è la che si realizza davvero l'interesse nazionale richiedeva secondo me e l'ho indicato una maggiore attenzione al tema delle disuguaglianze della riforma fiscale e anche al tema pochissimo in auge in Italia della concorrenza e della lotta alle rendite di posizione che non è presente né nei liberali né nei socialisti né in chi ha un orientamento culturale né in chi ha quell'altro in Italia ebbene le considerazioni che lei ha fatto ieri che ha rifatto oggi le accentuazioni che mi pare di avere notato oggi in particolare a ieri mi inducono ad avere un orientamento positivo anche lei a un certo momento ha detto ho terminato che gli stessi ristori che se vogliamo fare un dibattito caricaturale come è avvenuto in questi giorni uno può dire che se uno si chiede la proseguibilità sine die dei ristori che cosa possa voler dire uno può dire questa è totale disattenzione al sociale invece no lei stessa si è chiesto ha detto che devono essere fatti con oculatezza così come sono straordinariamente necessari oggi e lei ha detto sono risorse di tutti questo vale per tutte le fonti del debito pubblico non sono risorse di tutti noi come lei ha detto non è proprio così perché sono fatti a debito sono risorse non nostre ma che prendiamo prestito un pochino dai nostri concittadini europei e molti di anni di domani attraverso il debito ecco perché anche lo scostamento di bilancio che è un esercizio che sta diventando di unità nazionale perché la nostra purtroppo non è una Repubblica democratica fondata sul lavoro ma è una Repubblica democratica fondata sul debito pubblico anche lo scostamento di bilancio non ha il significato di licenza di gravare sempre di più sui nostri figli e nipoti e occorrerà ecco fare le cose in modo più oculato come lei ha indicato io concludo dicendo che mi ero anche permesso di suggerire delle modalità pubbliche aperte trasparenti aperte alle opposizioni anzi con un invito alle opposizioni perché prendano parte ma esercizi in mano al governo per dare in tempi certi una articolazione concreta a questi obiettivi per cortesia concluda chiudo signora presidente quindi le annuncio oggi il mio voto di fiducia nel modo che mi è proprio io non le porto voti se non il mio e il mio è un voto di fiducia come sempre libero e condizionato a quelli che saranno i provvedimenti e se corrisponderanno a quelle che sono le mie convinzioni se così sarà se ci sarà questo riscontro in futuro non solo appoggerò ma mi adopererò anche presso l'opinione pubblica inclusa quella internazionale per sostenere ciò che verrà fatto grazie ha chiesto di parlare il senatore Nencini ne ha facoltà per dieci minuti grazie signora presidente signor presidente del consiglio ministri colleghi faremi molte delle considerazioni fatte dal collega amico Pierferdinando Casini però sosteneva il saggio i saggi sbagliano sempre i loro tempi e quindi la saggezza di fatto non esiste una cosa però possiamo dirla quando la storia si sostituirà signor presidente alla cronaca e quindi guarderà le cose più dall'alto questa fase politica verrà più o meno scritta e letta così una crisi strisciante che si era virtualmente aperta nel mese di novembre figlia cito anch'io il segretario e il vice segretario del partito democratico di lentezze ed errori aggravata da divisioni interne ai partiti che la sostengono e da nodi mai sciolti il mess in questo caso oppure sciolti positivamente dopo lunghe deatribe il recovery plan grazie anche al lavoro fatto dal gruppo Italia Viva e partito socialista italiano crisi infine formalizzata pochi giorni fa da un azzardo che io non ho condiviso tuttavia lo sottolineo se prevalesse la logica del capro espiatorio quale alibi per non affrontare di petto i nodi che sono tutti lì di faccia a noi mi permetto di suggerire e consigliare che imboccheremmo la strada decisamente sbagliata su un punto presidente lei ha perfettamente ragione governare l'incognito in una tragedia che ha ammietuto migliaia di vite è un carico che in Italia non ha mai portato nessuno dal 1944 ad oggi e questo è un motivo sufficiente per imboccarsi le maniche dare una mano senza pretendere nulla ma pretendendo la chiarezza di una strategia che è quello che serve stiamo a cosa desiderano gli italiani desiderano che la pandemia venga affrontata con decisione che le scuole riaprano che si gettino le fondamenta per la ripresa economica quindi un'Italia più giusta più libera in un mondo dove la politica prevalga sulle multinazionali e sull'alta finanza proprio perché il comportamento degli italiani è stato un comportamento esemplare gli italiani pretendono che ci si occupi prima di loro e poi magari di noi e vogliono soprattutto la certezza che questo percorso avvenga grazie alla stabilità e alla certezza di un binomio che sta al vertice del nostro ordinamento statuale e che riguarda naturalmente la presidenza alla repubblica e naturalmente la presidenza del consiglio dei ministri con il suo governo veniamo al punto allora perché è inutile girarci intorno con una lettura non politica della costituzione è evidente risaputo ed è scritto da quel D oggi non servono 161 voti per la fiducia basta leggere l'articolo X della costituzione italiana è vero certo che è vero ci sono stati dal 44 ad oggi una decina di governi che non hanno goduto in origine della maggioranza assoluta tutti presidente con l'eccezione dell'andeotti ter del 1976 il governo della non sfiducia tutti governi o balneari o dalla sorte segnata o governi ponte verso soluzioni che si andavano delineando questi sono i casi dei governi che sono nati senza una maggioranza nell'esperienza parlamentare italiana l'Italia lo sappiamo bene vive uno stato di emergenza però lei ha nelle mani due straordinarie opportunità già ricordate ora dal senatore Monti afflitta dalla paura di una terza ondata epidemica attanagliata da una feroce crisi economica l'anno decisivo in cui può essere rovesciato il tornante negativo della storia è esattamente questo ed è il 21 per due motivi uno era certo dall'autunno l'altro non era certo dall'autunno e sono la certezza che abbiamo il vaccino e quindi l'obbligo di correre per vaccinare la maggior parte degli italiani l'altro era certo ed era il recovery plan che questo gruppo ha contribuito a modificare profondamente e per il quale oggi serve una cabina di regia vanno definiti i progetti e mi permetto di segnalare che va messo in sinergia con un piano di rientro dal debito pubblico per evitare che il soggetto centrale del recovery che non sono io sono i miei figli non abbiano un debito pubblico sulle spalle che riuscirà probabilmente ad annichilire particolarmente molti dei loro sforzi sarebbe un errore affrontare questa sfida senza un progetto politico di lungo respiro non si governa con un voto in più tanto meno e tanto più in momenti di emergenza figuriamoci se si governa con un voto in meno allora le domando Presidente come si trasformano in progetto le idee che lei ieri ha presentato alla Camera e oggi ha presentato al Senato noi abbiamo avuto in questi giorni parlo dei socialisti una posizione precisa riparta il Presidente del Consiglio e quindi con lei alla testa lei Presidente del Consiglio dalla coalizione esistente allargandola alle forze europeiste proprio perché nelle fasi particolarmente delicate come questa l'inclusione deve essere la bussola e il mestiere di sarto deve prevalere e lo spirito repubblicano su ogni partigianeria apprezzo che sia stata finalmente condivisa una verità un governo con una maggioranza costruita grazie a una pesca miracolosa era inutile financo dannoso anch'io ho avuto e mi capita di rado mi creda il telefono decisamente caldo e magari a chiamarmi fosse stato Agostino De Pretis citato impropriamente da chi la storia bisognerebbe che la rileggesse lui la fece una riforma quella della scuola laica e obbligatoria fino a dieci anni di età a chi mi ha cercato ho risposto che io non somiglio alla poltrona del barbiere ha capito oggi però lei fissa una strategia di due tempi voto di fiducia e poi allargamento della maggioranza condivido il suo preambolo opposizione decisa ogni forma di nazionalismo il male d'Europa perché abbiamo toccato anche qui con mano le cattive ragioni di chi tiene l'Europa nel mirino e considera la nostra collocazione occidentale un accidente da contemperare con incessanti dialoghi con la Russia di Putin ma quella è la strada sbagliata del resto oggi discutiamo di un governo e di una maggioranza che nascono nell'agosto del 19 proprio per sposare questa ragione e non la sua ragione opposta del resto aggiungo considerare la sconfitta di Trump come la sconfitta planetaria dell'ondata populista la trovo una lettura della storia e di quello che sta avvenendo decisamente poco propizia e sbagliata la caccia al diverso un linguaggio feroce il terrapiattismo hanno eroso anche qui spazi di libertà e di diritti individuali e questo rischio non può essere corso più mai più e se serve per non correrlo mai più lavorare come cito e sarà l'unica citazione Nenni fuori dal rancore per raggiungere uno spazio di unità questa è la strada che deve essere seguita infine e concludo le forze che dovrebbero condividere questo disegno lei si è rivolto chiaramente all'EU Partito Democratico 5 Stelle ed ha indirizzato un appello a forze politiche volenterose che si richiamino alla tradizione popolare liberale e socialista si tratta delle tre famiglie che guidano la maggioranza dei paesi europei una di queste fu proprio Matteo Renzi allora leader del Partito Democratico sei anni fa a condurla nel partito del socialismo europeo una di queste siede autorevolmente nel governo sui banchi del suo governo non so se il Partito Democratico condivida o meno il suo proposito perlomeno non ho colto segni né positivi né negativi nel dibattito di ieri a Montecitorio nessuno so invece che i socialisti valuteranno a tempo e con concludo Presidente mi scusi se sforo un minuto il suo proposito tenendo conto Presidente che in questi mesi abbiamo sostenuto il suo governo da apolidi non ne facciamo parte non abbiamo mai ricevuto un invito a partecipare a incontri in cui si preparavano decisioni di un certo rilievo quando non eravamo d'accordo non ci siamo rifugiati in piccose rivendicazioni ma abbiamo espresso qui alla luce del sole il nostro dissenso lealmente addirittura due volte con due voti contrari su due questioni specifiche nella fiducia a lei le uniche note che ha ricevuto da noi riguardavano punti programmatici che giudicavamo affrontati senza la necessaria determinazione non li cito lei sa a cosa mi riferisco ho concluso lo ripeto ci sta a cuore solo un progetto di rinascita per l'Italia conoscerne i contenuti e con ho anche io una proposta da farle approvato lo scostamento di bilancio che voteremo convochi rapidamente le forze europeiste che accoglieranno il suo appello è la strada maestra da seguire alla luce del sole ha chiesto di parlare il senatore Balboni ne ha facoltà per cinque minuti grazie presidente mi permetta di replicare al senatore Monti che se davvero l'avvocato Conte riuscirà ad essere presidente del consiglio per un'intera legislatura non eguaglierà il primato di De Gasperi di Berlusconi ma ne farà uno nuovo suo cioè essere stato presidente del consiglio di tre maggioranze diverse in un'unica legislatura questo è un primato che certamente nessuno mai riuscirà a superare grazie presidente il governo va avanti solo con il sostegno di tutte le forze di maggioranza di ciascuna forza di maggioranza non prendendo un voto qua e uno là chi ha detto questa frase lo ha detta l'avvocato Conte sei giorni fa uscendo dal Quirinale una frase presidente Conte degna di un uomo di Stato perché certamente la coerenza appartiene agli uomini di Stato mi sono detto vuoi vedere che finalmente Conte dopo aver presieduto il peggior governo della storia repubblicana non il migliore il peggior governo della storia repubblicana finalmente ha un colpo d'ala e comincia davvero a volare alto ebbene la mia illusione è durata 24 ore appena 24 ore perché dopo 24 ore è riemersa la vera natura dell'avvocato Conte che è una natura liquida la forma dell'avvocato Conte è penso la forma dell'acqua che si adotta si adatta a qualsiasi situazione amico di Trump e amico di Biden amico e alleato della Lega e amico alleato del PD sovranista ed europeista porti chiusi col primo decreto sicurezza porte aperte con il secondo per tutti con il secondo decreto sicurezza eccetera eccetera insomma quello che un grande costituzionalista come Carl Schmitt avrebbe senz'altro definito occasionalismo politico e che io più modestamente mi permetto di definire opportunismo dopo 24 ore infatti il presidente Conte si è lanciato alla pesca non alla caccia alla pesca perché spera che abbocchino dei cosiddetti responsabili lui li chiama responsabili volonterosi adesso si sprecano gli aggettivi giovanino Guareschi li chiamerebbe utili idioti ma io non mi permetto di usare una frase così offensiva in quest'aula e come dice Mastella i responsabili sono come i Viet Cong usciranno all'ultimo momento caro presidente Conte qua i veri Viet Cong non saranno i responsabili i veri Viet Cong da domani saranno i parlamentari di Taglia Viva perché è chiaro che lei oggi se avrà una maggioranza raccogliticcia in quest'aula sarà grazie esclusivamente all'astensione di Taglia Viva e quindi è chiaro che lei oggi se otterrà questa maggioranza raccogliticcia si consegna in ostaggio a Renzi cioè al potere di ricatto dei suoi voti decisivi in molte commissioni da domani lei affronterà una guerriglia in quest'aula del Parlamento e questo è il meno perché per il suo interesse personale lei in questo modo condanna gli italiani al governo più debole possibile nel momento in cui ci sarebbe invece bisogno di un governo forte e autorevole lei rappresenta oggi davvero l'insostenibile leggerenza dell'essere in cui ci sarebbe nel momento in cui ci sarebbe bisogno invece di una gravità di cui lei evidentemente non è capace di fronte a una tragedia una tragedia sanitaria e un'ancora più grave tragedia economica lei non fa altro che pensare al suo interesse personale capisco l'istinto di sopravvivenza ma a tutto c'è cari colleghi lei dice di voler volare alto ma lei non è un'aquila è un'aquila è semplicemente un'anitra soppa grazie ha chiesto di parlare il senatore Pittella ne ha facoltà per otto minuti non si sente? si sente? abbiamo ascoltato con attenzione le sue comunicazioni e non possiamo non condividere il suo appello alla responsabilità democratica cui oggi il Parlamento è chiamato siamo ad un passaggio politicamente difficile che cade in una congiuntura drammatica della storia e il rischio di accreditare presso l'opinione pubblica questo dibattito le rincorse di questi giorni i tatticismi e le polemiche come uno sterile ingoscente gioco di potere è molto alto la mediatizzazione del conflitto e la degenerazione personalistica del confronto rischiano di far apparire quest'aula come un corpo estraneo al Paese il Paese non ci chiede una crisi di governo non ci chiede una resa dei conti non ci chiede di avventurarci nei terreni paludosi friabili di intese di corto respiro il Paese ci chiede una guida sicura una direzione di marcia chiara un governo stabile sorretto da una maggioranza solida e animata da una visione del presente del futuro dell'Italia e da quella che i latini chiamavano gravitas cioè la consapevolezza del compito arduo innanzi a noi venire fuori dalla pandemia superare l'emergenza economica aggredire finalmente le criticità storiche le infrastrutture insufficienti la pubblica amministrazione lenta e farragivnosa la spesa corrente e debito pubblico in crescita incessante di vari territoriali e sociali mai colmati investimenti strutturali anemici e un insostenibile divario generazionale che penalizza giovani e donne ingombe su di noi sulla classe dirigente del paese la responsabilità storica di sostenere i bisogni delle persone delle famiglie delle imprese e di non scaricare egoisticamente sulle nuove generazioni l'onere ciclopico di un debito sospinto a livello che non sarà sorportabile se non accompagnato da un'adeguata crescita economica l'Europa è di certo il tratto distintivo delle forze che si richiamano a questa maggioranza e lei ha fatto bene e sono felice che lei lo abbia sottolineato adeguatamente questo è il segno che dobbiamo dare a questo dibattito come saper onorare lo straordinario atto di fiducia dell'Unione Europea verso il nostro Paese che ci ha messo a disposizione un colossale conferimento di risorse abbiamo di fronte in questo senso una grande sfida che è la sfida del capitale umano perché noi parliamo giustamente di sviluppo tecnologico di riconversione ecologica e di sostenibilità ma se non facciamo la formazione noi avremo disoccupati e non avremo i profili adeguati per una nuova fase fondata su tecnologia digitale e sostenibilità ambientale la grande sfida della questione sociale cito il grande Macaluso che diceva la questione sociale è la questione primaria della sinistra fa un po' come dire angoscia ascoltare e leggere le cose che ha detto ieri la neoassessore Moratti legando la vaccinazione al Pil cioè alla ricchezza penalizzando le regioni più deboli la grande sfida delle infrastrutture immateriali e immateriali la grande sfida della capitalizzazione delle imprese della scuola questa ondata di investimenti pubblici deve servire anche a sostenere i settori più danneggiati quelle del turismo del trasporti della cultura del commercio dell'export uscendo come lei ha detto dalla logica dei ristori e puntando allo sviluppo delle filiere produttive una grande stagione di rinnovamento che si ancori all'agenda 2030 delle Nazioni Unite e che sappia includere la riforma fiscale la riforma della pubblica amministrazione la riforma della giustizia e del welfare e la centralità del Parlamento a cominciare dall'esame del recovery plan del nostro piano nazionale su Next Generation EU si tratta di sfide enormi le le ha elencate tutte signor Presidente e di obiettivi ambiziosi che il Paese attende da anni che il Senato affronti la prova odierna con la giusta consapevolezza di questa poderosità e con il massimo sforzo di lungimiranza commetteremmo un errore se concentrassimo i nostri sforzi sulla conta dei numeri sul pallottoliere io sono certo signor Presidente che lei è consapevole della gravosità e dell'altezza delle sfide che lei stesso ha riproposto nella sua relazione ma questo richiede più energie non meno energie basi politiche salde non fragili se vogliamo essere credibili e vogliamo essere creduti dobbiamo renderci più aperti non coltivare illusioni di autosufficienza dobbiamo provare ad essere all'altezza della fase storica a cui siamo chiamati e riannodare i fili del dialogo politico all'interno e all'esterno della maggioranza per fare unicamente il fine supremo del bene del nostro Paese ha chiesto di parlare la senatrice Gallone ne ha facoltà per cinque minuti grazie presidente mentre l'ascoltavo presidente Conte sentendo la sua voce su adente snocciolare parole di auto incensamento e domandare aiuto ho avuto i brividi perché mi è tornata alla mente quella notte la notte dello scorso 27 aprile quando due mesi dopo lo scoppio della pandemia mentre a chiedere aiuto erano i miei concittadini bergamaschi chiusi nelle loro case a piangere i loro morti insalutati lei arrivò tardissimo in auto blu per portare un saluto frettoloso e sgarbato senza neanche guardarsi intorno quel giorno ho capito che non meritava la fiducia del paese presidente Conte e oggi ne ho avuto la conferma un presidente glaciale che oggi parla di simpatia di empatia di cuore di anima ma dove sta presidente Conte l'anima quando si spediscono cartelle esattoriali a cittadini che non hanno più gli occhi per piangere dove sta presidente Conte l'anima quando si mettono in ginocchio interi comparti perché non si sa valutare l'equità con cui distribuire i ristori o quando si promettono sostegni per le spese di adeguamento di ristoranti che rimarranno chiusi ma negli autogrill ci si può assembrare o lo sci o le professioni sanitarie gli eventi l'estetica potremmo andare avanti all'infinito dove sta l'anima presidente Conte quando lasciate i muratori a mangiare per strada al freddo li ha mai visti presidente Conte o pensa che stiano tutti sul divano ad aspettare il reddito di cittadinanza è mai entrato presidente Conte in una casa piccola lei che si riempie la bocca con l'empowerment femminile dove una mamma che lavora in smart working deve badare ai bambini dove sta l'anima quando si lasciano a casa da scuola i ragazzi piuttosto che innescare la magnifica alleanza tra pubblico e privato tra trasporto pubblico e bus turistici tra scuola statale e paritaria dove sta l'anima presidente Conte quando alle riforme strutturali alla semplificazione e i voucher al sostegno alla medicina del territorio a sbloccare gli esami per le patenti si sono preferiti gli inutili bonus per i monopattini per le biciclette per i rubinetti e nelle scuole vuote troneggiano ridicoli banchi a rotelle di plastica mentre si parla di sostenibilità ambientale mi permetta di sorridere presidente Conte amaramente però citandole un altro passaggio del suo discorso quando dice abbiamo da subito raccolto la sfida di trasformare le difficoltà in opportunità certo l'opportunità per voi di approfittare della difficoltà per ancorarvi alle poltrone facendovi beffe della democrazia della coerenza di qualsiasi valore che sbandierava il suo movimento di appartenenza quando sputava contro di noi contro il PD e contro ognuno di coloro i quali oggi chiede aiuto e oggi lei viene in aula presidente Conte come un camaleonte snocciolandoci punti di programma dobbiamo fare dobbiamo fare dobbiamo fare come se fosse all'inizio del mandato con una tranquillità e mi consenta una faccia tosta inquietante chiedendoci di sostenere un altro governo Frankenstein e come un imbonitore da tv privata promette 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 aggiunge 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 senza accennare minimamente a tutti gli errori commessi ci dica presidente Conte chi ha sbagliato nell'organizzazione del piano sulla pandemia chi ha sbagliato presidente Conte il piano trasporti che è riportato fuori dalla scuola pronta gli studenti chi ha sbagliato e ha previsto l'Italia Arlecchino che ha alimentato la confusione e il conflitto tra enti locali regioni governo centrale al posto di creare una sinergia virtuosa chi ha sbagliato prevedendo ristori in prima fase senza riuscire a produrre efficace risarcimento in rapporto ai costi bloccando la nazione chi non ha avuto il coraggio di realizzare una politica attiva per il lavoro per chi il lavoro non lo avrà più perché stanno chiudendo le imprese attività su attività e mi avvio a concludere chi ha lasciato sole le persone disabili le loro famiglie e si permette oggi di parlare di caregiver con una legge che giace ancora in commissione il conte 1 e il conte 2 sono stati un fallimento presidente conte lei si presenta qui vergine a illustrarci il conte del futuro come se non fosse proprio lei la concausa del fallimento del paese colui che ha fatto di una crisi sanitaria una tragedia economica lei ha distrutto un paese presidente conte e ora chiede di ricostruirlo no grazie chieda scusa passi la mano il treno ha fischiato lo ha detto lei presidente conte bisogna voltare pagina questo paese merita un governo coeso e preparato e quindi merita un altro governo e noi siamo pronti noi a ricostruirlo con un nuovo governo di centrodestra quello che quello che vogliono gli italiani con coraggio dando fiducia e libertà a chi produce e lavora guardando negli occhi le persone e ascoltando presidente conte lei oggi cerca persone disponibili a casa mia le persone disponibili vengono chiamate in un altro modo e non vado oltre permettetemi di concludere parafrasando indegnamente un grande statista di cui oggi ricorre l'anniversario l'anniversario della morte Bettino Craxi non voteremo la fiducia a questo governo perché parafrasando lui la nostra libertà equivale alla nostra vita forza Italia ha chiesto di parlare il senatore pepe ne ha facoltà per dieci minuti grazie presidente io credo che dobbiamo per rispetto nei confronti di quest'aula ma ancor di più per rispetto nei confronti degli italiani mettere un po' di ordine sul vero motivo per il quale ci troviamo qui oggi si è riunita la Camera ieri in merito alla fiducia al governo Conte e BIS dobbiamo raccontare la verità il motivo quale è stato il capriccio di Italia Viva può darsi l'incapacità e la inconcludenza di questo governo può darsi ma andando a fondo il vero motivo che ha creato questa instabilità sta nel difetto di fabbrica di questo governo sta nel peccato originale che ha fatto nascere questo governo perché presidente Conte questo governo non è mai nato su una visione perché non avete mai avuto una visione dell'Italia questo governo è nato nel settembre del 2019 sulla paura e contro qualcuno sulla paura del voto perché eravate tremendamente impauriti di andare alle elezioni nel mese di settembre del 2019 e contro Matteo Salvini che avrebbe stravinto quelle elezioni per di più questo governo e ricordiamolo nasce anche sul tradimento perché voi avete tradito la parola data in lo tempore al presidente Mattarella il quale decise è responsabilmente secondo il suo ruolo di riaffidarle l'incarico sulla base di due requisiti l'aritmetica che c'era e la conclusione la visione strategica di questa compagine l'aritmetica è venuta meno la visione strategica non c'è mai stata e senza che nessuno si offenda il motivo vero per essere più chiaro verso gli italiani di questa crisi e perché lo ripeto senza che nessuno si offenda questo governo è una vera e propria armata Branca Leone perché è un'armata Branca Leone perché vedo che Di Maio è seduto in quei banchi insieme a quelli che rappresentano il cosiddetto partito di Bibiano ricordate che diceva mai con quelli del partito di Bibiano e vedo il partito democratico che siede con il Movimento 5 Stelle quando Gingaretti tutto sofferente tutto sudato diceva mai con i 5 Stelle io li ho battuti non andrà mai con Costoro e per finire un'armata Branca Leone perché abbiamo da un lato i comunisti o ex comunisti insieme al professor Monti Monti Presidente Conte la visione non c'è mai stata e lei mi dispiace dirglielo parla sempre con molta leggerezza e con molta superficialità ma gli italiani ricordano ricordano bene lei ha parlato con superficialità e con leggerezza nel luglio del 2019 quando era ancora al governo con la Lega e pronunciò queste frasi che io possa andare in Parlamento a cercare una maggioranza alternativa è assolutamente fantasiosa lei oggi ha ridotto questo Parlamento ad un vero e proprio mercato delle vacche è stato superficiale Presidente Conte è leggero quando da iper sovranista quando diceva la sovranità appartiene al popolo non perché lo diciamo noi ma perché lo dice l'articolo 1 della nostra Costituzione è diventato da ieri iper europeista e lei ha parlato con leggerezza anche durante questa pandemia quando ha chiesto agli italiani sacrifici quando ha chiesto agli italiani chiusure promettendo che magari il Natale sarebbe stato vissuto in armonia normalmente e che fa oggi ancora minaccia sacrifici e minaccia chiusure su questo Presidente Conte sulla coerenza quantomeno il suo padre eputativo politico l'oracolo dei 5 Stelle Beppe Grillo è stato più lineare è nato comido comico continua ad essere un comico e probabilmente morirà comico e oggi assistiamo allo stesso copione oggi assistiamo allo stesso copione siete qui abbiamo visto degli interventi che invocavano un sentimento paternalistico vogliamoci bene cerchiamo di stare insieme cerchiamo di andare a limare a calibrare i sentimenti come se fosse un rapporto amoroso di una coppietta in crisi ma non è così oggi voi siete qui con lo stesso copione del 2019 del settembre 2019 cercate di rimettere insieme dei cocci non perché c'è un nuovo progetto non perché c'è una svolta ma semplicemente perché ancora oggi come allora avete paura del voto e avete la volontà di andare contro il centrodestra e contro Matteo Salvini lei Presidente Conte in questi giorni ha detto se si va al voto andrò casa per casa farò il porta a porta non so se è un auspicio da parte sua o se è una minaccia se è un auspicio lo raccogliamo se è una minaccia non ci spaventa però dipende tutto da lei decide che cosa vuole fare ma andare sul territorio andare casa per casa andare porta per porta è la nostra vita quotidiana perché noi stiamo sul territorio e se vuole le diciamo città quartiere via e anche numero civico noi stiamo lì non stiamo nel palazzo e poi per andare sulla rivoluzione dei 5 stelle che cosa ha partorito questa rivoluzione in questi mesi non dico nulla su Matteo Renzi che è il solito Gian Burrasca oramai lo conosciamo per cui vedremo che cosa produrrà la sua intemperanza ma la rivoluzione dei 5 stelle che cosa ha prodotto ha prodotto che è stato riscoperto Clemente Mastella è stato invocato in questi giorni come un taumaturgo che avrebbe sanato questa malata democrazia la vostra rivoluzione addirittura ha elevato al rango di statisti razzi e scilipoti questo è quello che avete 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 provocato evidentemente evidentemente la pedagogia didattica sulla quale vi ha portato il professor Monti ha funzionato e ha prodotto i propri risultati però parliamo dell'Italia e degli italiani la sua relazione Presidente Conte conteneva tutto e niente non aveva prospettive non aveva anima però ne oggi vediamo un'Italia e non lo diciamo per essere pessimisti che ha il meno 10% del PIL ha il record di morti nel 2020 di 720.000 morti il minimo storico di nascite sotto i 400.000 investimenti fermi 390.000 aziende che chiudono 200.000 studi professionali che aprono che chiudono e noi adesso assistiamo a una sua comunicazione dove non si parla di vaccini dove non si parla di riaperture di bar di ristoranti di palestre di impianti sportivi e caro professor Monte il governo deve favorire le riaperture non le chiusure delle attività che con tanti sacrifici gli italiani hanno messo su non si parla di ricostruzione ma si parla in questa sede di legge elettorale proporzionale e su mezzogiorno io non ho il piacere di vedere qui tra i banchi del governo il ministro del mezzogiorno badate bene che non basta avere l'etichetta io sono del sud per fare politiche a favore del mezzogiorno chi aveva queste etichette in passato ha fatto soltanto danni e voi continuate sulla stessa identica strada nel 2019 il presidente Conte diceva vogliamo un mezzogiorno rigoglioso il ministro per il mezzogiorno parlava di un sud che è il cuore alla soluzione della questione Italia e della questione Europa bene oggi voi nel sud siete non pervenuti soltanto belle parole soltanto promesse di mancette ma il sud e tutta l'Italia hanno bisogno di investimenti per lo sviluppo il sud ha bisogno che si liberino le iniziative private c'è bisogno che riprenda a correre e tutto questo non può accadere con un governo che si sostiene con i responsabili con i costruttori con i volenterosi siamo onesti anche su questo chiamiamoli per il nome giusto con i volta a gabbana tutto questo tutto questo si crea soltanto se c'è se c'è se c'è una visione un governo forte nelle idee è solido nei numeri concludo presidente vi resta una cosa da fare per conservare una dignità politica per avere rispetto nei confronti dell'Italia fatevi da parte fatevi da parte fatevi da parte perché siete inadeguati politicamente lo siete sempre stati dopo il mercato delle vacche al quale ci avete costretto ad assistere lo siete anche moralmente l'Italia merita altro e voi non meritate l'Italia resta a voi trarre le dovute responsabili conseguenze grazie ha chiesto di parlare il senatore Ferrara ne ha facoltà per sei minuti presidente Conte colleghe e colleghi quando si vive una fase di shock personale ma anche sociale spesso non si è in grado di discernere la realtà io temo che oggi non ci sia piena contezza del dramma che stiamo vivendo un killer invisibile continua a girare per le strade del nostro paese colpendo con spietata virulenza lasciando su questo atipico campo di battaglia centinaia di persone ogni giorno prima di tutto i più fragili cioè i nostri genitori i nostri zii i nostri nonni nella nostra Italia sono morte oltre 80.000 persone è come se un'intera città non ci fosse più il paese soffre è disorientato e dinanzi a questo dramma servirebbe unità servirebbe avere una visione comune che travalichi gli egoismi personali in queste tenebre che ci disorientano due luci importanti del nostro tempo come il Presidente della Repubblica Mattarella e Papa Francesco ci hanno invitato a declinare le nostre scelte usando il noi e non l'io ci hanno invitato all'unità e non a dividere per proprio tornaconto appelli caduti nel vuoto perché unico caso al mondo c'è chi in piena pandemia in piena emergenza sanitaria ed economica si inventa una crisi di governo siamo al parossismo al trionfo dell'irresponsabilità questa azione politica sconsiderata questa crisi incomprensibile compromette l'immagine dell'Italia all'estero in un momento critico e di massima esposizione internazionale per il nostro Paese abbiamo la Presidenza del G20 la Copresidenza della Coppa 26 sui cambiamenti climatici ospitiamo il Summit globale sulla salute e soprattutto siamo i primi beneficiari del più grande piano economico di rilancio messo in campo dall'Europa dopo tempo abbiamo costruito un'immagine di Paese diverso credibile forte mentre ora tutti i nostri partner europei e di tutto il mondo restano alibiti dinanzi a cotanta schizofrenia politica che mai si è avuta nella storia repubblicana per il Financial Times Renzi mette il pericolo il futuro del recovery plan e lo stesso per il Paese per la Reuters è sleale e spietato per Daryl Spiegel è disperato per il New York Times Renzi è un distruttore i seminatori di divisioni Dante Alighieri li colloca nella non abbolgia dell'inferno il poeta fiorentino 800 anni fa ci spiega come certi personaggi che adoperano il loro talento non per costruire ma per dividere in realtà sono divisi dentro se stessi ed è per questo che non sono sereni ma sono dannati in altre parole sono governati dall'ego Presidente Conte in queste settimane lei è stato tacciato di essere non inclina al dialogo di essersi montato la testa di volere pieni poteri di abusare dei social persino di aver creato un vulnus democratico la verità Presidente è che se lei volesse avere il consenso la fiducia e il voto di certi professionisti della divisione sa cosa dovrebbe fare dovrebbe smetterla di perseguire il bene comune e prediligere quello dei pochi delle lobby dei gruppi finanziari delle massonerie inoltre Presidente lei temo abbia un altro problema lei sta vincendo troppe partite anche in campi tradizionalmente ostili come quello di Bruxelles lei ha fatto vincere l'Italia quando tutti i suoi predecessori avevano perso pesantemente l'Italia grazie al suo lavoro è tornata centrale sullo scenario politico facendosi portatrice di un cambiamento storico dell'Europa che il Movimento 5 Stelle chiedeva da anni non più una fredda unione finanziaria basata sul fallimentare dogma dell'austerity bensì una comunità di popoli solidale e proiettata verso il futuro il recovery fund il grande piano marshal europeo del terzo millennio esiste grazie a lei Presidente ed è grazie a lei e all'azione costruttrice di questo governo se il nostro paese è quello che riceverà più fondi di tutti gli altri ben 209 miliardi capitali ingenti che stuzzicano certi appetiti questi capitali servono ai cittadini in difficoltà penso ai ristoratori ai baristi ai fieristi agli operatori del turismo a tutti coloro che hanno paura del domani noi questi 209 miliardi vogliamo usarli per rendere il nostro paese un'azione moderna veloce che la proietti verso il futuro che la renda sostenibile che garantisca una sanità e una scuola pubblica efficiente che esporti le proprie eccellenze nel mondo concludo dicendo che noi oggi dobbiamo trasformare questo dramma sanitario ed economico in una rinascita lo stiamo già facendo con provvedimenti come il bonus 110% che sta rilanciando il settore edilizio e rendendo le nostre abitazioni più efficienti e sicuri questo è il tempo di costruire un nuovo patto per l'Italia che va scritto guardando negli occhi i nostri figli perché oggi stiamo progettando soprattutto il loro futuro noi come Movimento 5 Stelle siamo persuasi che con lei ce la faremo lo dobbiamo prima di tutto a quegli 80.000 morti vada avanti Presidente Conte noi e il popolo italiano che persegue il bene comune siamo e saremo sempre al suo fianco ha chiesto di parlare il senatore Fantetti ne ha facoltà per quattro minuti grazie presidente primo ministro colleghe e colleghi la migliore dottrina di diritto pubblico in Italia come nei paesi occidentali riconosce tre categorie ontologiche alla base di una candidatura per un ufficio pubblico il far parte di un partito politico eventualmente di una coalizione di avere un programma un progetto specifico da portare avanti ed essere una persona degna di quella in carico specie se l'elezione avviene per preferenze nominali come è stata la mia per questo che quando qualche mese fa sono transitato nel componente del movimento autonomo degli italiani all'estero ho ringraziato da profondo del cuore i padri costituenti per aver previsto esplicitamente nella costituzione italiana il divieto di mandato imperativo per due motivi per l'efficienza dell'azione parlamentare e per la coerenza l'efficienza mi ha portato in pochi mesi a realizzare cinque dei sette punti del programma sulla base del quale mi sono presentato nella circoscrizione estero abbiamo potuto far approvare diventato legge dello Stato la riduzione al 50% dell'Imu che viene pagata dai pensionati italiani all'estero e che sono discriminati in questo senso rispetto ai pensionati italiani abbiamo consentito a una platea di 20.000 persone che sono tornate in Italia per apportare il loro know-how cosiddetto controesodo di cui sono stato relatore nel 2010 in commissione in aula di restare in Italia di vedersi confermati i benefici fiscali previsti da quella legge abbiamo ottenuto che dopo dieci anni di blocco gli italiani all'estero 6 milioni il 10% della popolazione italiana dato ufficiale sottostimato in realtà sono molti di più potranno finalmente confermare a livello di giurisdizione consolare con più di 20.000 abitanti sono tantissimi nel mondo i loro eletti un esercizio democratico il rinnovo dei comites che era bloccato da dieci anni abbiamo fino ottenuto che la ristorazione italiana all'estero decine di migliaia di imprenditori italiani che all'estero si sono fatti onore con i loro esercizi di ristorazione con le loro pizzerie con le loro gelaterie si vedano riconosciute il merito dell'originalità delle loro produzioni non è solo il beneficio di questi signori e delle loro famiglie è il beneficio di tutti i produttori dell'agroalimentare delle eccellenze italiane che hanno d'ora in poi in questa catena una modalità di distribuzione dei loro prodotti all'estero che c'era e che nessuno aveva voluto riconoscere l'efficacia dell'azione parlamentare è importante non siamo qui per sedere e spingere un bottone così come la coerenza io 40 anni fa ho iniziato ad andare a Bruxelles dalla Casa d'Europa di Roma al Movimento Federalista per chiedere il suffrage universale del Parlamento Europeo per chiedere un'Europa solidale una cosa che abbiamo sognato fino a pochi mesi fa non si può stare nell'ambito di una coalizione per appartenenza senza essere coerenti con i propri principi non si può sfilare con alleati di coalizione che mirano all'Ital Exit che mirano a contrastare l'Europa nel momento in cui ci si professa europeisti ecco perché abbiamo creato Italia 23 un'associazione che nasce dalla società civile che vi prego di andare a vedere che ha dei temi che sono stati elaborati da esperti persone che gratuitamente con il loro intelletto mettono a disposizione del Paese delle proposte siamo grati per questa apertura Presidente ancora un attimo per questa apertura politica che ci viene data di creare anche nel Parlamento italiano eventualmente nella maggioranza del governo una sbocco per liberali per socialisti per convinti europeisti e di fare questo percorso insieme per questo come componente maia Italia 23 e confermiamo la fiducia Primo Ministro ha chiesto di parlare la senatrice Maiorino ne ha facoltà per sei minuti grazie mi lascio iniziare Presidente porgendo un omaggio e un sincero ringraziamento ad una donna che oggi ha impartito una lezione di etica civile a tutti noi la senatrice Liliana Segre il suo esempio e il suo gesto dà la misura dell'assurdità della situazione che ci troviamo a vivere più di mille parole mi perdoni senatrice Segre se parlo di lei lo faccio con profondo rispetto e con autentica ammirazione la signora Segre con la sua storia tralasciando anche i consigli dei medici è oggi qui tra noi perché ha anteposto la salvezza del paese alla propria stessa incolumità personale l'esatto contrario purtroppo di ciò che ha fatto colui che ci ha trascinato in questa assurda situazione e che non ha altra ragione di essere se non l'avere anteposto se stesso a tutto il resto signor presidente lei ha parlato del disagio dell'essere qui oggi senza poter offrire una spiegazione valida della ragione per cui ci troviamo qui a discutere di una possibile crisi di governo ecco noi avvertiamo lo stesso suo profondo disagio mai discussione infatti fu più lontana dalla realtà e dai bisogni dei cittadini lì fuori che ci guardano attoniti parlare di crisi di governo mentre l'Italia piange più di 80.000 morti e con in corso la più grande campagna vaccinale di sempre che peraltro ci vede ai vertici in Europa per dosi somministrate essere qui oggi mentre abbiamo ottenuto grazie a lei e a questo governo il più grande credito economico e politico da parte dell'Europa che ha concesso la somma più ingente tra i componenti dell'Unione e sebbene per la prima volta stiamo scardinando i principi dell'austerity dopo anni trascorsi a parlarne con tutto quello che questo Parlamento ha da fare tra scostamento di bilancio ristori e progetti per il recovery fund per rilanciare il Paese noi invece oggi siamo qui a parlare di cosa gli italiani sono stanchi di sentire i politici che parlano di politici c'è un Paese che aspetta risposte e le aspetta ora e ora signor Presidente ora è il momento di voltare pagina come ha detto lei basta rompiamo l'incantesimo che tiene un Paese a dibattersi in un eterno presente da decenni condannato a non cambiare mai a commettere sempre gli stessi errori una recita che stancamente si ripete in uno spettacolo sempre uguale di una politica autoreferenziale che mette se stessa e i propri calcoli prima di ogni altra cosa prima del bene comune prima degli interessi del Paese lei signor Presidente oggi ha parlato del primato della politica quella al servizio del Paese quella con la P maiuscola dando una lezione a chi la politica la fa da anni vede Presidente riflettendo sulla situazione in cui ci troviamo mi è tornato in mente pensi un po' a Montale perché noi Presidente noi siamo lo sbaglio di natura siamo quell'anello che non tiene siamo quel filo da disbrogliare che finalmente ci mette nel mezzo di una verità noi del Movimento 5 Stelle siamo quell'errore non previsto dal sistema che manda in tilt il sistema stesso e smaschera i corsari della politica già una volta l'abbiamo fatto Presidente quando nell'agosto di ormai due anni fa qualcun altro perseguendo calcoli di interesse partitici pensava di passare all'incasso e ora è all'opposizione ad abbaiare i banchi a rotelle oggi di nuovo abbiamo mostrato a tutti il vero volto di un singolo individuo che ha posto questioni personali irrisolte al di sopra dell'interesse del Paese e della collettività abbiamo sentito in questi giorni pirouette retoriche atta a distorcere il senso di quanto accaduto si è arrivati a pronunciare parole come rottura responsabile ecco questo è esattamente il tipo di sistema che ha tenuto immobile un Paese e che noi ora insieme a lei stiamo combattendo e smascherando perché non osserviamo le liturgie e il copione di questo teatro noi diciamo la verità senza secondi fini senza messaggi cifrati e non facciamo ciò che conviene lo facciamo se è giusto poi magari sbagliamo certo ma non agiamo per convenienza né personale né di partito e lo facciamo alla luce del sole lei è venuto in Parlamento Presidente ha esposto la situazione senza infingimenti e ha avuto il coraggio e l'umiltà di chiedere aiuto un aiuto Presidente non per sé come i maligni vogliono far intendere ma per il Paese vede Presidente ieri qualcuno ha detto che l'Italia ha bisogno di chi indichi la rotta nel mare in tempesta ma che quel qualcuno non può essere lei e invece è vero proprio il contrario può farlo solo lei perché può farlo solo chi è riuscito con impegno e serietà a riconquistare all'Italia la credibilità internazionale necessaria per negoziare sui tavoli europei e per continuare il cambiamento intrapreso nelle politiche europee che non sentiamo a definire epocale l'Europa ci aveva dato fiducia lei aveva dato fiducia e oggi ci guarda attonita e non pensino i moderati liberali che si definiscono europeisti di poter ottenere ascolto in Europa presentandosi con i sovranisti con quelli che loro loro si giravano con la mascherina di Trump in faccia salvo poi strapparsela velocemente dal volto quando le immagini di Capitolilla hanno cominciato a fare il giro del mondo troppo tardi la macchia di quella mascherina sul volto resterà ancora per molto moltissimo tempo basta con la politica muscolare una politica muscolare che vede poi tra l'altro le donne finire inevitabilmente ai margini di questo scontro noi l'abbiamo sempre detto Presidente destra o sinistra non hanno importanza contano le buone idee e ora più che mai la buona volontà non possiamo fingere di ignorare che il mondo ha assunto una nuova polarizzazione ora da una parte ci siamo noi con lei Presidente con le forze democratiche progressiste europeiste dall'altra c'è il negazionismo l'antiscientismo il sovranismo cieco il fanatismo oscurantista ora è il momento di scegliere da che parte stare concludo Presidente questa giornata saranno uno specchio per chiunque voglia guardarci e rimanderà un'immagine senza veli quella di chi vuole tenere ancora l'Italia ostaggio di quell'incantesimo di immobilismo di un paese che non cambia da decenni con una politica miope improntata all'egoismo e quella invece di chi vuole costruire finalmente un paese nuovo fondato su nuove basi e condurlo nel terzo millennio Presidente con lei fuori dai giochi di palazzo questo abbiamo da offrire dignità abnegazione limpidezza di coscienza c'è molto lavoro da fare tutti insieme per un nuovo inizio grazie ha chiesto di parlare la senatrice Caligiuri ne ha facoltà per tre minuti grazie Presidente Presidente del Consiglio membri del Governo colleghi Presidente Conte l'ho ascoltata molto attentamente sono di qua alla sua destra ha parlato della sua voglia di voltare pagina si immagini gli italiani ha parlato della volontà di ricominciare e ancora si immagini gli italiani in questi mesi difficili tutti abbiamo confidato con fierezza nel nostro essere italiani nel nostro temperamento forte e determinato abbiamo sventolato con orgoglio il tricolore ma ora per molti la situazione è monocromatica nero pesto il primo ad aver dimenticato la bellezza dei colori che contraddistinguono l'Italia è proprio lei Presidente li dimentica quando si dimostra lontano dagli imprenditori lavoratori autonomi partite IVA artigiani mondo della scuola università forze dell'ordine li dimentica quando con estrema sufficienza parla del Ministero dell'Agricoltura quasi fosse una misera casella disponibile per le sue logiche di numeri gli agricoltori hanno bisogno di risposte adeguate su tematiche precise che da troppo tempo ormai attendono non ci si può limitare a lodarli per l'egreggio lavoro svolto durante tutti questi mesi di lockdown e chiusura e poi trattare il loro di castero come un bene sul mercato ai nostri agricoltori serve ben altro la nostra agricoltura è un patrimonio da proteggere e tutelare sempre e non merce di scambio politico con cui Fargola ha qualche interessato dimentica i colori del mezzogiorno il blu del nostro mare cristallino l'oro della sabbia delle nostre coste il verde dei nostri boschi li dimentica totalmente quando dedica allo sviluppo del sud e soprattutto della mia Calabria poche briciole del recovery fund che non serviranno a colmare il divario con le regioni del nord ricordo a me stessa che gli stessi progetti che si pensa di finanziare con i recovery erano già stati anticipati e finanziati senza vederne la luce con il piano per il sud lo scorso 14 febbraio penso ad esempio all'alta velocità punto di partenza imprescindibile per collegarci al resto del paese perché presidente un'Italia a due velocità non potrà mai ripartire e tornare a crescere oggi un buon punto di partenza sarebbe stato sentire da lei un'autocritica su quanto accaduto negli ultimi mesi si sarebbe dovuto parlare dei problemi degli italiani e invece siamo qui per cercare di celebrare qualche nuova unione magari un nuovo governo mentre gli italiani intanto assistono sbigottiti lo riconosco sono davvero delle giornate complicate per lei non è semplice giornate nelle quali avete fatto appello ai costruttori arrivando ancora una volta in ritardo dei soggetti responsabili il paese ne aveva bisogno nei mesi scorsi il parlamento la casa degli italiani andava consultato prima c'era bisogno di coinvolgerci accogliere le proposte delle forze di centrodestra di forza Italia e lei lo sa sono state davvero tante era quello il tempo di essere responsabile costruire presidente anche perché per costruire c'è bisogno di una visione con questo governo ho forti dubbi presidente gli italiani meritano una visione limpida e non delle pagine in bianco e nero e poco chiare è l'ora dei responsabili sì quelli veri però quelli che sanno cosa serve al paese e questi non siete sicuramente voi grazie ha chiesto di parlare la senatrice Bonino ne ha facoltà per sei minuti grazie mille grazie signora presidente signor presidente del consiglio mia mamma mi diceva sempre che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare banale ma quanto vero appunto basta fare un giro negli ospedali o nelle case di cura o sentire qualche famiglia sulla questione scuola trasporti o la confusione creata da comunicazioni generiche e ansiogene per non credere alla situazione del paese che lei ci ha descritto e a chi mi chiedeva questa mattina quando sarà il mio turno per il vaccino non dico il giorno ma perlomeno il mese come tutti ho dovuto rispondere che non lo so e temo che nessuno ancora lo sappia cosa rispondere ma non perché non solo perché mancano i vaccini ma perché non c'è ancora un piano serio e dettagliato per vaccinare la popolazione ci ha anche descritto una compagine governativa che lavora in armonia tutta propensa al bene del paese quando è fin troppo nota e stucchevo la litigiosità della maggioranza oltre a quella tra Stato e Regioni ci ha parlato di prerogative parlamentari da ripristinare ma solo pochi giorni fa Presidente Conte la legge di bilancio una delle leggi più importanti per il paese con il senato consenziente ahimè e come nel 2018 l'avete fatta approvare ed è stata approvata scambiando questo senato per l'ufficio postale col timbro allegato ci avete travolto di dpcm poi di decreti omnibus sempre corredati da voto di fiducia non vi sbagliate per caso fino all'assurdità dei quattro decreti ristori in uno ovviamente con e corregato dalla necessità di centinaia di decreti attuativi tanto per aiutare la sbandierata semplificazione ha anche annunciato un vivo interesse per la legge elettorale proporzionale Presidente non è il suo compito non spetta a lei né favorire né ostacolare questa è una prerogativa parlamentare ci ha annunciato una svolta necessaria lo penso anch'io ma una svolta non può avvenire in continuità con la compagine governativa attuale ancora meno se sostenuta da una maggioranza raccogliticcia fondata su chi veniva sprezzantemente chiamato un volta gabbana e che adesso fate assurgere a salvatori della patria questo non è essere responsabile né tantomeno costruttori ma chiedo ai colleghi cosa c'è di responsabile nelle posizioni tetragone quasi dei diktat che normalmente soprattutto i colleghi dei 5 Stelle pongono dal fine processo mai alla situazione delle carceri che lei ha visitato da quota 100 all'abbiamo sconfitto la povertà con questo reddito di cittadinanza relativi navigators dal taglio demagogico dei parlamentari al rifiuto altrettanto demagogico del messo del messo e badi non sto difendendo il senatore renzi che peraltro egocentrico com'è non apprezzerebbe neppure sto dicendo che tutte queste questioni erano aperte ben prima dello strappo di cui tanto vi siete stupiti la vera responsabilità per me è impiegare questi anni e mesi non per tirare a campare ma per scrivere finalmente un next generation EU che risponda alle obiettive e agli strumenti definiti in Europa e spero che la bozza che ci avete mandato il 12 dicembre il 12 gennaio sia davvero una primissima primissima bozza da devo dire riscrivere quasi completamente vede cari colleghi non a caso si chiama next generation non si chiama next election d'accordo? quindi non è possibile continuare e l'ho letto e studiato attentamente ho finito presidente quindi ci serve in questi tempi un governo forte e responsabile e il suo mi spiace dirlo non lo era prima e a maggior ragione non lo sarà domani voglio dedicare cari amici questo intervento a un grande vecchio Emanuele Macaluso che ci ha lasciato questa mattina che sono sicura questo senato celebrerà e ricorderà nelle dovute forme perché lo dedico Emanuele Macaluso perché la sua provenienza dal partito comunista pure non gli ha mai impedito anzi gli ha consentito di praticare dialoghi e confronti con esponenti di altri partiti e di pensare e di valorizzare che contano le idee in politica e non solo l'aritmetica non solo i numeri per questo non le voterò la fiducia Presidente e come lei sa io non ho atteggiamenti né preclusivi né demagogici e quando avete fatto iniziative che ho condiviso tutta la filiera europea per intenderci vi ho sostenuto con grandissima convenzione però temo che con sprecherete questa occasione è il mio più grande timore perché lo spreca il paese non un governo grazie ha chiesto di parlare il senatore Cangini ne ha facoltà per cinque minuti grazie grazie Presidente signor Presidente del Consiglio colleghi senatori un paio di secoli fa un signore che si chiamava Taglieran principe di Benevento personalità politica oltre che ecclesiastica decisamente più addentro agli arcana imperi di un Rocco Casalino e sensibilmente più incline al trasformismo di un Clemente Mastella disse che la parola è stata data agli uomini per mascherarne il pensiero e per contraffare la realtà ascoltandola in aula oggi Presidente Conte ne abbiamo avuto conferma dalla ricerca di maggioranze in Parlamento alla delega sui servizi segreti dall'europeismo al populismo dalla condizione della nostra economia alla condizione della nostra sanità lei le sue parole di oggi erano in evidente contraddizione con le sue parole di ieri e le sue parole di ieri come le sue parole di oggi sono state ed erano in evidente contraddizione con la realtà dei fatti la realtà dei fatti è che da oggi il suo governo è politicamente più debole di quanto non fosse prima e in questo ramo del Parlamento con tutta evidenza non avrà la maggioranza assoluta dei voti come questo possa rappresentare un passo avanti è per noi un mistero incomprensibile due governi Presidente Conte o forse addirittura tre governi in tre anni sono la chiara e inequivocabile prova di una sua indiscutibile capacità di galleggiamento e di trasformismo che forse qualcuno potrà apprezzare ma sono anche la chiara ed inequivocabile prova di una evidente incapacità politica che credo non possa essere apprezzata da alcuno che questo governo stesse fallendo sul fronte economico e sanitario in quest'Aula non l'ha detto solo Matteo Renzi lo hanno detto tutti ma proprio tutti i parlamentari del Partito Democratico e i maggiori esponenti di Leo e non l'hanno detto un anno fa lo hanno detto nei giorni scorsi nell'ultimo dibattito che abbiamo avuto in quest'Aula del Parlamento gli stessi esponenti del Partito Democratico gli stessi esponenti di Italia Viva che hanno detto che il piano di rinascita e resilienza barato dal suo governo o meglio abbozzato dal suo governo era in ritardo ed era clamorosamente inadeguato questo ritardo e questa inadeguatezza si riflettono sul futuro del paese come possiamo noi pensare che questo nuovo governo eventuale o un conte 2 rimaneggiato possano fare meglio del poco che è stato fatto fino ad oggi è un mistero di fede nulla è cambiato nella sostanza nulla è cambiato in meglio nella sostanza per quale oscura ragione una maggioranza epurata da Matteo Renzi e metaforicamente rimpolpata da Clemente Mastella dovrebbe infondere in questo governo quella visione e quella forza politica che con tutta evidenza questo governo non ha avuto fino ad oggi e perché mai dovrebbe essere questo governo da oggi più europeista di quanto non fosse fino a ieri e perché mi chiedo un presidente del Consiglio che ha tenuto per sé unico nella storia la delega sui servizi segreti compromettendone così l'efficacia come lei ha ammesso ieri alla Camera dovrebbe improvvisamente maturare quel senso delle istituzioni che dovrebbe dovrebbe essere il presupposto della funzione che ricopre presidente io glielo ho detto in quest'aula all'inizio della pandemia io credo che soltanto un megalomane o un cinico possa ragionevolmente pensare di tirare fuori l'Italia dalle secche in cui è finita senza fare ricorso alla forza di tutti e quando dico tutti intendo tutti i partiti rappresentati in Parlamento tutti i livelli amministrativi dello Stato tutti i livelli istituzionali lei non saprei dire se per narcisismo per cinismo per mancanza di cultura politica per mancanza di senso dello Stato non lo ha fatto lo sfarinamento della sua maggioranza la crisi del suo governo l'inefficacia e l'inefficienza del suo governo dimostrano che è stato un grave gravissimo errore un errore che rischia fortemente di compromettere il futuro di quelle prossime generazioni che la Commissione Europea ha posto come interlocutore ideale agli Stati membri allora Presidente Conte io glielo ripeto e lo dico anche agli amici dell'opposizione se non faremo un governo di larga intese oggi io credo io temo che saremo costretti a farlo domani ma in un contesto di crisi e macerie economiche ben più gravi di quello che si sta palesando oggi e col fiato della Troica sul collo grazie ha chiesto di parlare il senatore Buccarella ne ha facoltà per due minuti grazie signor Presidente del Consiglio signori Ministri gentilissime Ministre ho solo due minuti lo sfavore dell'avere un tempo così limitato devo fare in modo che possa essere un vantaggio per la comunicazione sintetica e incisiva io sono qui per richiamare un passaggio sul discorso relativo agli impegni internazionali che l'Italia dovrà affrontare nel corso dell'anno più specificamente parlo della Copp 26 che vedrà l'Italia poter ospitare a Milano degli eventi che fanno parte di questo momento storico che si collega al Trattato di Parigi per il contrasto a cambiamenti climatici nella bozza del Recovery Fund le aspettative di rintracciare uno sforzo concreto determinato verso quella direzione ha trovato conferma io ritengo che forse si possa fare ancora di più nei passaggi parlamentari grazie anche alle competenze al conforto e all'appoggio di azione politica da parte dei Ministeri interessati sono sicuro che questo obiettivo sarà raggiunto l'idrogeno verde è la tematica che sta rivoluzionando intorno a noi non solo in Europa il futuro prossimo venturo è bene che quella direzione sia mantenuta da parte mia e da parte anche del gruppo a nome del quale oggi sto intervenendo MAI Italia 23 ci sarà l'appoggio la convinzione di dare sostegno a lei e a questo governo con l'auspicio che l'obiettivo da raggiungere al di là delle ovvie considerazioni di natura climatica ambientale e quella delle 3P persone pianeta e prosperità che tutte impattano con questo possa raggiungere una concretezza e un'applicazione effettiva perché attiene non solo all'ambiente ma alla nostra società alla capacità di modernizzare questo paese e di essere sulla linea del fronte dei nostri paesi concorrenti e partner europei nell'essere in prima linea nelle soluzioni tecnologiche che possono coinvolgere il saluto grazie e tutta la filiera industriale e non solo industriale per un obiettivo che dovremmo raggiungere per il quale abbiamo le forze e le competenze lei lo sa benissimo e anche i ministri competenti andiamo avanti così massima fiducia in lei e volontà di collaborazione grazie per l'ultimo intervento di questa mattina prima della sospensione per la sanificazione alla parola il senatore di Nicola per tre minuti ho scritto tre io partiamo da adesso grazie presidente onorevoli senatori presidente conte lei ha giustamente detto che proprio nei momenti più critici della storia di un paese dobbiamo ritrovare le ragioni nobile alte della politica la politica come pensiero e azioni orientate all'uomo ai suoi bisogni e alle sue aspettative e allora domando che senso ha questa crisi proprio adesso come molti italiani penso che tutto questo un senso non ce l'abbia sebbene il senatore Renzi si sforzi di farcene immaginare uno mi ha fatto venire in mente il senatore Renzi quella ballata dell'apprendista stregone di Goethe nella quale l'aiutante di un vecchio maestro di incantesimi non riesce più a fermare la scopa impazzita a cui con una parola magica ha dato vita all'inizio cerca di fermarla quella scopa parlandole ma non riuscendo a ripetere il sortileggio la spezza in due per bloccarla solo che i due tronconi continuano a devastargli la casa ecco questa ballata si adatta alla perfezione al senatore Renzi e ai suoi rapporti con questa maggioranza e con la politica credo sia il momento meno adatto senatore Renzi se c'è per mettersi a giocare all'apprendista stregone dato che non sarà un sortileggio a farci uscire dalla pandemia a farci dimenticare le migliaia di morti per covid e il carico di dolore nei cuoli di milioni di italiani quegli stessi italiani che oggi ci chiedono risposte concrete ai loro bisogni ecco voltare pagina come lei invita a fare presidente Conte significa anzitutto archiviare il brutto incubo che il senatore Renzi sta facendo vivere agli italiani recuperando il tempo che ci ha fatto perdere ed è sulla buona strada confermandoci che la fiducia che l'opinione pubblica continua a mostrarle è meritata e giustificata a fronte di politici che amano perdersi nelle sbornie mediatiche disconnessi dalla realtà con la quale ogni giorno gli italiani sono chiamati a fare i conti e a combattere e la realtà ci dice che i rischi in quest'era covid sono a dir poco spaventosi perché parlano di disoccupazione cassa integrazione richiesta al credito del crollo senza precedenti dell'economia reale questione aperte a cui questo governo da un anno sta cercando potrei citare i dati crudi di questo trama ripetere le cifre e le stime che altri senatori hanno già citato in abbondanza ma voglio risparmiarvelo davanti a questa situazione nella dispersione parlamentare figlia di una legge elettorale non eccelsa e che certamente non abbiamo voluto noi voglio invece sottolineare come sia piuttosto necessaria una mobilitazione generale della politica e delle coscienze come insegna la senatrice segre che ringrazio e saluto all'insegna della leale collaborazione repubblicana e se questo ci chiedono i cittadini credo che per raggiungere l'obiettivo sia ormai inutile rivolgersi a leghe e fratelli d'Italia forze politiche orgogliosamente insensibili ai valori unitari antifascisti e resistenziali fondativi della nostra repubblica costoro giocano allo sfascio pensando al loro particolare continuando solo a chiederci se abbiamo ma perché voi li avete i numeri per pretendere lo sfascio avete solo i miraggi dei sondaggi che vi spingono alla sfida a sospingere l'Italia all'avventura un sogno di rivalza coltivato nel momento peggiore per i cittadini proprio mentre in questo paese si soffre e si muore vale la pena invece rivolgersi alle sensibilità europee liberali cattoliche democratiche presenti nel nostro paese e che in quest'aula per fortuna hanno autorevoli rappresentanti a questi stimabili colleghi potrei dire che avete ora sul tavolo il progetto politico di questa maggioranza e di questo governo con l'invito alla collaborazione per migliorarlo ci sono le linee per avviare al cambiamento questo paese con corposi interventi in economia lo sviluppo del mezzogiorno la riforma della giustizia e quella fiscale un ammodernamento della nostra architettura istituzionale che dopo il taglio dei parlamentari potrebbe arricchirsi rinvigorirsi con l'introduzione di una legge come è stato detto di impianto elettorale proporzionale le bene le condizioni migliore per dispiegare le vostre vocazioni liberali cattolico riformiste liberandole dal tallone di ferro di un'alleanza maggioritaria forzata con un sovranismo estremista che non vi appartiene un progetto riformatore al quale potrete contribuire per tornare in Parlamento con le vostre forze e soprattutto con i vostri ideali da sturso ai naudi che in quest'ora suprema nell'alternativa che si pone tra sfascio e ricostruzione certamente interpellano le vostre coscienze ciò nonostante i colleghi del centro destra voi colleghi del centro destra continuate a chiederci se abbiamo i numeri per governare davanti ai problemi dei cittadini preda della pandemia dovreste invece chiederci quanto tempo abbiamo per vincere la guerra contro il virus come disse Winston Churchill rivolgendosi al Parlamento inglese sotto l'attacco dei nazisti abbiamo due anni di fronte due anni da incubo impegnativi ma che possono rivelarsi un'occasione per questa classe politica se riusciremo insieme a dare speranze e certezze al Paese voi domandate anche qual è la nostra politica la nostra politica è quella tracciata dal Presidente Conte in quest'Aula impegnarci con tutte le nostre forze per sconfiggere il nemico che oggi si chiama Covid-19 completare il recovery plan dare al Paese le riforme delle quali ha bisogno questa è la nostra politica con l'obiettivo oggi come allora della vittoria sì la vittoria a tutti i costi contro la pandemia e l'emergenza sociale perché per quanto lunga e difficile la strada possa essere senza la vittoria in questa guerra invisibile non c'è sopravvivenza dignitosa per questo Paese come non c'è sopravvivenza per questa classe politica per cui Presidente avanti a testa alta la sfida è grande alla mia fiducia alla nostra fiducia il coraggio non ci manca grazie Presidente allora sospendo l'aula per la sanificazione fino alle tredici e trentacinque è grazie a tutti la seduta è ripresa ha chiesto di parlare il senatore Urso ne ha facoltà per cinque minuti grazie presidente mi dispiace che il presidente del consiglio non è in aula in questo momento perché a lui devo necessariamente rivolgermi nella sua qualità di presidente del consiglio e di autorità delegata ai servizi il presidente del consiglio in questa sede ci ha chiesto e con lui le forze che lo sostengono di voltare pagina è la terza volta che il presidente del consiglio conte dice in quest'aula di voltare pagina la prima volta l'ha detta quando in giugno del 2018 fece un governo che non a caso si chiamava governo del cambiamento perché doveva voltare pagina rispetto a che cosa rispetto ai governi della sinistra che l'avevano preceduto quel governo del cambiamento ha finito per scelta di uno dei contraenti e in quei giorni parlo dell'estate del 2019 nacque un altro governo con lo stesso presidente del consiglio che in quest'aula ci disse occorreva voltare pagina voltare pagina rispetto a che cosa? verosimilmente rispetto a quello che aveva fatto il vice premier del primo governo da voltare pagina che è qui presente e lo ringrazio l'onorevole Di Maio quando nell'esemplificare il cambiamento del primo governo andò da leader di 5 Stelle in Francia a sobillare così pensava l'allora presidente francese i gilet gialli contro Macron al punto tale che la Francia fu in procinto di ritirare il proprio ambasciatore allora era un governo che si ribellava lo stesso governo guidato da Conte la stessa maggioranza relativa di 5 Stelle nel secondo governo invece nacque nelle stanze della Commissione Europea lo dite voi stessi di Merkel Macron dello stesso Macron a cui state vendendo tutto dalla vendita della Fiat avallata in silenzio all'acquisizione di Borsa Italiana e le nomine di ieri dicono che anche in quel caso la governance è francese a tutto quello che gira sul sistema finanziario e bancario italiano di cui parleremo in altre vicende quel governo nacque con una pagina oscura non lo dico io lo dicono gli stessi esponenti della maggioranza e lo dice lo stesso Presidente del Consiglio quando in quest'Aula poche ore fa ci ha chiesto a noi della coalizione e l'uomo che ha imposto il secondo governo Conte Matteo Renzi si verificano nell'agosto del 2019 durante la visita del Ministro della Giustizia americano Barr accolto dal Presidente del Consiglio 15 di agosto ebbene quella pagina oggi viene nuovamente voltata è la terza volta che viene montata viene voltata per realizzare un governo di minoranza è paradossale che il Presidente del Consiglio faccia appello a liberali popolari socialisti europeisti nel momento stesso in cui la maggioranza manca perché la forza politica più liberale più socialista più popolare più europeista l'abbandona con quale credibilità fa appello a liberali popolari europeisti nel momento stesso in cui Italia Viva abbandona quella coalizione perché non la ritiene abbastanza liberale popolare ed europeista ma così tant'è nella neolingua del grande fratello di Orwell questa è la realtà prego la Presidenza di darmi quel minuto in più per poter dire quello che è l'essenza dell'intervento cosa ci chiede oggi Renzi o meglio cosa chiede Conte chiede al Copasir di far luce certo la maggioranza ci chiede di far luce su che se è successo con la fondazione cibernetica perché l'avete improvvisamente messa esclusa e le allusioni sono tutte interne alla maggioranza cosa è successo sul lacheraggio di un sito della Presidenza del Consiglio un membro della maggioranza ci chiede Presidente per favore ci chiede di poter far luce su questo ci chiede di far luce anche su qualcosa accaduto quando Bar venne in Italia e ci chiede di far luce anche su quello che scrivono autorevolissimi giornalisti di un giornale europeista su quello che una volta si sarebbe chiamato rumor di sciabole tutto questo accade all'interno della maggioranza noi siamo rispettosi noi sì davvero del ruolo dell'intelligence e dell'istituzione e noi sì davvero vi chiediamo di non coinvolgerlo nelle vostre bagarre nei vostri sospetti nelle vostre ricamenazioni nelle vostre trattative non li coinvolgete se è possibile nominate anche quei vice direttori dei servizi che da mesi attendono di essere nominati per cui l'intelligence mancano la metà dei vice direttori in questo momento perché anche essi sono nel caldone delle trattative di governo ebbene domani il copa si occuperà anche di questo e non può non occuparsi però presidente del consiglio chiariamo un concetto lei prima parla a lei anche se non c'è ha detto che la riforma dei servizi è di competenza del Parlamento certo è di competenza del Parlamento peccato lei stesso ha espropriato di queste competenze il Parlamento quando qualche mese fa ha modificato radicalmente la norma sulle nomine di direttori delle agenzie con un blitz nelle tenebre così è stato definito dalla maggioranza e imponendolo al Parlamento e costringendolo con un voto di fiducia lei stesso ha fatto quel blitz modificando una legge che oggi dice essere competenza esclusiva del Parlamento di cosa parliamo vogliamo capirlo anche noi perché questi linguaggi queste accuse questa recriminazione questo furor di sciabole non fanno piacere al Parlamento 5 stelle ogni pagina che è voltata è sempre più torbida più misteriosa più intrigante altro che trasparenza il Paese lo deve sapere deve capire e concludo perché in questa verifica più importante della compagine di governo più importante del recovery fund più importante persino della lega ai servizi segreti cosa nascondete tra di voi o cosa minacciate tra di voi il Paese lo deve sapere lo saprà perché state tranquilli lo dico a Renzi innanzitutto che utilizza questo linguaggio lo dico al Presidente del Consiglio Conte state sereni entrambi noi accerteremo i fatti ha chiesto di parlare il Senatore Mangiavalori ne ha facoltà per 5 minuti grazie Presidente onorevoli senatori dispiace effettivamente che non ci sia il Presidente del Consiglio Conte voglio leggere brevemente alcune illuminate dichiarazioni abbastanza recenti di uno statista che risultano assolutamente attuali e che dovrebbero guidare la vostra condotta politica in questo momento aperte virgolette Ministro Di Maio in Italia oltre ai furbetti del cartellino ci sono i volta gabbana del Parlamento dal 2013 al 2017 ci sono stati ben 388 cambi di partito un vero e proprio mercato delle vacche che va affermato molti governi si sono tenuti in piedi e hanno fatto approvare le peggiori porcate grazie proprio a Volta Galbana le leggi più vergognose della storia della Repubblica si sono votate proprio grazie ai traditori del mandato popolare chiamatelo come volete vincolo di mandato serietà istituzionale rispetto della volontà popolare a nessuno è negato il diritto di cambiare idea ma se lo fai torni a casa e ti fai rieleggere e questa è la prima dichiarazione di uno statista era il 2017 quando queste parole le pronunciava un noto intellettuale italiano e politico attualmente la cui identità sveleremo da qui a breve e ancora un'altra chicca basta il mercato delle vacche grasse è arrivato il momento di introdurre il vincolo di mandato dispiace che qualche ministro sia non so se volontariamente ma distratto e ancora noi faremo una modifica costituzionale e inseriremo il dettato della Costituzione del Portogallo che all'articolo 170 dice che chi entra in Parlamento con un partito e poi lo cambia se ne torna a casa beh è perfino superfluo inutile specificare l'identità di questo teorico della coerenza politica queste appassionate quante Giacobine dichiarazioni erano dell'attuale ministro degli esteri l'onorevole Luigi Di Maio buongiorno a lei ministro ebbene oggi quel politico attualmente ministro degli esteri invece per giustificare uno delle più squallide operazioni di palazzo messe in atto da voi usa invece parole ricercate e assolutamente ipocrite aperte virgolette abbiamo migliaia di vittime per il covid un livello di contagio preoccupante e un recovery fund da spendere a dire la verità ancora lo dovete strutturare il recovery fund i valori europei della solidarietà della protezione della dignità umana e dell'uguaglianza devono accomunarci nel progetto di portare avanti l'Italia in un momento così difficile quindi tutti i costruttori non più vacche grasse che vogliono contribuire all'ilancio del paese sono i benvenuti ecco i parlamentari che cambiavano prima idea erano dei volta gabbana dei tradistori del bestiame in vendita al mercato delle vacche adesso invece diventano dei nobili costruttori cade oggi quindi l'ultimo dei falsi baluardi di un movimento 5 stelle ancora più falso nato con dei principi in teoria validi e clamorosamente giornalmente smentiti dalla realtà e dal vostro comportamento faccio qualche esempio mai con il PD con il partito di Bibiano sì con il PD no ad alleanze sì ad alleanze no con indagati sì con indagati no TAV sì con TAV no NILVA sì con ILVA no TAP sì con TAP potrei continuare sì streaming non vi si vede più sul web anche io chiedo per cortesia finisco subito a inizio legislatura avete avuto il coraggio di bandire di espellere dal vostro movimento qualche senatore perché non aveva pagato le rette abbiate il coraggio di dirlo che adesso ve lo state riprendendo quindi quei principi che voi decantavate sbandieravate rispetto a una presunta a una presunta lealtà verso il movimento adesso sono cancellati e quindi chi è fuori dal movimento era fuori dal movimento 5 stelle vedi il senatore Buccarella che si è prestato pure prima a intervenire adesso viene ripreso dalla seconda porta e fatto rientrare dal presidente Conte di queste dichiarazioni ne potrei elencare altre che riguardano il presidente del Consiglio che riguardano il PD rispetto alla coerenza ma purtroppo il tempo me lo impedisce questo dovrebbe però bastare per farvi se aveste un minimo di dignità di farvi vergognare e di chiedere scusa a tutti quegli elettori ai quali avete chiesto un consenso illudendoli in una rivoluzione e che oggi invece si trovano davanti al peggiore partito che la Repubblica italiana abbia mai potuto vedere e quindi oggi avete decapitato anche l'ultimo principio e ho finito non va che grasse no volta gabbana oggi diventa sì costruttori vergognatevi ha chiesto di parlare la senatrice Soridia ne ha facoltà per sette minuti grazie presidente presidente conte ministri colleghi devo iniziare il mio intervento partendo da un evidente vulnus stia tranquillo presidente non è il vulnus democratico di cui l'hanno accusata no questo di cui parlo è un vulnus semanticamente tale cioè un danno una ferita sì aperta da questa crisi al nostro paese e dopo il danno la beffa cioè la beffa di non averne capito le motivazioni ho visto lo sforzo di spiegarlo a televisioni unificate in conferenza stampa di spiegare le irragionevoli ragioni ho notato anche una certa spettacolarizzazione e questa evidentemente era necessaria che serviva a motivare la crisi da parte di chi l'ha innescata ma io mi perdonerete lo stesso non l'ho compresa sarà perché sono una semplice cittadina prestata alla politica e non un politico di lungo corso a me in piena pandemia una crisi appare comunque insensata è stato detto anche in quest'aula che una crisi serve per parlarsi per mettere al tavolo i temi e parlarsi no colleghi per parlarsi servono le parole non le crisi serve questa crisi è stato spiegato per mettere nero su bianco le difficoltà di una maggioranza già in crisi no non c'era nessuna crisi in atto era ed è perdonerete liturgia democratica conseguente al rosatellum cioè diverse forze politiche che con fatica dialogano usando le parole e trovando una strada comune per il bene del paese serviva questa crisi per spiegarci che la costituzione insomma non è una storia su instagram tranquilli tutti noi sull'importanza della costituzione e sul fatto che la costituzione non sia una storia da instagram lo abbiamo già definito e chiarito al referendum del 2016 di certo però colleghi io vi prometto che imparerò imparerò a comprendere la sintassi e l'arte di questa politica contemporanea se questa è almeno per comprenderla non non per emularla imparerò perché l'arte della politica alta o bassa che sia si può imparare la leale collaborazione no quella o ce l'hai o non ce l'hai e alla fine dinnanzi dinnanzi a tanta caparbietà nel voler spiegare davanti alla mia diciamo esterefazione di non sapere esattamente non capire ho chiesto di parlare col ministro spadafora per vedere se è possibile inserire tra gli sport estremi questo arrampicata sugli specchi con scivolata tripla ovviamente con fuoco pandemico sotto per vedere l'effetto che fa e presidente è sulla caduta messa a terra degli atleti e dei cittadini che nutro qualche timore vedremo presidente colleghi se in conseguenza di questa crisi dovessimo tornare tutti a casa io io lo farei a fatica e non perché un mestiere non ce l'ho io un mestiere ce l'ho da quasi vent'anni e mi porterebbe dritto in una classe di ragazzi tra i 16 e i 18 anni con quale faccia tornerei a dire cosa a questi ragazzi che abbiamo fermato tutto mentre i loro genitori avevano i negozi chiusi che abbiamo fermato tutto mentre i loro nonni morivano cosa devo dire ai miei ragazzi in classe e allora per l'onore di essere in Parlamento fatemi tornare in classe quando sarà tempo e potrò raccontare la grandezza di questo Parlamento fatemi tornare in classe quando potrò raccontare che l'Italia è stata grande al di sopra di se stessa allora da che parte vogliamo stare colleghi dalla nostra piccola partitica limitata parte o dalla parte degli italiani cioè dalla parte di tutti noi oggi non è tempo di essere egoici ma di essere eroici oggi si sceglie che cosa essere o che cosa diventare io confido confido in noi e confido in voi che avete più esperienza di me sono certa infatti presidente che oggi troverà dalla sua parte molti colleghi perché io nelle commissioni ne ho sentito il peso il valore la forza e so che molti sceglieranno in coscienza e avranno la capacità di scegliere ciò che è giusto ma non posso parlare per loro parlo per il Movimento 5 Stelle ecco il Movimento 5 Stelle dinnanzi al patto di legislatura alla visione di questo governo ai provvedimenti portati avanti e ai provvedimenti infieri a un paese lanciato su investimenti green a nuove strutture digitali a sempre più risorse per la scuola ad una medicina territoriale e presidente per un paese sempre più europeista con questa nuova Europa anche da noi rifondata grazie a lei il Movimento 5 Stelle sarà sempre al suo fianco perché è leale e serio la grandezza in pandemia serve e la grandezza non si improvvisa si dimostra e visto che la crisi che le crisi non trasformano le persone ma le rivelano oggi in quest'aula ognuno si rivelerà per ciò che è vedete colleghi è vero indietro non si torna il velo è caduto ma non è non è il re ad essere nudo siamo tutti noi davanti alla crisi davanti a ciascun cittadino italiano siamo tutti noi davanti nudi davanti al virus e permettetevi e concludo visto che con la frase di una fiabba qualcuno ha osato alzare questo polverone letale mi lasci ricordare a tutti noi e anche ai nostri bambini che sono a casa a cosa servono le fiabbe le fiabbe non servono per insegnare ai bambini che al mondo esistono i cattivi i mostri i draghi gli irresponsabili e i virus i bambini lo sanno già come lo sappiamo noi le fiabbe servono a insegnare ai bambini e anche a noi grandi che i cattivi i draghi i mostri gli irresponsabili e anche i virus si possono sconfiggere raccontiamo questa fiabba agli italiani noi siamo con lei ha chiesto di parlare la senatrice Leonardo ne ha facoltà per tre minuti grazie signora presidente e presidente del consiglio colleghi mai nella vita avrei avrei immaginato di fare oggi l'elogio del senatore Salvini e del suo glielo riconosco coraggio della responsabilità gli do atto che dopo un mese dalle elezioni riuscì con sprezzante senso del pericolo mediatico a rompere il patto di solidarietà politica con Forza Italia e Fratelli d'Italia e fece da costruttore per la inedita alleanza con gli odiati 5 stelle si disse da sinistra che l'operazione era trasformista e lui somiglia a Sevolta Mastella che tanto aveva criticato poi la legislatura andò avanti in modo ostentato nonostante i numeri elevati del sostegno parlamentare le liti ideologiche e la incomunicabilità crescente portarono alla divisione dalla rottura politica anche allora e c'era e non c'era il dramma esistenziale ed umano del covid il paese rumoreggiava e la collera montava contro le istituzioni ecco con un colpo di genio salire sul pacco scenico un protagonista indiscusso Matteo Renzi eletto col PD lascia il PD ne fonda uno suo di partito e realizza un capolavoro politico con il coraggio della responsabilità mette assieme Guelfi e Ghibellini dimentica le cattiverie lessicali le denunce giudiziarie da parte dei 5 Stelle miracolo fa un governo con loro i boatos da destra gridano a uno scandalo imita Mastella dicono alcuni ben noti media ed alcune vergini della moralità politica ferita quanto all'onorevole Meloni che ieri con fare plateale alla Camera ha parlato con disprezzo di una linea aerea della famiglia Mastella voglio ricordare a lei che con ipocrita con ipocrisia che se ne è dimenticata e la voglio dire a quest'aula oltre che agli italiani con l'onorevole Meloni utilizzò il confortevole aereo Scilipoti per conservare il suo posticino di ministro nel governo Berlusconi non lo dimentichiamo che reste dopo il duello con Fini solo grazie all'apporto di Scilipoti incredibile dimenticanza per una donna senza macchia che fa della moralità un suo ipocrita cavallo di battaglia per la storia la Meloni non fece il ministro grazie a Scilipoti fece il ministro grazie a Scilipoti perché non ebbe crisi di coscienza perché non fece l'eroina dicendo no ai voti che arrivavano dall'altra parte perché non si è vergognata di volare con le linee aerea di Scilipoti anzi saremmo curiosi di sapere come si stava sull'aerobus di Scilipoti che doppiezza morale ma ci faccia il piacere per dirla alla Totò una doppiezza ed un livore totalmente immorali arriviamo ad oggi il paese è terribilmente segnato da un apocalisse sanitario e sociale i partiti che sostengono il governo non si salutano politicamente più c'è in giro un senso di smarrimento senza precedenti un gruppo di parlamentari con il coraggio della responsabilità la stessa usata la prego perché tutti hanno parlato in più e la ringrazio molto grazie un gruppo di parlamentari le era già stato concesso prima che lei lo chiedesse grazie presidente lei è sempre tanto gentile un gruppo di parlamentari con il coraggio della responsabilità lo stesso mostrato da Salvini e da Renzi in altri momenti fa scelte non via ballo alla formula di governo ma di amore per il paese e si grida allo scandalo c'è una sostanziale differenza però e vado alla conclusione Salvini diventa responsabile il camandante con i gradi di vice premier Renzi tenta di calcificare la sua esperienza nata da non molto con una pattuglia di ministri questa parlo per me mia responsabilità non ha chiesto nulla non chiede nulla non chiederà nulla e non avrà nulla allora perché? perché chi come me è partita da ragazzina per l'estero come migrante con la sua famiglia ha sempre avuto per l'Italia distante un affetto smisurato la lontananza fa ragionare così signor presidente del consiglio oggi questo paese richiede da chi lo ama non crisi di governo ma slanci generosi e governabilità estremato sanguinante spaisato la ruota quadrata non gira più la forbice tra ricchi e poveri si allarga la classe media si avanza a fatiche la classe media balbetta nella insicurezza il bisogno è più marcato mezzo milione di disoccupati in più per queste ragioni mi sento responsabile costruttrice ditelo come vorrete e darò il mio voto al governo europeista del presidente Conte grazie presidente ha chiesto di parlare il senatore Lomutine a facoltà per cinque minuti grazie presidente illustri colleghi membri del governo signor presidente del consiglio nei prossimi mesi l'Italia si gioca tantissimo del proprio futuro sociale ed economico siamo una svolta improvvisa e anche drammatica della nostra storia negli scorsi anni abbiamo tutti creduto che la crisi finanziaria globale del 2007 fosse destinata a diventare per l'immaginario collettivo della nostra generazione quello che la grande depressione seguita al crollo di Wall Street del 1929 è stata per la generazione dei nostri nonni ma non avevamo fatto i conti con il coronavirus che ha generato una crisi mondiale senza precedenti e che ha determinato nuove disuguaglianze sociali e ha complicato anche l'agenda politica di questo governo presidente ringrazio lei i ministri e i tecnici tutti tutti per quello che avete fatto e state facendo e che continueremo a fare insieme siamo stati i primi a introdurre il lockdown una misura che ha generato sofferenza ma che è stata necessaria plaudo alla scelta di tutelare la salute per tutelare l'economia questo avveniva quando qualcuno qui dentro soffriva di schizofrenia comunicativa più di 150 miliardi messi in campo per tutelare le famiglie le imprese e i lavoratori primi in Italia nella sommistrazione dei vaccini abbiamo realizzato il super bonus per rimettere in moto l'edilizia attraverso la rigolificazione energetica di tutto il paese senza contare il ruolo importantissimo che ha avuto il reddito di cittadinanza che va potenziato migliorato nell'ottica delle politiche attive del lavoro purtroppo non ho tempo per menzionare tutte le azioni Presidente è grazie a lei si è cambiato il paradigma dell'Unione Europea nei confronti degli Stati membri non più rigorista ma inclusiva il Next Generation EU ne è la prova certo c'è ancora tanto da fare ma Presidente lei è la persona giusta al momento giusto perché dubito seriamente che qualcuno che qualcun altro a suo posto sarebbe riuscito a ottenere dall'Europa 209 miliardi da investire nel proprio paese e la prima sfida che non possiamo perdere è proprio quella del recovery plan 222 miliardi di euro spalmati su tre assi digitalizzazione innovazione transizione ecologica inclusione sociale e tutto vede il cittadino al centro della politica e non abbiamo smesso di lavorare a breve ci sarà lo scostamento di bilancio un nuovo decreto di ristori e allora perché questa crisi a mio avviso la causa sta nella troppa personalizzazione della politica cioè quando l'interesse delle persone delle famiglie delle imprese dei lavoratori viene anteposto a quello del partito o della propria persona che è quello che è già successo nel 2019 quando la storia di chi avviò quella crisi prevasse sugli spiriti nobili della politica una storia che al di là dei giornalini e delle televisioni genuflesse racconta la sua inaffidabilità e poca pochissima credibilità e questo fa male colleghi fa male alla politica e di conseguenza al paese e apprezzo la trasparenza la trasparenza del suo appello portando in quest'aula con il suo programma poi mi meravigliano le critiche da parte di chi l'accusa di mercanteggiare parlamentari quelle critiche che vengono da chi con razze e scilipotici ha governato da chi ha davvero sfilato senatori in questa legislatura alle altre compagini politiche e i colleghi di Fratelli d'Italia rivolgono invito non venite qui a rifarvi di una purezza politica che non avete la vostra leader ha alle spalle una lunga carriera politica fatta di tagli ai danni di cittadini italiani nella scuola nella sanità nelle infrastrutture c'è solo l'imbarazzo della scelta ha votato in consiglio di ministri il mess quando era ministra il pareggio di bilancio anche se adesso vi fincete contrari per fare opposizione ha votato il trattato di Dublino che penalizza l'Italia nella gestione dell'immigrazione ha fatto parte di quella maggioranza che ha votato in Parlamento la parentela tra Rubi e lo zio Mubarak ma veniamo a noi veniamo a noi Presidente lei Presidente ed ecco la differenza è qui alla luce del sole con una proposta chiara e precisa in piena trasparenza ecco la differenza vediamo chi ci sta è il giorno delle scelte noi siamo al suo fianco abbiamo ascoltato con molta attenzione ogni sua parola perché ogni parola qui oggi sarà un pezzo di futuro dell'Italia il suo programma e il suo appello semplice e chiaro alla nostra fiducia perché parla finalmente di un nuovo mondo Presidente alcune considerazioni mi fa molto piacere il suo riferimento al sud c'è una questione meridionale ancora aperta con un sud forte l'Italia sarà ancora più unita e possiamo farlo solo noi non chi ha nella sua genesi l'odio e possiamo farlo solo noi non chi ha nella sua genesi l'odio verso il meridione che avrà generato pure qualche rappresentante istituzionale al sud ma che non si rendono conto di essere solo ossimori politici viventi bene la tutela sulle minoranze linguistiche la comunità la Brescia ad esempio che è patrimonio del nostro paese attende questo intervento bene l'attenzione al rispetto delle norme per la tutela sull'ambiente serve una forte riforma della macchia dello Stato adesso avanti con digitalizzazione innovazione rivoluzione verde transizione ecologica spingiamo sull'idrogeno verde infrastrutture per una mobilità sostenibile istruzione ricerca inclusione e coesione la salute rafforziamo la sanità interveniamo sul titolo quinto della Costituzione Presidente se è vero che il modo in cui scegliamo di vedere il mondo è il modo in cui il mondo sarà allora in questo progetto di rinascita dell'Italia noi siamo con lei per noi la fiducia nei suoi confronti resta immutata grazie ha chiesto di parlare il senatore Gasparri ne ha facoltà per cinque minuti grazie Presidente il Conte 1 era per il sovranismo e ci spiegò che la Costituzione dice che la solanità appartiene al popolo lo sapevamo il Conte 2 ha decretato morte al sovranismo il Conte 1 diceva viva Trump qualcuno lo accusa addirittura di loschi traffici con Trump il Conte 2 dice viva Biden dica anzi a Biden di lasciare un po' di vaccini della Pfizer per l'Europa visto che pare che quei vaccini vadano più alla corte di Biden che in Europa Arlecchino fu servitore di due padroni lei potrebbe andare oltre la fantasia goldoniana e fare il presidente recordman come dice Monti di tre maggioranze dice di avere un chiaro progetto quale? abbiamo avuto in percentuale più morti di altri paesi sui vaccini come altri paesi stentiamo guardate Israele che sta facendo non ci sono ristori adeguati perché questo è avvenuto lei parla di forte contenuto ideale di voltare pagina e ci concede bontà sua di discutere il recovery plan in Parlamento è un dovere della democrazia confrontarsi col Senato e col Parlamento non una concessione di Conte la legge di stabilità però ce l'avete fatta esaminare in un giorno questa è stata la trasparenza del Parlamento lei fa gli esami di europeismo a chi? a noi Forza Italia fa parte del PPE e rivendica con Berlusconi con Tajani l'azione perché si dessero soldi ai paesi che hanno sofferto per il virus venuto dalla Cina e non si arroghi i meriti che non ha lei è stato bocciato agli esami di europeismo oggi prenda i giornali gentiloni vostro amico ha bocciato il piano sul recovery plan perché non ci sono cronoprogrammi e proposte serie caro Monti ne ha letto i giornali oggi lei che ha dato il timbro di europeismo a questi somari questo è successo state in ginocchio davanti alla Cina che nega la libertà la democrazia che fa concorrenza sleale alle aziende italiane ed europee avete abbandonato le partite IVA e quando non state in ginocchio davanti alla Cina state in ginocchio davanti ad Amazon a Google a Facebook perché in questi giorni si doveva pagare la web tax e non è stata pagata lo avete fatto apposta o perché siete incapaci io credo che ci sia qualcosa sotto lei parla di ritorno al proporzionale non ci sarà questa restaurazione perché il centrodestra unito che persegue le ragioni del bipolarismo della democrazia diretta del presidenzialismo così come Berlusconi indicò molti anni fa vuole dire no a una legge che serve solo al trasformismo altro che apertura verso alcuni settori del centrodestra è esattamente il contrario e siccome la legge elettorale appartiene al Parlamento sarà il Parlamento a impedire questa restaurazione ha scoperto i cattolici ma cosa ha fatto per la famiglia per tutelare la vita nascente per tutelare i bambini le madri che non hanno sostegni nulla nulla meditate eutanasia ed altro e avete ripristinato nei giorni scorsi la orrenda dicitura genitore 1 genitore 2 questa è la vostra politica per i cattolici e lo sanno tutti guardi lo sa anche la mia amica Paola Binetti avete assistito inerti alla svendita di aziende italiane ora anche l'Iveco dovrebbe essere venduta avevate festeggiato il futuro della Whirlpool andateci oggi con Di Maio alla Whirlpool in Campania che sta per chiudere i battenti avete assistito lo dico ai colleghi che difendevano i consumatori alla vergognosa nomina di Padoan che è andato dai banchi del Parlamento del PD alla presidenza di Unicredit per coprire le magagne del Monte dei Paschi di Siena i disastri fatti a spese dei cittadini dalle gestioni caro Monti del PC PD SPD la sapeva questa se ne è accorto di questo sconcio Padoan Unicredit MPS i docenti di conflitto di interesse sono in ferie dovevate aprire la scatoletta di tonno del Parlamento siete riusciti nel prodigio di sigillarla dall'interno vi daranno il premio Nobel dell'ingegneria vi siete sigillati avete risaldato la scatoletta questo avete fatto avete abusato di decreti di voti di fiducia di di PCM siete voi grillini la super scasta eravate contro il problema del trasformismo eravate per il vincolo di mandato e state inseguendo tutti e caro Conte non sono costruttori non abusate del termine usato da Mattarella quelli che rincorrete sono i palazzinari quelli che facevano le case abusive e che non hanno la licenza edilizia non è che con qualche palazzinara in più lei va lontano anche noi quando pensavo di andare lontano in Parlamento o Prodi anni fa erano diversi i senatori a vita ma il sistema e l'applauso era lo stesso per cui non è che a Rolando più Fantetti che Fantocci andrà lontano né con i moderati Lombardi di Sala e Tabacci e neanche adesso Di Maio cambierà nome si chiamerà Di Maie come lei era Giuseppi Gigino si chiamerà Di Maie metterà un nuovo nome questo è il governo Di Maie questo è per cui noi siamo e che un ultimo appello solidarietà alle maestranze della piattaforma Russo che sono in sciopero e non interpellano il popolo grillino per sapere che cosa ne pensa le dirette streaming la piattaforma Russo l'avete usata per giudicare i voti anche della giunta che presiedo ora in sciopero saranno stati licenziati avete cancellato la democrazia per stare qui dentro ieri sera ho concluso presidente la Sette ha trasmesso il film presidente Conte l'arte di arrangiarsi io non so se l'hanno fatto perzando a lei è un vecchio film di Alberto Sordi che faceva il socialista il fascista il comunista il democristiano me lo sono visto non lo vedevo da tempo la differenza è che Alberto Sordi era un grande attore e faceva ridere lei fa piangere l'Italia e per questo voteremo no ha chiesto di parlare il senatore Romeo ne ha facoltà per dieci minuti sì grazie presidente presidente il consiglio membri del governo onorevoli colleghi una premessa è doverosa penso anzi noi pensiamo ci sia una distanza siderale tra quello che è il paese reale e quello che invece è il palazzo paese reale abbiamo della gente che non ce la fa più se va bene fanno il dieci per cento del fatturato ci abbiamo code davanti alla Caritas il ceto medio sta crollando la gente esasperata presidente ci sono un sacco di persone che si auguravano un inizio di 2021 decisamente migliore dall'altra parte invece c'è il palazzo il palazzo che fa di tutto per conservare il potere il potere per il potere davvero uno spettacolo indecoroso abbiamo visto in questi giorni tentativi di convincere parlamentari improvvisi sblocchi di risorse in quel di Benevento che è diventato l'ombelico del mondo da qualche giorno a questa parte davvero tutto incomprensibile da parte di tantissimi cittadini poi tutto questo trionfalismo signori guardate che siamo sull'orlo di una rivolta sociale c'è poco da festeggiare fra poco ci vengono a prendere e non sto scherzando sono i rischi veri della politica tenete a mente quello che sto dicendo adesso ma veniamo al suo discorso signor Presidente del Consiglio devo dire che sono abbastanza simili i suoi discorsi mi sono riletto in quello del 10 settembre del 2019 insomma le parole sono sempre le stesse lavoriamo per l'interesse nazionale me le sono segnate perché sono veramente molto carine società più equa ed inclusiva programma da riformare nuovo umanesimo che oggi invece è diventato il primato della persona vocazione europeista bla 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 ma Presidente lei ci spiega che cosa ha fatto a parte di PCM in questo anno e mezzo di governo lo vuole spiegare gli italiani sento dire questa maggioranza ha raggiunto convergenza di vedute e risolutezza di azione scusi Presidente ma lei dove vive il suo governo è il governo dei rinvii del salvo intese dell'immobilismo dell'incapacità di agire mi spiega che fine ha fatto la riforma della giustizia mi spiega dopo un anno e mezzo dello sblocco a cantieri che non sono ancora stati nominati commissari per sbloccare le grandi opere mi dice lei che ha in mano la delega il codice degli appalti dov'è uno straccio di bozza di riforma del codice degli appalti ci dice ci dice dov'è la riforma della pubblica amministrazione la riforma fiscale ma lei nel suo discorso ci ha detto c'è stata la pandemia e quindi abbiamo dovuto avere altre priorità Presidente e lo dico a tutti i colleghi guardate che le riforme sono fondamentali per uscire dalla pandemia quando voi parlate del recovery fund 20 miliardi di qui 30 di là 40 di su 50 di giù va bene ma sappiate che se non fate le riforme chiedete al senatore Monti che se ne intende di questioni europee se non fate la riforma della giustizia la riforma della pubblica amministrazione la riforma del lavoro l'Europa i soldi non ve li dà e non ce li dà questo è il problema vero non ce li danno i soldi dall'Unione Europea non basta fare un documento scritto con 300 paginette questi sono i nostri progetti perché ci sono delle condizionalità chiare ed evidenti che sono quelle di fare le riforme allora presidente secondo lei com'è possibile che riesca a fare con un manipolo di responsabili quelle riforme che in un anno e mezzo di tempo non è riuscito a fare spiega come sia possibile lei fa un appello a chi ai socialisti ai popolari ai riformisti ai liberali ma signori ci rendiamo conto di che tipo di governo si va incontro ad una situazione del genere cioè alla fine vorrebbe dire conciliare posizioni diametralmente opposte tema della giustizia come si fa a conciliare me lo vedo poco conciliare il garantismo della cultura tradizionale di centro con il giustizialismo di Bonafedi di Travaglio ma come è possibile sarebbe impossibile questo così come sul tema della famiglia e delle politiche per la famiglia ma come si fanno a conciliare i valori di madre e padre con genitore 1 e genitore 2 ma come è possibile a tutto c'è un limite non si può mettere insieme il diavolo e l'acqua santa allora Presidente non usate neanche non è neanche più credibile il vostro appello alla vocazione europeista Presidente glielo dico con tutto l'affetto possibile le stesse le stesse cancellerie europee non ne possono più di lei sono indispettite per i bonus e le mancette che continua a spendere la spesa improduttiva che è esattamente l'opposto di quello che l'Europa ci chiede questa è la verità 20 miliardi su 40 miliardi su 40 miliardi di manovra di manovra economica e poi diciamocelo anche sugli incontri bilaterali lei è penultimo nella classifica è uscita di recente questa testimonianza che l'Europa l'Italia in Europa è assolutamente isolata cambiate registro non c'è più questa questione qui le stesse cancellerie non vi vogliono più sono stanche non si può neanche dire poi presidente prendiamo un voto in più e poi vediamo quel che succede alla ricerca sostanzialmente di un contela qualunque un governo ca di carta ma vergogna un minimo di decenza il paese ha bisogno di una guida forte sicura decisa con una prospettiva siamo in piena pandemia siamo in piena crisi economica ci vuole un governo saldo con una guida certa quello che sicuramente oggi lei non ha ne prenda atto rispetto a quella maggioranza politica di cui parlò tanto il presidente della Repubblica dell'agosto del 2019 senza Renzi questa maggioranza politica non c'è più ne prenda atto e presenti e rassegni le proprie sue dimissioni a maggior ragione se non arrivate neanche a 161 sarebbe un atto politico grave non avere la maggioranza assoluta avete paura del voto perché qualcuno dice certo c'è paura del voto e quindi dai lo sapete benissimo che non si andrà a votare voi pensate magari potremmo dire noi lo sapete bene che non si andrà a votare figuriamoci se non c'è un piano B un piano C un piano D un piano E figuriamoci se mandano a votare oggi che il centrodestra è maggioranza del paese non ci credo non ci credo si tratta solo di capire si tratta solo di capire se c'è un'alternativa al presidente del consiglio Conte e un'alternativa a questo governo bene diamo la parola al capo dello Stato sarà lui a valutare e a verificare quello che sta per succedere in maniera molto trasparente palese mi avvio la chiusura dicendo poi è possibile che presidente che l'Italia sia ostaggio di lei gli italiani dei suoi BPCM la maggioranza giallorossa sembra che questo Conte sia davvero intoccabile e io sinceramente non me lo spiego perché il PD si butta tra le sue braccia quando sa benissimo che col sistema proporzionale farà il suo partito e gli porterà via anche un po' di voti veramente difficile da capire questa almeno gli interessi del proprio partito non dico quali del paese però so bisognerebbe ogni tanto tenerli in considerazione i 5 stelle sono stati snaturati da Conte signori parliamoci chiaro col presidente del consiglio oggi l'uno vale uno è diventato l'uno vale l'altro mi sembra abbastanza chiaro cioè questo è il tema vero che dobbiamo affrontare addirittura abbiamo sacrificato avete sacrificato pure in nome di Conte due giovani brillanti leader come Di Maio e Di Battista in nome di che cosa? di che cosa? in nome di snaturare completamente un partito politico dopo che il presidente del consiglio è il primo che ha lanciato un'opa proprio sul momento 5 stelle ma dico ma un po' di dignità un po' di volontà di difendere quello che è sempre stato allora come mai? come mai questo Conte non si può toccare? come mai? chi sarà mai questo presidente del consiglio così intoccabile che addirittura sembra si muovino pure tutti i poteri forti monsignori cardinali non voglio dire altro per cercare in qualche modo di farle ottenere la fiducia come mai? come mai c'è il presidente del consiglio che riesce così a concentrare tutto il potere nelle mani di poche persone azzerando le garanzie costituzionali e di fatto anche i diritti di libertà ma come sembra possibile tutto questo? ma è possibile davvero? no a nostro giudizio ci ricorda vero presidente quando diceva che abbiamo bisogno se lo ricordo a questo intervento lei disse non abbiamo bisogno di uomini con i pieni poteri ma con senso delle istituzioni proprio lei parla ma si dimetta solo per questo solo per questo si dimetta è un po' come adesso che fa l'appello dice che ha fiducia nei parlamentari dopo che un anno e mezzo che del Parlamento se ne strafrega ma è davvero il clamoroso quanta ipocrisia presidente quanta ipocrisia siamo sicuri allora e mi avvio davvero chiudere che il problema fosse prima Matteo Salvini e oggi Matteo Renti non è che gli è venuto il dubbio presidente che il problema sia proprio lei per l'Italia in questo paese così almeno il dubbio e chiudo davvero prendendo spunto proprio dalle sue parole quando lei parla di spirito giusto della politica la politica declinata nello spirito giusto ecco presidente sinceramente io quando penso alla politica declinata nello spirito giusto penso agli ideali che l'hanno resa alta nel corso della storia non a un presidente del consiglio che oggi dice di avere degli ideali e dei principi ma all'occorrenza domani neanche altri io questo lo giudico sinceramente molto pericoloso per la democrazia e per tutto il nostro paese lo dico senza nessun tipo di problema così come mi auguro che il Parlamento non perda questa finestra importante di crisi politica e alla fine abbia davvero un po' la volontà di riscatto perché usando uno slogan tanto caro alla sinistra un altro governo è possibile un altro presidente del consiglio è possibile grazie grazie ha chiesto di parlare il senatore Santillo ne ha facoltà per sei minuti presidente colleghi presidente del consiglio e componenti del governo siamo nel pieno del periodo più drammatico dal dopo guerra contiamo giorno dopo giorno centinaia di vittime sebbene il vaccino comincia a illuminare la via della speranza nel mezzo ci sono provvedimenti anti-covid lo scostamento di bilancio i ristori per un paese provato sul piano morale ed economico qualcuno trascinato da un ego ipertrofico ha ritenuto di dover innescare una crisi di governo in un momento di così grande sofferenza nel quale tutta l'Italia si aspetta forza e coesione da parte di tutte le istituzioni la stessa forza e coesione che il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha interpretato e ha saputo far interpretare con il costante stimolo del movimento 5 stelle in altri momenti delicati della vita del paese per esempio in occasione del DL Genova provvedimento intervenuto su un intero sistema infrastrutturale stradale insicuro perché non sottoposto alle dovute manutenzioni la ricostruzione del ponte di Genova è diventata così un esempio per altri interventi da realizzare facendo ricorso a commissari con norme adeguate ed un perimetro ben definito la stessa forza e coesione che il presidente Conte e questo governo hanno dimostrato tra i tanti esempi che si possono fare nell'ultimo decreto legge semplificazioni con cui abbiamo messo in campo misure per superare alcuni meccanismi oramai incancreniti che rallentano fortemente l'attuazione dei lavori pubblici in Italia queste nuove norme che consentono l'accelerazione delle procedure di affidamento ed esecuzione di servizi e lavori saranno fondamentali per concretizzare nel minor tempo possibile i progetti finanziati nel piano nazionale di ripresa e resilienza così andrà anche incontro alle esigenze del collega Romeo progetti che per le sole infrastrutture per una mobilità sostenibile valgono ben 32 miliardi di euro con le stesse misure e potremo realmente colmare il gap infrastrutturale esistente tra nord e sud per esempio completando opere ferroviarie come la direttrice Napoli-Bari velocizzando la Sarenno-Reggio Calabria la Salerno-Taranto la Palermo-Catania-Messina la Roma-Pescara e potremo realizzare interventi di upgrading ed elettrificazione delle linee ferroviarie regionali allo stesso tempo saremo in grado di garantire anche la manutenzione delle nostre strade e delle relative opere d'arte nonché di garantire l'intermodalità e la logistica con l'obiettivo di potenziare la competitività del sistema portuale italiano questi sono tutti obiettivi raggiungibili in pochi anni che necessitano di una immediata partenza per non sprecare le potenzialità del recovery fund ottenuto in Europa grazie alla credibilità di questo governo grazie a Giuseppe Conte e all'apporto costante del Movimento 5 Stelle e non è concepibile inventarsi crisi senza alcun fondamento dettate solo da un cinismo politico del tutto incompatibile con gli interessi del Paese allo stesso modo è inconcepibile provare a giustificare la crisi col pretesto di contenuti inesistenti mi riferisco all'ennesimo richiamo al mess fatto da Italia Viva strumento che non ha nulla a che vedere che non recovery plan che non suscita l'interesse di nessun Paese dell'Eurozona che nelle condizioni in cui il nostro Paese oggi si finanzia sui mercati non serve nemmeno a farci risparmiare sui tassi di interesse che ormai non trova il favore di nessuna forza presente in quest'Aula e che quindi nessuna maggioranza accetterebbe il mess che non serve nemmeno a reperire i fondi per la sanità dal momento in cui il recovery plan anche grazie al contributo di Italia Viva le risorse per la sanità sono salite a 20 miliardi di euro il mess il mess il mess è un pretesto era chiaro mesi fa ed è ancora più chiaro oggi il Movimento 5 Stelle sa che questa operazione è in grado di produrre smarrimento nei cittadini per questo è massima la nostra consapevolezza di dover fare quadrato intorno al Presidente Conte per continuare a sviluppare i tanti progetti messi in campo per il Paese a tal proposito non posso non ricordare uno dei volani concepiti da questo governo e fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle sto parlando del super bonus 110% dopo una prima fase di partenza in sordina sia per lo scetticismo degli operatori e sia per l'esigenza di una completa e dettagliata informazione dell'opinione pubblica finalmente si vedono i primi reali e concreti risultati migliaia di cantieri in tutta Italia da nord a sud diverse centinaia di milioni di euro riconosciuti in compensazione fiscale a tutto l'anno 2020 migliaia di imprese che stanno trascendo ancora di più il numero delle imprese esistenti che si stanno organizzando per far fronte alle richieste di efficientamento energetico e adeguamento antisismico in tutto il territorio a proposito e notizia di questi giorni Fonte Union Camere che nel 2020 il saldo tra le imprese cessate e costituite è positivo nonostante le crisi ci sono circa 19.000 imprese in più dimostrazione dell'efficacia delle misure del governo a supporto della resilienza del nostro tessuto produttivo il super bonus misura diventa una bandiera per questo governo che tra l'altro sta ispirando altri paesi europei e che vogliamo prolungare il più a lungo possibile per questo motivo è e resterà uno dei punti fermi contenuti nel PNRR il recovery plan da 222 miliardi di euro fondamentale risultato ottenuto dal governo in Europa è un inutile girarci intorno è anche la voglia di controllo e gestione di queste risorse a nascondersi dietro l'irresponsabile tentativo di delegittimazione di un governo che ha invece dimostrato e sta dando dimostrazione di essere sempre all'altezza della situazione è incredibile esporre in questo momento il paese a rischio di non poter risalere la china rinnovo però la mia fiducia al presidente Conte perché ha già ampiamente dimostrato di possedere il profilo di cui ha bisogno il paese per uscire da questa crisi storica non è il momento di mollare il presidente Conte non mollerà noi non molliamo ha chiesto di parlare la senatrice Sant'Anche ne ha facoltà per cinque minuti grazie presidente onorevoli colleghi mi rivolgo a lei presidente del consiglio anche se non le nascondo che non so a chi sto parlando perché vede non capisco se oggi sto parlando all'orgoglioso sovranista o al fiero antisovranista sto parlando oggi all'amico degli Stati Uniti o sto parlando forse all'amico della Cina sto parlando a colui che approvava i decreti sicurezza per smantellare l'immigrazione clandestina o forse presidente sto parlando con chi quei decreti sicurezza li ha sbaraccati a braccetto con chi dell'immigrazione clandestina ci fa business non so oggi se sto parlando con quello che annunciava poderosi interventi economici a favore delle imprese o forse oggi sto parlando a quello che nonostante la pandemia sta riempendo gli italiani di cartelle esattoriali vede presidente lei per me è uno nessuno centomila come la maggioranza come le sue maggioranze che lei cambia con la stessa facilità con la quale stamattina ha cambiato la sua famosa pochef termina rimanere incollata a quella poltrona lì dove oggi ancora siede lei presidente non ha valori ma ha soltanto convenienze lei non ha a cuore l'interesse degli italiani ma il suo interesse di non abbandonare come si dice a casa mia la cadrega e se questo è triste perché è triste in generale ma diventa letale oggi per la nostra nazione nel pieno di una pandemia guardi ammesso e non concesso che forse lei oggi uscirà da palazzo madama io sono certa non con la maggioranza assoluta ma avrà una maggioranza forse che sarà un'accozzaglia trasformista con un governo come ho già detto stamattina contela qualunque che va bene tutto per tutte le stagioni e mi creda presidente nemmeno il suo fido Rocco Casalino riuscirà a spacciare questa maggioranza degna di tal nome i suoi governi lo sappiamo sono nati su accordi di palazzo di partiti che si erano presentati in campagna elettorale come avversari con programmi politici contrapposti e oggi c'è un altro elemento tutte le rilevazioni fanno capire che la maggioranza degli italiani lei non la rispecchia più ma che grazie a Dio è in mano saldamente al centrodestra e oggi non ha nemmeno il sostegno di una maggioranza parlamentare vera politicamente decorosa e aggiungerei presentabile io vorrei soltanto che lei mi rispondesse a una solo a una domanda presidente mi farebbe piacere capire che concetto lei ha della democrazia che cos'è per lei la democrazia è quella della Cina che il suo governo ringraziava calorosamente dopo che ci rivendevano le mascherine che il vostro governo aveva regalato nella prima fase di pandemia oppure mi deve dire o forse deve ascoltare un altro elemento che secondo noi è ghiacciante che il governo dovrà rispondere guardi non solo economicamente il suo governo dovrà rispondere anche moralmente e questo presidente lei è un avvocato educato è brutto vederla così messaggiare al telefono mentre un rappresentante del senato della repubblica parla ma capisco che l'educazione non abita più in questo palazzo vede quel dato ghiacciante rappresentato dal numero 7 il 7% che è quello che le imprese hanno avuto dai fantomatici vergogna presidente quel 7% che le aziende lei lo sa per le chiusure hanno perso 423 miliardi di fatturato e voi ne avete dati 29 miliardi vergogna altro che costruttori non so se voi sarete ricordati della storia ma una certezza ce l'ho sarete ricordati per essere i distruttori i distruttori di questo sistema paese di quella straordinaria ossatura delle piccole e delle medie imprese che voi le state ammazzando questo è il tema ma io capisco che pur di raccattare il voto di qualche poltronaro che certo è in servizio permanente effettivo lei ha dichiarato una cosa vergognosa in questo momento che il suo governo si attiverà per una legge elettorale proporzionale ma le ricordo presidente che dovrebbe essere il parlamento a farlo che per lei mi arriva via le conclusioni presidente grazie che per lei il parlamento forse un appendice della sua pagina facebook lei oggi impegna il suo governo con una legge elettorale con alle spalle un 2020 che ha visto chiudere 300.000 imprese che ha perso migliaia di posti di lavoro nonostante il blocco dei licenziamenti io avrei voluto sentire oggi che lei ci parlasse degli indennizi degni di questa parola che ci parlasse dei vaccini no lei ci parla di legge elettorale lei presidente sta mettendo il palazzo contro il paese reale e di questo dovrà poi rendere conto agli italiani ci aveva detto che dovevamo sopportare le chiusure le serrate i dividiti dell'emergenza sanitaria bel risultato la vostra ricetta chiudere il paese non è servito molto siamo ultimi nella pandemia economica con un PIL meno 10% e nella pandemia sanitaria col tasso di mortalità più alto d'Europa concludo presidente lei oggi in quest'aula ha detto una cosa dobbiamo rinnovare il patto di fiducia tra cittadini e istituzioni che deve essere reciproco deve svilupparsi in una relazione più univoca presidente ha ragione sono d'accordo con lei questo patto si chiama voto esca da palazzo madama vada al Quirinale a dimettersi e porti l'Italia al voto trovi un sussulto di divinità grazie ha chiesto di parlare il senatore Quagliariello ne ha facoltà per sei minuti signor presidente colleghi senatori signor presidente del consiglio signori del governo di fronte alla crisi la componente che rappresento ha proposto un governo di salvezza nazionale a proporlo in realtà è la situazione eccezionale nella quale ci troviamo supereremo presto i centomila morti supereremo il centosessanta per cento nel rapporto tra debito e pil abbiamo alcune categorie autonomi professionisti operatori dell'economia di prossimità che sono letteralmente in ginocchio abbiamo un piano vaccinale irto di difficoltà imprevisti abbiamo un tempo da recuperare affinché il nostro piano recovery risulti credibile in Europa unità nazionale dunque se non ora quando un paese che si nega questa possibilità anche in emergenza è un paese più debole e noi signor presidente di debolezze ne abbiamo sin troppe una parte delle difficoltà che ho evidenziato sono oggettive e comuni anche ad altri paesi una parte nella nostra analisi derivano invece da scelte del governo che non abbiamo condiviso dall'ambito istituzionale a quello economico fino a quello delle scelte di fronte all'emergenza della pandemia e per questa convinzione come lei sa signor presidente del consiglio fin qui non le abbiamo mai votato la fiducia anche per questo dall'opposizione abbiamo ritenuto e riteniamo che diverse delle argomentazioni avanzate dai colleghi di Italia Viva iniziando da quelle sul mancato utilizzo del MES nel merito siano condivisibili mentre non abbiamo condiviso non abbiamo compreso i modi e soprattutto i tempi nei quali la crisi è stata da loro proposta la democrazia non è sempre uguale la democrazia sa tener conto delle circostanze averlo ignorato rischia di svilire agli occhi dell'opinione pubblica anche molte giuste ragioni la domanda che però ci siamo posti è la seguente può una crisi sbagliata nei tempi e nei modi che si è generata e si è sviluppata tutta all'interno della vecchia maggioranza portare chi si è fin qui opposto al suo governo a modificare il proprio giudizio su esso lei signor presidente ieri e lo ha ribadito oggi ha rivolto un appello alle forze democratiche liberali europeiste antisovraniste è stato un appello generico troppo generico mi ha riportato alla mente l'utilizzo della categoria dell'antifascismo che si faceva negli anni settanta tanto abusata da farle smarrire ogni significato reale allora contro quel rischio ci mise in guardia un grande intellettuale comunista e conservatore Pierpaolo Pasolini signor presidente non rinnoviamo quell'errore la mia componente democratica liberale asovranista europeista perché si rifà l'Europa dei padri fondatori non per questo però pensa di dover abbandonare l'opposizione lei d'altra parte proponendo un governo che non cambia neppure il suo numero cardinale stiamo sempre parlando del conte 2 ha legittimamente rivendicato il lavoro fin qui svolto quello al quale noi ci siamo fin qui legittimamente opposti e ovviamente è partito dall'attuale maggioranza Movimento 5 Stelle PD l'EU ha chiesto agli altri cito dal suo discorso di arricchire questa base insomma di aggiungersi nessuna trasformazione dunque né della formula né del contesto programmatico nel quale essa dovrebbe cadere se non l'accenno ancora vago alla proporzionalizzazione del sistema insomma quella che lei ha avanzato alle opposizioni antisovraniste e lo ribadisco noi di idea e cambiamo ci riteniamo piuttosto asovranisti perché anche su questa categoria dovremmo intenderci in termini tecnici non è neppure stata una proposta trasformista come è stato detto come lei sa signor Presidente come lei mi insegna nella definizione che ne diede Agostino De Pretis il trasformismo implicava per l'appunto una trasformazione sia per chi aderiva al governo sia per il governo stesso che modificava il suo centro di gravità spostandosi a seconda dei casi più a destra o più a sinistra più verso la monarchia o più verso il Parlamento in termini tecnici signor Presidente lei ha chiesto un'annessione per questo la risposta alla domanda se sia sufficiente constatare l'assurdità di una crisi per cambiare giudizio sul governo in questo caso è no semmai quanto è accaduto rafforzo il giudizio di insufficienza sul governo nel quale quella crisi si è generata ed è stata alimentata e rispetto a questo che si chiede oggi una sostanziale continuità sebbene con qualche arricchimento rafforza la convinzione che il Paese avrebbe bisogno di qualcosa d'altro e di qualcosa di più amizioso signor Presidente l'Italia in realtà necessita di cambiamenti profondi siamo persuasi che il sistema politico è la stessa politica quando finalmente volteremo questa terribile pagina della nostra storia nazionale non saranno più gli stessi metterci in gioco per rispondere a questa esigenza non ci fa paura e non ci porterà mai a tirarci indietro farci annettere no per una questione di sostanza ma anche per una questione di stile e Dio sa quanto oggi c'è bisogno anche di chi in politica sappia preservare lo stile grazie ha chiesto di parlare la senatrice Pinotti nella facoltà per sette minuti grazie presidente signor presidente del consiglio membri del governo onorevoli colleghi devo ammettere che ho vissuto con sofferenza politica e personale questa crisi ho vissuto con disagio il fatto che mentre il mondo il nostro paese stava vivendo una difficoltà così inaspettata terribile inaudita la politica che ha responsabilità che deve rassicurare che deve rasserenare diventava un altro elemento di ulteriore preoccupazione e di ulteriore insicurezza per i nostri concittadini e mi sono passate davanti le immagini della sofferenza di chi ha perso un proprio caro di chi ha malato in ospedale e sta trepidando nell'attesa di sapere come staranno o anche non so se succede anche a voi quando usciamo di qui all'ora di pranzo ci sono i ristoratori qua intorno che preparano i tavoli si mettono vestiti di tutto punto nell'attesa di quei turisti che oggi purtroppo non possono arrivare io ho pensato ai ragazzi e alle ragazze noi tutti i genitori abbiamo passato anni a dire non state troppo davanti ai video smettetela con il computer con i videogiochi con il telefonino ora non per videogiochi perché la DAD lo necessitava però hanno vissuto un momento fondamentale della loro formazione privati di parti che sono comunque importanti e significative mi sono passate davanti quindi le sofferenze degli italiani ma anche la forza e la dignità che i cittadini ci hanno dimostrato tutti con la consapevolezza che l'Italia vive un dramma mai vissuto una guerra virale per la quale occorre coesione per superare questo momento e in un momento così drammatico perché si dà vita ad una crisi che costringe la politica a concentrarsi su se stessa invece che dare tutte le energie per sostenere il paese e portarlo fuori dal dramma che sta vivendo io chiedo ai colleghi se non altro un po' di gentilezza e di cortesia non di ascoltarmi ma almeno ecco di consentirmi di parlare effettivamente c'è troppo brusio o c'è anche un assembramento non possibile nell'emiciclo per cortesia sgombrate nel nostro paese grazie grazie c'è sconcerto e incomprensione per questa crisi e devo dirvi con sincerità è uno sconcerto che ho vissuto anch'io a che cosa è servita questa drammatizzazione per dire che occorre un cambio di passo ma noi per primi da novembre diciamo che occorre un cambio di passo perché con la pandemia è cambiato tutto e occorre un rilancio del governo per essere in grado di essere all'altezza oppure per migliorare la recovery plan ma tutti i partiti hanno lavorato sul primo documento portando delle proposte lo abbiamo fatto noi l'hanno fatto i 5 stelle lo ha fatto Italia Viva e a detta di tutti comunque il documento è migliorato grazie all'apporto di tutti ancora potrà migliorare in Parlamento quindi perché una crisi? per avere il fatto di legislatura? ma anche questo noi lo sosteniamo con forza da mesi occorre un chiaro perimetro e una prospettiva politica un patto coeso e forte per far vivere con forza la politica in un'azione del governo che deve essere forte e all'altezza della gravitas che il nostro paese sta vivendo della situazione così difficile quindi come partito democratico noi non comprendiamo i motivi di questa crisi e come partito democratico voteremo con convinzione la fiducia si deve lavorare per costruire e non per distruggere e guardi Presidente del Consiglio noi voteremo la fiducia perché con questo governo l'Italia ha finalmente ripreso quella parte della sua storia che è fondamentale nella sua identità l'Italia è uno dei paesi fondatori dell'Europa di essere protagonisti in Europa è fondamentale e è vero il protagonismo dell'Italia ha aiutato anche l'Europa a migliorare a non essere più solo attenta alla stabilità e ai conti ma a capire che oggi è il momento di investire sul sociale sul lavoro sulla Green New Deal sulle nuove generazioni ma pensiamo davvero che avremmo ottenuto così tante risorse e così tanto credito con un governo sovranista anche europeista e poi signor Presidente il governo ha affrontato una difficoltà inedita che mai nessun governo in Italia si era trovato ad affrontare lo ha fatto facendo anche errori lei lo ha riconosciuto ha fatto bene a dirlo nel suo discorso ma dando davvero tutto l'impegno possibile per fare del proprio meglio questo glielo riconosciamo e lo riconosciamo a tutto il governo e finiamola con la narrazione di un governo fallimentare sulla pandemia il numero dei morti in Italia è alto è vero ma qualcuno può imputarlo alla conduzione nella pandemia da parte del governo ci sono debolezze che riguardano l'anzarità che si riferiscono a periodi pregressi e c'è stata una diffusione del virus che difficilmente diciamo qualsiasi provvedimento del governo poteva immaginare o fermare quindi io credo che nell'emergenza pandemica il governo al netto degli errori che ciascuno di noi avrebbe potuto fare si è comportato con dignità ed onore ora signor presidente in questa fiducia che noi le rinnoviamo le chiediamo anche di andare avanti e di andare avanti per una nuova e forte ripartenza come? definendo il perimetro politico politico di una rinnovata maggioranza che deve essere forte e coesa con quel patto di legislatura che lei ha ricordato nel suo discorso lei ha detto molte cose che si possono fare in questa legislatura e io le sottoscriverei tutte ma voglio sottolineare qui in particolare il tema delle riforme istituzionali perché non è altro rispetto al far funzionare bene lo Stato parlare delle regole del gioco parlare di come funziona lo Stato di qual è il rapporto tra state e regioni è fondamentale per cui tutte le altre riforme a cascata possano funzionare quindi è una parte importantissima e concludo ricordando che se l'europeismo è la cornice identitaria di questa maggioranza di questo governo noi adesso abbiamo bisogno in quel riferimento valoriale di scriverci quei diritti sociali quei diritti del lavoro quegli interventi sull'economia che sono fondamentali per la ripartenza i primi provvedimenti annunciati da Biden danno un segno davvero di cambio di passo rispetto a quello che ha fatto Trump molti provvedimenti ma in particolare con quel multilateralismo che è sempre stato segno distintivo della politica italiana quello in cui noi crediamo profondamente quanto è importante oggi stare in questa scia nella scia di questo progressismo che non crede solo all'egoismo ma che pensa che nel dialogo e nella relazione chiudo presidente un miglioramento del mondo e infine una richiesta che faccio a tutti noi ma faccio in particolare al governo c'è bisogno che le cose che diciamo con operatività e tempismo ricadano sulla vita delle persone è fondamentale è fondamentale questo capisco mille possono essere difficoltà ma credo che debba essere davvero un cruccio quotidiano di chi oggi è al governo e concludo con delle parole che sono parole importanti di un libro biblico il coelet che però mi sembrano molto opportune in questa fase c'è un tempo per nascere e un tempo per morire un tempo per piantare e un tempo per sradicare quello che si è piantato un tempo per demolire e un tempo per costruire come ha detto il presidente della repubblica questo deve essere il tempo dei costruttori e il PD continuerà a fare la propria parte ha chiesto di parlare il senatore Dalmas ne ha facoltà per cinque minuti grazie presidente signor presidente del consiglio io l'ho ascoltata questa mattina in parte anche ieri non ho visto un gran miglioramento da ieri ad oggi il suo mi è parso un discorso di corto respiro benché nelle intenzioni lei abbia cercato almeno dal punto di vista lessicale di immaginare una maggioranza che ci sarebbe innervata di forze socialiste riformiste europeiste beh io ho trovato che il suo discorso è stata un'enunciazione legittima certamente dal suo punto di vista di cose che ha fatto o che il suo governo ritiene di aver fatto ma priva di quella gravitas che sta in un momento difficile come questo che ci dovrebbe essere in un momento straordinariamente difficile come quello attuale in realtà io ho l'impressione che lei abbia parlato a ciò che rimane di una maggioranza che al momento ha l'astensione di un partito che le ha consentito di essere presidente del consiglio e cioè del partito di Italia Viva di Renzi ma mi pare che il suo discorso sia stato un discorso rivolto alle reclute più che all'allargamento più che ciò che in questo momento si richiede cioè un governo di respiro di condivisione dei grandi straordinari e drammatici problemi che ha l'Italia e la sua collocazione abbiamo davanti a noi una prospettiva che parla di circa 200 di oltre 200 miliardi nel recovery plan e rispetto a questo la cosa più evidente è che non ci sono riforme strutturali il rischio è che questi denari possano diventare una trappola mortale per l'Italia non perché noi non li vogliamo perché se lei oggi può vantare sicuramente può vantare il risultato di aver portato anche a casa questi soldi lo deve perché all'interno di questo Parlamento c'è una forza come Forza Italia che appartiene al Partito Popolare Europeo che ha in Silvio Berlusconi in Antonio Tajani un pezzo di storia dell'Europa di questo momento che ha condiviso che ha costruito silenziosamente anche nei nostri passaggi parlamentari quando abbiamo votato lo scostamento di bilancio vi abbiamo dato fiducia salvo poi vederla così così sgretolarsi in provvedimenti che non sempre abbiamo capito e compreso e dal punto di vista delle riforme caro signor presidente mi dispiace che non ci sia il ministro della giustizia ma è evidente che qui non ci siamo anche dal punto di vista della giustizia di cui lei non ha parlato né ieri né oggi non ha parlato siamo in una situazione di cartongesso come qualcuno l'ha definita sono parole di flick del merito giudice costituzionale non mie si dovrebbe preoccupare presidente lei è un avvocato un professore di diritto dovrebbe preoccuparsi in questa situazione dove si sa certamente che l'impostazione di questa maggioranza è alla ricerca di un processo penale fondato sul capo esbiatorio che alla ricerca del cavalli di troia cioè intesi come troia north quei captatori con i quali avete fatto la riforma che trasformano i telefonini in strumenti che intervengono alle case degli italiani e cioè praticamente in videocamere di ciò che succede nella nostra vita ebbene una grande stratega aveva sostenuto che l'operazione bellica più difficile sia quella della ritirata oggi siamo nel conte bis il conte bis nasce sulla base di una apertura che Renzi ha fatto in un'intervista al Corriere della Sera in quell'intervista disse e vado verso la fine mi scusi ma ho calcolato male i tempi del mio intervento e quindi cerco di essere conciso in questo ecco allora disse nasce un governo contro la visione anti-europeista bene io non so subito dopo la nascita del governo conto ci fu il problema della prescrizione una mozione di sfiducia verso Bonafede e allora una stensione da parte di Italia Viva non so se anche qui siamo davanti a una disfida di Barletta o una disfida di Burletta dovete dirci cosa state facendo caro presidente caro presidente io credo e ripeto che nei momenti difficili bisogna saper cambiare il paradigma di ciò che è veramente chiuso presidente di ciò che si ritiene sia eroico ed è eroico a volte anche fare un passo indietro è eroico anche saper dare una nuova dimensione alla politica visto che lei si presenta come espressione del nuovo del puro dell'immacolato e io posso anche credere perché certamente lei non viene da un'esperienza politica consumata bene faccia un passo diverso segni una svolta vera in questo paese perché guardi lei oggi sicuramente otterrà una maggioranza sarà una maggioranza relativa non potrà governare a lungo in queste condizioni e l'innesto l'innesto è sempre lì qualsiasi richiudo qualsiasi buon tempone o imbecille sa mettere una bomba per disinnescarla grazie ha chiesto di parlare la senatrice Stefani ne ha facoltà per dieci minuti grazie presidente onorevoli colleghi possiamo veramente prendere atto che siamo forse nel pieno di pagine fra le meno edificanti della storia politica del nostro paese e ci dispiace per l'Italia e ci dispiace per gli italiani abbiamo vissuto nello scorso anno uno dei periodi più terribili degli ultimi anni e purtroppo questo inizio 2021 non pare tanto diverso dal precedente e pensare che in questo periodo gli italiani hanno dimostrato una grandissima forza l'abbiamo visto nella prima fase del contagio tanta pazienza rispetto e capacità di sacrificio i nostri concittadini si sono fermati impaziente attesa di un rientro a breve nella normalità è che nella seconda ondata di contagio si è rivelato ciò che nella prima ondata sembrava un dubbio è che è diventato una drammatica certezza la certezza che non vi era nessuna strategia per affrontare le accresi nemmeno è stata raccolta l'occasione dell'attenuarsi del contagio nel periodo estivo per costruire una strategia si ricordano anche le lettere dei presidenti di regione che sottilizzavano già a maggio che c'era un problema col trasporto pubblico e la scuola e poi si è arrivati a settembre con una pioggia continua di dpcm conflitti con le regioni e una serie di decreti e legge sovrapposti uno all'altro sono stati poi inaugurati questi decreti matriosca intitolati quasi in modo consolatorio ma agli occhi degli italiani assolutamente derisori o ristori ma quali possono essere i ristori per attività che non solo si vedono negare la possibilità di lavorare ma attività che non riusciranno neanche più a riaprire quali ristori per un'economia reale che è lanciata oggi senza sostegno verso un futuro incerto e senza prospettive e il futuro incerto e senza prospettive cari colleghi è perché questa politica di governo è incerta e senza prospettive prendiamo atto che non vi è una visione del paese le aziende i cittadini non chiedono solo di essere supportati con meccanismi anche di sussistenza ma chiedono di poter vedere oltre di progettare di prevedere di costruire e anche di credere e quali sono gli obiettivi di questo governo in particolare di questo che probabilmente verrà confermato anche oggi se no quello di sopravvivere a se stesso quali sono le azioni qualificanti dobbiamo forse rassegnarci che forse l'unica vera azione condivisa pieno del governo è stata quella di mettere a processo Salvini quella è stata l'unica ragione che vi ha tenuto in piedi e le tanto auspicate riforme sono diventate solo di foglietti propagandistici senza contenuto le riforme vere quelle istituzionali e costituzionali sono state magari solo annunciate ma vedendo il metodo di lavoro anche quello di questi giorni la debolezza della politica e dobbiamo prendere atto che vi è una debolezza della politica forse è meglio che nemmeno le fatte alla fine cosa è che è accaduto forse si è reso solo effettivo il taglio di parlamentari che purtroppo forse oggi diventa anche una forte motivazione di molti colleghi per restare qui ma la debolezza e l'inadeguatezza della politica comporteranno effetti anche devastanti perché nelle condizioni in cui si trova dovrà affrontare temi delicati importanti e impattanti come il tema del recovery fund ragioniamoci sono fondi che sembrano imponenti ma per raggiungere questi obiettivi occorre pianificazione equilibrio e efficienza e questi fondi non sono una risorsa del governo ricordate non sono fondi per campagne elettorali sono anche un peso e un onere che il nostro paese dovrà affrontare in futuro la politica non è un discorso da bar sport occorre capacità lungimiranza e visione e non si governa colleghi improvvisando quest'anno di enorme difficoltà ha messo in luce in realtà una grande verità chi è grande si è rivelato grande e chi è piccolo si è rivelato piccolo e oggi è di evidenza agli occhi di nostri concittadini che non vi sono le condizioni per affrontare ancora la crisi sanitaria la crisi economica e questa crisi sociale i cittadini vogliono in politica oggi capacità progetti e strategie e lo spettacolo che si è avuto in questi giorni sul palco di Palazzo Chigi non è forse degno degli italiani che è perché la crisi di governo c'è ed esiste non pensate di farla passare sotto traccia esiste le esiste perché non esiste una maggioranza una maggioranza politica la vera maggioranza seppur vero che i voti sono individuali un'azione di governo si deve basare su progetti e i progetti non possono essere infatti compatti con i singoli e i metodi usati oggi hanno visto mettere in campo quelle che erano le più vituperate derise pratiche che qualche tempo i colleghi quelli più rivoluzionari avevano indicato come grande male della politica ma mi dispiace dirlo ma agli occhi di cittadini non vi è chiarezza in queste manovre non vi è ma non vi è chiarezza nei metodi c'è sempre detto che non occorre solo il rispetto del diritto ma anche l'apparenza del rispetto del diritto e l'apparenza purtroppo oggi agli occhi di cittadini signori è quella che è confusa ma che Stato avremo che nazione avremo se utilizziamo questi metodi qual è la stessa dignità dello Stato ma la stessa dignità della politica siamo oggi una delle più grandi forse crisi del sistema delle istituzioni il nostro paese ha retto di fronte al terrorismo agli anni di piombo ha retto e combattuto la mafia e i valori quelli veri della nazione sono quelli che hanno vinto oggi abbiamo una crisi costituzionale ed istituzionale in atto che non è solo una crisi di governo è tutto il sistema che ha ravvisato delle crepe in mura che il primo terremoto ovviamente ha fatto vacillare abbiamo cittadini confusi rappresentanze inascoltate politica alla ricerca di se stessa possiamo solo vincere questa crisi della Repubblica con la dignità la forza delle idee la coerenza e dei progetti e signori mi dispiace non ci siamo ha chiesto di parlare il senatore Ferilli ne ha facoltà per sette minuti grazie presidente il senatore Romeo della Lega ha concluso il suo intervento chiedendo in maniera direi un po' incauta se il vero problema di questo paese in questo momento di quest'aula siano i due e Matteo io direi di sì non è stata un'intuizione geniale ma supererei anche questo e vorrei raccontare presidente Conte una storia semplice io non credo di essere il solo in quest'aula e direi anche al di fuori di quest'aula a pensare che questa crisi sia sicuramente improvvisa vada a pesare in maniera sproporzionata su un paese che è già in ginocchio per via della pandemia sia stata provocata in maniera sconsiderata io sostituerei un po' di termine più che irresponsabile in maniera spregiudicata l'imbarazzo che noi proviamo è anche un'umiliazione dinanzi non solo al paese ma al mondo internazionale ma non credo che sia insensata e non credo che sia inspiegabile soprattutto non è insensata rispetto a chi Presidente Conte l'ha attuata programmata e condotta nei minimi particolari all'indomani della nascita del suo Conte II e lo ha fatto con una determinazione con un cinismo politico e con una attuazione che è stata esattamente parallela al suo lavoro al lavoro del suo governo della maggioranza e di tutti coloro i quali erano impegnati e sono impegnati a sconfiggere la crisi economica che stiamo attraversando è stato quasi un avvelenamento come dire un rilascio lento nell'organismo di questo governo nella sua figura politica per debilitare il suo progetto arrivare a un fine molto preciso tra l'altro una parola d'ordine non dico Conte doveva morire ma Conte doveva essere assolutamente eliminato dal governo dalla presidenza di questo Consiglio dei Ministri da Premier questa è la parola d'ordine che ha circolato ma non solo in quest'Aula Presidente ha circolato anche al di fuori di quest'Aula nei comparti di interesse che hanno da perdere nella sua politica e diciamocelo in concomitanza con l'attuazione del recovery plan che significa 209 miliardi di euro da gestire questa è la spiegazione che va data al Paese il Paese sa benissimo lo deve sapere che ci sono delle prossime nomine fondamentali nei CDA delle importanti associazioni pubbliche si sa benissimo che avere un potere interdittivo dei capitoli di spesa sul recovery plan significa potere non il verbo il sostantivo tanto per riferirci a qualcuno che ha detto che c'era una differenza e questo è quello che è avvenuto Presidente quindi lei ha fatto bene nel suo discorso a riferirsi a un clima quello che ha dato vita a questo secondo governo che era un clima di lei l'ha chiamato una spinta di ideali un investimento di fiducia ma noi abbiamo fatto forse un errore anche in maggioranza non guardarsi negli occhi subito dopo aver firmato le carte perché questo stesso intento non era presente in tutti e questa stessa attuazione del piano naturalmente si è giovata anche dell'egocentrismo del narcisismo del talento in questo del suo singolo leader e io spero però che nel corso di questi mesi coloro i quali hanno aderito a questo progetto abbiano anche capito l'insicurezza di chi li stava guidando un po' come quella che ti guida nei mari dicendo avvistiamo la terra e poi c'è sempre solo una distesa d'acqua così è stanno imbarcati con lui che li guiderà senza sapere dove vanno però Presidente non è che sia meno grave lei ha fatto bene a dire che quello che è avvenuto non si può cancellare non lo cancelliamo neanche noi e io allora dico dinanzi al Paese che ha perfettamente capito qual era l'interesse sottostante perché il cavallo di Troia di questo atteggiamento sono stati strumenti a tutti i visibili ovvero mettere sul tavolo provocazioni mettere sul tavolo delle proposte qualcosa di irrealizzabile vedete si parla del recovery plan hanno citato il MES mettono il ponte di Messina e sullo stretto è tutto quanto messo in maniera incongruente quindi anche in questo esiste un progetto anche in questo esiste una provocazione e come si risponde alle provocazioni? Presidente se qualcuno la vuole fare fuori e fuori noi la difendiamo noi resistiamo noi andiamo avanti proprio perché la ostacolano noi andiamo avanti e fa bene a fare un richiamo di responsabilità e qui vengo anche al nostro atteggiamento perché ho sentito delle insinuazioni e questo non è l'ora delle lezioni e delle prediche soprattutto da parte di chi non se le può permettere perché il Movimento 5 Stelle non ha cambiato minimamente i suoi programmi il suo atteggiamento già dal 2018 quando si è presentato con un programma che era lo stesso programma ampliato dei 29 punti del Conte 2 e lo stesso programma ampliato che il Presidente Conte ha rilanciato come patto noi non cambiamo i programmi per le persone noi rimaniamo su quelli e chi ci sta noi facciamo un tratto di strada e un percorso sono altri che si sono presentati come la Lega alleandosi con il centrodestra e poi hanno governato con noi fino a spezzare con noi e poi c'è stato il Partito Democratico un accosto al Partito Democratico è diventato Italia Viva sono altri che stanno facendo altri passaggi non siamo noi e questa limpidezza Presidente questo richiamo alla funzione politica di dire questo è il programma a chi ci sta lo fa la luce del sole con queste idee con questi obiettivi è il miglior modo per poter raggiungere questo obiettivo al di là delle insinuazioni poi degli insulti perché francamente come si può dire si è stata una rottura responsabile un ossimoro tra l'altro perché l'abbiamo fatto perché l'abbiamo sostanzialmente Conte è un vulnus della democrazia perché ha fatto diventare un reality show tutta quanta la comunicazione di governo e come scordarci dico al gruppo guidato da Faraone il fatto che noi avremmo fatto delle politiche manettare addirittura o che il reddito di cittadinanza non serve a niente che abbiamo perso tempo e che i nostri investimenti sono sbagliati vedete io non trovo sbagliato il riferimento che nel corso nei giornali del leader Renzi come se fosse un giocatore d'azzardo giocatore d'azzardo investe tutte le sue fortune alla fine ben sapendo di perdere tutto noi non possiamo permettere che si faccia del gioco d'azzardo sul destino e sul futuro del nostro paese perché la salute pubblica il nostro destino non è un gioco né d'azzardo né lo sarà mai grazie ha chiesto di parlare il senatore Lagnès mia facoltà per cinque minuti grazie presidente signor presidente Conte questa crisi di governo in piena pandemia ci permette di fare un breve bilancio di ciò che è successo nel nostro paese in questi ultimi mesi se è vero che l'Italia è stato uno dei paesi più colpiti in Europa da questa pandemia da coronavirus mi sento di affermare che la montagna è il territorio più ferito dal punto di vista sanitario e anche sotto l'aspetto economico e in particolare la mia regione la Valle d'Aosta ha subito e sta subendo delle conseguenze pesantissime essendo la nostra economia legata al turismo invernale un turismo che dipende totalmente dagli spostamenti dalle altre legioni o dagli altri stati e che l'esigbo numero di residenti non potrebbe mai garantire un minimo sostegno come invece avviene per tutti gli altri territori del nostro paese e questo dato di fatto ha spinto il nostro Consiglio regionale e il Presidente della Regione a legiferare secondo le competenze che ci permette il nostro Statuto Speciale di Autonomia indispensabile e questo l'avevano già ben chiaro i nostri padri costituenti per adattare e rimodulare anche le norme nazionali ed europee ad un territorio particolare ed unico rispetto al resto del paese ma questo mi dispiace dirlo signor Presidente il suo governo ultimamente non lo ha compreso in un momento oltretutto molto delicato dimostrando poca sensibilità verso la mia regione ed una scarsa conoscenza della realtà alpina valdostana l'impugnativa della legge della Regione Valle d'Aosta sull'emergenza Covid mi ha sorpreso soprattutto nella sua rapidità e questa impugnativa diventa ancora più difficile da capire nel momento in cui in un altro territorio alpino la provincia autonoma di Bolzano è in vigore una legge praticamente identica e che ne sono assolutamente contento il governo non aveva ritenuto di impugnare creando un evidente e insopportabile per noi valdostani ingiustizia e diversità di trattamento e questo è difficile da giustificare oltretutto e questo è un paradosso una legge considerata dalla consulta pericolosa per la salute che da quando è in vigore ha visto un miglioramento della situazione sanitaria in Valle oltretutto la Valle d'Aosta è tra i primissimi posti a livello di campagna vaccinale più in generale signor Presidente in occasione della fiducia del Conte Bis le avevo sottoposto alcune questioni importanti dall'idroelettico ai trasporti ai tunneling e prioritarie per la Valle d'Aosta e purtroppo non vi è mai stata neppure il modo di affrontare la mia posizione in questa prestigiosa aula sarà sempre quella ispirata dai principi del movimento al quale appartengo l'Union Valdotene un'autonomia nata dalla lotta della resistenza al nazifascismo l'europeismo più convinto e soprattutto un federalismo integrale contrario a qualsiasi rigurdito di neonazionalismi e anche a modifiche della nostra Costituzione del titolo quinto in senso centralistico mi auguro quindi che l'attività di questo governo sia in futuro caratterizzata da una diversa e più convinta attenzione alla montagna e alla regione a statuto speciale e in particolare alla Valle d'Aosta ci sono temi ben precisi che ho già sottoposto e che spero siano seriamente presi in considerazione dopo un anno devo confessare che la mia fiducia si è incrinata una mia conferma alla fiducia appunto sarà condizionata dalla volontà del suo governo di accettare le nostre richieste in un nuovo e autentico spirito di collaborazione e rispetto reciproco noi valdostani siamo un popolo numericamente molto piccolo ma che nei secoli ha sempre portato ben alta la fiaccola della nostra libertà e della nostra identità e a questo non potremo mai rinunciare grazie ha chiesto di parlare la senatrice Drago per tre minuti gentile presidente cari senatori senatrici governo oggi siamo chiamati ad esprimere la fiducia all'intera compagine governativa premier incluso con valutazioni scevre da personalismi comincio pertanto nell'evidenziare come non vi siano state particolari attenzioni nei confronti della scuola nel suo discorso ieri ed oggi abbiamo assistito ad una mera nucleazione di ho fatto e farò senza alcuna evidenza di svolgimento temporale senza mettere in dubbio nulla ma qual è stato l'operato di questo governo quale l'ordine di priorità se la scuola fosse stata considerata considerata realmente ai primi posti oggi non si sarebbe trovata in queste condizioni disorientata senza certezze e con essa migliaia di studenti famiglie docenti e personale ata allora presidente senza alcun riferimento personale mi permetto di elencargli lei io l'ordine doppi i tamponi prima del rientro a scuola per docenti alunni e personale ata e o somministrazione del vaccino attivazione di convenzioni con mezzi di trasporto privato e strutture anche paritarie rientro dei docenti immobilizzati oggi ulteriormente penalizzati nel dover gestire la dad non da casa ma da scuola senza poter tornare nei propri territori eliminazione del vincolo quinquennale estensione dei decreti firmati dal ministro dell'istruzione che hanno messo hanno permesso il rientro dei docenti fuori sede nelle aree terremotate del centro Italia e per gli altri territori Sicilia esclusa immediata è messo nel ruolo di docenti già vincitori di concorso già vincitori stabilizzazione dei precari concorso e concorso concorso siamo in pandemia in una situazione di emergenza Presidente che dire della famiglia non ho avvertito nelle sue parole un minimo accenno al grave problema demografico che attanaglia l'Italia a recovery plan intendete dare spazio a quel progetto espresso tramite una mozione depositata in questo ramo del Parlamento e firmata solo dai colleghi seduti negli scranni di fronte al mio si parla tanto della tutela dell'ambiente del creato obiettivo ampiamente condivisibile ma cos'è il creato senza le creature se la famiglia non viene aiutata se non nascono più bambini chi pagherà i debiti che contrarremo al recovery plan cominciamo col destinare almeno lo 0,9% del PIL nazionale anno alle politiche familiari estendiamo il congedo parentale da 0 a 3 anni di età del bambino rivediamo il sistema di calcoli prevediamo una quota capitaria ad alunno lasciando libera la famiglia di scegliere l'iscrizione del proprio figlio nella scuola che riterrà rispondente al progetto educativo che i genitori ritengano ospicabile per i loro figli difendiamo i papà e le mamme tali biologicamente e psicologicamente mantenendo la tavica dicitura di mamma e papà anziché genitore 1 e genitore 2 la natura è così perfetta ed armonica che l'evoluzione del linguaggio per un neonato attraverso la cosiddetta fase della lallazione ripetendo naturalmente mamma papà scusate se è poco concludo facendo cenno alla mia amata terra la Sicilia evidenziando come ancora si attenda l'attuazione completa dello statuto regionale siciliano la Sicilia sostiene solo spese a fronte di scippati introiti per irpe e fediva a credito diversamente distribuiti completiamo l'iter sulle zone franche montane occorre investire sulle infrastrutture interne compreso il faciliterato ponte sullo stretto signori costruiamo ponti ed abbattiamo muri non sono parole mie ha chiesto di parlare la senatrice Rauti ne ha facoltà per sei minuti grazie presidente governo colleghi professor conte per un mese l'Italia è stata ostaggio dei vostri litigi fino allo strappo della settimana scorsa da parte di una forza della sua maggioranza lei avrebbe dovuto rassegnare subito e ripeto subito le dimissioni invece ha traccheggiato ha preso tempo si è dato da sé una sorta diciamo di mandato esplorativo per trovare qua e là i numeri che la puntellassero appellandosi ad una maggioranza purché sia anche se non politica ma solo appena matematica sempre se l'avrà c'è chi ha parlato di trasformismo ma io nel suo caso non scomoderei un pezzo di storia parlamentare parlerei piuttosto di accanimento terapeutico e di un bisogno prevalente di mantenere in piedi se stesso e un suo governo questo suo interesse prevalente dimostrato anche dal dpcm del 14 gennaio e spiegherò perché che rappresenta il colpo di grazia per intere categorie lei lei non ha sentito il bisogno compulsivo al quale ci aveva abituati di una delle sue dirette invasive per spiegare mentre avrebbe dovuto se il 2021 sarà l'anno del ritorno delle libertà personali della normalità e neppure spiegarci quella proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile no non lo ha fatto perché era troppo impegnato a fare la conta di palazzo invece avrebbe dovuto dire agli italiani come e quando lei e il suo governo intendono passare dalle restrizioni e dal proibizionismo a comportamenti prudenti sì ma mirati mirati alle esigenze di vivere e di lavorare convivendo con il virus del resto neanche qui ha indicato un futuro una via di equilibrio tra il diritto alla salute e il diritto alle libertà personali che sono state violate lei è alla sua seconda crisi di governo non è un tecnico non nasce come politico non è un eletto dal popolo è passato dall'anonimato a palazzo chigi di colpo e si conferma come un zelig della politica ovvero un qualcosa capace di adattarsi a qualsiasi stagione e a qualsiasi maggioranza raccoglitice è risicata purché sia e lo ripeto lei ha definito questa crisi incomprensibile ciò che appare davvero incomprensibile è non ammettere da parte vostra il fallimento totale dell'esecutivo nella gestione della pandemia e con gravi responsabilità sull'attuale crisi economica che rischia di trasformarsi in uno smottamento sociale senza precedenti lei ha vantato successi ha raccontato Presidente un'Italia che non c'è che non è sangue e non è carne allora glieli racconto io alcuni dei suoi grandi successi siamo il paese che registra più decessi percentuali che ha la peggiore caduta del pil meno 10 che ha dato meno ristori non il 75% chiesto da protetti d'Italia siamo quelli che hanno usato la didattica a distanza più a lungo di tutti e non abbiamo consentito a tutti di tornare a scuola in sicurezza avete chiuso palestre bar ristoranti ma avete continuato ad assiepare sui mezzi di trasporto la gente come sardine e tra un'umissione di verbali del CTS qualche scandalo sanitario su quale sorvolo avete tentato di fare i primi della classe nella campagna vaccinale che però adesso subisce una pericolosa battuta di arresto che mette a rischio la somministrazione dei richiami della seconda dose non avete fatto ancora i decreti attuativi della legge bilancio avete sperperato quasi 150 miliardi in 10 mesi per bonus mancette senza risultati apprezzabili e intanto le imprese muoiono le partite IVA chiudono e voi vantate successi e non parlerei presidente di successi neanche in campo in campo europeo perché per la sua bozza del recovery plan tardiva e senza idee le hanno tirato le orecchie persino gentiloni persino lo stesso Monti che pure voterà la fiducia Bruxelles ha bocciato la sua bozza e l'autorevole testata tedesca Fats ha scritto testualmente che scoconte spende in base a calcoli politici e clientelari non convincono i microprogrammi generici che usano le risorse senza fare investimento e anche il recovery fund non è la bacchetta magica perché comunque c'è un prestito da rendicontare e c'è un prestito da restituire entro il 2056 che se speso male significa un mes lungo 35 anni e a proposito di Europa le comunico che esiste anche che è un vasto centrodestra europeo e che è europeista chi difende i diritti dei popoli e l'interesse nazionale e non chi difende gli interessi di Bruxelles questa è la differenza tra i veri europeisti una sola domanda presidente ma lei non lo sente il bisogno intimo personale oltre che di dignità politica istituzionale di sottoporsi al giudizio degli italiani di ferato suo e del suo governo no no lei non lo sente l'Italia sì quell'Italia che lei ha detto che deve correre su questo lo vogliamo tutti ma io non vedo in lei né lo spirito né il passo dei nostri gloriosi bersaglieri io vedo in lei la palude della politica e se lei oggi la sfanga sottolineo la sfanga perché di questo si tratta al massimo potrà galleggiare mentre l'Italia continua a sprofondare l'Italia invece merita oggi più che mai un governo patriottico forte una coalizione solida in grado di portare la nazione fuori dalla crisi e di ricostruirla pezzo pezzo con rabbia con amore e con orgoglio grazie ha chiesto di parlare il senatore De Bonis ne ha facoltà per tre minuti grazie presidente presidente del consiglio ministri colleghe e colleghi oggi siamo qui non per distruggere ma per costruire l'edificio che vogliamo costruire non deve poggiare le sue fondamenta sulla sabbia bensì sulla roccia il confronto dialettico è segno di vitalità e ricchezza ma è salutare se viene fatto con spirito propositivo volto a migliorare l'azione di governo e non certo a demolirla e a distrarla da quegli obiettivi che oggi sono assolutamente indispensabili per una reale ripresa del nostro paese da un anno l'Italia come l'Europa e il mondo intero è stata travolta da uno tsunami sanitario che ha messo a dura prova la tenuta economica e sociale del nostro vivere civile famiglie imprese lavoratori giovani anziani si pongono domande a cui spesso è difficile dare una risposta intere categorie di lavoratori sono messe in ginocchio e attendono con trepidazione di sapere che ne sarà di loro i primi passi i primi che hanno risposto alla chiamata alle armi sono stati i medici gli infermieri gli operatori sanitari i tecnici i volontari che hanno messo la propria vita al servizio del paese e hanno illuminato le nostre speranze ma l'hanno fatto per salvare la nostra nazione nel rispetto delle misure imposte dal governo il governo si è ritrovato ad affrontare ciò che mai nessuno si sarebbe aspettato e lo ha fatto al meglio pur se con qualche imperfezione ottenendo risultati incoraggianti rispetto al dilagare della pandemia e ricevendo anche il plauso dell'Europa tutti gli altri provvedimenti che sono stati adottati per tamponare la conseguente crisi economica dai decreti rilancio al decreto ristoria alla legge di bilancio 2021 sicuramente hanno dato sollievo ma rispetto alle gravi perdite che il settore economico ha subito ritengo che andasse fatto di più ad esempio prendendo come criterio non solo i codici Ateco ma anche la perdita dei fatturati delle aziende la sfida che abbiamo dinanzi oggi è quella del recovery plan abbiamo l'occasione di dare all'Italia un strumento non solo per tamponare le perdite ma per rimettersi davvero sulla strada a ripresa di uno sviluppo sostenibile il piano nazionale di ripresa e resilienza approvato dal governo e migliorato sensibilmente nell'ultima versione traccia gli obiettivi le riforme e gli investimenti che l'Italia vuole realizzare con i fondi europei del next generation certo si sono verificati dei ritardi nella sua stesura ma queste mancanze non possono giustificare una crisi di governo in un momento come questo nel luogo che il cuore della nostra democrazia dobbiamo decidere come vogliamo affrontare queste questioni epocali possiamo decidere di rottamare di distruggere far saltare il banco e ritornare al punto di partenza oppure possiamo scegliere di costruire e partire da qui possiamo scegliere di usare l'aula come luogo privilegiato del confronto in questi anni ho avuto alcune volte dei pareri critici verso l'azione di governo ma ho sempre interpretato il mio mandato come servizio alla Repubblica e a tutti i suoi cittadini questo spirito di servizio mi impone oggi di lavorare alla costruzione e non alla distruzione consegnerò il restante il mio discorso alla e pronuncio la fiducia al governo grazie ha chiesto di parlare il senatore Crucioli ne ha facoltà per due minuti presidente colleghi ho molto insistito con il mio gruppo parlamentare in questi giorni per avere questo breve spazio appena due minuti perché ritengo doveroso che sia rappresentato al presidente del consiglio all'aula e a tutto il paese anche il punto di vista di quella parte del Movimento 5 Stelle che oggi voterà la fiducia solo perché pienamente consapevole del maggior danno che patirebbero i nostri concittadini nel caso in cui questo governo dovesse cadere voteremo sì voteremo ma con estrema preoccupazione sia per l'eterogenetà delle forze a cui lei presidente chiede supporto sia perché abbiamo colto in alcuni passaggi del suo discorso pur in gran parte condivisibile degli accenni che riteniamo di eccessiva fiducia nei confronti dell'Unione Europea con questo voto favorevole signor presidente intendiamo spronarla a tener conto che l'interesse del paese è riposto oltre che nella reputazione che lei è riuscito a conquistare presso i nostri partner europei soprattutto nella determinazione con cui saprà indicare in Europa la direzione giusta da percorrere sapendo anche dire dei no ove occorresse il superamento del patto di stabilità europeo la prosecuzione in forma strutturale dei programmi di acquisto dei titoli di Stato da parte della BCE e la rinuncia alle forme di prestito con condizioni eccessivamente penalizzanti sono alcuni dei temi che il suo governo dovrà porre come obiettivi di tutte le forze che la sosterranno viva l'Italia e viva l'Europa se sarà l'Europa in cui gli interessi dei cittadini verranno prima di quelli della finanza ha chiesto di parlare la senatrice Bini ne ha facoltà per sette minuti grazie presidente presidente del consiglio membri del governo colleghi e colleghe ho riflettuto a lungo sulle parole da usare per intervenire sulla fase complessa che stiamo attraversando ho pensato all'anno che abbiamo alle spalle il 2020 con il covid il dramma dei tanti malati dei tanti morti della nostra straordinaria sanità in affanno dei cittadini chiusi in casa dei lavoratori e gli imprenditori in difficoltà economica dei bimbi che hanno rinunciato alla scuola e alla socialità ho pensato alla fine di questo anno ed a quello che si è aperto da poco con ancora troppi malati con ancora troppi morti ma con due elementi di speranza nuovi il primo il vaccino è la straordinaria campagna vaccinale che abbiamo il dovere di organizzare e monitorare al meglio e che potrà darci maggiore sicurezza di salute per noi e per i nostri cari soprattutto quelli più fragili un grande investimento dello Stato sulla nostra salute il secondo le risorse del recovery plan i progetti di finanziamento la possibilità di investire tanti fondi come mai prima in materie strategiche per il nostro benessere presente e futuro in questo quadro in questo scorrere di immagini da febbraio 2020 ad oggi meno di un anno ma lunghissimo per ricchezza e quantità di avvenimenti si inserisce la crisi di governo in attesa sbagliata nei modi e nei tempi i motivi per cui la ritengo sbagliata sono evidenti credo senza bisogno di grandi spiegazioni nel mio ripercorrere i fatti dell'ultimo anno in un contesto come quello che stiamo attraversando e abbiamo attraversato possiamo permetterci una crisi di governo la risposta la risposta migliore alle inevitabili difficoltà che stiamo affrontando anche ai limiti che possiamo avvertire nell'azione di governo è davvero l'apertura di una crisi la mia risposta è no assolutamente no e non perché la pandemia comporti una sorta di sospensione dalla politica lo voglio dire agli amici di Italia Viva non perché si debba rinunciare alla critica o alla discussione no non è questo certo non pensa questo il partito democratico dal segretario Zingaretti al capo delegazione Franceschini ai capi gruppo è venuta a più riprese la richiesta di correzione all'azione di governo e soprattutto la proposta di un patto di legislatura rinnovato che fosse in grado di definire un orizzonte strategico di priorità da portare avanti non basato sulla gestione dell'emergenza ma sulla rinascita abbiamo chiesto e ottenuto l'apertura di un confronto e di una verifica quella sarebbe stata la sede giusta dove trovare maggiore collegialità dove chiarire e risolvere i problemi dove proseguire il cammino di governo in maniera rinnovata la scelta di Renzi è stata quella di staccare staccare semplicemente la spina appare per queste ragioni una scelta sbagliata incomprensibile inaccettabile ora speriamo davvero che il nuovo cammino che ha proposto il presidente Conte parta su basi nuove a cominciare da una ritrovata centralità del ruolo del Parlamento all'appello del presidente Conte aggiungiamo la nostra voce il nostro auspicio che quanti si riconoscono in un'identità riformatrice ed europeista uniscano il loro apporto al lavoro del governo è un appello chiaro e trasparente pronunciato nella sede istituzionale propria da chi non si barrica dietro maggioranze numeriche ma chiede alla coscienza di tutti in un momento decisivo per la comunità nazionale una scelta di generosità di responsabilità e di impegno è il tempo dei costruttori come ricorda il presidente Mattarella e il PD fin dall'inizio di questa esperienza di governo si è messo in questa logica abbiamo subito per questo anche le critiche di qualche osservatore che chiedeva al PD un ruolo più muscolare ma noi pur senza rinunciare mai alle nostre idee ai nostri valori sapevamo bene che quello che serviva nell'interesse del paese era l'impegno quotidiano a tenere insieme le diverse sensibilità e promuovere la collegialità a superare ogni rischio di divisione anche nell'ultime settimane il segretario Zincaretti e i nostri ministri non hanno lasciato nulla di intentato per evitare questa crisi pericolosa immotivata e inopportuna non ci saremmo voluti trovare a vivere questo momento e non per timori di equilibrio e di assetti ma perché quanto di più lontano da quello che il paese ci aspetta e ci domanda ora però è il tempo del coraggio e noi non faremo mancare il nostro contributo le voteremo la fiducia presidente Conte convinti che da ora in poi il cammino del governo come lei si è impegnato a fare sarà condiviso in modo più intenso con la sua maggioranza che la sostiene lealmente ma che vuole essere sempre più coinvolta nelle responsabilità di governo in una fase così difficile vorrei concludere con un pensiero di gratitudine profonda al presidente Mattarella gratitudine per l'equilibrio la saggezza il rigore con cui assicura il paese il servizio del suo mandato a lui alla sua costante attenzione al bene comune noi ispiriamo la nostra azione e le nostre scelte grazie ha chiesto di parlare il senatore Saccone a facoltà per cinque minuti grazie grazie presidente signor presidente del consiglio cari colleghi e colleghi oltre 80.000 morti 2 milioni di contagiati 400.000 imprese hanno chiuso i battenti abbiamo avuto il collo del PIN meno 11% e il collo dei consumi a tutto ciò si aggiunga signor presidente il consiglio che abbiamo avuto un incremento dei nuovi poveri e delle persone che non fanno più ricorso alle cure mediche questa purtroppo per tutti noi è la fotografia spietata di quello che c'è fuori da questo palazzo il paese reale ed è surreale la fotografia di questo palazzo che è costretto a parlare di una crisi al buio di cui non si comprendono i contorni e questa crisi al buio presidente getta nello sconforto l'intero popolo italiano che già è in ginocchio non solo per le questioni economiche ma anche a livello psicologico tende con grande difficoltà a reagire presidente mi rivolgo soprattutto al presidente Renzi lo chiamo presidente perché è stato presidente del consiglio e forse più di tutti noi dovrebbe possedere quei due requisiti fondamentali per chi governa un paese quello di essere un paese credibile e quello di essere un paese affidabile questo significa essere uomini in stato io non credo che con questo gesto le immagini che noi diamo non solo al paese ma soprattutto ai paesi membri dell'Unione Europea in questo momento pandemico non credo che noi stiamo dando soddisfazione a questi due criteri mi metto nei panni di un cittadino tedesco che magari deve tassarsi maggiormente per aiutare l'Italia e la risposta di questo paese è una crisi al buio detto questo mi pare che in questo palazzo ha leggi da troppi anni una sorta di sindrome di Medea vi ricordate la tragedia greca in cui la mamma ammazza i figli pur di dare un colpo al padre pur di far male al padre non ci interessa sapere chi è la madre non ci interessa sapere chi è il padre noi democratici cristiani non permetteremo che i figli sia il popolo italiano Presidente Conte noi siamo l'Udc mi permetta di dire al direttore Mentana che nei giorni scorsi diceva il paese pende dalle labbra di Cesa io gli dico caro direttore ce ne fossero di democristiani in giro democristiani democratici cristiani significa sinonimo di buonsenso equilibrio e di senso dello Stato questo noi siamo e con questo spirito noi abbiamo affrontato il suo Conte 1 con una maggioranza giallo-verde e con questo spirito abbiamo affrontato il suo Conte 2 una maggioranza giallo-rossa mai in modo pregiudiziale abbiamo sempre votato il no alla fiducia ma abbiamo sempre posto al centro del nostro agire l'interesse del paese lo abbiamo fatto quando si è trattato di votare lo scostamento quando anche noi abbiamo chiesto a lei Signore Presidente del Consiglio di porgere in modo costruttivo un ponte verso l'opposizione perché siamo in fase di guerra non ci sono i palazzi che crollano ci sono le persone che muoiono lì l'abbiamo criticata perché ci sarebbe bisogno di un dialogo costruttivo nella diversità delle posizioni e questo magari verrebbe agevolato di 167 decreti attuativi fermi sul tavolo Presidente noi siamo consapevoli delle enormi responsabilità che riguardano a tutti i membri seduti sul banco del governo ma allo stesso tempo vi chiediamo di non chiudervi a riccio perché tanti dei vostri provvedimenti anche condivisibili non hanno avuto quell'atterraggio nelle case degli italiani nelle aziende perché magari non hanno avuto la capacità di essere immediati i ristori hanno dignità se si prende come parametro non certo dei parametri così aleatori ma almeno il fatturato delle aziende quello dà dignità alle ristori come è accaduto in Germania e in altri paesi europei Presidente noi non abbiamo anzi abbiamo colto in modo positivo alcuni aspetti della sua relazione l'Europa finalmente questo governo ha messo nell'albero naturale la nostra colorazione filo atlantista senza se e senza ma e soprattutto filo europeista come ci ha insegnato De Gasperi solo con più Europa con un'Europa più solidale si può uscire anche da queste crisi e poi non nascondo l'aspetto della legge elettorale Presidente come tutti sanno in questo Parlamento noi siamo per il proporzionale attenzione lo dico a tutto il Parlamento noi noi non temiamo le elezioni noi siamo l'Udc Presidente Conte quelli che nel 2008 andarono da soli non piegarono a nessun invito e andammo da soli alle elezioni quindi figurarsi se le temiamo ma non vogliamo che il paese cada nella palude per altri mesi e confidiamo come ha detto anche qualche collega che mi ha preceduto nella saggezza del Presidente della Repubblica sa qual era lo slogan nel 2008 di quello dc i nostri valori non sono in vendita ecco per noi questo è centrale la famiglia di cui tutti si parlano e si riempiono la bocca poi bisogna però aiutarla noi abbiamo profondo rispetto di tutte le forme di famiglia non siamo intolleranti ma chiediamo che a questo paese nessun bambino debba rinunciare a chiamare suo padre o sua madre genitore 1 genitore 2 perché vede Presidente nel periodo della pandemia la famiglia è stata l'ammortizzatore sociale più importante valorizziamolo non accantoniamolo non strumentalizziamolo che noi non voteremo come abbiamo fatto fino adesso la fiducia al suo governo ma in modo non pregiudiziale come abbiamo fatto sempre la ascolteremo e ci assumeremo le nostre responsabilità quando lei presenterà provvedimenti per il bene comune nell'interesse generale permettetemi di concludere con una canzone quella di Francesco De Gregori che nel 1979 nel periodo buio della Repubblica scrisse una straordinaria canzone viva l'Italia che con gli occhi asciutti nella notte scura viva l'Italia che non ha paura grazie Presidente ha chiesto di parlare il senatore Centinaio ne ha facoltà per dieci minuti grazie Presidente beh innanzitutto in questo bailam di eh di confusione politica che stiamo assistendo in queste ore eh signor Presidente ci deve togliere ci deve togliere un dubbio un dubbio che sta eh un po' assillando circa un milione di partite IVA agricole perché abbiamo saputo che lei ha deciso di fare anche il ministro dell'agricoltura di questo paese e visto e considerato che l'agricoltura Cuba tra agricoltura agroalimentare Cuba circa il 25% del PIL del nostro paese le chiediamo se ha intenzione di fare il ministro a tempo perso o di fare il ministro a tempo pieno e soprattutto auspichiamo che il ministero dell'agricoltura non entri nella logica delle spartizioni e delle promesse di posti che voi state facendo ai colleghi senatori pur di votarvi la fiducia signor Presidente abbiamo ascoltato il suo intervento e siamo sinceramente siamo senza parole siamo senza parole perché buona parte del suo intervento l'ha passato a parlare di legge rettorale e di riforma dei regolamenti parlamentari abbiamo un timore Presidente visto e considerato che in questi mesi ha tolto alle aule parlamentari il potere legislativo a suon di DPCM abbiamo paura che adesso lei decida di toglierci anche la prerogativa di poter lavorare visto e considerato che come lei ben sa visto che è un avvocato ed è laureato in giurisprudenza il potere del legislatore di decidere regolamenti parlamentari e legge elettorale vogliamo evitare che lei prenda come esempio quei paesi che sono un po' l'esempio della sua maggioranza che la sostiene e penso alla Cina e al Venezuela e quindi le chiediamo di mantenere la democrazia e soprattutto di mantenere un atteggiamento di rispetto nei confronti del Parlamento parli delle cose di sua competenza visto che non è tanto in grado di farle avvocato Conte ascoltando il suo intervento ero molto allibito perché mi è sembrato una sorta di Arturo Bracchetti della politica che è quell'illusionista che si cambia abiti alla velocità della luce e lei ci è sembrato l'Arturo Bracchetti della politica poi ieri riascoltando il suo intervento alla Camera ma l'ho riascoltato anche oggi mi è venuto in mente quando ero bambino quando ero bambino c'era la pubblicità di un giocattolo si chiamavano i Playmobil i Playmobil sono questi omini qua di plastica presidente e c'era una pubblicità che si chiamava Mille vite Playmobil con un omino lo potevi trasformare lo potevi trasformare in tanti personaggi e quindi presidente vuoi il premier populista e sovranista si cambia eccolo a disposizione di una maggioranza giallo-verde cambi idea vuoi il premier europeista e amico della Merkel basta un sorriso e ti accontenta arriva il momento del premier sceriffo eccolo indossare i panni del leader con Salvini e via i decreti sicurezza ma meglio ancora vuoi il premier scafista diventa amico di Carlo Larachete quindi un premier per tutte le stagioni signor Conte liberale ma socialista quota 100 prima sì poi no la Tav sì no forse non si è capito niente le concessioni balneari pensiamo agli amici balneari le concessioni balneari prima sì centinaio andate avanti poi andiamo da gentiloni e gli diciamo ciao mandaci una lettera da parte dell'Europa così almeno facciamo un passo indietro e poi prima fan di Trump e poi fan di Biden eccetera 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 potremmo andare avanti per ore lei presidente detiene il record che verrà ricordato nel Guinness dei primati il record del trasformismo nemmeno Crispy e Depretis sono riusciti a fare tanto nel nostro paese lei detiene questo record nella storia moderna peggio ancora non c'è un premier nella storia governa mondiale che sia passato automaticamente da una maggioranza a un'altra sa dove è successo e quando è successo è successo in un comune negli anni 80 nel comune di Milano con Piliteri che passò da una maggioranza a un'altra solo lì solo lì quindi lei rappresenta un record e ci renderà orgogliosi di avere un premier record man il problema è che questo record lei lo porta avanti con un motto presidente Francia o Spagna purché se magna Lega 5 Stelle PD L'EU Italia Viva responsabili costruttori socialisti senatori a vita con un solo unico programma la Cadrega signori dovete andare a casa dovete andare a casa perché il vostro tempo è finito questo governo è nato il 5 settembre 2019 e avete raccontato una cosa agli italiani e siete andati anche a raccontarla al presidente della Repubblica quindi dire le bugie al presidente della Repubblica non fa bene che siete nati perché dovevate evitare l'aumento dell'IVA perché noi che eravamo cattivi avevamo fatto cadere un governo che doveva evitare l'aumento dell'IVA l'aumento dell'IVA l'avete evitato andate a casa il problema signori è perché siete ancora lì perché la realtà invece non era l'aumento dell'IVA dove ci sono milioni di italiani che vi credevano perché perché non bisognava permettere di far votare gli italiani perché non bisognava far vincere le elezioni a Salvini perché non bisognava dare i poteri i pieni poteri ai cattivoni della Lega che lo chiedevano con delle elezioni non come lei e quindi io mi rivolgo ai colleghi di Tagliaviva non volevate dare i pieni poteri a Salvini con il voto li avete dati a Conte senza voto senza voto glieli avete concessi glieli avete regalati quindi cari colleghi noi ci abbiamo messo un anno e quattro mesi per renderci conto di chi era realmente Conte Italia Viva ci ha messo un anno e cinque mesi chi saranno i prossimi magari ci metteranno un anno e sei mesi ma poi arriveranno tra un anno e sei mesi ad avere la stessa opinione che abbiamo noi del Presidente Conte e magari saranno i costruttori Presidente Conte a diventare i cattivoni di turno ma a questo punto la domanda che ci facciamo è costruttori o traditori perché costruttori o traditori e io lo dico con tutto il rispetto per questo Parlamento e per chi sta seduto in questo Parlamento questa è una democrazia parlamentare e quindi le maggioranze si fanno in Parlamento e si decidono in Parlamento ma signori colleghi della sinistra non possiamo pensare che se c'è una transumanza da destra a sinistra questi sono costruttori e se quella c'è da sinistra a destra quelli sono traditori perché se erano traditori razzi e scilipoti se erano traditori e io mi ricordo e mi rivolgo ai colleghi del Movimento 5 Stelle che la scorsa legislatura erano seduti in questo Parlamento io ricordo cosa i 5 Stelle dicevano ai due colleghi che erano seduti lì gliene dicevano di ogni e quindi se erano traditori razzi e scilipoti allora sono altrettanto traditori coloro che passano da qui e si vanno a sedere insieme alla vostra maggioranza in caso contrario sono parlamentari che scelgono liberamente dovete andare a casa presidente avete fallito su tutto anche nella comunicazione presidente un balletto di dichiarazioni esternazioni di PCM e scelte folli di arcuriana memoria passerà alla storia forse più di lei perché penso che Arcuri ha fatto più danni di lei e ce ne vuole però io le ricordo alcune sue frasi 25 ottobre chiediamo ulteriori sacrifici agli italiani sono misure necessarie per un Natale sereno e tutti vai che bello almeno a Natale lo passeremo coi parenti 18 dicembre dobbiamo rafforzare il regime di misure necessarie anche in vista della ripresa delle attività di gennaio mi hai chiuso prima perché mi hai detto che dovevo stare aperto per Natale a Natale mi chiudi e va bene l'11 gennaio e mi dici che poi a gennaio apriremo no? perché l'ha detto lei non l'ha detto Centinaio o il cattivone di Salvini l'11 gennaio sta arrivando un'impennata di contagi dobbiamo fare dei sacrifici ma all'ora all'ora vogliamo dare una linea a questo paese o siamo al mercato o siamo a inventarci tutte le volte una conferenza stampa all'ora di cena così almeno andiamo a rompere le scatole alle famiglie italiane e dobbiamo un disastro sanitario ed economico e voi Presidente che cosa avete fatto? un dato della CGA di Mestre 423 miliardi di mancati incassi nel 2020 i ristori previsti da marzo per le imprese chiuse sono a 23 miliardi di euro il 7% un'elemosina siamo i peggiori e le dico Presidente sa perché non ci fidiamo di lei visti questi dati e sa perché le sue promesse ci fanno arrabbiare e tanto visti questi dati perché lei lei Presidente il 26 marzo 2020 disse nessuno rimarrà indietro alle aziende italiane nessuno rimarrà indietro l'ha promesso al Paese Presidente e invece Confcommercio in data 28 12 2020 ci dice che il 2020 hanno chiuso oltre 300 mila imprese hanno perso il 17% delle imprese del commercio dell'abbigliamento e delle calzature abbiamo perso il 12% degli ambulanti abbiamo perso il 10% dei distributori di carburante abbiamo perso il 21% delle agenzie di viaggio e spieghi visto che ha fatto il fenomeno a parlare di turismo al Ministro Franceschini che cosa sono le agenzie di viaggio che non sa neanche la differenza tra agenzie di viaggio e tour operator abbiamo perso il 14% di vari ristoranti e quasi il 30% del settore della cultura e dello sport e a questi si aggiungono 200 mila professionisti e partite IVA quasi mezzo milione di persone e allora a questo punto Presidente Avvocato Conte è per quel quasi mezzo milione di persone che io le direi per mezzo milione di volte vada a casa vada a casa ha chiesto di parlare il senatore Fantangelo ne ha facoltà per sette minuti grazie signora Presidente signor Presidente Conte governo colleghe colleghi onorevoli cittadini che ci ascoltate da fuori e durante il mio intervento a voi mi rivolgerò più volte oggi è stata una giornata molto intensa io da stamattina ho ascoltato tutti quanti gli interventi anche quella dei colleghi dell'opposizione naturalmente l'opposizione fa il suo mestiere pur non condividendo i toni di alcuni interventi è naturale che esprimano il loro parere anche in disaccordo come è giusto che sia però non posso fare a meno che citare due interventi uno è quello del senatore Gasparri lui c'è la fissa proprio con con il movimento 5 stelle e intanto è strano senatore Gasparri perché le stelle sono motivo di ispirazione le stelle fanno sognare spesso danno anche la via a lei invece fanno venire gli incubi quindi non lo so veda un po' lei poi c'è una domanda che è rimasta in sospesa e a questa magari cercherò di dare una risposta io e del senatore Romeo che diceva al presidente Conte ma chi sarà mai lei presidente Conte ma perché è così difeso glielo spiego io perché lei è il presidente del consiglio più amato dagli italiani e la verità è questa l'Italia sta attraversando un indubbio momento di difficoltà una difficoltà così grave non si vedeva nel periodo della guerra perché quella che stiamo affrontando è qualcosa che va anche al di là della guerra i numeri anche in questi giorni sono drammatici i contagi sembrano lentamente diminuire ma sono ancora molto molto elevati anche il numero dei morti e sono sincero dico a voi cittadini fuori ma anche a voi colleghi l'ultima cosa che mi sarei aspettato di fare oggi e mi sarei augurato di fare è parlare di una crisi di governo di un meccanismo che difficilmente riusciamo a spiegare all'interno di quest'aula all'interno di questi palazzi e difficilmente riusciamo a spiegare ai cittadini che stanno che stanno fuori perché vedete è chiaro che un governo formato da una maggioranza eterogenea va avanti anche con una serie di difficoltà ma io ritengo che il lavoro fatto da questa maggioranza sia un lavoro con risultati più che apprezzabili in un momento così difficile l'Italia ha saputo intervenire in maniera celere per bloccare questa epidemia il piano vaccinale l'Italia è intervenuta dai primi è la nazione che ha in Europa il più alto numero di vaccinati ad oggi e questo è un dato che abbiamo avuto grazie all'azione fatta dal ministro speranza e grazie all'azione di questa maggioranza le misure economiche contro la crisi più di 40 provvedimenti per contrastare l'epidemia 100 miliardi sono stati il valore più di 100 miliardi gli scostamenti 4 che abbiamo già votato e un altro nei prossimi giorni ne voteremo per circa 32 miliardi ecco queste sono solo alcune delle misure che questa maggioranza ha consentito al governo di portare avanti per dare delle risposte immediate ai cittadini che stanno fuori abbiamo anche varato delle misure che danno chi non vuol vederle continuerà a non vederle comunque ma alcune danno una visione innovativa a questo paese mi riferisco al super bonus cioè la possibilità di rinnovare il patrimonio edilizio privato degli italiani per migliorarlo dal punto di vista anche statico e allora queste sono misure che hanno dato boccate di ossigeno di ossigeno enormi a comparti come quello dell'edilizia che vada nord al sud e allora vedete colleghi io stavolta non posso non ho un modo emotivo di andare contro le opposizioni perché questa crisi è stata voluta dalla maggioranza e allora è lì io non riesco a comprendere la reale motivazione in questi giorni e anche nei mesi precedenti io ho un ottimo rapporto con i colleghi d'Italia Viva e questo abbiamo lavorato bene nelle commissioni ci confrontiamo continuamente ma questa crisi voluta non so se da tutta Italia Viva o soltanto da una persona è realmente incomprensibile credetemi fuori la gente non che non ha capito la gente ha capito bene che sono modalità e strategie che non si adattano alla gravità del momento storico che stiamo vivendo e allora andiamo avanti andiamo avanti che fa bene il Presidente Conte ad aprire ad una maggioranza che sia più ampia possibile perché l'eccezionalità del momento merita di rompere gli schemi e di fare dei ragionamenti più ampi possibili e no non è il mercato delle vacche quello che accadeva anni fa in questi palazzi non è quello stiamo parlando di un momento storico assolutamente eccezionale e come tale va trattato il cambiamento è già iniziato grazie al lavoro di questa maggioranza considerate che in questi giorni si sta svolgendo un processo che è quello della rinascita Scott che è il processo che è la più grande operazione antimafia dopo il più grande processo allora io approfitto di questo mio breve spazio per esprimere la mia gratitudine a nome mio di tutto il gruppo e di tutti gli italiani al procuratore Gratteri per l'eccezionale lavoro che sta portando avanti voglio ringraziare anche il voglio ringraziare anche il ministro Speranza per la risposta che ha dato alla Moratti perché come se dovessero esserci delle priorità sul vaccino da dare alle regioni sulla base del PIL come se i ricchi devono vaccinarsi prima dei più poveri ha fatto bene Presidente ha fatto bene mi accingo a chiudere Presidente Conte le ho già espresso la mia personale vicinanza e appoggio e lo faccio anche a nome di tutto quanto il Movimento 5 Stelle tutto quanto in un blocco unico chiudo citando un libro che invito tutti quanti un libro che si chiama Il Profumo della Speranza che è scritto da un giovane poliziotto trapanese adottato quando era in fasce allora lui è arrivato a un certo punto della sua vita ha trovato l'esigenza di ritrovare le proprie radici e questo è un tema che invito Presidente quello della ricerca delle proprie origini che dobbiamo affrontare ha fatto questo percorso che l'ha portato da solo un po' come Salmoni controcorrente a ritrovare le proprie origini a ritrovare i propri genitori biologici in Brasile vede Presidente mi piace concludere così lei sta dando agli italiani quel profumo di speranza quel profumo di una ripartenza che deve assolutamente esserci quindi Presidente Conte vada avanti non si volti che dietro a lei ci sarà tutto il Movimento 5 Stelle tutta la maggioranza ma soprattutto c'è il popolo italiano vada avanti ha chiesto di parlare il senatore Mari Lottini a facoltà per 5 minuti grazie Presidente grazie Presidente Presidente del Consiglio Ministri colleghi la crisi politica causata da Italia Viva è senza dubbio intempestiva e inopportuna per il momento che sta attraversando il Paese i cittadini ci chiedono soluzioni non tentennamenti e noi abbiamo il dovere di superare quanto prima questa situazione di incertezza questa crisi può essere comunque l'occasione per una ripartenza con un patto di legislatura che ponga alla base del rilancio dell'azione di governo alcune imprescindibili misure strutturali legate alla tenuta economica del sistema Paese ma anche per un maggior impegno della coalizione progressista e riformista nel campo dei diritti civili e delle persone fragili innanzitutto non possiamo perdere il treno del Recovery Fund programma Next Generation EU varato dall'Unione Europea che destina 209 miliardi dei 750 pari al 28% all'Italia con l'esplicito mandato di promuovere lo sviluppo sostenibile di ridurre le diseguaglianze sociali e territoriali di sostenere l'innovazione tecnologica e accrescere la competitività coesione diseguaglianze sviluppo sostenibile tecnologico richiamano la nostra attenzione al mezzogiorno e alle isole vent'anni fa abbiamo perso l'occasione di inserire l'area mediterranea all'interno delle reti transeuropee fondamentali per la realizzazione del mercato unico europeo da allora anche per effetto del combinato disposto dei mutamenti geopolitici avvenuti nell'area mediterranea conseguenti ai nuovi venti di guerra dopo l'11 settembre del 2001 sono peggiorate tutte le condizioni economiche e sociali del mezzogiorno con i parametri scelti per attribuire le risorse disoccupazione reddito pro capite forte emigrazione giovanile e spopolamento perdita accumulata di pil 111 dei 209 miliardi di euro sarebbero riconducibili al sud e al sistema insulare è interesse dell'Europa riattivare le politiche euro-mediterranee è interesse dell'Italia che il mezzogiorno possa contribuire alla ricchezza nazionale serve che le risorse siano prioritariamente indirizzate a bloccare il crescente divario infrastrutturale tra regioni meridionali e settentrionali d'Italia colmare il deficit di reti stradali ferrovie veloci infrastrutture portuali e autostrade del mare è essenziale per mettere a sistema un territorio oggi frantumato con aree costiere porti e aree interne reciprocamente inaccessibili serve che le infrastrutture siano funzionali alla rigenerazione urbana alla mitigazione dei rischi naturali ad un rilancio delle vocazioni turistiche culturali di terziario avanzato sarebbe necessario promuovere attività economiche in armonia con la natura dei territori tali interventi strutturali dovranno anche fornire un contributo decisivo alla mitigazione del rischio sismico e idrogeologico non meno importanti sono gli investimenti sulle infrastrutture tecnologiche e scientifiche come l'instant telescope che potrebbero offrire un'occasione di sviluppo e al contempo contenere la fuga di giovani e creativementi aggiungo un richiamo per me imprescindibile alla questione dei diritti civili la ritrovata coesione della maggioranza deve passare con un rilancio dell'azione di governo e del Parlamento su temi che attengono da anni soluzione la questione dello ius soli non è più rinviabile ed era già stata posta da alcune forze di governo al momento del conte 2 ora va ripresa e messa all'ordine del giorno uguale attenzione va posta sulla trasparenza degli atti custoditi dallo Stato e fin qui secretati e dunque non disponibili per la consultazione da parte dei cittadini serve trasparenza servono procedure snelle per l'accesso e tempi certi affinché i ministrativi secretati siano resi pubblici e oggetto di un confronto tra le forze sociali politiche di maggioranza e di opposizione io credo che sia arrivato anche il momento di risolvere un altro tema e concludo il tema delle persone fragili affinché sia loro garantita adeguata tutela assistenza a oltre 40 anni dalla legge basaglia 16 dall'approvazione della legge sull'amministrazione di sostegno gli istituti dell'interdizione e della inabilitazione sono ancora anacronisticamente abusati nel nostro ordinamento è arrivato il momento di sanare questo vulnus bene con questo auspicio io rinnovo la fiducia affinché lei presidente del consiglio possa andare avanti forza varis che tradotto dalla lingua sarda in italiano significa avanti insieme grazie sospendo la seduta fino alle 17.30 per la sanificazione e convoco subito la catigruppo grazie a tutti grazie a tutti la seduta è ripresa la conferenza dei catigruppo approvato il calendario dei lavori fino al 26 gennaio domani alle ore 10.30 sarà ricordato dalla presidenza l'ex senatore misterville recentemente scomparso i gruppi potranno intervenire per tre minuti a gruppo seguirà la deliberazione dell'assemblea sulla questione pregiudiziale presentata ai sensi dell'articolo 78.3 del regolamento sul decreto leggere canto ulteriori disposizioni di contenimento del covid 19 ed elezioni per l'anno 2021 presentato giovedì scorso al senato sempre domani alle ore 16 la presidenza comorerà l'ex senatore Macaluso venuto a mancare questa mattina i gruppi potranno intervenire per tre minuti sarà poi discussa la relazione sullo scostamento dall'obiettivo di medio termine per il cui voto è prevista la maggioranza assoluta dei componenti del senato i tempi sono stati ripartiti tra i gruppi per complessive due ore e trenta minuti incluse le dichiarazioni di voto oltre agli interventi del relatore e del governo l'assemblea tornerà a riunirsi martedì 26 gennaio alle ore 16.30 con comunicazioni del presidente sul prossimo calendario dei lavori che sarà definito dalla conferenza dei capigruppo convocata per le ore 15 dello stesso giorno proseguiamo con la discussione generale ha chiesto di intervenire il senatore Renzi scusate c'è troppo brusio il senatore Renzi ne ha facoltà per 20 minuti signora presidente del senato signor presidente del consiglio dei ministri onorevoli colleghi questo luogo esige e merita rispetto e la sua valutazione signor presidente rispetto al fatto che questa crisi è incomprensibile impone a noi di Italia Viva e a me personalmente di prendere al volo l'opportunità e di dirle guardandola negli occhi che cosa ha portato ciascuno di noi in questi mesi ad allontanare il proprio cammino dal cammino del governo quando una storia volge al termine vale la pena dirsi le cose senza che rimanga niente in sospeso noi pensiamo che il suo governo non sia il governo più bello del mondo non sia come lei ha detto il governo migliore del mondo pensiamo che per la drammaticità della pandemia per la tragedia in corso ci sia bisogno di un governo più forte noi non pensiamo che davanti alla tragedia che questo paese sta vivendo e che lei ricorda puntualmente qui e altrove possa bastare la narrazione politica degli altri paesi ci copiano siamo un modello non è stata aperta ancora una crisi istituzionale la prima è la crisi economica l'Italia è il paese messo peggio di tutti dal punto di vista della caduta del pil nell'anno 2020 meno 10% e le previsioni ottimistiche del ministero dell'economia e della finanza che prevedono una crescita del più 6% sono smentite innanzitutto dalla Banca d'Italia che prevede per il 2021 una crescita dimezzata rispetto a quelle dell'esecutivo abbiamo dunque un record negativo i peggiori al mondo sull'economia c'è un secondo elemento drammatico la crisi sanitaria i nostri infermieri sono straordinari i nostri medici sono straordinari il nostro personale è straordinario ma l'Italia è il paese al mondo che ha il peggior rapporto tra popolazione e decessi per covid questo porta a fare una riflessione non può bastare la narrazione del come siamo stati bravi o dell'andrà tutto bene occorre investire di più in sanità farlo meglio farlo adesso terzo e ultimo punto tra i tanti abbiamo il record negativo nella crisi educativa e scolastica non se ne parla mai in modo strategico è compiuto e quando io ho provato insieme ai miei colleghi nel marzo del 2020 a dire organizziamoci per tempo per ripartire con la scuola è stato un coro unanime di dire questo non è il momento ma il dato di fatto è che l'Italia è il paese che ha mandato i propri ragazzi a scuola meno di tutti gli altri in Europa questi tre record negativi sono macini che non sono entrati nel suo discorso signor Presidente io mi sarei aspettato da lei un elenco ambizioso non di titoli o un sommario di punti aperti ma un grande sogno per il futuro del paese una visione un orizzonte noi non abbiamo chiesto a lei di essere accontentati con qualche posto le abbiamo detto apriamo in Parlamento un grande dibattito su quello che deve essere il futuro del paese e poi facciamolo davvero lei ha avuto paura signor Presidente di salire al Quirinale il giorno dopo le divisioni non perché abbia messo al centro il destino del paese ma perché ha scelto un arrocco istituzionale che spero che sia utile per lei per il governo ma temo sia dannoso per le istituzioni ha chiesto chiarezza trasparenza franchezza come vede l'accontento e lei dice i cittadini non capiscono anzi non capisco neanche io signor Presidente io stima della sua intelligenza non faccia porto alla sua intelligenza sono mesi in quest'Aula che le stiamo chiedendo con rispetto una svolta nel mese di maggio il ministro che siede la sua destra il ministro Bonafede è stato oggetto di una mozione di sfiducia che noi condividevamo lei si è alzato in quest'Aula e ha chiesto alla maggioranza un gesto di responsabilità noi l'abbiamo seguita signor Presidente nel mese di luglio io mi sono alzato da questo banco e ho chiesto che il mese di agosto fosse dedicato soltanto a discutere del recovery plan non siamo stati seguiti non siamo stati accontentati anzi quando è arrivata una bozza indecente del recovery plan nel mese di dicembre in consiglio dei ministri e noi abbiamo detto non è il caso di parlarne un ministro del suo governo ha detto Renzi è come Orban vuole bloccare il recovery plan nel mese di settembre dopo le elezioni regionali Italia Viva ma non solo Italia Viva ha utilizzato queste parole cambio di passo salto di qualità nel mese di novembre ci siamo incontrati due volte a Palazzo Chigi la sua ospitalità è stata straordinaria come sempre e ci siamo detti di fare un tavolo politico entro il mese per chiudere i problemi aperti nel mese di dicembre le abbiamo scritto una lettera di quattro pagine a cui lei non ha mai risposto nel mese di gennaio abbiamo mandato al Partito Democratico e agli altri partiti della coalizione in un elenco con i 30 dossier principali signor Presidente non faccia torto alla sua intelligenza ma neanche alla nostra sono mesi che vi chiediamo di cambiare sono mesi che vi chiediamo una svolta e non è vero che siamo stati impazienti o irresponsabili forse siamo stati fin troppo pazienti c'è bisogno di dirsi le cose in faccia in un modo liberatorio tranquillo lei ha detto non è questo il momento di una crisi lo hanno detto in tanti l'hanno detto anche i miei amici al Bari è una comunicazione che è passata questo non è il momento per aprire una crisi Presidente io la rispetto ma questo è il momento per guardarsi veramente fino in fondo dentro e decidere lei che conosce il greco meglio di me sa che questo è un kairos un momento opportuno perché ora o mai più ora o mai più si può fare la discussione chi dice che durante la pandemia non si può parlare di politica nega tra le libertà costituzionali rimosse in questo periodo persino quella doverosa di occuparsi del bene comune ora ci giochiamo il futuro non tra sei mesi Presidente ora o mai più perché c'è un nuovo presidente negli Stati Uniti d'America oggi è l'ultima notte in cui Donald Trump dormirà nella stanza di Lincoln da domani si apre una pagina nuova con Joe Biden con il multilateralismo con un uomo che guida gli Stati Uniti avendo una grande passione per l'Europa e per l'Italia Signor Presidente ora o mai più perché qualche giorno fa a Dalula città recentemente visitata dal Ministro degli Esteri si sono fatti degli accordi impressionanti nel mondo arabo che hanno segnato la svolta in particolar modo per la Libia non se ne parla più la Turchia è diventato il paese principale che guida il futuro della Libia e non noi Signor Presidente ora o mai più perché qualche giorno fa mentre noi litigavamo e discutevamo Macron e Merkel hanno chiuso un accordo con le istituzioni europee assieme alla Cina e noi che eravamo stati quelli a firmare per primi tra mille polemiche One Belt One Road non siamo entrati neanche nella partita Signor Presidente ora o mai più perché la Brexit ora gioca la sua sfida che sogno sarebbe permettere ai ragazzi più giovani di poter finalmente immaginare un grande investimento sulle università sugli istituti che sono oggi messi in difficoltà dalla mancanza dell'Erasmus nel Regno Unito quanto sarebbe bello fare delle nostre università il centro d'attrazione quanto sarebbe bello discutere di giovani e di futuro e non soltanto di beghe interne ora o mai più perché questo è l'anno del G20 questo è l'anno del COP26 ora o mai più Presidente perché adesso vanno rimandati i ragazzi a scuola e noi abbiamo fatto una piccola proposta non abbiamo fatto discorsi abbiamo detto iniziamo la settimana prossima le 476.000 le 476.000 dosi della Pfizer diamole agli insegnanti che sono 435.000 gli insegnanti di scuola media superiore e di scuola media inferiore e iniziamo a dire che la scuola è il punto da cui riparte un Paese non i banchi a rotelle 461 milioni di euro buttati via signor Presidente ora o mai più per l'economia perché se noi continuiamo con una logica che purtroppo ha impegnato in parte anche la legge di bilancio di piccoli e micro interventi non usciamo dalla crisi abbiamo il 160% di debito i ragazzi sono chiusi in casa e pagheranno il conto di questa crisi più di tutti gli altri quale Next Generation EU se noi non siamo in condizione di lasciare i nostri figli altro che montagne di debito ora o mai più per il MES signor Presidente noi investiamo 2.700 euro a testa per la sanità la Germania 5.100 euro a testa ci sarà o no un collegamento tra queste due cose dall'aver detto no al MES a giugno ad oggi ha costato 564 milioni alla comunità nazionale sto pensando a tutto il piano Amaldi il piano ricerca che ad esempio in tanti ricercatori hanno chiesto di poter finanziare sto pensando a tutti gli investimenti che possiamo fare per la medicina territoriale ma anche per la medicina personalizzata per l'innovazione tecnologica o lo facciamo ora o non tornerà mai più scusate se uso un tono aulico ma saremo maledetti dai nostri figli se non investiamo ora sulla scuola se non investiamo ora sulla sanità permettetemi di dirvi che questi temi sono temi politici potete essere d'accordo o no ma è di questo che abbiamo discusso fino ad oggi dell'intelligenza artificiale non dell'abolizione della povertà delle città del futuro non della lotteria degli scontrini di come fare dei green jobs dei lavori verdi la possibilità di far crescere l'occupazione non della logica mimbi del terzo settore dell'economia sociale non di chi deve comprare il monte dei Paschi di Siena appoggiandosi a quegli stessi consulenti che vent'anni fa hanno già combinato sufficienti pasticci signor Presidente di questi temi vorremmo parlare con lei del turismo ne dico soltanto uno e poi mi fermo perché voglio arrivare alla parte politica in tutto il mondo chi gira il mondo anche adesso comunque lavora con istituzioni internazionali lo sa ci si sta preparando a un rimbalzo enorme sul turismo perché la gente tenuta in casa per un anno e mezzo quando tra sei mesi tre mesi speriamo prima possibile i vaccini consentiranno di tornare alla normalità ci sarà una molla di investimenti sul turismo pazzesca noi oggi abbiamo la mancanza di un grande investimento su questi temi abbiamo chiesto che il next generation EU potesse investire di più chi perde oggi qualcuno dice Conte, Renzi, Italia Viva mi viene in mente quella pagina dei Malavoglia sicuramente la conosce meglio di me quando lo zio crocifisso riceve la notizia che nella battaglia qualcuno del paese è morto Luca è morto e lo speziale dice ma insomma alla fine abbiamo perso una battaglia è una brutta faccenda e gli viene chiesto ma chi è che ha perso? io noi tutti cioè l'Italia e in quel momento campana di legno risponde dicendo io non ho perso nulla è la stessa cosa che sta avvenendo oggi sembra che la discussione riguardi le singole persone io non ho perso niente noi non abbiamo perso niente presidente ma è l'Italia che sta perdendo la cosa peggiore da perdere che è la più grande occasione più del piano Marshall vedete le poltrone i posti gli incarichi passano si perdono e si riprendono le opportunità mai più ecco perché dico adesso ecco perché le chiedo presidente facciamo un grande investimento sul futuro ecco perché le chiedo presidente faccia un passo in più le ho chiesto più che le chiedo adesso le ho chiesto in passato faccia un passo in avanti non trasformi soltanto in una mera distribuzione di incarichi io capisco presidente non lo dico con ironia che lei arrivi alla politica di fatto al primo incarico da presidente del consiglio ed è ovviamente una grande responsabilità ma le è mancato tutta quella parte di politica che è la gavetta che è l'impegno che sono le battaglie vinte perse e lei probabilmente immagina che la politica sia davvero l'arte difficile del governo che è difficile nonostante le ironie di qualcuno è molto difficile ma in quest'arte del governo presidente non possiamo limitarci a attribuire una poltrona uno all'altro per avere in piedi una maggioranza lo dico perché lei ha dato l'impressione ad alcuni colleghi dell'opposizione che l'hanno detto sui giornali e l'ha dato anche a qualcuno di noi l'idea di preoccuparsi in questo momento più di piazzare qualcuno al posto giusto lei devo dire che non ha mai mancato di rispetto a me quando sono venuto a trovarla ha detto con grande gentilezza se ero interessato a degli incarichi internazionali e io l'ho detto con altrettanta gentilezza di no per un motivo molto semplice che in questo momento non è in ballo il destino personale di Tizio Caio Sempronio in questo momento è in ballo il futuro del paese ecco perché capisco che facciate fatica a accettarlo capisco che facciate fatica a accettarlo ma quando due donne si dimettono dall'incarico di ministero e lo fanno con la storia di Teresa Bellanova sindacalista deputata ministra della Repubblica dovreste avere rispetto per chi abbandona una poltrona in cambio di un'idea quando Elena Bonetti torna all'università lasciando il Parlamento fa una cosa enorme che nella storia repubblicana non veniva fatta da una squadra dal 1990 e andate a studiare la storia chi erano quei ministri che si dimisero e quando questo gesto nobile viene oggetto di ironie signor Presidente stiamo perdendo la realtà perché lei Presidente ha fatto l'opposto lei ha cambiato la terza maggioranza in tre anni pur di restare dov'è lei signor Presidente ha governato con Matteo Salvini oggi so che è il punto di riferimento del progressismo ma lei è stato il Presidente del Consiglio che ha firmato i decreti Salvini sull'immigrazione che ha firmato quota 100 poi è diventato europeista io ne sono felice orgoglioso poi adesso si accingi alla terza maggioranza diversa però ci risparmi la frase l'agenda Biden è la mia agenda dopo aver detto l'agenda Trump è la mia agenda Presidente rispetto agli Stati Uniti d'America lei rappresenta l'Italia non cerchi di avere un atteggiamento provinciale per il quale a seconda del capo lo accontenta dicendo che la nostra agenda è la loro agenda noi dobbiamo avere un atteggiamento profondamente diverso se lei va all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e rivendica il suo sovranismo con una tesi per me discutibile che è la sovranità che il sovranismo sia in Costituzione ma è una mia opinione lei non può poi venire a dire che vuol fare il leader antisovranista se lei va alla scuola di formazione della Lega con Armando Siri a dire che lei è populista non venga a dire che adesso vuole governare una maggioranza antipopulista signor Presidente lei non può cambiare le idee per mantenere la poltrona abbia la forza di fare una cosa diversa lanci un messaggio profondo al Paese racconti che c'è uno spazio per tutti noi e questo spazio per tutti noi maggioranza e opposizione è uno spazio che non può essere cancellato dal fatto ballucci al 2% vedete ho sentito autorevoli leader dire che la popolarità impedisce di parlare come può uno con bassa popolarità portare le sue idee questa è la trasformazione finale della politica in reality show questa è l'idea che il consenso prevale sulle idee questa è l'idea che tu non puoi parlare perché non hai il consenso quando poi scopri che quando chiedi una cosa sui servizi segreti ti dicono di no la prima volta la seconda la terza alla quarta ti dicono di sì non sono i sondaggi a governare un Paese e allora signor Presidente io ho tre cose da dirle in conclusione la prima lei ha scelto del tutto legittimamente una strategia a fronte di una nostra richiesta di politica a fronte di parlare dei giovani dell'innovazione del turismo della tecnologia lei ha scelto di arroccarsi ha detto vado in Parlamento qualche collaboratore zelante del suo staff ha dimostrato che lei utilizza la comunicazione istituzionale da Palazzo Chigi con i soldi pagati dal contribuente per attaccare gli avversari politici a meno che non sia davvero un caso di hacker che sarebbe una cosa gravissima ed ha scelto signor Presidente di giocare la carta dell'attacco sull'altro in nome della irresponsabilità chi è irresponsabile chi le chiede di parlare di politica e le offre uno spazio concreto per ragionare del futuro del Paese o chi dice di no i soldi per la sanità con la stessa forza con cui diceva no i vaccini no all'euro no alla TAV ed oggi ci spiega l'importanza della sanità dell'europeismo delle infrastrutture signor Presidente del Consiglio lei può venire in Parlamento e trovare la maggioranza vediamo se arriverà a 161 ci sono stati dei momenti nella storia repubblicana in cui questa maggioranza non è stata trovata lo dico rivolgendomi agli amici e compagni del Partito Democratico nel 1987 il capogruppo della democrazia cristiana di fronte a un governo della non sfiducia si chiamava Mino Martinazzoli disse queste parole non stiamo al gioco insomma e se ci viene fatto di chiedere piuttosto se la vostra gremita ed esuberante compagnia sia poi così allegra e spensierata o se non avverta la nostalgia di qualcosa di impegnativo che la riassicuri io credo che la politica è altrove e che prima o poi voi dovete tornarci noi vi aspetteremo lì penso che questa sia la discussione se volete una chiacchiera astratta sui grandi temi fatela se volete risposte concrete agli italiani ed è il secondo punto fate presto fate presto volete andare avanti con una maggioranza raccoglificia davanti al più grande piano per il futuro del paese vi auguro che sia almeno maggioranza raccoglificia lo è di sicuro vi auguro che sia maggioranza ma fate presto perché non avete tempo da perdere terzo e ultimo punto se voi ve ne andate perderete tutto ci hanno detto sì sì e lo diciamo guardandovi negli occhi perché per noi a differenza di altri la politica non è cambiare le idee per mantenersi nella stessa poltrona ma c'è un punto fondamentale che voglio dire con grande chiarezza ed è il seguente signor Presidente quando quest'estate i ragazzi di Italia Viva andranno alla scuola di formazione politica avranno un messaggio da Teresa Bellanova Elena Bonetti Ivan Scalfarotto e cioè che quando si fa politica si può anche rinunciare a una poltrona non si può rinunciare a un'idea mi auguro che nei prossimi giorni nelle prossime settimane lei metta al centro le idee e non lo scambio di poltrona perché il Paese in questo momento non si merita un mercato indecoroso ha chiesto di parlare il senatore Larussa ne ha facoltà per nove minuti grazie presidente vede devo cambiare tutto il mio intervento perché non ho bisogno di fare critiche a questo governo se la fanno da soli io mi riporto integralmente alla critica a questo governo fatto da quello che l'ha fondato da quello che l'ha voluto da quello che ci ha imposto con una manovra abilissima il governo dei 5 stelle più tutti gli altri che fino a quel momento nei confronti del governo giallorosso e quindi di 5 stelle dicevano peste e corna neanche una parola ho bisogno di aggiungere presidente del consiglio per manifestare la mia contrarietà come lei ha gestito non solo il covid ma tutta la vicenda della politica dell'economia dei diritti degli italiani da quando è presidente del consiglio peraltro in buona parte anche nella sua prima versione lei in realtà però devo ammetterlo è un uomo di successo per carità è un perdente di successo ma pur sempre di successo però è un perdente perché non ha vinto le elezioni anzi per la verità non mi ha neanche partecipato non ha neanche comprato il biglietto della lotteria ha perso la scommessa del governo con Salvini ha perso la fiducia di Renzi lo abbiamo sentito di chi ha inventato questo governo ha perso anche la faccia non presentandosi di missionario dopo che due ministri si erano dimessi e gli è stato tolto l'appoggio e un perdente di successo ha colorato se stesso di ogni colore più colori di quanti lei abbia attribuito in tempo di coronavirus alle povere regioni italiane ora ci dice che vuole voltare pagina presidente capisco che è in tutt'altre faccende affaccendato che non ha bisogno di sentire critiche perché lei ha già il suo ego non ha bisogno di ascoltare noi come non l'ha mai fatto in questi mesi ma io glielo dico lo stesso lei dice che vuole voltare pagina con i valori dice lei della politica alta quella politica che a me piace molto quella politica per passione non per interesse quella politica che rigetta ogni tipo di scelta per pura convenienza e opportunismo ma vede presidente del consiglio io le devo dire che in realtà lei sta dando ragione e non avrei mai pensato di doverlo credere a quello che dichiarò il presidente degli Stati Uniti Reagan a cui io non ho mai creduto quando diceva si ritiene che la politica sia il secondo mestiere del mondo sono arrivato dice Reagan diceva Reagan a rendermi conto che è fortemente somigliante al primo mestiere scelto dall'umanità vede in realtà il suo intervento al netto del falso trionfalismo e degli immancabili buoni e irraggiungibili obiettivi per il futuro è solo un misero tentativo di convincere qualche senatore qualche senatore in cerca di autore o forse di risorse per il mutuo della casa da pagare a voltare le spalle agli elettori che lo hanno mandato qui e a darle quei voti che lei spera siano sufficienti a farlo galleggiare ancora lei ha cercato in tutto il suo intervento di fare una captazio benevolenza che è presente in ogni sua parola alla ricerca di bisognosi altro che di costruttori bisognosi quanto meno quanto meno di tornare o di restare il più a lungo possibile in Parlamento lei ha cercato disperatamente di offrire dignità a chi se la votasse avrebbe solo il disgusto che si riserva ai traditori disgusto va di bene che in cuor suo in cuor vostro riservate anche voi a chi cambia a chi cambia bandiera lei è riuscito non è riuscito ci ha provato a dividere il centro-destra e lei fa appello ufficialmente a chi secondo la sua visione potrebbe rappresentare culture politiche importanti da aggiungere ai post comunisti ai post-salinisti ai grillini e prosperini che già la votano si rivolge a liberali popolari autonomisti socialisti e chi più ne ha più ne metta tutti insieme ma non so c'è troppo brusio per cortesia non riesco a percepire bene l'intervento a me non disturba ma non solo noi di fratelli d'italia che ci definiamo patrioti non solo la lega che lei dice di non molere come la volpe con l'uva ma anche forza italia toti lupi quagliarello cese la più socialista di tutti i presenti qui cioè stefania craxi le hanno detto di no tutti come per altri motivi le ha detto invece il suo amico Mastella che poi è venuto a farle da spalla le hanno detto ca nessuno è fesso come ha detto esattamente Mastella ma lei sa bene che in ogni caso non arriverà a 161 voti in ogni caso lei non raggiungerà quella maggioranza degli aventi diritti al voto e questo nonostante il soccorso poco comprensibile dei senatori a vita che rischiano così di dare ragione a quelli che vorrebbero abolire l'articolo della Costituzione che lì che consente loro di essere qua e allora la verità è che lei mi ascolti su questo passaggio presidente fallito ogni tentativo di trovare sponda sufficiente in chi è opposizione a questo governo per continuare a vivacchiare avrà bisogno di tutti o di parte dei 18 senatori del gruppo di reggi la sfido presidente del consiglio avvocato conte la sfido a dichiarare nella sua replica che se per caso non credo ma se per caso superasse i voti del centrodestra grazie a senatori renziani uno due tre tutti e 18 17 che sono lei non accetterà quei voti dopo quello che ha sentito da Renzi si dimetterà certo non ho sentito di fatti nessuno di questi 17 esprimere opinioni diverse e sarebbe possibile se l'avessero fatto in maniera trasparente non l'hanno fatto e allora la sfido o lei ha i 161 voti o almeno un voto più del centrodestra senza i voti dei renziani o lei deve andare a dimettersi e senza questa minima maggioranza prevista per molte votazioni a partire da quella di domani sullo scostamento di bilancio senza questa maggioranza di 161 avvocato conte lei lei la melone l'ha definito avvocato d'ufficio in realtà da avvocato è diventato carceriere degli italiani ma comunque lei pensa davvero pensa davvero di di ottenere dal presidente della repubblica l'assenso perché lei continui a fare con questi numeri il presidente del consiglio non manco certo di rispetto ricordando che Mattarella non diede nel 2018 l'incarico al centrodestra a Salvini perché disse che non poteva avere la certezza che ci fosse una maggioranza in Parlamento che sorreggesse quel governo di centrodestra non dico nulla di nuovo e non manco di rispetto se ricordo che tutti tutti i giornali di pochi giorni fa hanno interpretato il pensiero del garante della Costituzione attribuendogli la intenzione che se fosse aperta se si fosse aperta una crisi l'unica strada sarebbero state le elezioni lei pensa davvero che il presidente della Repubblica si smentirà per continuare a farla vivacchiare o lei non ricorda che nel 2011 l'ultimo governo di centrodestra quello di Berlusconi l'8 di novembre del 2011 batté le opposizioni sul rendiconto del bilancio dell'anno precedente lo batté con i voti che però non erano la maggioranza assoluta e andò al collo e si dimise come gli aveva chiesto il presidente della Repubblica di allora era il 12 novembre del 2011 aveva avuto 309 voti alla Camera per questo vede presidente io credo che lei ha messo che possa avere un moto più del centrodestra dovrà dimettersi subito la strada maestra è ridare la voce al popolo la strada maestra è quella di sentire cosa gli italiani pensano del suo governo e che governo vogliono io credo che lei dovrà dimettersi subito se non raggiunge quel livello anche nella malaugurata ipotesi che superasse di un moto il centrodestra più tardi vede tutto si può fare nella vita si può anche vincere avvalendosi del tradimento altrui si può far finta di credere un giorno che ciascuno debba rispondere agli elettori che l'hanno mandato qui e un altro giorno che la Costituzione garantisca a tutti di pensarla anche all'opposto ma a tutto c'è un limite questo limite lei l'ha superato questo limite era invalicabile questo limite la deve portare a rassegnare le dimissioni al termine di questa giornata di lavori grazie ha chiesto di parlare il senatore Errani ne ha facoltà per otto minuti grazie presidente colleghi colleghi presidente Conte io ho apprezzato e condiviso la sua scelta di venire in Parlamento l'unica strada per fare un dibattito chiaro e trasparente ma ha anche apprezzato la sua scelta di evitare il duello perché il problema che abbiamo davanti è un problema politico non uno scontro tra persone e ha parlato a tutti sottolineo questo aspetto a tutti dei problemi gravi che sta vivendo il paese ciò che conta di più non è tanto il nostro giudizio che siamo e rimaniamo convintamente in maggioranza giudizio motivato questa crisi è un atto grave e irresponsabile ciò che conta di più e che fa la cifra del giudizio su chi ha aperto questa crisi è il cortocircuito che si è realizzato nel paese questo è il problema e vorrei dire al senatore Renzi che non è frutto della comunicazione questo cortocircuito è la sostanza di un paese che non può comprendere a fronte di oltre 80.000 morti di una crisi economica drammatica l'apertura di una crisi non lo può comprendere sì la politica non è un reality ma la politica è progetto valori la politica non è l'io ma è il noi e non si può ridurre a manovra e ad azzardo anzi in un momento di discussione è difficilissimo come questo la politica quella con la P maiuscola sa lavorare alla sintesi e alla capacità anche di affrontare i problemi andava tutto bene? No lei lo sa Presidente Conte io ho sottolineato in diversi passaggi no non andava tutto bene anche se qui nessuno può fare lezioni perché ci siamo trovati in una situazione inedita e ho già detto tante volte nessuno può fare quello che ha la verità in tasca ma il paradosso è che proprio nel momento in cui si stava lavorando a fare un salto di qualità e le condizioni c'erano lo dico anche ai colleghi di Italia Viva che vivono come noi la difficoltà di questa situazione c'erano le condizioni per fare un salto c'erano i segnali avevamo cambiato migliorato i ricoveri qualcuno ha deciso di aprire la crisi con tutto ciò che significa sul piano internazionale basta leggere la rassegna stampa allora quale dovrebbe essere lo sbocco di questa crisi al buio fare finta che non è successo nulla guardate non è un problema di ripicche o di rancori temo che il problema sia più serio la domanda che ci dobbiamo fare è se noi rispondessimo che non è successo nulla lo capirebbe il paese è questo il problema non è che ad un'azione politica che destruttura e smonta si può far finta che non sia successo niente in discussione c'è la credibilità della politica e dunque io questa crisi la voglio prendere sul serio ed è evidente che per risolverla non si può dare mandato alla manovra politica ma come ha detto lei Presidente qui occorre un rilancio con un chiaro progetto politico del resto se vogliamo essere chiari lo scontro politico nel mondo oggi è chiarissimo è su due visioni nel mondo in Europa e anche in Italia lo abbiamo visto negli Stati Uniti anche nei suoi aspetti più drammatici ed è così anche qui da una parte una destra sovranista e insieme per giunta liberista che investe sulla paura e sollecita ogni egoismo e se qualcuno avesse avuto dei dubbi la drammatica idea di distribuire i vaccini in base al PIL è una triste e drammatica conferma dall'altra parte dall'altra parte c'è l'idea la nostra convintamente europeisti per cambiare l'Europa per una nuova Europa che scommetta sulla comunità c'è la nostra idea di promuovere nella crisi economica e sociale drammatica un nuovo modello di sviluppo una nuova idea di società le trasformazioni ecologiche le vecchie e nuove disuguaglianze una nuova redistribuzione del lavoro la rivoluzione tecnologica è già cambiato tutto anche prima del covid e il nostro problema presidente è prima di tutto questo che in questo paese non si risponda con il nulla cambia dunque non stiamo cercando un progetto trasformista non stiamo cercando una qualche ancora o galeggiante per stare in piedi del resto non c'è consapevolezza ancora di questo ma il sistema politico cambierà l'attuale sistema politico è inadeguato è inadeguato rispondere ai problemi del paese e per questo occorre un di più di politica non cerchiamo tradimenti e non date lezione 14 dicembre del 2010 ricordatevi con i voti di Silipotti 314 voti salvano Berlusconi a 311 ministri Gelmini Meloni Calderoli ricordiamocelo nessuno deve fare lezioni dobbiamo riconoscere e questa è l'ultima cosa che voglio dire che anche noi questa coalizione deve fare un salto di qualità e superare i limiti che abbiamo avuto vogliamo cambiare il paese proporre un patto sociale avere il coraggio di mettere in discussione rendite di posizione allora questo non è un compito solo suo presidente no questo è il compito di tutta la maggioranza non siamo per non possiamo stare in piedi semplicemente contro la destra ma dobbiamo avere e rilanciare la nostra idea di paese siamo in emergenza ma dobbiamo ora costruire l'idea di paese che proponiamo gli italiani una coalizione che finalmente si dà una cultura politica apriamolo subito questo cantiere dovremo cambiare anche noi tutti dovremo fare il patto di legislatura ma soprattutto darci l'obiettivo ambizioso di essere un nuovo riferimento per il paese altro che trasformismi altro che acquisti traditori di costruire una vera visione che sia in grado di dare certezza all'Italia ha chiesto di parlare il senatore Mirabelli ne ha facoltà per otto minuti grazie presidente presidente signor presidente del consiglio noi voteremo la fiducia al suo governo al nostro governo e voglio andare controcorrente innanzitutto per quello che è stato fatto in questi sedici mesi per come primi in Europa abbiamo affrontato la pandemia ma anche perché questo governo ha restituito credibilità all'Italia in Europa gli ha riconosciuto un ruolo questo è il governo che ha ridotto le tasse sul lavoro ha cambiato i decreti di sicurezza riaffermando i diritti umani e civili e oggi oggi ha saputo e sa organizzare una campagna vaccinale che ci vede all'avanguardia in Europa parto da qui non solo perché è giusto ma perché capisco che l'opposizione che è spesso abituata a agitare e a sottolineare soltanto i problemi nasconda ciò che abbiamo fatto ma non capisco lo dico davvero ai senatori di Italia Viva come sia possibile per una forza che ha condiviso e sostenuto questi interventi non riconoscerli non rivendicarli con orgoglio sono stupito si parli coi toni che ho ascoltato di un'esperienza di governo di cui si è stati protagonisti misurandoci insieme con una tragedia sanitaria economica e sociale senza precedenti per un anno l'abbiamo fatto e guardate tra l'altro ci tengo inviterei di fronte alla drammaticità della pandemia a smettere di sbandierare e usare come un randello che siamo il paese con più morti nel mondo primo perché non è vero secondo perché in quel dato c'è un peso preponderante del dato di una sola regione la Lombardia dove la mortalità sia il rapporto alla popolazione sia i contagi è tre o quattro volte più alta rispetto alle altre regioni segno che chi non ha saputo curare non è solo né soprattutto stato il governo ma presidente voteremo la fiducia anche perché nelle sue parole e nei suoi impegni abbiamo ritrovato una comune consapevolezza della necessità di un salto di qualità consapevolezza che non tutto è andato bene non è vero che lei ha detto che questo è il migliore dei governi possibili la consapevolezza che scontiamo ancora troppi ritardi e troppe lentezze che serve un patto di legislatura che ci consenta di dare una prospettiva al Paese e fare le riforme bene è quello che anche il PD aveva chiesto così come abbiamo ritrovato molte delle nostre proposte e osservazioni nel recovery plan presentato alle Camere che siamo sicuri miglioreranno ulteriormente il piano questo Paese non meritava l'apertura di una crisi in piena pandemia vede senatore Renzi la crisi non risolve neanche uno dei problemi che lei ha elencato le persone che vivono tante incertezze e tante insicurezza di fronte alla pandemia e alle incognite sul futuro non capiscono non capiscono una politica che discute anziché di come unirsi per affrontare le emergenze della crisi discute invece di crisi politica e di distingo guardate è un problema di tutti non solo di chi ha aperto la crisi perché evitare di allontanare i cittadini dalla politica delle istituzioni è compito di tutti ed è responsabilità di tutti questa maggioranza è nata tra diversi anche tra avversari ma è nata per evitare che l'Italia fosse portata lontano dall'Europa e la difesa della collocazione europea che ci ha consentito di ricostruire una credibilità in Europa è ancora un collante decisivo per la coalizione di governo non ne vedo altre in questo paese di coalizioni con la stessa chiara e trasparente opzione europeista certamente non lo è il centrodestra con buona pace di Forza Italia non basta ha ragione Presidente o meglio non basta più quel collante il nostro voto di oggi a favore è il voto di una forza certo responsabile che non si accontenta però della governabilità in se stessa ma vuole insieme a lei e alle forze di maggioranza raccogliere l'opportunità che ci viene data per cambiare questo paese per superare i limiti atavici dell'Italia della sua pubblica amministrazione della giustizia civile e penale che vanno riformate subito serve un fatto di legislatura per fare questo abbiamo bisogno di una maggioranza politica coesa larga per affrontare le crisi economica e sociale che il virus non certo il governo come qualcuno lascia intendere a prodotto non solo in Italia ma in tutto il mondo serve una maggioranza politica per guidare i recovery e l'azione di governo per ridurre le diseguaglianze non per favorire chi sta meglio per non lasciare nessuno indietro nessuno da solo non per vaccinare prima i più benestanti come è stato proposto da un assessore Lombardo difendere il lavoro pensare ad un'economia green innovare il paese serve un governo capace di più di mettere velocemente a terra provvedimenti e finanziamenti so che su questo si è costruito una sintonia e un percorso comune bene quindi riprendere i lavori per un patto di legislatura ed è giusto chiedere da domani a chi vuole dare un contributo di unirsi di esserci per dare un contributo al paese è giusto chiedere a chi non pensa che anti-europeismo e sovranismo siano una strada che può dare un futuro a questo paese di essere parte di questa sfida ha chiesto di parlare la senatrice Ronzulli ne ha facoltà per sette minuti grazie presidente senatori onorevoli membri del governo la missione principale di una classe politica tanto più se al governo è progettare il futuro delle prossime generazioni i politici illuminati sono quelli con una visione di lungo periodo e che non guardano solo ai sondaggi o al consenso popolare sappiamo che in politica sono fondamentali le parole buone magari per raccogliere qualche voto in Parlamento o fuori ma poi c'è la realtà una realtà che prima o poi bussa alla porta di chi se la dimentica o prova a raccontarla diversamente ieri ha fatto un appello alla dignità della politica ha parlato di voltare pagina di una prospettiva da costruire sono espressioni nobili dichiarazioni di buona volontà che sarebbero da apprezzare se non fossero solo declamazioni apprezzeremmo l'idea di una svolta se comportasse l'onesto riconoscimento degli errori che avete commesso e delle cose che non avete fatto e soprattutto delle occasioni che non avete sfruttato dopo mesi tragici all'improvviso si era intervista una luce a metà del 2020 l'Europa si accorge finalmente di essere un popolo e mette a disposizione il piano Marshall del ventunesimo secolo e invece cosa fa il governo? niente assolutamente niente l'Italia dopo un anno di questo governo ha due primati fra i grandi paesi del mondo è quello con il più alto tasso di mortalità per coronavirus e oggi ci sono ancora 603 morti e quello con le peggiori previsioni di crescita del PIN si è discusso tante volte in questi mesi se dovessero prevalere le ragioni della salute o quelle dell'economia voi avete risolto il dilemma avete fatto peggio di tutti in un campo e nell'altro questo è il bilancio del vostro governo per questo riteniamo che non possa continuare comunque vada la raccolta di voti che tentate di fare oggi in questa camera e infatti mentre costringeva il Parlamento a lavorare con il pallottogliere la Commissione Europea ha bocciato la proposta di recovery fund presentata dal governo italiano sono inutili oggi i suoi appelli ai liberali e agli europeisti quando nella realtà questo governo ha adottato solo politiche dirigiste assistenzialiste pensiamo al reddito di cittadinanza giustizialiste e stataliste quando nella sua maggioranza c'è chi lavora per introdurre una patrimoniale la fiducia al governo non è un referendum sull'adesione all'Unione Europea o all'Euro io mi preoccuperei dello scarso europeismo che alberga nel principale partito di maggioranza quello che ha posto un veto sul MES negando il potenziamento del nostro sistema sanitario nel bel mezzo di una pandemia e che ha offerto sponda alle manifestazioni anti-Euro o al sostegno dei gine gialli perché noi non l'abbiamo dimenticato Forza Italia grazie alla guida di un uomo di Stato come il Presidente Berlusconi ha seguito la linea della responsabilità quella da lei citata più volte oggi responsabilità ha significato votare gli scostamenti di bilancio responsabilità è aver annunciato che voteremo i provvedimenti per gli italiani a partire dal prossimo decreto ristori sperando che questa volta arrivino veramente nelle tasche degli italiani però e a questo proposito non c'è sfuggito che questa mattina si è corretto ammettendo quanto fatto dal governo finora è ampiamente insufficiente e non paragonabile alle perdite subite responsabilità è presentare questo progetto per il recovery plan è stato un lavoro serio concreto che abbiamo messo a disposizione degli italiani abbiamo un piano molto dettagliato che si muove su tre grandi direttrici riforma del fisco della pubblica amministrazione della giustizia c'è poi tutta la parte sul lavoro sui giovani sul sud sulla sostenibilità ambientale sulla digitalizzazione vede Presidente Conte qui ci sono le risposte che gli italiani si aspettavano da mesi qui ci sono le soluzioni che avreste dovuto dare voi e infine responsabilità significa chiedere una profonda e netta discontinuità una discontinuità che non può essere realizzata dal suo governo ma soltanto da un governo di centrodestra unito forte serio concreto che proponiamo la guida del paese e invece da parte vostra abbiamo sentito solo un elenco di titoli e di presunti successi questo governo non ha avuto una visione e pecca di grave carenze penso al piano vaccini non sa quanti anziani chiamano i medici di famiglia e i pronto soccorso per sapere quando potranno essere vaccinati visto che le piacciono tanto le conferenze stampa perché non ne ha fatta una per spiegare dove come quando e da chi saranno vaccinati avete preso coscienza che quest'aula è il cuore della democrazia parlamentare soltanto oggi perché avete paura di andare a casa e questa è la verità e a questo punto la domanda è legittima Presidente Conte non starà sfruttando questa crisi per afforzare il suo consenso personale e la sua posizione politica nel tentativo di fondare un suo partito se ha tempo nella replica per favore me la dedica una risposta su questo perché agli italiani non interessa sapere questo agli italiani interessa sapere quando arriveranno gli aiuti vorrebbero aiuti per le donne che possano conciliare lavoro e famiglia per i giovani affinché non lascino il nostro paese affinché non siano abbandonati loro stessi gli anziani per esempio serve ancora una riforma del fisco che ha promesso da tanto tempo serve riaprire i cantieri e invece siamo ancora aspettando i commissari gli italiani vogliono sapere gli italiani vogliono sapere come e quando potranno mandare i figli a scuola la grande dimenticata del suo discorso invece eravate concentrati a colorare le regioni presidente conte la storia non si scrive in una notte mentre si è inseguiti dagli spettri di una maggioranza in frantumi ora a disastro a disastro fatto lei supplica aiuto noi l'aiuto lo daremo sempre gli italiani ma mai a questo governo lo ribadiamo con forza serve un governo in grado di decidere di offrire al paese la via per uscire non da questa crisi politica ma dalla crisi economica e sanitaria che ha colpito l'Italia e allora presidente conte ho finito aiutateci lo possono dire solo gli italiani che soffrono e che devono essere aiutati aiuto non lo può chiedere lei che è seduto su quella poltrona per dare aiuto e non per riceverlo grazie ha chiesto di parlare il senatore Bagnai ne ha facoltà per dieci minuti grazie grazie signor presidente sono stato colpito nel discorso tenuto questa mattina al presidente del consiglio da alcune espressioni che mi hanno veramente interessato per la loro improntitudine direi ne cito un paio cito il costante serrato dialogo con tutti i livelli istituzionali basta fare una rapida ricerca su google e si vede che non solo il governatore Zaia Fedriga il presidente Tesei ma perfino il presidente Bonaccini ha lamentato pubblicamente l'assenza di interlocuzione con questo governo e il presidente Bonaccini è come dire affine a questa maggioranza motivo per il quale io ho grande stima per lui per questo suo coraggio politico come lui del resto ha grande autostima di sé cito c'era una forte spinta ideale un investimento di fiducia ma insomma diciamocelo quale spinta ideale l'ideale era solo unirsi contro Matteo Salvini l'ideale era impedire agli italiani di esprimersi con il voto e quindi è chiaro che come un ideale puramente negativo l'investimento di fiducia ha avuto un rendimento negativo come tanti altri investimenti di questi tempi ma non è un dato inatteso noi avevamo avvertito i nostri ex alleati sui rischi che correvano affidandosi a un personaggio ambizioso e spregiudicato e il momento della verità è arrivato con il recovery fund crescentem sequitur cura pecuniam dice Orazio lo dice oggi sul Handelsblatt vos isch das geld mert volk disorgenach tradotto per gli astanti all'arrivo del malloppo è iniziata la lotta per la spartizione molti miliardi nessun progetto così titola il principale quotidiano economico tedesco e quindi non solo gli italiani ma anche i vostri fratelli europei Eurer Brüder non hanno fiducia in voi e perché vedono che la vecchia politica si spartisce il malloppo corre a spartirselo ignorando chi dovrà restituirlo cioè gli italiani e quindi la sfiducia è motivata perché per citare un altro poeta abbiamo di fronte a noi un governo dai piedi di balza inventore di una storia falsa che campa su una menzogna e la menzogna sottostante alla narrazione del governo è l'idea che prima della crisi pandemica tutto andasse bene nel migliore dei mondi possibili la cosiddetta Europa e che a questa crisi la cosiddetta Europa abbia risposto nel modo migliore dando prova di solidarietà riconfermandosi come il migliore dei mondi possibili quindi dobbiamo essere europeisti cioè non buoni buonisti non arrivati arrivisti non giusti giustizialisti non europei europeisti tutto è ideologia qua dentro ma anche qui ci vuole poco a smentire questa narrazione truffaldina no? del resto il meccanismo è sempre quello se siete così bravi perché vi terrorizza il voto? e se prima tutto andava bene perché ora si afferma l'esigenza di cambiare le regole? ex multis il 21 novembre scorso la presidente Ursula von der Leyen ci faceva sapere su Twitter che nessuna regola dovrebbe ostacolare il tentativo dei governi di pompare euro nell'economia nessuna regola dovrebbe quindi ancora oggi riconosceva l'esistenza di un problema con la governance del migliore dei mondi possibili del mondo europeista non andava tutto bene e sarebbe stato sorprendente considerando in che mani siamo nelle mani della stessa von der Leyen che da ministro del lavoro della Repubblica Federale Tedesca il 23 agosto 2011 si univa alla richiesta finlandese di ipotecare il partenone una richiesta che la Finlandia non ha portato benissimo siamo nelle mani di chi ha ritardato una risposta unitaria forte dell'Europa aspettando che la pandemia gli arrivasse in casa e questo è un dato oggettivo se ne è scusata la stessa von der Leyen quindi le cose non andavano bene e lo dicono i numeri nel mondo europeista le cose non andavano bene torno a mettere le numeri a verbale secondo le ultime stime della Banca d'Italia nel 2020 il PIL è diminuito del 9% raggiungendo il livello del 1998 ma in questo balzo all'indietro di 22 anni voglio attirare la vostra attenzione su un punto il Covid ovviamente ha dato un contributo importante ma non poi così determinante perché nel 2019 pre-Covid il PIL era a livello di 15 anni prima a livello del 2004 quindi già da prima della crisi l'arretramento del paese era di 15 anni e già prima della crisi ci sarebbero voluti 20 anni per tornare a livello del PIL del 2007 nel meraviglioso mondo europeista delle regole questo era il mondo del 2019 ma vi do un'altra evidenza palpabile di che cosa sia l'europeismo di cui si parla di cosa siano le regole le riforme vedete fra il 1260 e il 2011 gli investimenti pubblici in questo paese sono cresciuti dell'1,7% medio all'anno mantenendo questa crescita fra il 2012 e il 2019 avrebbero raggiunto circa i 44 miliardi di euro mal contati invece nel 2019 sono stati di 28 miliardi di euro per trovare un valore così basso bisogna risalire fino al 1978 sì avete sentito bene bisogna risalire all'anno del sequestro di Aldo Moro per avere un livello così basso di investimenti pubblici in Italia ma da quei tempi il PIL è raddoppiato e come possiamo pensare di sovvenire al bisogno di infrastrutture di un'economia che ha raddoppiato di volume con una fornitura di infrastrutture che poteva essere forse adeguata 43 anni fa ma vogliamo riflettere insieme su queste cifre non riguardano solo gli elettori della Lega riguardano tutti gli elettori e questo risultato assurdo questi tagli sconsiderati non sono figli di NN sono figli di MM e per questo ci è particolarmente è molto odioso assistere alle spericolate e sterili acrobazie dialettiche di chi continua a raccontarci che il bene del tutto si può conseguire facendo il male delle parti e così pensa di esprimere un pensiero liberale con la tracotanza di chi si sente depositario della verità e dice anche di esserlo fra l'altro essendo in realtà intestatario solo di un fallimento epocale da cui tutti oggi si distanziano qualsiasi progetto di ripresa economica del paese è destinato a fallire senza l'abbandono o almeno un profondo ripensamento delle regole che arrestarono la ripresa nel 2012 e so che c'è consapevolezza di questo in una parte della maggioranza dire in una parte molto ampia e ha fatto bene il collega Pittella a chiedere il 16 settembre scorso al presidente von der Leyen che il patto di stabilità venisse non solo sospeso ma anche riscritto ma la domanda che mi pongo la domanda che tutti ci dobbiamo porre è che ne è stato di questa richiesta a quanto ci consta nulla perché la cosiddetta Europa non è cambiata e la ritorica delle riforme che il premier ha riaffermato è essa stessa qui per smentire la retorica del cambiamento le riforme come ci è stato autorevolmente ricordato sempre dal solito collega sono sempre quelle dell'agosto 2011 sono sempre quelle della lettera di draghi tagli e tasse l'eutanasia non del rantier di cui parlava Keynes ma della classe media imprenditoriale di cui un importante uomo politico italiano ha parlato qualche giorno fa con grande disinvoltura quindi la verità cari colleghi di maggioranza è che in Europa nessuno vi ascolta ora qui il punto è importante per il paese voi ai colleghi ai vostri lettori potete anche vendere come autorevolezza in Europa quella che in effetti è solo cedevolezza qui però siamo abbastanza attrezzati culturalmente da capire che se autorevolezza ci fosse la domanda del collega Pittella avrebbe già avuto una risposta perché da europeo non da europeista vi posso dire che negli altri paesi europei il dibattito sulle regole esiste ed è molto avanti ed è quello il treno che stiamo perdendo invece la cedevolezza vi rende fragili in Europa come le menzogne vi rendono fragili in patria ma la radice del male è sempre la stessa il disallineamento del Parlamento dal Paese il disallineamento dei rappresentanti dai rappresentati questo dato politico è gravissimo ma ovviamente non turba chi aveva come programma di abolire la democrazia rappresentativa vendendo la facile illusione che dal proprio divano di casa si potesse comandare il mondo con un click e non turba ovviamente neanche chi ha la certezza di poter governare a prescindere dal consenso grazie alle sponde che per ora trova negli apparati italiani e soprattutto europei e quindi va tutto bene? Evidentemente no no e lo confessate voi ho sentito dire il Paese merita un governo coeso ma come può essere coeso un governo sostenuto da una cozzaglia di pulsioni irrazionali e minoritarie parlate di visione ma quello che vi unisce è l'istinto di sopravvivenza più che profumo di speranza sento l'odore della paura come si chiama la vostra ciambella di salvataggio? Italia fino al 23 e poi Germania ha aggiunto uno di voi particolarmente spiritoso a questa catena di menzogne la spinta ideale il migliore dei mondi possibili la visione noi vorremmo a nome della maggioranza degli elettori che si ponesse immediata fine ma naturalmente deciderlo non sta a noi sta ai numeri e allora e mi accingo a concludere signor Presidente a questa maggioranza non mi resta che fare tanti auguri voi continuate a lavorare voi continuate a lavorare per darci con i vostri fallimenti un sempre maggior consenso noi vi ringrizziamo e continueremo a lavorare per canalizzare questo consenso in un vero progetto di cambiamento and believe me it will be enough viva l'Italia viva la democrazia ha chiesto di parlare il senatore Cioffi ne ha facoltà per sette minuti grazie Presidente perché siamo qua? ce lo dice l'articolo 1 la sovranità appartiene al popolo ricordiamolo siamo qua per essere il popolo cittadini che prestano il loro cuore e la loro testa al servizio del popolo un popolo composto dai cittadini e cittadini che vivono da anni in una condizione di compressione della loro capacità di spesa colpiti da un sistema in cui per troppi anni la politica ha abdicato di fronte alle logiche della mano invisibile di cui parlava Smith peccato che il mercato perfetto non esista ed è per l'asservimento a quella oramai superata concezione che fallisce il suo teorema fallisce perché non tiene conto dei desideri e delle sofferenze dell'uomo una concezione che più che utopica è distopica visto che prevedeva la mobilità perfetta di quella che Sanders definisce classe lavoratrice gli uomini e le donne non sono macchine o numeri sono l'essenza profonda del nostro agire e della nostra responsabilità siamo noi quando andiamo al mercato siamo noi quando siamo fuori da questo palazzo siamo noi quando ci scontriamo con il dolore e la gioia della nostra esistenza quanto dolore c'è fuori ma anche quanto amore ecco noi dobbiamo sentire nelle nostre vene fluire quel dolore e quell'amore per capire cosa dobbiamo fare a partire dal rispetto e dall'amore dell'uno per l'altro come ci ricorda il Vangelo di Marco è per quell'amore che permette di essere al servizio del popolo ed è su questo concetto che possiamo e dobbiamo evolverci dobbiamo sentir fluire quel dolore quello sgomento che sentono i cittadini per riportare al centro dell'azione il senso di fratellanza la fase storica che stiamo vivendo porta ad accentuare l'astio la contrapposizione figlia di quella logica turboliberista che ha dominato non solo l'economia ma la vita stessa delle persone un popolo che soffre come può essere felice non lo sentite dentro di voi il dolore il dolore della gente e noi siamo qui a parlare di un problema di stabilità che si intreccia e nasce dal egoismo anzi dal egotismo che come dice la Treccani è quell'atteggiamento psicologico che consiste nel culto di sé e nel compiacimento narcisistico e raffinato della propria persona e delle proprie qualità quell'ego che tanto fa e tanto disfa quell'ego distruttore che non fa altro che esaltare il senso dalla vanità decisamente il mio peccato preferito come diceva un vecchio film è su quella vanità che si fonda la certezza incrollabile della propria verità ma la tenetevi leghiando e lasciateci le ali noi siamo oltre quella vanità noi sentiamo sulle nostre spalle il peso di quella grande massa di persone che combatte con la propria fatica quotidiana e si è allontanata dalla voglia di volare come un gabbiano come non ricordare la fatica di Michele un mio amico ingegnere passato nel fuoco del covid una delle tante partite IVA che combatte quotidianamente con il rallentamento delle commesse con il rallentamento della catena dei pagamenti come tanti di quei liberi professionisti che hanno di fronte all'aumentare dell'insicurezza per il sostentamento delle proprie famiglie oppure come Antonio fantastico chitarrista jazz che come tanti lavoratori dello spettacolo dal vivo dagli scenografi e gli impresari non riescono più a lavorare oppure come il mio cugino Franco anche lui ingegnere di professionista che è morto di covid solo una settimana fa ed in onore di tutti coloro che hanno difficoltà che tutti noi dobbiamo ricordare qual è il ruolo di un parlamentare l'ho già detto per servire il popolo bisogna sentirsi popolo interpretarlo ed avere il coraggio di attuare e proseguire l'azione che si sta portando avanti è un atto d'amore che si fa quando ci si sente cittadini nelle istituzioni che torneranno alla loro vita alla loro fatica quotidiana una volta finito il mandato è un ciclo una catena un cerchio in cui il punto di partenza è uguale al punto di arrivo è la natura che ci fa capire quanto sia un sistema circolare basta pensare al ciclo del glucosio il sole motore della vita quando il verde della primavera esplode e ricopre la terra di fremito di potere di energia vitale quando una foglia ti appare contro luce e ne vedi la struttura le diramazioni interne e tu sai che quei cunicoli collegano l'aria alla terra foglie che fanno sì che l'aria si sia arricchito di quello che all'inizio della storia era un veleno l'ossigeno lì sulla superficie della foglia si ricrea un microcosmo di affetti e di magia un mondo dominato dall'unione dall'interazione dalla trasformazione di elementi semplici dall'idrogeno all'ossigeno dall'azoto al potassio una serie di elementi che ruotano che danzano intorno al loro mentore il carbonio e lì sulla superficie della foglia nasce l'amore quando la nitride carbonica entra nel verde e ballando sotto i raggi del sole ebra del suo calore si divide lasciando l'ossigeno libero di volare e il carbonio libero di riunirsi insieme agli altri convitati alla festa per definire una meravigliosa collana il glucosio dolce nettare che scorre fino al frutto e da qui entra nella bocca di un bambino entra nel suo sangue e va ad alimentare quella parte che più di ogni altro ne ha bisogno quella parte da cui nasce il pensiero da cui nasce la domanda e la risposta quella cellula nervosa che produce l'amore del dolore il pensiero del ricordo ed è in quella cellula il carbonio si separa ancora dai vecchi compagni di ballo e tramite il sangue arriva gli ormoni dove ritrovi i due vecchi amici ossigeno e ricombinandosi con l'oro torna libero di volare nell'aria e parte un nuovo giro di giosta entrando nelle ali di un gabbiano nelle gambe di un grillo nel sangue di un lombrico negli artigli di un leone la vita la vita ecco presidente del consiglio è per quella vita per quell'amore che si perpetua dall'ossigeno e il carbonio che tutte le persone di buona volontà vogliono che lei vada avanti l'amore richiede coraggio e come diceva uno stotico ateniese parla della polis sicuramente i più coraggiosi sono coloro che hanno la visione più chiara di ciò che li aspetta così della gloria come del pericolo e tuttavia l'affrontano e non scappano aggiungo io quindi avanti a te salta presidente il movimento 5 e 6 è con lei dichiaro conclusa la discussione generale comunico che sono state presentate le seguenti proposte di risoluzione numero uno dei senatori Marcucci Liccheri De Petris e Unterberger numero due dei senatori Ciriani Bernini Romeo e Romani i testi sono in distribuzione a facoltà di intervenire in replica il presidente del consiglio dei ministri professor Conte alcale chiedo altresi di esprimere il parere sulle proposte di risoluzione presentate grazie presidente gentili senatrice e gentili senatori cercherò di rispondere un poco a un dibattito che è stato molto ricco di interventi di spunti di notazioni critiche anche come è legittimo che sia non sarò organico toccherò solo alcuni degli argomenti trattati ma cercherò così di arricchire anche le questioni che avevo già affrontato nella relazione introduttiva nelle comunicazioni introduttive un tema che è stato toccato se non sbaglio dalla senatrice Drago è quello del callo demografico questo è un problema serissimo richiamo tutti a considerare che stiamo attraversando una curva di callo demografico molto seria tra le più severe degli ultimi anni un po' di anni fa in Germania successe la stessa cosa iniziarono a lavorarci in modo sistematico con interventi organici dobbiamo farlo anche noi è molto preoccupante perché in prospettiva se non interveniamo adesso in tempo rischiamo davvero di compromettere il futuro e il benessere futuro dei nostri figli e occorrono interventi economici strutturali strutturati quindi occorre qui davvero dobbiamo investire sul futuro e certo non possiamo farlo questo è un interrogatorio un interrogativo spesso che viene sollevato in modo retorico certo non possiamo farlo creando una crisi di governo o cercando di far cadere un governo e dal prossimo luglio partirà e questa è una misura concreta e strutturale la riforma dell'assegno unico mensile l'ho già richiamata per ciascun figlio a carico fino a 21 anni di età avremo un assegno unico e coinvolgerà oltre 12 milioni 12 milioni e mezzo di bambini di ragazzi questo dovrebbe è una misura volta da alleggerire la pressione economica sulle famiglie soprattutto le più numerose ma anche attenzione il carico di cura che ordinariamente abitualmente grava sulle donne e inoltre e attenzione lo dico e lo sottolineo questo era un progetto che la ministra d'Italia viva Bonetti aveva insieme al governo coltivato e inoltre all'esame del Parlamento la delega Family Act volta a rafforzare le politiche di sostegno alle famiglie anche attraverso la riforma dei concedi parentali con l'estensione a tutte le categorie professionali e anche con l'introduzione di congedi di paternità obbligatori e strutturali e in particolare proprio per quanto riguarda i congedi parentali il governo è già intervenuto voi lo sapete bene perché nella legge di bilancio 2020-21 attraverso una proroga e l'estensione del congedo obbligatorio di paternità da 7 a 10 giorni è stato toccato anche il tema della scuola altro tema che ci sta a cuore a tutti dobbiamo lavorare lavorare perché la scuola resti centrale nell'agenda non del governo del paese dell'intero paese abbiamo realizzato 40.000 aule in più con i lavori estivi di edilizia scolastica non è solo merito del governo è merito di una grandissima sinergia quella a cui alludevo questa mattina quando ragionavo della leale collaborazione con tutte le istituzioni anche locali è stato un grande sforzo che è stato fatto dai sindaci dei presidenti di regione da tutte le autorità anche territoriali poi abbiamo mobilitato 10 miliardi in più nell'ultimo anno sulla scuola archiviando la stagione dei tagli che avevamo ereditato abbiamo inoltre previsto dei corposi interventi un piano un intero capitolo ritroverete nella versione adesso aggiornata del recovery plan troverete un intero capitolo dedicato alla filiera dell'istruzione ad oggi oltre 5 milioni di studenti del primo ciclo sono stati in presenza durante l'anno scolastico sottolineiamolo stanno rientrando adesso a scuola gli alunni della secondaria di secondo grado viviamo una curva epidemiologica che non accenna migliorare ci preoccupa ma cercheremo di continuare a fare di tutto la scuola è di tutti la scuola è di tutti cercheremo di continuare a impegnarci per garantire per quanto possibile una didattica in presenza perché è quello l'obiettivo sappiamo che è importante per gli studenti che ci siano metodi di apprendimento basati sull'interazione personale diretta con i docenti e con i propri compagni abbiamo previsto sono stato sollecitato anche a qualche riflessione per quanto riguarda il piano delle assunzioni noi abbiamo previsto l'assunzione di 25.000 insegnanti in sostegno in più approvando una norma specifica per i docenti già specializzati e abbiamo bandito concorsi per quasi 80.000 docenti contemperando sia le esigenze di stabilità dei precari sia l'aspirazione di mezzo milione di laureati a concorrere per insegnare nelle scuole e poi abbiamo introdotto ovviamente la ministra competente ha introdotto innovazioni alcune innovazioni la chiamata veloce della cosiddetta fascia aggiuntiva che ha permesso di assumere moltissimi precedenti vincitori di concorso e i doni ancora presenti in graduatoria senza tali misure non sarebbe stato possibile ma la scuola richiede uno sforzo continuo e continueremo a impegnarci sulle molte osservazioni hanno riguardato il nostro calo del PIL i dati macroeconomici e anche la consistenza dei ristori delle misure di ristoro guardate non corrisponde affatto al vero che l'Italia sia il paese con la caduta più forte del PIL i dati parlano chiaro sono dati peraltro quando li esaminiamo dobbiamo sempre tener conto che l'Italia purtroppo è stata particolarmente svantaggiata rispetto ad altri paesi europei e nel mondo occidentale perché abbiamo avuto l'esplosione della pandemia della prima ondata mentre altri paesi hanno subito questa esplosione più in ritardo ebbene nonostante l'Italia sia stata colpita per prima in modo particolarmente violento e improvviso della pandemia nei primi trimestri del 2020 il calo tendenziale del PIL è stato lo stesso che in Francia meno 9,5% inferiore a quello registrato in Spagna meno 11,5% e nel Regno Unito anche qui 11,1% poi il rimbalzo che abbiamo registrato nel terzo trimestre grazie anche alle misure di sostegno all'economia è stato tra i più alti d'Europa pari al 15,9% nonostante l'impatto della seconda ondata agli ultimi dati ci spingono a confermare la previsione per il 2020 di un calo del 9% sensibilmente inferiore a quello previsto nel corso dell'estate dei principali istituti internazionali ancora una volta minore di quello atteso per gli altri paesi europei è ancora più destituita di fondamento appare l'affermazione secondo cui l'Italia avrebbe erogato meno ristori rispetto agli altri paesi nel corso del 2020 abbiamo attuato misure a sostegno di famiglie imprese lavoratori non sto dicendo che siano state sufficienti perché siamo consapevoli di alla sofferenza di tantissime famiglie di tanti cittadini che ci guardano sto semplicemente dicendo che nel 2020 abbiamo attuato misure a sostegno di famiglie imprese lavoratori che valgono circa il 6,6% del PIL a cui aggiunge 300 miliardi di credit oggetto di moratoria 150 miliardi di presti garantiti si tratta oggettivamente sono dati freddi che non risolvono la sofferenza di chi in questo momento ci sta guardando ma si tratta complessivamente di uno degli interventi più massicci realizzati in Europa pari solo a quello messo in campo dalla Germania ed è grazie a questa rete di protezione che il PIL è calato meno del previsto e ciò in parte ha compensato anche l'aumento del deficit che sarà di circa 2,5 punti percentuali di PIL inferiore alla somma del deficit ciclico degli interventi effettuati purtroppo mentre con l'agenzia delle entrate abbiamo sperimentato una modalità grazie anche ai dati della fatturazione elettronica dell'efficienza anche del sistema che è in uso all'agenzia una rapidità nell'erogazione sappiamo che abbiamo avuto tanti ritardi limiti per quanto riguarda l'erogazione della cassa integrazione sono stati fatti anche lì sono state percorse delle accelerazioni rispetto ai tempi del passato erogazioni che avvenivano in cinque anni sono avvenute in pochi mesi però chiaramente i cittadini bisogna dirlo e questo è stato un motivo davvero di sconforto anche per noi abbiamo cercato di rimediare in tutti i modi ma quando erediti un sistema così concepito non lo puoi certo cambiare così complesso non lo puoi certo cambiare nel giro di qualche settimana qualche mese adesso però attenzione il del decreto ristori si occuperà il Parlamento e mi risulta che già domani in quest'aula ci sarà la possibilità di esprimersi sulla nuova corposa richiesta di scostamento e ricordiamoci anche che alla vostra attenzione sarà posta anche la questione della necessità di un intervento perequativo per coloro i quali sono stati sacrificati dai criteri che hanno consentito la rapida la rapida erogazione dei ristori è stato accato il tema della giustizia e allora è chiaro che sulla giustizia abbiamo qui una delle riforme strutturali che ci attende sappiamo che uno degli oggetti delle raccomandazioni che vengono rivolte all'Italia anche dall'Europa dalla commissione da tempo intanto è stato varato un massiccio piano ordinario delle assunzioni per oltre 16.000 l'unità tra il 2018 e il 2023 ed è stata programmata l'aumento ed è stato programmato l'aumento della dotazione organica dei magistrati di 600 unità ancora nel recovery plan ritroverete uno stanziamento di 2,3 miliardi di euro da destinare in particolare a vari piani per rendere più spedita la nostra giustizia ma soprattutto per smaltire l'arretrato anche perché i nostri magistrati se noi guardiamo le tabelle di comparazione i magistrati italiani sono bravi dobbiamo dircelo hanno una media di produttività tra le migliori in Europa però il problema è la zarvorra dell'arretrato quindi sono programmati attraverso il recovery plan 8.000 assunzioni con contratto a tempo determinato anche rinnovabile per quanto riguarda addetti all'ufficio per il processo e mille magistrati aggregati con contratti rinnovabili saranno inoltre assunti con contratto determinato a ciclo unico fino a 4.200 operatori da cui architetti ingegneri statistici informatici figure professionali che servono per amministrare in modo efficiente e moderno la giustizia ma sono proposte quest'ultime progetti che potrete discutere e potrete se ritenete se ritenete anche migliorare perché sono nel recovery plan rispondo al senatore capogruppo romeo della lega oggi si interrogava ma e chiedeva presidente che fine hanno fatto i disegni di legge sulla giustizia e guardi la informo dal 2019 inizio 2019 quello sulla giustizia civile e dal 2018 la riforma del codice civile i disegni di legge delega sono alla commissione giustizia e al senato chiede al presidente della commissione e del suo partito cerchiamo di dare tutti un'accelerazione all'esame di questi progetti il paese attende noi parliamo in questi giorni tanto di coronavirus tanto di coronavirus c'è un virus forse peggiore non lo dobbiamo mai dimenticare è un virus peggiore del covid rimane il virus della mafia la difesa della legalità costituisce una dimensione ontologica di questo governo e nel nostro DNA il contrasto della mafia la difesa della legalità non costituiscono per noi una generica tensione ma una deliberata strategia di azione voglio rassicurare tutti i cittadini sarà sempre così fino a quando questo governo sarà qui e ne approfitto per ricordare oggi 19 gennaio è il giorno della nascita di un grande personaggio che non voleva far l'eroe addirittura abbia dichiarare che lui ci capitò per caso ad avere a che fare con la mafia Paolo Borsellino nacque 81 anni fa 2 1 1 2 2 3 4 8 9 10 10 11 11 12 13 14 15 16 16 16 17 16 17 18 19 19 19 20 20 20 20 20 22 23 23 24 26 28 28 tutti ci rattrista ci addolora e su questo siamo tutti d'accordo non possiamo mai degradare questo tema a una triste contabilità numerica io ogni giorno come voi immagino seguo corro subito al bollettino vedere come va la curva epidemiologica quando vedo il numero dei morti è un numero sempre che ci rimette a tantissime persone che vanno via poi tra l'altro per la maggior parte la media guardate noi abbiamo una media dei decessi per buona parte la media è sopra riguarda soprattutto la soglia anagrafica sopra gli ottantenni l'ho già detto sono quelli che usciti dal dopoguerra hanno lavorato per rendere grande l'italia per farla entrare nel g7 quelli che hanno costruito il miracolo economico sono i nostri genitori i nostri nonni e perché un numero così alto ma innanzitutto anche qui dobbiamo ricordare siamo stati i primi in europa nel mondo occidentale essere colpiti dal virus e questo ha sicuramente avuto un peso enorme nella prima fase essere i primi il posto chiedere su questo poi semmai sull'altro argomento ritornate a parlare essere i primi a parlare ad affrontare questo tema senza avere un manuale senza avere ancora la scienza che si era formata un'opinione chiara senza aver acquisito dei dati sperimentali una cosa che ovviamente è stata devastante per noi un impatto devastante ricordo anche che eravamo sprovvisti se lo ricordate di mascherine di macchine di respiratori abbiamo scoperto nel nostro paese non se ne producevano quasi abbiamo dovuto cercare in giro per il mondo con tante difficoltà tutte queste attrezzature ricordo che i tamponi che effettuiamo oggi non sono affatto paragonabili con il numero di quelli che facevamo durante la prima fase in misura nettamente inferiore e sappiamo oggi quanto questi dati questi test siano controlli siano fondamentali per diagnosticare le persone positive ricordo ancora l'italia si caratterizza per avere una delle popolazioni più anziane a livello mondiale dopo il giappone addirittura e abbiamo anche una popolazione attenti che vive come dicono i scienziati i geriatri molto a lungo ma non invecchia affatto bene invecchia con molte comorbilità se guardiamo ai dati statistici e comparativi di recente un illustre infettivologo dell'ospedale Sanco di Milano il professor Galli ha detto che se prendiamo i dati del periodo tra settembre e gennaio in Italia abbiamo il 2% circa di letalità tra i casi confermati esattamente in linea con i dati della Germania quindi se vogliamo ridurre tutto questo un fatto statistico eccetera cerchiamo anche di prendere i dati e di lasciarci guidare dagli esperti ricordo che la Germania purtroppo lo dico e salutiamo il popolo tedesco come tutti gli altri popoli che stanno soffrendo anche loro nelle nelle ultime settimane la Germania ha superato i mille morti al giorno nonostante le rigide misure imposte dall'inizio di novembre ha fatto registrare una preoccupante impennata di decessi degli ultimi tempi addirittura nel mese di gennaio in numeri assoluti sta facendo registrare quasi il doppio dei morti dell'Italia e la Germania la cito perché è considerata uno dei paesi tra più virtuosi nell'Unione Europea perché ha una delle strutture ospedaliere molto organizzate ha un numero impressionante di disponibilità per quanto riguarda i presidi ospedalieri di terapia intensiva in particolare ecco questo per far capire che il covid sta mettendo in ginocchio anche i paesi che sono più strutturati che hanno investito molto più di noi nella sanità diciamolo molto più di noi nella sanità e che quindi avevano diciamo dovevano risultare più riesilienti però ripeto la contabilità dei morti è una questione molto delicata trattiamola al di fuori della contesa politica perché rischiamo veramente di toccare un argomento molto triste e quindi le polemiche sono davvero poco onorevoli Italia Viva e il senatore Renzi in particolare ha fatto un intervento in cui ha ricostruito diciamo dal suo punto di vista le ragioni di questo nostro oggi direi stare insieme di essere qui a discutere sulla fiducia al governo ma io voglio dire una cosa a me non sembra che quando noi abbiamo trattato dei temi concreti non si sia trovata una soluzione perché quando innanzitutto se parliamo del recovery plan che è stato molto discusso è stato uno degli argomenti controversi questo recovery plan lo ricordiamo non è nato non è stato elaborato in qualche oscura cantina di palazzo chigi questo recovery plan è stato elaborato in incontri bilaterali con tutti i ministri anche le ministre d'Italia Viva e alla fine questa bozza che voi avete voluto distruggere anche mediaticamente era un frutto di un primo confronto e acquisizioni a livello bilaterale con tutti i ministri quando è iniziato il 7 dicembre il consiglio dei ministri il sottoscritto ma nell'accordo con tutti i ministri ha presentato questa bozza ha detto la discuteremo per tutto il tempo necessario con tutte le modalità che vogliamo confrontiamoci dovevamo operare ovviamente occorreva un confronto un momento collegiale e sono stato molto chiaro questi incontri bilaterali non avevano risolto un grave problema cioè quello di operare scelte strategiche di tirar fuori la politica che sceglie dilige le soluzioni da una visione questo è frutto solo può essere frutto solo di un confronto collegiale ma il confronto collegiale lo si può fare anche con toni tranquilli sereni con leali collaborazione l'effetto finale di quella di quella vostra iniziativa è stato di bloccare per 40 giorni il cover plan avremmo potuto ritrovarci intorno a un tavolo la disponibilità c'è stata subito avremmo potuto ritrovarci e nel giro di 20 giorni forse anche 10 forse 10 esagero per carità una ventina di giorni e dare al paese e dare al parlamento molto prima la versione aggiornata versione aggiornata che è stata migliorata anche grazie al vostro contributo ma anche se mi permettete grazie al contributo delle altre tre forze di maggioranza perché maggioranza ci discute tutti insieme e nessuno può avere la pretesa della verità delle soluzioni migliori delle soluzioni più proficue nell'interesse del paese anche la cabina di regia avete ritenuto che la proposta che era stata presentata fosse una proposta non accettabile avete giudicato indecente quello che volete ma chi ha detto che non si poteva discutere ma quando mai non si è discusso ditemi una volta in cui è stato imposto qualcosa a voi o altre forze di maggioranza il risultato è che adesso noi dobbiamo affrettarci perché comunque una struttura di monitoraggio un percorso per accelerare il percorso riformatore e realizzare questi investimenti e queste opere va fatto ed è urgente perché ce lo chiede anche l'Europa come abbiamo carito si può discutere su tutto quando si sceglie la via del dialogo del confronto e voi lo sapete perché tantissime soluzioni anche il familiare tantissime che per voi sono state assolutamente qualificanti delle vostre iniziative politiche avete trovato in particolare il sottoscritto oltre che le altre forze politiche a difendervi e io ho difeso le vostre ragioni spesso anche contro opinioni diverse e differenti di altre forze politiche non avete mai trovato porte chiuse a un certo punto però avete iniziato a scegliere una strada diversa che non è quella della leale collaborazione diciamolo anche di fronte al paese avete scelto la strada dell'aggressione degli attacchi mediatici avete iniziato a parlare fuori e non più dentro e una volta scelta la rispettiamo la rispettiamo però permetteteci di dire che forse possiamo dire che forse non è la scelta migliore nell'interesse del paese possiamo dire che forse questa situazione non è non significa avere a cuore investire nel futuro come ripetete ancora sul mess è chiaro che la questione del mess lo sapete bene è divisiva il mess può essere approvato in parlamento e le forze di maggioranza su questo non sono d'accordo però aggiungiamo pure che per stanziare risorse aggiuntive per la sanità ne abbiamo stanziate tantissime ne abbiamo aggiunte nel recovery plan e le abbiamo aggiunte rispetto alle risorse già cospicuose stanziate nei decreti legge del 2020 e nella legge di bilancio del 2021 dovremmo aumentare il deficit e quindi il debito pubblico e questo prescinde quindi dalla possibilità di utilizzare messo non messo e in ogni caso se mi permettete è davvero contraddittorio una volta aver contribuito al miglioramento del recovery fund decide di non accettarlo perché non c'era il mess vorrei chiarire perché c'è stato qualche intervento che riguarda proprio la prospettiva del progetto politico che ho presentato insieme alle forze di maggioranza che sono rimaste a collaborare con in modo leale eh io comprendo la diffidenza che è stata sollevata una diffidenza genuina e una diffidenza che fa onore a chi l'ha sollevata penso ad esempio al senatore quagliarello lei ha detto senatore il ha obiettato che il mio invito ai volenterosi alle forze singoli parlamentari ma anche rappresentanti di nobili tradizioni che si collocano in ogni caso in un perimetro progettuale ben chiaro vocazione europeista l'abbiamo detto scelta per lo sviluppo sostenibile transizione verde digitale modernizzazione del paese rendere più efficiente la pubblica amministrazione la giustizia e via discorrendo lei ha detto ma voi non potete pensare di fare questa proposta con una logica di annessione annessione è un concetto che mi ricorda i tempi bui del novecento no guardi è un invito franco è un invito fatto a modo trasparente aperto di fronte al paese noi dobbiamo rimanere tutti a testa alta la gravità della situazione è tale che non possiamo permetterci di condurre come dire delle partite in modo opaco questo è un invito aperto franco trasparente non è solo rivolto ovviamente certo che c'è un problema di numeri della maggioranza siamo in democrazia se questi numeri non ci sono questo governo va a casa non va avanti ma noi dicevo vi abbiamo chiesto di aderire a un progetto per scelte chiare valoriali sulla base sulla base di una chiara collocazione europea euro atlantica per alcuni fondamentali obiettivi che abbiamo già declinato certo un progetto che ha un perimetro già ben delimitato si basa un solido dialogo sperimentato già durante questa esperienza di governo da almeno tre forze di maggioranza però dall'altro lato è un progetto ben aperto a chi vuole migliorarlo a chi vuole apportare un contributo di idee di progetti di impegno genuino leale un progetto di chi vuole apportare nuove energie e vuole definire con noi l'ho detto un patto di fine legislatura quindi ci sono tutti i margini per lavorare in modo trasparente per poter offrire un rendiconto ai cittadini di quello che stanno facendo e su cui patto di fine legislatura su cui stavamo già lavorando e continueremo a lavorare se ci darete la fiducia e subito dopo ovviamente valuteremo anche un tema su cui stavamo già discutendo come rinforzare la squadra di governo e su questo vorrei e su questo vorrei anche chiarire chiarire perché ritorna una questione vedete ritorno alla questione per cui avrei mi si rimprovera ancora di una risposta data alla ventesima intervista in cui mi si chiedeva del rimpasto in cui mi si chiedeva della disponibilità a cambiare i ministri io ho riferito con una iperbole una figura della retorica classica che i ministri compresi quelli di Italia Viva sono i migliori del mondo ho detto mi è stata rimproverata questa espressione però attenzione io sono il presidente del consiglio il capitano di una squadra e ha il dovere sempre di difendere i propri ministri tra l'altro da attacchi completamente strumentali ma non voglio citare la mia opinione voglio citare un'opinione che credo che nessuno oggi mettiamo in discussione perché non fa parte del perimetro della maggioranza almeno mi è parso di capire il senatore Nencini che ha anche un fine intellettuale ha scritto e ha detto chiaramente oggi che attenzione quando facciamo queste valutazioni facciamo anche e consigliamo che non ci sono termini di paragone termini di comparazione nessun altro ministro ha attraversato una fase così grave e recessiva un'emergenza così coinvolgente nella storia repubblicana poi le opinioni sulle valutazioni del singolo dei ministri qui presenti sono aperte ci mancherebbe però tenete conto che l'impegno è stato notevole non c'è stato qui da parte di nessuno risparmio di un briciolo di energie fisiche e intellettive concludo voi parlate sempre di poltrone quando io sento questa parola io penso lo dico anche ai cittadini che ci ascoltano io non mi vergogno di dire che stiamo seduti su queste poltrone secondo me non è importante dire non sono interessato alla poltrona ma dire essere interessati a star seduti con discipline e onore grazie grazie presidente presidente conte lei non ha parlato delle risoluzioni scusateci scusate un attimo di pazienza doveva esprimersi sulle risoluzioni presidente mi scusi pongo la questione fiducia sull'approvazione della risoluzione di maggioranza scusate marcucci licchieri depetris unterberger grazie la presidenza la presidenza prende atto che il governo ha posto la questione di fiducia sulla risoluzione numero uno passiamo dunque alle dichiarazioni di voto ha chiesto di parlare la senatrice unterberger ne ha facoltà grazie grazie presidente presidente conte rappresentanti del governo colleghi e colleghi in politica in politica come nella vita esistono i momenti giusti e quelli sbagliati e questa crisi è decisamente fuori luogo perché è in profondo contrasto con lo spirito del tempo che stiamo vivendo negli ultimi anni nelle altre democrazie avanzate le forze di maggioranza che hanno tolto il sostegno al governo si contano sulle dita di una mano in spagna è successo al governo rajoy invischiato in una brutta vicenda di tangenti e contabilità parallela del partito popolare è successo a teresa mei per il mancato accordo sulla brexit e succede in questi giorni in israele sempre per vicende legate alla corruzione alla frode e all'abuso di potere da quando poi è scoppiato il covid l'atteggiamento che è andato per la maggiore è stato quello della responsabilità ruirio leader dell'opposizione portoghese lo ha espresso con queste parole la minaccia che dobbiamo combattere esige unità responsabilità e senso di solidarietà in questo momento il governo non è l'espressione di un partito avversario ma la guida di un'intera nazione che tutti abbiamo il dovere di aiutare è questo lo spirito che alleggia in europa e nel mondo poi certo è vero ci sono paesi dove alla crisi sanitaria si è aggiunta la crisi politica oltre a israele e l'olanda sono la polonia il brasile il perù perù il chiesistan il libano il nepal a questa compagnia si è aggiunta italia ci saranno motivi di straordinaria gravità si potrebbe pensare peccato che il 70 per cento degli italiani dice di non aver capito questi motivi erano anni che non si assisteva a uno spot così efficace per l'antipolitica per tutti quelli che sostengono sostengono che la politica è lontana dai problemi reali delle persone e che i politici sono interessati solo al loro tornaconto e se questa crisi non è comprensibile ai cittadini italiani figurarsi in quella europa che ha fatto un investimento di fiducia sull'italia con un con il più grande pacchetto d'aiuti dai tempi del piano marshall soprattutto la germania con la cancelliera merkel e la presidente von der leyen si sono spese per gli aiuti all'italia attraverso il principio che nessuno è colpevole per la crisi pandemica e che chi più è stato colpito più deve essere sostenuto con questa crisi politica si getta un pesante ombra sul nuovo patto europeo invece di occuparsi del recovery fund di vaccinazioni e di imprese e famiglie la politica si occupa di se stessa torna cioè la vecchia italia quella che dal dopoguerra ha conosciuto 66 governi contro i 19 della germania e dobbiamo solo essere contenti che il nuovo presidente della cdu è armin laschet che continuerà la politica della merkel se avesse vinto friedrich merckx dell'ala di destra del partito per l'europa sarebbe suonata un'altra musica quella del rigore finanziario a cui la politica italiana con questa crisi concede comunque un'ottima argomentazione presidente conte sono tutte queste le ragioni per cui nel suo discorso abbiamo apprezzato il ripetuto richiamo ai valori europei e abbiamo apprezzato il passaggio sulla tutela e sul valore delle minoranze linguistiche e sulle autonomie speciali è vero siamo diversi perdiamo un'altra lingua ma la nostra diversità deve essere un arricchimento per l'italia e non una minaccia per la cultura italiana come qualche nazionalista continua a pensare e i fischi di ieri alla camera sono la riprova che purtroppo non sono così pochi come sa bene anche noi in passato abbiamo criticato il governo basta andarsi a riascoltare gli interventi dei senatori Casini, Steger e Lagnès per vedere quanto abbiamo sollecitato una maggiore efficacia sul recovery o l'invito a non fare del MES un totem ideologico ma questo sempre nella consapevolezza che tutti i governi che si sono confrontati con la pandemia stanno gestendo una situazione drammatica e con la certezza che da parte vostra non è mai mancato il confronto anche quando tra di noi ci sono state forti divergenze penso allo scontro che abbiamo avuto sull'avvio della fase 2 lo scorso maggio o a quello di qualche settimana fa sui spostamenti tra i piccoli comuni o all'ultima impugnazione della legge della Valle d'Aosta ma penso soprattutto ai momenti dove attraverso un confronto sincero siamo giunti a soluzioni soddisfacenti l'accordo sul mancato gettito fiscale nelle regioni e province autonome la norma sui medici e quella sul nostro sistema bancario l'A22 è da ultimo ma non per ultimo la priorità nel prossimo ristori alle imprese di montagna come annunciato dal Ministro Boccia è in virtù di tutte queste considerazioni che crediamo che questo non è il momento delle mosse del cavallo ma della responsabilità e della costruzione assieme come lei ha detto alle forze europeiste che siedono in quest'Aula per tenere fuori dalla porta quelli che pensano e dicono che l'Europa di oggi è come la Germania nazista quando invase la Polonia ribadisco pertanto la fiducia del nostro gruppo a questo Governo ha chiesto di parlare la senatrice Bellanova ne ha facoltà signora Presidente colleghe e colleghi Presidente del Consiglio la domanda che risuona più volte è sempre la stessa si può nel mezzo di una pandemia e di una situazione drammatica come quella che il Paese vive aprire una crisi di governo? domanda legittima, ne siamo consapevoli ma fuorbiante quella vera che il suo discorso elude per intero è radicalmente diversa interroga le fondamenta stesse della democrazia nel nostro Paese può un Governo davanti ad una pandemia che non accenna a retrocedere a una situazione drammatica come quella che stiamo vivendo e per quanto possibile fronteggiando fare dell'emergenza la sua unica ragione di esistenza addirittura l'unica motivazione del suo esistere non può essere soltanto il dover fronteggiare l'emergenza ne converrà quest'Aula a tenere in piedi un Governo devono essere le scelte, gli atti, le riforme, i provvedimenti deve essere una visione di futuro, di una nuova partenza a dire se questo Governo può guidare o meno il Paese consentendoli di superare le difficoltà di riformare le molte strutture che hanno dato segni di grande debolezza di avviare la ripresa economica e sociale che merita resilienza è una parola vuota se tutto questo manca e tutto questo nel suo intervento desolatamente manca e poteva un Governo nella gestione della più rilevante mole di risorse su cui il nostro Paese farà affidamento nel prossimo futuro esautorare se stesso, i suoi ministri, le regioni, la pubblica amministrazione e il Parlamento per affidare tutto a un gruppo di manager e tecnici scelti non si sa con quale criterio poteva farlo nell'assoluta mancanza di una prospettiva esplicita di una visione moderna e progressiva della nostra società e della nostra economia senza una vera interlocuzione con il Parlamento, con le forze politiche tanto quanto con le forze sociali abbiamo preso atto del suo parziale ripensamento signor Presidente ma abbiamo registrato anche i tentativi con cui fino all'ultimo ha provato a veicolare in modo surrettizio la formula a lei così cara di un'opaca task force impropriamente chiamata a garantire il processo di governance avere riportato nell'ambito della correttezza costituzionale e istituzionale la gestione del recovery abbandonando l'idea di opache soluzioni tecniciste è un passo avanti che rivendichiamo alla nostra azione ancora ignoriamo però il modello di governance che si intende delineare e crediamo che il Parlamento abbia tutto il diritto non per sua concessione ma per diritto costituzionale di conoscerlo il bonus prodotto resta restano i continui tentativi di aggirare i problemi e di marginalizzare chi nella maggioranza li ha posti e continua a porli è imperdonabile il tempo perso in questo modo quando il Paese aveva necessità al pari delle altre nazioni europee di correre è il punto vero della fiducia non l'allargamento più o meno credibile a maggioranze variabili improvvisate e raccogliticce a un incomprensibile meticciato politico portatore di nuova governance ma solo di innamoribili scambi di innominabili scambi questo non è il braccio di ferro tra Italia Viva, Matteo Renzi e il Presidente Conte è il banco di prova per decidere se prevale il rispetto della Costituzione e l'interesse pubblico o l'improvvisazione di tecnicismi e tecnicismi tutti da dimostrare nella loro efficacia e correttezza istituzionale se prevale la politica, la visione di futuro, la capacità di cambiamento o l'interesse di parte, l'immobilismo la trattativa sotto banco a favore di pochi e contro l'interesse di molti la straordinaria emergenza pandemica incombe su un Paese che da più di vent'anni ha tassi di crescita insoddisfacenti quote di disoccupazione grave, perdite di competitività severe incrementi del debito più che preoccupanti un mezzogiorno che non trova risposte adeguate in questo recovery una posizione debole dello scenario europeo e fragilissima su quello internazionale Presidente, lo diciamo francamente in quest'Aula la posizione che lei ha assunto sui fatti di Capitol Hill è stata debole in modo imbarazzante tanto da far pensare a malcelate riclosie nel condannare chi in questi anni ha guidato discutibilmente quella grande democrazia le difficoltà del Paese centuplicate dall'emergenza sono sotto i nostri occhi quotidianamente nei giorni scorsi lo ha certificato anche Banca Italia sappiamo da mesi che la fine del blocco dei licenziamenti potrebbe coincidere con un aggravamento sociale di dimensioni terribili le misure adottate finora non aprono né al futuro né al rilancio piuttosto sembrano confermare l'immobilismo denunciato da noi come dai più acuti osservatori questo lei lo sa, glielo abbiamo detto più volte consegnato nelle numerose riunioni notturne di maggioranza come sa perfettamente che siamo stati noi, da riformisti a porre le questioni su temi preoccupanti la seria decrescita del lavoro femminile imputabile anche alla mancata strategia utile alla riapertura delle scuole l'urgenza di politiche attive il sostegno concreto alle nuove povertà lei sa che è stato uno degli assilli su cui abbiamo lavorato chiedendo cospicue risorse per il fondo emergenze alimentari gli abbiamo detto più volte che non sarebbe stato il continuo ricorso al bonus né la decontribuzione per le donne per il mezzogiorno quella leva economica sufficiente a produrre le necessarie opportunità occupazionali e a tirare fuori il Paese dalle secche e dall'immobilismo cui lo condannano politiche economiche esclusivamente passive se non sblocchiamo i cantieri non riparte l'occupazione è imperdonabile il ritardo di mesi con cui ancora fino ad oggi si è aspettata la nomina dei commissari tanta furbizia ci indigna Presidente, avrei preferito essere tediata affrontando un tema serio come quella del lavoro piuttosto che registrare un intervento vacuo le parti sociali hanno chiesto la proroga della cassa integrazione per covid e del blocco dei licenziamenti ma tutti sappiamo che continuare a prorogare non ci allontanerà dal rischio che la fine del blocco porti la perdita già stimata di oltre un milione e mezzo di posti di lavoro senza una riforma degli ammortizzatori in senso universalistico senza un piano di formazione senza la ricollocazione non c'è speranza per politiche nuove non dovrei essere io a ricordarle le centinaia di vertenze aperte che rischiano di moltiplicarsi nel filo esilissimo a cui appeso il destino di migliaia di lavoratori e lavoratrici da Ilva dall'Italia a Whirlpool fino al più piccolo tavolo di crisi è difficile pensare che una politica fatta esclusivamente di bonus e rinvii potrà dare risposte utile, degne e proficue senza una nuova politica industriale che scelga i settori, le industrie e le filiere su cui puntare non c'è incentivo o bonus che potrà dare risposte durature a quei lavoratori e a quelle famiglie è vero, nel tessuto produttivo e nel mondo del lavoro covano enormi paure sul futuro è realistico l'allarme sulle potenze politiche e finanziarie che pensano di poter approfittare di questo momento per comprare l'Italia e colonizzare le nostre aziende così come della pervasività della criminalità organizzata ma senza una vera e concreta politica estera commerciale in coerenza con l'Europa non potremo mai sperare di competere e saremo destinati a soccombre nella competizione mondiale perché allora, a maggior ragione dinanzi a rischi così enormi, si continua a navigare a vista Nulla nella sua relazione, nonostante l'uso fin troppo disinvolto del termine politica ridotto ad aggettivo, ci autorizza a cogliere significativi segnali di cambio di passo auspicato da tutti Oggi non è più necessario? O coincide con l'allargamento, purché sia, della maggioranza utile a estromettere l'unica voce realmente critica con cui lei fino a ieri si è misurato? Perché non raccogliere l'urgenza che ci porta da mesi a chiedere una discussione pubblica sul recovery e una verifica programmatica per un patto di legislatura? Perché esitare a discutere di debito buono? Perché sul MES si permette ancora che prevalga il pregiudizio ideologico piuttosto che un'analisi serrata sul rapporto costi-benefici? L'unica che dovrebbe avere senso davanti all'emergenza sanitaria che avvolge il Paese non è solo il Covid e l'emergenza sanitaria in questo Paese il punto è qui non è nella personalizzazione caricaturale di un duello ma nel confronto tra un Paese che non può rinunciare al necessario riformismo che lo riporti all'altezza delle sue migliori energie per rilanciare il ruolo europeo e internazionale e un Paese residuale, grande malato d'Europa con la speranzella di essere troppo grande per fallire La differenza tra riformismo, crescita e assistenzialismo è qui Il nodo concreto dell'utilizzo di quanto avremo a disposizione fino all'ultimo euro è qui ed è qui la ragione per cui abbiamo sempre chiesto una strategia per fronteggiare l'emergenza e spalancare le porte sul dopo La pandemia preoccupa tutti, non solo chi usa toni paternalistici Siamo consapevoli del momento estremamente preoccupante che i cittadini si trovano a vivere Al Paese non serve un Highlander, ma una classe dirigente autorevole che riesca a guardare non solo a come fronteggiare l'emergenza ma che sappia coinvolgere le forze sane del Paese nella costruzione di una visione, di strategie vincenti, di un cronoprogramma che guardi alla rapidità dell'oggi salvaguardando il domani Il solo restare a casa non è mai bastato e non basta più Presidente, abbiamo spiegato ampiamente le ragioni delle nostre dimissioni nella lettera inviata a lei e al Presidente Mattarella Un atto di responsabilità è il nostro con il quale speravamo che finalmente potesse trovare il tempo di fermarsi a riflettere su quanto da mesi le chiedevamo Per noi non abbiamo chiesto nulla Non abbiamo disseminato di mine, ma avanzato sempre proposte e lo abbiamo fatto con dignità, con disciplina e onore Abbiamo chiesto solo di ripensare il futuro del Paese Lei, signor Presidente, avrebbe dovuto svolgere la sua funzione di massimo responsabile politico, di costruttore di sentimenti comuni La mediazione è un lavoro duro e complicato, lo so bene e lei non è stato adeguato Invece assistiamo alla metamorfosi di un arbitro che diventa giocatore incurante del rischio enorme a cui espone il Paese Si è preferito restare sordi alle ragioni che hanno determinato la nostra scelta e invece di scegliere la responsabilità per andare avanti attraverso un confronto gli è si è impegnato senza sosta e in prima persona in una ricerca tartufesca dei cosiddetti responsabili non in forza di una visione e di contenuti, ma per pura sopravvivenza, la sua Qui è la ragione della scelta che assumeremo oggi dinanzi alla richiesta di fiducia Da noi non verrà l'avallo ad una soluzione meramente numerica che tradisce il vuoto di politica e condanna il Paese a un vuoto di visione e di prospettiva Presidente, nonostante le non verità di cui è piena la sua replica le comunico e comunico a quest'Aula che per tutte quelle ragioni il nostro è un voto di astensione Ha chiesto di parlare il senatore Ciriani, ne ha facoltà Grazie Presidente, Presidente Conte e colleghi Io questa mattina l'ho ascoltata, non senza fatica nel suo lungo intervento, poi ho ascoltato anche la sua lunga replica ma soprattutto stamattina, mentre la seguivo, mi è tornata alla mente mi è tornato alla mente un aforisma di Oscar Wilde Presidente, io non parlo Per cortesia, un po' di silenzio Presidente, finché il Presidente Conte non si degna di rivolgersi ai banchi dell'opposizione noi non parliamo Abbiamo parlato di rispetto del Parlamento, mi pare che invece manchi Le dicevo Presidente Conte, anche se forse gli dà fastidio ascoltare quello che diciamo noi che mi è venuto alla mente un aforismo di Oscar Wilde che diceva amo molto parlare di niente perché è l'unico argomento di cui so tutto Lei Presidente questa mattina ha parlato per 65 minuti del nulla dopodiché nella replica è riuscita a dire tutto è il contrario di tutto e noi abbiamo la sensazione che il vuoto politico sia la dimensione perfetta per la sua maggioranza vuoto di idee, vuoto di scelta, vuoto di passione perché lei sta cercando una maggioranza degli angoli del Senato mettendo insieme gente che è scappata da ogni partito ex di qualsiasi tipo, espulsi, volta gabbana, casi umani insomma di tutto, davvero di tutto ed è difficile, Presidente Conte, spiegare a coloro che sono a casa la desolazione di un Senato trasformato in un mercato un Senato trasformato in un mercato Presidente, lei per tutta la giornata ha cercato disperatamente di allontanare da sé la responsabilità di questa crisi ma lo vorrei dire in maniera molto netta da parte dei Fratelli d'Italia che noi la riteniamo il principale responsabile di questa crisi vergognosa causata da una classe politica di irresponsabili di cui lei è il principale esponente lei, la sua maggioranza è quello che rimane della sua maggioranza perché questa crisi non è nata ieri è una crisi di potere che viene da lontano ed è figlia dei vostri insuccessi ed è una crisi che suona come uno schiafo in faccia agli italiani che soffrono non solo a quelli che soffrono in un ospedale a coloro che soffrono perché hanno perso il lavoro che soffrono perché temono di perdere il lavoro coloro che avevano un'attività l'hanno dovuta chiudere e non sanno se la potranno riaprire uno schiafo in faccia alle famiglie e agli studenti a cui avete promesso la riapertura della scuola ma hanno visto soltanto i banchi a rotelle Presidente questa è una crisi inevitabile una crisi scritta già scritta perché un anno e mezzo fa da questi stessi banchi noi avevamo definito il suo governo giallorosso un capolavoro un trionfo di ipocrisia per cui voi avete messo insieme partiti che si erano giurati odio eterno vi ricordate? mai con il PD mai con le 5 Stelle mai con il partito di Bibiano mai con Renzi speravamo addirittura mai con Mastella invece poi abbiamo scoperto che avete consegnato le chiavi della nuova maggioranza a Clemente Mastella che è il regista l'ideologo il telefonista il factotum e se accosto il nome di Mastella e i nobili ideali che lei ha evocato Presidente me li sono scritti una nuova maggioranza con una solida vocazione europea per una nuova stagione riformatrice ma davvero ma davvero davvero con Mastella immagino l'entusiasmo delle cancellerie europee per questa scelta di grande respiro europeo che il mondo ci invidia la verità la verità che voi state insieme solo per una questione di potere e per la paura di perdere le elezioni non ci sono altri motivi Presidente Conte vi avete fallito vi ribadiamo ancora una volta avete fallito nella gestione della pandemia e nella gestione della gravissima recessione economica il recovery plan che voi voi avete definito occasione storica per questo paese è in ritardo di quattro mesi e ancora non l'abbiamo visto mancano 173 decreti attuativi le leggi di bilancio e gli imprenditori non vivono di annunci ma di fatti concreti mancano i commissari straordinari per le grandi opere mancano i decreti ristori manca lo scostamento di bilancio perché non si sa se c'è una maggioranza e vogliamo parlare ad esempio del caso autostrade sono due anni e mezzo che ci ha annunciato la revoca della concessione ma sono ancora tutti lì nonostante i morti nonostante gli scandali nonostante gli arresti e mi consente anche una breve parentesi Presidente Conte perché lei ha fatto riferimento pochi minuti fa alla figura eroica di Paolo Borsellino noi ci siamo alzati in piedi per applaudire un eroe vero dell'Italia però devo ricordare che questa maggioranza che applaude Paolo Borsellino è la stessa che ha aperto le porte del carcere a centinaia di mafiosi e quindi non so se Paolo Borsellino se fosse oggi qui presente applaudirebbe lei e la sua maggioranza le parole quindi hanno un peso hanno un significato soprattutto in politica per noi le parole sono importanti e sono pietre e tra le tante dichiarazioni tra le tante dichiarazioni di importanti esponenti della sua maggioranza che siedono a fianco lei in questo momento tra le tante perle che abbiamo potuto pescare ce n'è una che voglio leggere parola per parola e dice aperte virgolette il vincolo di mandato è sacrosanto per chi vuole fare politica onestamente i partiti sono terrorizzati con questo metodo i traditori non potranno più vendersi al migliore offerente Presidente le ripeto le parole onestamente traditori vendersi al migliore offerente le domando se lei fosse non là seduto ma qui o se fosse a casa a seguire dalla televisione lei avrebbe fiducia di un governo in cui gli esponenti sono disposti a calpestare e a tradire qualsiasi cosa pur di mantenere la loro poltrona e il loro potere e questo è il destino che attende l'Italia ancora una volta Presidente Conte per noi c'è una sola strada tornare subito al voto e la sfidiamo su questo la sfidiamo se lei ritiene che tutto quello che ha detto valga allora il confronto non facciamolo qua facciamolo di fronte ai cittadini italiani in libere elezioni un confronto vero a cui lei non è abituato perché l'unico confronto lo fa Palazzo Chigi con le domande telecomandate e quindi ancora una volta la sfidiamo a far decidere gli italiani chi merita di governare questo Paese e se i suoi sostenitori del Movimento 5 Stelle sono davvero convinti che lei è il campione di popolarità ci possono spiegare perché lei ha paura del voto Presidente perché sfugge dal voto se lei è convinto di fare bene di avere il consenso degli italiani a questa domanda noi non abbiamo mai avuto risposta tra poco tra qualche decina di minuti tra una mezz'oretta poco più è possibile che lei riesca ad ottenere una maggioranza una maggioranza quale che sia una maggioranza qualsiasi magari avrete anche il coraggio di festeggiare lo scampato pericolo perché non siete caduti nel burrone che voi stessi avete scavato con la vostra inefficienza con la vostra paralisi con i vostri litigi e magari avrete anche la faccia tosta di dire che va bene così cioè che va bene che l'Italia sia governata da una maggioranza che non è maggioranza appesa al voto di tre senatori a vita che vengono in aula una volta all'anno appesa al voto di qualche senatore al ricatto di qualche senatore e questo che voi immaginate per l'Italia è davvero questo che l'Italia si merita da voi una maggioranza che non esiste ho finito presidente noi a differenza sua non pensiamo che esistano governi e uomini per tutte le stagioni voi avete umiliato il Parlamento e la politica troppo e troppo a lungo con il vostro trasformismo con la vostra ipocrisia con la vostra mancanza assoluta di senso dello Stato e di senso dell'onore e anche la giornata di oggi il presidente Conte dimostra che per voi alla fine è solo una questione di potere e di sopravvivenza niente di più e niente di meglio invece noi siamo convinti che la politica debba essere responsabilità dignità e coerenza si dice una cosa si fa quella cosa ecco perché noi non voteremo non voteremo convintamente più che mai la fiducia al suo governo e crediamo che lei meglio molto meglio farebbe a dimettersi e a porre fine a questo penoso teatrino che va in scena già da troppo tempo e finalmente restituire la parola agli italiani ha chiesto di parlare la senatrice De Petri se ne ha facoltà grazie presidente colleghi governo presidente Conte lei ha fatto benissimo a portare la crisi in Parlamento alla luce del sole di fronte al Paese di fronte ai cittadini che ci stanno seguendo è stata la scelta più limpida e istituzionalmente corretta in una Repubblica parlamentare si procede così e questo governo e questo governo presidente lo ricordo a tutti noi nasce proprio dal fatto che questa è una democrazia parlamentare prendere un'altra strada come forse qualcuno avrebbe voluto in cui ci si andava a dimettere si apriva una crisi al buio a porte chiuse con il Parlamento evidentemente che a quel punto doveva solo prendere atto no noi abbiamo scelto qui insieme con lei di venire a discutere a sentire le ragioni di tutti a sentire le ragioni di chi ha aperto la crisi ma pretendiamo che anche le nostre ragioni siano ascoltate e quindi altro che il vulnus democratico è proprio la prova invece che qui in Parlamento in Parlamento nella discussione anche dura difficile non solo ci si comprende ci si può anche non comprendere ma qui davanti a tutti davanti a tutti si sceglie la strada da prendere ora la parlamentarizzazione non è soltanto la strada più trasparente è anche quella lo dico qui che ci consente di voltare pagina più rapidamente possibile perché questa è un'urgenza assoluta ognuno si riempie la bocca con l'Italia ognuno si riempie la bocca con il Paese ma il Paese non meritava questa crisi e il Paese il Paese ci sta chiedendo di andare avanti di chiudere questa crisi perché davanti lei ha ricordato e ha fatto bene Presidente la prima volta in queste aule e anche pubblicamente che viene detto noi abbiamo perso una generazione che è stata quasi quella generazione di tanti morti che sono stati i nostri nonni i nostri genitori che hanno con umiltà con sacrificio costruito l'Italia dopo dopo la guerra che hanno ci hanno creduto hanno avuto la speranza del futuro guardate noi stiamo vivendo una situazione difficilissima drammatica per questo dico che il Paese non si meritava una crisi così e la dobbiamo chiudere rapidamente perché il Paese ha tanti problemi io non vengo Presidente come ognuno di noi da comode stanze o da comode poltrone in quest'aula i senatori di Leo e il Tagliavila lo sa bene non hanno neanche una presidenza quindi non dobbiamo né lasciare né prendere nulla chiaro ma noi siamo qui perché ci abbiamo creduto a questa coalizione abbiamo creduto a questo governo abbiamo creduto che PD 5 Stelle leu potessero costruire un progetto per questo Paese poi ci è arrivata la pandemia non eravamo preparati ma chi era nel mondo preparato chi era nel mondo preparato ad affrontare una situazione come questa e che cosa ci siamo detti ci siamo detti che dovevamo cercare di aiutare tutti di non lasciare indietro nessuno abbiamo fatto c'è qui il Ministro Gualtieri quanti scostamenti Ministro abbiamo dovuto fare per dare aiuto soccorso l'ho chiamata assistenzialismo andatelo a raccontare alle persone nei quartieri periferici che hanno bisogno hanno bisogno del nostro aiuto hanno bisogno io ho mai fatto sconti a questa maggioranza il Presidente lo sa quanto io sono una dura quando ho chiesto varie volte di sostenere vedo qui i miei colleghi continuamente il reddito di emergenza dare uno strumento a chi non ce la fa abbiamo messo in campo tutto le nostre energie stando qui perché questo è quello che dobbiamo fare sostenere e progettare sostenere e progettare il futuro e noi quindi questo non lo possiamo fare all'Italia non possiamo perdere un'occasione storica che è quella del recovery e chi è che ha portato a casa il recovery chi se non tutta questa maggioranza e questo governo che ha ridato prestigio al nostro paese in Europa noi lei lo sa tutte le nostre risoluzioni quando stavamo all'opposizione quando siamo stati in maggioranza hanno chiesto che l'Europa cambiasse che l'Europa finalmente finalmente mostrasse ai cittadini europei il suo volto solidale e l'Europa è cambiata io ho finito qualche tempo fa un intervento qui una dichiarazione di voto dicendo che un'altra Europa era possibile e noi ci abbiamo messo tutta la nostra energia per poter far sì che questo fosse possibile e abbiamo portato a casa un risultato importante importantissimo e io dico qua voi pensate veramente che noi possiamo fare questo al nostro paese e fare in modo che ci fermiamo questa doveva essere la settimana in cui questo Parlamento quest'Aula le commissioni potevano guardare cominciare a esaminare i ricoveri a dare indicazioni a fare proposte così come hanno fatto la prima volta perché io al Parlamento ci credo il Parlamento può dare un aiuto grande perché siamo qui rappresentati dei cittadini abbiamo idee abbiamo progetti e io credo che questo paese si può cambiare in questo paese io ho creduto in questa coalizione lei lo sa lei non ha citato tra le famiglie europee quella verde ma io penso che lì nella transizione verde nella messa in discussione di questo modello di sviluppo noi possiamo creare i posti di lavoro perché i problemi c'erano anche prima che cosa avevamo prima disuguaglianze che questa crisi ancora di più ha cresciuto perché la risposta oggi il lavoro era già cambiato e oggi non sarà niente come prima però evidentemente c'è qualcuno che vuole che sia peggio e noi questa crisi non nasce soltanto per incomprensioni noi abbiamo la senatrice Bellanova lo sa perché noi quando c'è stato presentato il piano di ricoveri abbiamo posto tanti problemi lo sa il ministro Costa lo sa siamo andati puntigliosamente lo sanno tutti i ministri lo sa il ministro Gualtieri a dire questo non va bisogna fare così bisogna per esempio su tutti gli incentivi abbiamo detto no gli incentivi non si danno a pioggia noi gli incentivi li diamo anche con Industria 4.0 se puntano sull'innovazione sulla trasformazione verde perché questo è il futuro perché io lo faccio per mio figlio come ognuno di noi lo fa per le prossime generazioni e noi quando abbiamo chiesto e abbiamo ottenuto risultati per la cultura per l'istruzione per l'università per risuperare il gap che si è creato ma non solo oggi con la pandemia noi avevamo già un numero bassissimo di laureati quindi avevamo problemi strutturali che certo non ha creato questo governo quindi è andato tutto bene no lo ha messo il presidente del consiglio c'è da lavorare molto c'è da lavorare tantissimo c'è anche da cambiare c'è anche da cambiare la mia cultura confrontata con quelle delle altre la mia storia con quelle delle altre noi dobbiamo cambiare dobbiamo cambiare insieme dobbiamo cambiare per l'Italia e lo dico anche qui si è fatto una rappresentazione ridicola e offensiva presidente all'appello che lei ha fatto guardi siccome io sono un ecologista per me la parola etica responsabilità è una parola sacra etica responsabilità è una parola sacra che significa avere a cuore il futuro delle prossime generazioni le creatur il creato il creato quante volte allora qui e anche in quest'aula ci sono altre culture che sono diverse dalla nostra ma pensate che cosa che grande passi in avanti è stato fatto dal mondo cattolico collaudato sì una cosa che per me mi ha aperto il cuore su cui noi ci possiamo incontrare in quali posti si incontrano le culture si incontrano per poter cambiare si incontrano per poter dare un futuro a questo paese e allora chiudo presidente dicendo con chiarezza ognuno poi si assumerà la responsabilità io dico anche ai senatori d'Italia Viva noi abbiamo voluto cambiarlo i ricoveri abbiamo ancora l'occasione qui in quest'aula per fare uno strumento importante di cambiamento dimostrate agli italiani tutti quanti insieme che è possibile è possibilissimo fare questo fare sì che finalmente ci possa essere un progetto e dico qui un progetto politico presidente che è una visione in cui la politica mette in campo i suoi ideali la sua forza i suoi sacrifici perché lo fa per il paese noi siamo qui per questo siamo stati sempre qui per questo ci abbiamo creduto nella transizione verde abbiamo creduto nel Green New Deal abbiamo creduto che giustizia sociale e giustizia ambientale sono la chiave per il futuro di questo paese e del mondo non dimentichiamo i cambiamenti climatici sappiamo che la pandemia è legata anche a quello e questo ce lo dobbiamo mettere in testa io non voglio tornare a come ero prima perché prima come diceva Francesco pensavamo di rimanere sani in un mondo malato il mondo era malato e allora noi dobbiamo far sì che sia sempre più sano che si investa nella sanità che si investa nella salute che si investa nella trasformazione per questo noi convintamente votiamo la fiducia a lei e al suo governo perché è questa la strada giusta che noi dobbiamo dare agli italiani grazie 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 ha chiesto di parlare il senatore Marcucci grazie a facoltà grazie signora presidente signor presidente del consiglio rappresentanti autorevoli del governo colleghi e colleghi io mi ricordo l'agosto del 2019 una scommessa difficile un pericolo per il nostro paese vicepresidente del consiglio che chiedeva pieni poteri una situazione complicata a livello internazionale una deriva sovranista populista pericolosa un rapporto con l'Europa inclinato difficile nella fase della Brexit con Trump presidente negli Stati Uniti e con un'identità internazionale dell'Italia compromessa abbiamo fatto una scelta complessa forse la scelta più difficile a quell'epoca abbiamo deciso di confrontarsi tra forze diverse con programmi diversi con lo spirito di salvare il nostro paese è stata un'avventura complicata io mi ricordo il confronto difficile per stilare il programma per trovare un accordo politico insieme al collega Del Rio in rappresentanza di tutto il partito democratico ma ci abbiamo messo l'anima ci abbiamo messo il cuore sapevamo che tutto ciò era nell'interesse del nostro paese e oggi dopo tanti mesi che sono passati io sono orgoglioso di quel lavoro sono orgoglioso di quel risultato sono orgoglioso di ciò che questo governo ha fatto alcuni obiettivi certo sono stati ottenuti nell'immediato è stato ricordato oggi sembra banale lo spostamento dell'IVA che avrebbe portato l'economia italiana sul precipizio di chi spingeva in quella direzione abbiamo creato rapporti con un'Europa diversa anzi abbiamo trasformato l'Europa abbiamo trovato nell'Europa la nostra casa che guarda insieme a noi al nostro futuro e questo è un grande risultato è una medaglia che abbiamo e tutti quelli che hanno collaborato all'epoca ne dovrebbero andare orgogliosi dopodiché e la convivenza non è stata facile il colloquio il conoscerci il confrontarsi il dialogo non sono stati semplici hanno avuto anche momenti particolarmente difficili ma sapevamo che la nostra precisa volontà era quella di tutelare la nostra comunità nazionale poi la tragedia la pandemia a inizio del 2020 la crisi sanitaria i provvedimenti complicati che il governo è stato chiamato a prendere anche mettendo in discussione quello che a noi sta più caro le libertà individuali i diritti l'abbiamo fatto con coraggio affrontando un'emergenza sanitaria senza precedenti senza esperienza senza conoscenze abbiamo ottenuto buoni risultati nella prima fase stiamo ottenendo buoni risultati e chi non le riconosce io ritengo abbia un pizzico di mala fede che credo debba essere sottolineata e allora lì abbiamo visto il frutto del nostro lavoro in Europa abbiamo cercato aiuto abbiamo aperto un confronto con i nostri alleati e abbiamo trovato risposte concrete attività che hanno fatto capire quanto l'Europa era importante per l'Italia e quanto l'Italia era importante per l'Europa lo abbiamo fatto con gli allentamenti dei parametri sui conti pubblici lo abbiamo fatto con l'attività della BCE nell'acquisto dei titoli di Stato con Schuar sul lavoro con la disponibilità del MES sulla sanità e degli investimenti in generale lo abbiamo fatto con l'impegno del Presidente del Consiglio dei ministeri che hanno lavorato e che insieme al Parlamento hanno ottenuto qua oggi nessuno l'ha detto quello che non avremmo mai pensato un investimento senza precedenti un investimento capace di dare nuovamente al nostro paese alla nostra nazione la speranza per il futuro dopodiché era inevitabile che nella fase nella quale si comincia a guardare al futuro e all'uscita da questa vicenda ci fosse l'esigenza di un confronto politico il Partito Democratico per primo l'ha chiesto l'ha chiesto e l'ha ottenuto noi mi ricordo signor Presidente del Consiglio nelle nostri incontri a Palazzo Chigi le abbiamo portato delle proposte le abbiamo posto delle questioni che abbiamo ritenuto rilevanti per il paese non per noi per il paese siamo andati avanti in un confronto difficile lei lo ha fatto col Partito Democratico lo ha fatto con gli altri alleati di governo e poi a un certo punto questo confronto si è interrotto si è interrotto e è sfociato in quella che io considero oggi un'apertura di crisi pericolosa e sbagliata signor Presidente bisogna avere il coraggio di dirlo con franchezza noi dobbiamo noi chiamiamo la politica dobbiamo sapere che la politica fare il parlamentare fare il ministro significa lavorare sudare discutere confrontarsi litigare ma sapendo sempre che l'interesse del paese viene prima prima di tutti vede signor Presidente io sono tra quelli magari legati a concetti a valori di altri tempi dopo la famiglia la cosa che amo di più sono queste stanze non come stanze fisiche ma come simbolo simbolo della democrazia simbolo dei risultati delle guerre risorgimentali di quella della liberazione della resistenza sono quello che abbiamo di più caro e so l'importanza di essere qua oggi so l'importanza che abbiamo nei confronti della cittadinanza italiana noi oggi abbiamo delle grosse responsabilità signor Presidente noi oggi come parlamentari della Repubblica sappiamo che decidiamo e abbiamo in mano il futuro del nostro paese noi oggi decidiamo se proseguiremo questa esperienza se continueremo a lavorare magari con le critiche ma col dialogo e col confronto per migliorare il recovery plan per avere una guida e un controllo legato alle attività parlamentari noi non ci esimiamo dal confronto noi vogliamo il confronto e biasimiamo chi rinuncia al confronto chi rinuncia al dialogo chi preferisce una crisi di governo al buio pericolosa per l'Italia e per gli italiani chi si tira fuori sbaglia sono tante le persone che qua hanno a cuore il futuro del paese ci sono le forze di maggioranza ci sono i parlamentari delle aree progressiste riformiste che credono nel futuro nel miglioramento che è possibile tramite la politica dell'elevazione di una comunità nazionale della soluzione a tanti problemi in particolare delle fasce più deboli della nostra popolazione i tanti colleghi in particolare quelli eletti nelle file del partito democratico devono nella giornata odierna riflettere sul futuro del loro paese devono capire dove è giusto andare dove è un errore non andare signor presidente del consiglio colleghi tutti è un momento complicato un momento difficile noi oggi siamo chiamati a esercitare il nostro ruolo più alto più elevato che è quello di decidere sul futuro del governo del paese io credo che sia importante essere semplici chiari concreti trasparenti bene la centralità del Parlamento bene sulla discussione per la crisi bene in futuro per la definizione e il miglioramento dei recovery plan bene riacquisire il ruolo centrale delle aule parlamentari signor presidente mi creda non sarà mai un errore fare la cosa giusta noi oggi il partito democratico i nostri 35 senatori sanno di fare la cosa giusta e oggi signor presidente noi le rinnoviamo la fiducia a lei e al suo governo e lo facciamo per ciò che ci ha detto in quest'aula oggi ma soprattutto per quello che dovrà fare nei prossimi giorni nei prossimi mesi per quello che dovremo fare insieme nei prossimi giorni e nei prossimi mesi e quello che dovremo fare fino alla fine della legislatura e è molto semplice avere a cuore il futuro del nostro paese avere a cuore l'Italia tutta dare un governo credibile autorevole di ampio respiro che dialoga e si confronta con le forze politiche di maggioranza e di opposizione e che fa un grande progetto ambizioso per l'Italia signor presidente grazie ha chiesto di parlare la senatrice Bernini e a facoltà grazie signora presidente grazie signor presidente del consiglio ministri viceministri sottosegretari colleghi noi lo dico con molta franchezza e con tutto il rispetto che è dovuto all'istituzione governo e a quest'aula stiamo vivendo questo dibattito con un certo imbarazzo come probabilmente lo sta vivendo il paese certe volte in certi momenti abbiamo come la sensazione di essere di troppo in una crisi politico coniugale in una sorta di guerra dei roses in cui ci si scambia accuse e contro accuse commettendo ancora una volta l'errore di parlare a voi stessi di voi stessi e non al paese del paese che è esattamente quello che il paese si aspetta da voi è evidente che questa maggioranza non c'è più signor Presidente è evidente da tempo è evidente da quando noi ve lo dicevamo e vi pregavamo di non inchiodare alla vostra fragilità alla vostra debolezza tutte le decisioni che erano necessarie per portare avanti un paese che sta soffrendo lo abbiamo detto tante volte che la politica del rinvio dell'immobilismo avrebbe solo fatto danni maggiori noi l'abbiamo ascoltata come sempre e se un marziano oggi fosse sbarcato sulla terra e avesse ascoltato la sua relazione avrebbe l'impressione di trovarsi nel giardino dell'Eden va tutto bene va tutto benissimo non è vero che il nostro fil sta crollando non è vero che questo governo quando si è trovato a dover affrontare problemi veri seri in materia economica sanitaria in materia di scuola come le ha detto il senatore Renti padre putativo di questo governo di cui a volte ci domandiamo dove era quando queste decisioni sono state prese dove era quando i provvedimenti che noi abbiamo considerato incompleti e a volte dannosi sono stati votati con fiducia e continue forzature del ruolo di questo Parlamento ma soprattutto dell'affidamento dei cittadini italiani signor Presidente noi tante volte le abbiamo detto che oltre a quello che lei ci racconta qui e anche oggi lei ci ha raccontato una storia che ha un difetto profondo manca completamente del principio di realtà nella sua relazione non c'è il paese reale anche oggi li avete sentiti i dati sul covid i dati sul pil sui vaccini questi sono dati di realtà con cui tutti dobbiamo fare i conti noi opposizione responsabile ma a maggior ragione voi governo decidente che tante volte non ha voluto decidere noi abbiamo più volte cercato di attirare la sua attenzione signor Presidente non sulla raccolta di voti in Parlamento che è l'attività a cui lei si è dedicato nelle ultime settimane questa specie di mercante in fiera questa campagna acquisti che lei ha celebrato in quest'aula quando un paese la stava guardando un paese che spesso non era in grado di fare acquisti banali e fondamentali per la sua famiglia mi scusi il bisticcio di parole perché otto milioni e mezzo di famiglie mentre voi celebrate questa crisi surreale questa psicocrisi della politica otto milioni e mezzo di famiglie stanno soffrendo una drammatica riduzione del loro tenore di vita e devono ogni giorno confrontarsi con la loro sussistenza due milioni di nuovi poveri signor Presidente del Consiglio ma poveri veri quelli che non sono stati in grado di fare la fila a Natale per comprare i regali hanno fatto la fila alla Caritas per avere quello che un tempo erano in grado di procurarsi lavorando perché voi le sentite voi signori del governo le sentite le piazze li sentite i rumori di quegli esercenti di quei commercianti di quegli artigiani che continuano glielo stiamo dicendo signor Presidente glielo stiamo dicendo da sei mesi mentre voi decidevate solamente di fare task force stati generali inutili comitatismi quando gli unici progetti utili al paese li avete cestinati il piano colao noi vi abbiamo sempre detto che esiste un mondo che sta spegnendo le luci 500.000 aziende l'ultima denuncia di confcommercio che stanno spegnendo la luce e abbassando la saracinesca per sempre ma queste sono signor Presidente famiglie lavoratori fornitori una catena del consumo che si sta bloccando per sempre noi abbiamo un obbligo morale lo abbiamo sempre fatto come opposizione abbiamo un obbligo morale di aiutare il paese a risolvere questa situazione drammatica ma è una situazione che non può essere risolta attraverso il rinvio quante volte glielo dobbiamo dire quante volte abbiamo cercato di mettere sul suo tavolo le richieste di operatori del turismo ristoratori baristi tra l'altro cosa vi è venuto in mente di bloccare l'asporto dalle 18 in poi di hotel che sono stati costretti a chiudere operatori della montagna centri commerciali per quale motivo i centri commerciali fine settimana sono chiusi i negozi dei centri commerciali sono chiusi mentre i negozi del centro sono aperti perché quelli che pagano sono sempre gli stessi perché questa ingiustizia noi vi abbiamo detto quello che deve essere fatto guardi noi non siamo mai stati un'opposizione di critica inutile noi siamo stati un'opposizione propositiva e vi abbiamo detto l'unica cosa da fare è quello che sta facendo tutta Europa risarcimenti subito non ristori non pagamento delle spese vive stiamo parlando di persone di imprese di soggetti che non lavorano perché non possono non perché non vogliono e non sono in grado di sopravvivere ad una crisi che non è colpa loro se non sono sufficientemente risarciti risarcimenti congrui benedetti e subito esattamente come si fa nei paesi d'Europa dove la crisi si sta affrontando in maniera diversa e molto più vigorosa voi sapete avete questa tentazione arrogante di non ascoltare o ascoltare solo in parte e questo ci dispiace profondamente molto spesso se non si fanno fare le cose se non si sanno fare le cose basta guardare guardare fuori dal nostro paese che cosa fanno altri paesi che hanno trovato soluzioni hanno saputo elaborare e sviluppare soluzioni migliori delle vostre per quale motivo la Germania e la Francia risarciscono sì signor ministro dell'economia lei continua a fare segno di no con la testa ma vada a spiegare lei alle persone che hanno paura di non poter più tenere aperta la loro attività che hanno paura di non poter più con le loro famiglie mantenere delle tradizioni storiche che sono l'orgoglio del made in Italy e del nostro paese vado a spiegare loro perché 50 milioni di cartelle partiranno dall'agenzia dell'entrata atti accertamenti atti amministrativi cose vergognose che non sono compatibili con questo periodo per quale motivo la Germania risarcisce il 75% del mancato fatturato ma io sono veramente turbata dal fatto che lei continui a fare segno di no con la testa signor Ministro vi dovete confrontare con la realtà non potete continuare a raccontare la storia che il Presidente del Consiglio ci viene a raccontare ogni giorno io non credo che voi possiate uscire di qui e semplicemente scuotendo la testa risolvere i problemi di questo Paese voi avete il dovere il dovere come governo e noi abbiamo il dovere l'obbligo come opposizione di costringervi a prendere in considerazione i problemi di un Paese che sta morendo voi sapete benissimo quali sono le cose da fare sapete perfettamente che se non risarcite tempestivamente gli esercizi commerciali che inevitabilmente sono stati chiusi e a cui avete promesso risarcimenti per quale motivo se ritenete che i risarcimenti non possano essere dati li avete promessi prima di Natale e poi non li avete dati per quale motivo avete promesso una cassa integrazione tardiva e molto spesso data dall'impresa privata dagli stessi imprenditori ai loro dipendenti con profondi sacrifici personali per quale motivo noi riceviamo richieste continue di portare alla vostra attenzione storie di vita di lavoro che voi sembra con uno scrollo della testa così delle spalle sembra quasi che non vi interessino sembra che si debba ragionare di massimi sistemi di come andrà a finire questo governo se riuscirete a mettere insieme un gruppo di costruttori guardate che costruttori non è una parola è un percorso bisogna essere capaci di costruire la storia la politica bisogna essere capaci di spiegare agli italiani soprattutto quelli più fragili e vulnerabili quelle persone anziane che vi stanno chiedendo aiuto e che purtroppo sono state costrette a fare la coda per i vaccini non più tardi di un mese fa vaccini anti-influenzali bisogna spiegare se ci sarà un piano vaccinale se si dove come quando come stanno facendo quei paesi che già approntano delle strutture dove fare i vaccini se funzioneranno bisogna spiegare quale sarà il futuro di chi purtroppo non ha solo il problema del covid ma magari ha delle patologie che non è in grado di curare perché non si riescono più a fare visite specialistiche né esami diagnostici in ospedali purtroppo troppo pieni di problemi covid per dare un'assistenza e fare prevenzione questo è un problema che si rivolgerà e si ribalterà sul nostro paese per gli anni a venire questi sono i problemi non scrollare le spalle scuotere la testa fare finta che i problemi non esistano come sta facendo lei che viene qui a raccontarci una storia che purtroppo nessuno sente come vera per quale motivo a fronte di tutte le cose belle che lei ci racconta il paese soffre perché il paese non si rende conto di tutte le cose belle bellissime che avete fatto per loro non avete fatto l'anno fiscale bianco non avete fatto il condono per chi non ce la fa non avete dato veri risarcimenti insomma non avete fatto niente di quello che doveva essere fatto in questo momento è per questo signor presidente è per questo ministri governo che noi non possiamo darvi la nostra fiducia perché noi non crediamo in lei non crediamo nella sua coerenza non è coerente dire che non vuole raccogliere voti in parlamento non vuole volta gabbana non vuole il mercato delle vacche e poi venire qua e cercare voto per voto offrendo posti di governo facendo una sorta di offerta al pubblico la solitudine dei numeri primi l'agricoltura la delega ai servizi sta arrivando tutto ora non è coerente non crediamo nell'efficacia del suo governo anzi crediamo che il suo governo sia molto supponente perché a fronte dei problemi reali del paese non sa fare altro che scuotere la testa non crediamo che la sua relazione le sue dichiarazioni siano in grado di capire ma soprattutto di rispondere ai bisogni profondi del paese per tutti questi motivi signor presidente noi scegliamo di essere coerenti scegliamo di combattere la nostra battaglia politica forte delle nostre idee delle nostre proposte che condivideremo con voi perché noi tifiamo Italia noi corriamo con la maglia del colore dell'Italia grazie dell'attenzione che mi state dedicando signori del governo vi ringrazio se disturbo posso smettere di parlare datemi un minuto e lo farò comunque scusatemi ma siete qua per ascoltare non solo per parlare questo si chiama Parlamento ma bisogna anche ascoltare soprattutto quando parla l'opposizione dicevo noi continueremo la nostra battaglia politica perché ci crediamo crediamo nella forza delle vostre proposte che continueremo a mettere a vostra disposizione ma scegliamo di essere coerenti ho veramente finito presidente scegliamo di essere liberi dai condizionamenti e dai ricatti scegliamo di essere liberi di candidarci come forza di governo per il paese scegliamo di candidarci noi di Forza Italia e l'opposizione tutta a governare il paese perché ne siamo convinti quando le persone sono lasciate libere veramente libere di scegliere scelgono la libertà grazie ha chiesto di intervenire il senatore Salvini ne ha facoltà grazie presidente e grazie agli italiani che stanno seguendo questo dibattito che per certi versi è stato surreale perché per qualcuno qua dentro il problema è perdere la poltrona per gli italiani normali il problema fuori di qui è perdere il posto di lavoro e quindi mi scuso a nome di qualche collega senatore che mi ha fatto vergognare grazie di essere senatore i dati dicono anche oggi l'avvocato Conte ha ribadito che sostanzialmente al governo migliore al mondo e chi dice il contrario mente i dati che non sono opinabili purtroppo e sottolineo purtroppo dicono che siamo i primi al mondo tra i grandi paesi per morti di covid e siamo gli ultimi al mondo per crescita economica l'avvocato Conte è intervenuto pochi minuti prima di me dicendo falso avvocato Conte questa è la prima pagina del Wall Street Journal di oggi sui primi dodici paesi al mondo l'unico che cresce è la Repubblica cinese a lei tanto cara e noi un po' meno e l'Italia è dodicesima su dodici paesi al mondo per crescita economica evidentemente le magie del suo prode Casalino arrivano ovunque ma non ancora nella redazione del Wall Street Journal questa è la verità ora io ricordo a me e a chi ci segue che stiamo discutendo di una crisi che è tutta in casa vostra perché voi un anno e mezzo fa faceste nascere il governo dell'Europa dell'ambiente della green economy dei giovani dell'amicizia della fratellanza con l'unico collante di non mandare il paese alle elezioni perché altrimenti avrebbe rischiato di vincere il centrodestra va che roba strana sta democrazia dopo un anno e mezzo siamo punto e a capo state litigando fra di noi apro una parentesi state litigando fra di voi anche sull'utilizzo dei fondi europei che è giusto ricordare che sono per due terzi dei prestiti che dovranno essere restituiti dai nostri figli entro il 2056 non è cosa vostra è cosa di tutti e non è una gentile concessione se ogni tanto spiegate agli imprenditori e ai sindacati che intenzione avreste su questi soldi visto che sono soldi di tutti gli italiani quindi ci fosse un governo che ha tenuto sotto controllo la crisi sanitaria e che ha messo benzina nel motore della crescita economica noi da fuori diciamo beh smettetela di litigare però siccome state facendo cose buone andate avanti siamo gli ultimi siamo gli ultimi mettere in discussione un governo che ha fallito su tutto non è un diritto ma è un dovere di ogni cittadino italiano poi notazione semantica quelli che cambiavano casacca fino a poco tempo fa erano dei volgari poltronari qualcuno prima di noi è anche andato a processo per una presunta compravendita di deputati e di senatori io ricordo a chi si sta sforzando di inventare dei neologismi che non state cercando costruttori volenterosi o responsabili state cercando dei complici da pagare per non mollare la poltrona questo è quello che sta accadendo se state facendo tutto bene o se come dice l'avvocato conte farete tutto bene perché sembra che sia arrivato ieri mattina al governo che problema c'è a chiedere il giudizio agli italiani su quello che state facendo state dando rimborsi avete trasformato le scuole italiane nel tempio della modernità e della sicurezza e a me non risulta che sia così perché al di là dei 461 milioni sbattuti via per i banchi con le rotelle state giocando sulla vita di studenti e insegnanti che vanno a scuola rischiando di loro perché non avete fatto nulla per potenziare il trasporto pubblico e sistemare l'aerazione delle classi abbiamo due idee diverse in democrazia viva premessa il sovranismo c'è da mesi questo pericoloso nemico che alleggia sull'Italia sul Parlamento il sovranismo quando succede qualcosa è colpa dei sovranisti se ti fregano la bicicletta è stato un sovranista molto probabilmente ora intendiamoci sul senso delle parole l'Italia è uno dei padri fondatori dell'Europa per fortuna domanda ma un governo che mette a rischio la salute dei suoi cittadini perché mancano i vaccini che ha delegato all'Europa mentre altri paesi hanno i loro vaccini o se li procurano per conto loro è un governo europeista o è un governo di incapaci un governo un governo che un governo che senza muovere un dito permette che la Fiat diventi francesi con dei prevedibili licenziamenti dei nostri operai senza muovere un dito è un governo europeista o è un governo di fessi secondo me è più la seconda della prima e poi lezioni di diritti umani da chi strizza l'occhio all'Iran al Venezuela e a chi mette sullo stesso piano gli Stati Uniti e la Cina noi proprio non ne prendiamo noi proprio non ne prendiamo abbiamo due idee diverse a me piace l'Europa dei De Gasperi dei padri fondatori del benessere della crescita immaginata da Papa Voitila non mi piace l'Europa dei burocrati della finanza dell'austerità e del taglio delle pensioni io da cittadino italiano pretendo di contare in Europa cos'è? un reato? sulle tasse io credo che l'unico modo per abbattere l'evasione fiscale non sia l'obbligo della moneta elettronica o la persecuzione fiscale o l'agenzia delle entrate sia abbassare le tasse con la flat tax pagare meno per pagare tutti pace fiscale se l'Europa imporrà come scrive nel regolamento per l'utilizzo dei fondi europei nuovi sacrifici e nuova austerità la patrimoniale sulle case sui conti correnti e il taglio delle pensioni e se voi direte sì non sarete europeisti sarete attentatori nei confronti dei lavoratori e dei pensionati italiani la ricchezza per essere redistribuita deve essere prodotta e la proprietà privata per quello che mi riguarda è un principio sacrosanto se bloccate gli sfratti ed evitate che coloro che hanno un appartamento in affitto incassino quello che è loro dovuto almeno non fategli pagare le tasse perché state rovinando milioni risparmiatori italiani che hanno quello come unico reddito voi glielo mettete fuori uso e glielo tassate pure questo non è europeismo la senatrice che prima parlava di diritti e di giustizia sociale sappia che col blocco degli sfratti non aiuta i poveretti ma aiuta i furbetti e mette sull'astrico milioni di risparmiatori italiani questa è discriminazione questo è proprio proletario non è proprio di uno stato di diritto io ritengo che l'avvocato Conte abbia fatto bene a combattere per arrivare a quota 100 e a opzione donna io ritengo che sarebbe una follia azzerare quota 100 e opzione donna e aumentare l'età per andare in pensione in Italia in un momento di crisi economica come questa se ce lo chiede l'Europa se c'è di mezzo la salute delle nostre donne e dei nostri lavoratori è diritto nostro dire no grazie sul lavoro e sulle pensioni degli italiani non si scherza sulle banche abbiamo un'idea diversa è chiaro che ce l'abbiamo diversa avvocato Conte perché qualche parlamentare del PD si dimette per andare a fare il presidente di qualche grande banca noi preferiamo le banche del territorio che prestano i soldi a chi ne ha bisogno non che danno i soldi alle multinazionali che poi portano all'estero la loro sede fiscale e spero che non riesca il suo governo che spero con stasera abbia fine a fare quello che non hanno fatto due guerre mondiali ovvero sia a svendere un patrimonio dei toscani e degli italiani che si chiama Monte dei Paschi di Siena che non è proprietà di un partito ma è patrimonio di un paese sul commercio abbiamo due idee diverse noi come Lega e come centrodestra preferiamo i negozi e il Made in Italy qualcuno vicino a lei preferisce le multinazionali del click alla Amazon che vendono e sfruttano in Italia e poi vanno a pagare le tasse altrove e non sono il futuro del nostro paese sull'agricoltura la grande assente di questo dibattito lei non ha dedicato manco una parola c'è chi dice sia l'Europa che ci propone il cibo sintetico prodotto in laboratorio magari a Wuhan noi preferiamo il cibo naturale la dieta mediterranea con cui sono cresciuti i nostri figli sono punti di vista diversi sull'ambiente sull'ambiente non basta dire green green lo dico perché c'è un ministro ambientalista a parole ma distruttivo nei fatti ovunque nel mondo i rifiuti diventano energia calore e ricchezza grazie ai suoi no in Italia andiamo avanti a discariche e a roghi tossici e questo non è sano per nessuno questo non è ambientalismo questo è aiutare coloro che Borsellino combatteva sulla Tav noi siamo a favore di un'Italia che cresce che opera che scava che viaggia oggi oggi a Bruxelles il centrodestra e il PD hanno votato a favore della Tav i 5 Stelle hanno votato contro la Tav ragazzi mettetevi d'accordo io voglio un'Italia che viaggia veloce e sicura non voglio un'Italia ostaggio dei no e noi per i no lo ricordo al collega Renzi non abbiamo mollato due poltrone ma ne abbiamo mollate sette senza rimpianti senza rimpianti ci sono tanti altri dossier noi vogliamo che una potenza industriale come l'Italia abbia ancora l'acciaio e difenda l'Ilva e gli operai dell'Ilva utilizzando quell'acciaio per produrre dopo anni di chiacchiere quel ponte sullo stretto di Messina che può collegare la Sicilia alla Calabria al resto d'Europa voi preferite lasciare Taranto senza bonifiche e senza lavoro mi spiace ma non finirà così ce ne sono tanti di dossier Avvocato Conte su cui lei ha deciso di non decidere autostrade noi siamo per fare le opere ferme penso alla Gronda di Genova voi avete fatto guadagnare una sola famiglia che si chiama Benetton quindi non veniteci a parlare di solidarietà vedo tanto nervosismo qua c'è gente che era convinta di portare a casa la poltrona adesso siete un po' meno convinti di portare a casa la poltrona forse però mi avvio a chiudere io ricordo l'Avvocato Conte che ci aiutava ad avere un'immigrazione legale controllata e avere integrazione vera non mi piace questa seconda versione che apre i porti fa regali agli scafisti e che secondo quanto abbia letto sui giornali l'integrazione la i calciatori di serie A che non parlano l'italiano non è esattamente l'integrazione a cui pensiamo noi una riflessione è un'altra differenza che abbiamo ma è bello così in democrazia sulla famiglia noi pensiamo che non sia una scelta politica pensiamo che la mamma si chiami mamma e il papà si chiami papà noi siamo per la difesa della vita sempre e comunque e per noi l'Italia del futuro l'Italia del futuro concluda per cortesia il nostro il nostro modello sono i centri di aiuto alla vita non le pillole abortive regalate per strada a chiunque abbiamo un'idea diversa di futuro quindi presidente a volte non mi sento non sento neppure io un attimo capisco che siamo da undici ore in aula vi pregherei di avere ancora pazienza terminiamo questo dibattito terminiamo questo dibattito prego si avvia la conclusione senatore Salvini grazie e a proposito di famiglia visto che il dibattito è attuale l'Italia che noi abbiamo in testa ha come modello San Patrignano e la comunità nuovi orizzonti e non le droghe libere agli angoli delle scuole dei nostri figli questo deve essere chiaro questa è l'idea d'Italia di Europa che abbiamo lei Avvocato Conte ci chiede la fiducia noi la fiducia non la diamo a lei ma la diamo ai cittadini italiani noi speriamo che lei liberi la poltrona che sta ostinatamente difendendo con tutti i mezzi necessari e ricordo ai senatori a vita che legittimamente voteranno la fiducia ricordo per cortesia concluda concluda daremo lo stesso tempo anche al senatore Liccheri prego ricordo da oggi io l'ho segnato hanno raddoppiato i tempi tutti quindi no no scusate siamo stiamo siamo in un dibattito molto importante io non ho l'abitudine di togliere la parola a nessuno e non l'ho fatto con nessuno da dieci ore a questa parte quindi smettetela di protestare facciamo finire ognuno adesso si conclude prego concluda democratici a parole censori nei fatti stavo semplicemente ricordando ai senatori a vita che si apprestano a votare la fiducia insieme ai colleghi dei 5 stelle all'avvocato conte cosa diceva il leader dei 5 stelle poco tempo fa dei senatori a vita i senatori a vita non muoiono mai o almeno muoiono un po' troppo tardi che coraggio che avete ragazzi senatori a vita e che coraggio che coraggio che coraggio che coraggio che coraggio senatore Salvini non mi sembra non mi sembra appropriata questa sua considerazione parole musica di me non mi sembra non mi sembra non mi sembra non mi sembra concluda perché diversamente devo toglierle la parola faccio concludere sempre tutti concluda mi è sembrato veramente irrispettoso nei confronti dei senatori a vita la sua considerazione prego concluda 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 presidente se non la smettete io io interrompo l'aula non posso state state tranquilli presidente sedetevi e state tranquilli dispongo io i tempi prego presidente sono d'accordo con lei perché ha veramente esforato molto presidente sono d'accordo con lei che le parole dette sono disgustose e quindi il senatore dei 5 stelle che interverrà dopo di me chiederà scusa a nome di grillo e del movimento 5 stelle per queste parole ne sono sicuro una cosa ho apprezzato dell'intervento dell'avvocato Conte e chiudo prego per cortesia devo toglierle la parola non sono abituata devo toglierle la parola lei sta parlando da 15 minuti non è il solo devo elencare tutti quelli che questa mattina hanno raddoppiato i tempi perché l'ho scritto in maniera rigorosa proprio pensando che ci sono sempre delle proteste che sono dispari a seconda da chi sfora il tempo questo non mi piace non mi piace prego concluda concludiamo volevo chiudere con un complimento all'avvocato Conte volevo dire che l'unico passaggio che mi è piaciuto nell'intervento dell'avvocato Conte è quello che ha ricordato un grande italiano come Paolo Borsellino e io aggiungo una riflessione a quella dell'avvocato Conte chi ha paura muore ogni giorno chi non ha paura muore una volta sola noi stiamo con l'Italia per cui la libertà è sacra e non è in vendita viva l'Italia che non ha paura grazie e andate a casa che è ora ha chiesto di parlare il senatore Liccheri ne ha facoltà grazie 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 presidente signore senatrici signori senatori signor presidente del consiglio cerchiamo di riabbassare i toni della discussione d'altro canto oggi non è successo niente di diverso di nuovo rispetto alle volte precedenti questo è il fantastico mondo di Salvini quel mondo senza pandemia quel mondo a rotelle come i banchi che sono stati ordinati dai presidi quei banchi che sarebbero dovuti arrivare dalla Cina invece sono stati fabbricati da imprese italiane quei banchi che hanno consentito il distanziamento sociale tra gli alunni dentro le strutture scolastiche quei banchi che hanno consentito l'applicazione di quei protocolli che tutti quanti chiedevamo e che hanno fatto della scuola il luogo più sicuro sono quei banchi lì ma ripeto è un mondo senza pandemia l'avremmo voluto tutti ed è normale che parli così perché lui fino a qualche mese fa pensava che il covid fosse poco più di un'influenza anzi pensava che fosse il pretesto per applicare un dpcm addirittura non c'è da da accendere da cedere gli animi c'è da preoccuparsi c'è da preoccuparsi perché questo dibattito è in diretta televisiva e qui noi dobbiamo domandarci che cosa sta capendo la gente perché la gente ci sta dicendo perché ci avete portato qui cioè noi crediamo che sia questa la domanda che si stanno facendo i cittadini che ha seguito questo lungo dibattito televisivo che è partito ieri alla camera e adesso ha prodato al senato non ha capito nulla se non che Roma 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 tutti Roma è lontana anni luce oggi dal paese reale Roma è lontana dal paese reale perché se perché se c'è una classe politica che dichiara di voler votare lo scostamento di bilancio 32 miliardi certo dirà Salvini ne occorrevano 64 e tu dici 64 e lui dice 128 lui va così ma lo conosciamo non è il caso di avvirarsi ma se votiamo tutti lo scostamento di bilancio evidentemente siamo d'accordo sulla politica di bilancio di questo governo se votiamo tutti i decreti ristori evidentemente siamo tutti d'accordo sul programma di sostegno al reddito e di liquidità alle imprese no? se votiamo le misure anti-covid come avete dichiarato tutti voteremo tutti i provvedimenti anti-covid evidentemente siamo tutti d'accordo per il programma dell'azione politica che sta seguendo il governo di contrasto e di superamento dell'emergenza cura e quindi i cittadini stanno dicendo ma perché ci avete portato in questa situazione la risposta è che non lo sappiamo nemmeno noi non lo sappiamo nemmeno noi ma non lo sa nessuno in quest'aula non lo sa nessuno pochi minuti fa i cittadini hanno visto accusare hanno visto accusare il presidente del consiglio di aver cambiato maggioranza due volte in poco più di due anni ma chi lo accusava era quello che gli aveva offerto la seconda maggioranza dandogli una pacca sulle spalle e sussurrandogli all'orecchio stai sereno non lo sappiamo nemmeno noi non lo sappiamo nemmeno noi aveva promesso ai cittadini italiani che non l'avrebbe più rifatto e l'ha rifatto e l'ha rifatto e allora è giusto è naturale anzi è doveroso presidente che lei sia venuto in Parlamento per lanciare questo appello un appello ai senatori ai deputati ai cittadini al paese un appello che lei ha voluto indirizzare a tutti per ritrovare quello che lei ha chiamato il senso alto della politica e noi 5 Stelle le aggiungiamo anche il senso della condivisione di un medesimo destino perché qui non si è capito che da questa pandemia non usciranno né vinti né vincitori e allora noi riteniamo che sia stato anche eticamente giusto che lei abbia invitato allo superamento degli steccati ideologici lo ha fatto e ha fatto bene perché in questo momento se noi non capiamo al di là del mondi fantastici che dobbiamo remare tutti nella stessa direzione perché la parola chiave che ci può trascinare via dalle secche di una recessione che sembra non aver fine la parola chiave è stabilità è stabilità e questa parola da ieri a oggi in questo dibattito è stata pronunciata pochissime volte la pandemia ha scavato solchi profondi nelle nostre vite e chi dice che molte cose non funzionano dice la verità è vero molte cose non funzionano noi stessi la scorsa settimana vi abbiamo portato non quei dati taroccati ma vi abbiamo portato i dati drammatici dell'economia della Francia non si fotografa in aula non si fotografa in aula noi abbiamo presidente posso? noi vi abbiamo portato i dati economici drammatici del Regno Unito della Germania della Francia non tanto per dirvi che se Atene piange Sparta non ride ma per dirvi semplicemente che la pandemia quella cosa che non entra nella testa di qualcuno quella pandemia in sei mesi ha spazzato via in Europa 10 milioni di posti di lavoro e lì non c'è differenza tra italiani francesi tedeschi e portoghesi 10 milioni di posti di lavoro ma il punto non è questo colleghe e colleghi il punto è che in questo momento l'Italia ci sta guardando e sapete qual è la soluzione l'alternativa che in questo momento la politica sta portando per mettere in sicurezza le nostre esistenze i nostri ristoranti le nostre fabbriche e quello che potrebbe essere il nostro tessuto sapete qual è la soluzione che la politica ci sta suggerendo oggi l'apertura di una crisi di governo è questa la follia è questa la follia una crisi che è stata considerata da tutta la stampa straniera la crisi più scelerata e irresponsabile folle e assurde della storia del nostro paese e allora se da una parte è comprensibile che questa pandemia abbia seminato un senso di sbarrimento ma la politica non può cadere nello sbarrimento la politica non può cadere nel cinismo nel ricatto nel egocentrismo nel capriccio nel capriccio di quel leader o di quell'altro leader e noi del Movimento 5 Stelle in questi due anni e mezzo le garantisco signor Presidente che di capricci ne abbiamo visto tanti forse troppi forse troppi però però c'è un modo per far passare i capriccetti di quel leader o di quell'altro leader il modo è quello che avete sentito tutti oggi in aula dobbiamo andare alle elezioni per il bene degli italiani dobbiamo aprire una crisi di governo nell'interesse degli italiani ma a nome di chi parlate ma per chi state parlando chi è l'italiano o l'italiana che vuole la crisi perché le pare che sia una cosa fatta per il proprio bene chi è il commerciante che ha visto calato il proprio fatturato l'artigiano che ha visto chiusa la propria bottega l'infermiere che sta lavorando 24 ore su 24 in ospedale che in questo momento sta sognando una campagna elettorale ma con quale persone parlate ma con chi parlate qual è la gente che frequentate provate a uscire fuori da quest'aula non sbarrate le finestre alla realtà lasciate perdere il mondo a rotelle scendete e respirate insieme a noi il dolore il dolore che i cittadini stanno provando in questo momento il sangue le ferite che in questo momento non riusciamo a sotturare perché purtroppo mi dispiace ma questa pandemia va a ondate e non sappiamo quando terminerà ci sarebbe piaciuto per poter dare questo bellissimo annuncio ma non lo possiamo fare e allora gli italiani quelli veri hanno tolto tutta quanta questa storia qui perché lo hanno capito lo hanno capito perché là fuori ci sono delle persone che stanno semplicemente aspirando a riappropriarsi della loro vita qualcuno qui dentro sta aspirando ad appropriarsi del recovery plan gli italiani hanno capito che in questo momento la politica è distinta in due diverse categorie quelli che il recovery plan lo vogliono scrivere e quelli che il recovery plan lo vogliono possedere e allora presidente è giusto doveroso istituzionalmente doveroso che lei parli di senso civico di sviluppo della persona umana di coscienza di impegno e pazienza se qualcuno parla di servizi segreti lo so lei è stato quasi costretto oggi a venire qua a dirci che lascerà che concederà questa delega ad una persona terza ma non riusciamo ad immaginare che in furia di qui tutta la nazione a queste parole abbia tratto un sospiro di sollievo perché questa delega è stata in qualche modo no è lo scollamento che è una piaga di questo paese tra la classe politica e la società civile e non ci abbandona ma di cosa stiamo parlando e allora rispettiamo le esortazioni del presidente della repubblica quelle che chiedono un empito di orgoglio ma lo spirito civico purtroppo non si improvvisa la lealtà la lealtà senatore senatore Renzi la lealtà e la coerenza non si istituiscono per decreto perché c'è un un poeta la senatrice Verdini ha parlato di libertà ma la libertà non è farsi i propri comodi ad libitum non è questa la libertà a Giocio Gabi diceva non è uno spazio vuoto la libertà è partecipazione e allora c'è un patto di legislatura e mi accingo a concludere presidente è un programma che lei presidente oggi porge cito le sue parole a tutti coloro che riconoscono il valore della politica noi sottoscriviamo qui parlo io a nome dell'intero gruppo 5 stelle siamo in 92 qui a proposito dove sono dove sono le file di grillini che dovevano bussare le dichiarazioni che avete fatto ai giornali 92 dovevamo essere qui e ci siamo anzi siamo 91 perché il 92esimo il senatore Castiello sta combattendo contro il covid e a lui mandiamo un saluto coloroso un combattente in questo momento c'è bisogno di uomini e donne capaci di amare il loro paese noi amiamo il nostro paese e il nostro fatto con i cittadini resisterà ha sempre resistito in questi dieci anni di storia del movimento 5 stelle e resisterà anche in questo momento così ricco di sacrifici così ricco di atti di eroismo civile che purtroppo anche questa volta non sono appartenuti a questa classe politica grazie 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 a tutti senatore Liccheri poiché le regole sono uguali per tutti le faccio presente per cortesia un po' di educazione allora le faccio presente che lei ha parlato 14 minuti senza mai essere interrotto a fronte dei 15 minuti del senatore Salvini questo perché il segno dell'orologio bisogna farlo sempre e io lascio parlare sempre tutti e non va bene allora chiedo di parlare il senatore Romani in dissenso dal gruppo prego grazie presidente il mio intervento sarà più pacato di quello che mi ha preceduto prendo la parola in dissenso dal gruppo misto per dichiarare che sulla fiducia il voto contrario a nove dei senatori della componente di idea cambiamo se no presidente del consiglio noi non le possiamo dare la fiducia non l'abbiamo fatto nelle tante occasioni nella quale lei si è presentata in quest'aula per chiederla e non lo faremo in quest'occasione anzi direi soprattutto in quest'occasione infatti nel momento in cui uno dei partiti che appoggiavano il suo governo le ha tolto il sostegno lei di fronte si aveva due strade o andare dal capo dello Stato e dare le dimissioni oppure cercare una nuova maggioranza nelle due Camere nella nostra democrazia parlamentare sono previsti ambedue i casi ma il Presidente della Repubblica le ha consentito di cercare una pattuglia di volenterosi responsabili costruttori che probabilmente le daranno anche in questa in questa Camera più voti forse pochi di quelle delle opposizioni ma anche questo era già accaduto nel passato e probabilmente oggi avrà in quest'Aula la maggioranza ma non la maggioranza assoluta e tutto questo anche grazie soprattutto al ripensamento di quel partito che ha provocato la crisi ma che oggi si astiene in quest'Aula ma anche questo era accaduto nel passato della nostra Repubblica parlamentare ci sono stati le ricorderà i governi della non sfiducia governi deboli che hanno avuto vita molto grama sia nelle commissioni che in Aula e ogni volta che quel partito o quel parlamentare non sarà convinto di un provvedimento lei dovrà o inventarsi una soluzione rimaneggiata o cercarsi un'altra maggioranza e lo voglio ancora ripetere è già accaduto anche questo nella storia repubblicana ma noi siamo e viviamo l'hanno detto in tante occasioni tanti colleghi un momento straordinario eccezionale una pandemia che ha ucciso ad oggi 80.000 concittadini un piano vaccinale straordinario che dovrebbe essere fatto con grande velocità a portarci fuori da questa tragedia e 200 miliardi di risorse europee da spendere su progetti da mettere in campo entro il 2023 ovvero quella ragionevole data della scadenza del suo governo ma lei Presidente si presenta in questa fase cruciale come lei stessa l'ha definita questa mattina con una maggioranza risicata e raccogliticcia ma la cosa che più ci ha sorpreso ho quasi finito Presidente è stato il suo richiamo anzi la sua richiesta di aiuto a quelle forze europeiste popolari liberali e socialiste non erano proprio queste quelle forze che il partito che il partito che la designata Presidente del Consiglio riteneva superate rappresentative di valori ormai antiquati nella straordinaria attualità dell'uno vale uno che doveva archiviare un passato fatto dicevate allora di corruzione di privilegi tanto da indurre il suo partito a chiedere di aprire queste stesse istituzioni come scatolette di tonno ed immagino buttarne poi via il contenuto signor Presidente il contesto drammatico emergenziale che stiamo vivendo richiederebbe tutt'altro livello di confronto e sicuramente maggiore stabilità politica e ancora soprattutto una straordinaria enorme capacità progettuale la grande assente io credo di questo passaggio parlamentare e in un momento in cui sarebbe necessario ridisegnare l'assetto socio-economico del Paese e contemporaneamente fronteggiare l'emergenza sanitaria non è più sufficiente avere un governo con una maggioranza così precaria ed una maggioranza addirittura minoritaria in una delle due assemblee elettive del Paese grazie ha chiesto di parlare in distenso dal gruppo il senatore Paragone grazie presidente grazie presidente oggi il presidente Conte si presenta convintamente come europeista e antipopulista di più invita i costruttori ad unirsi contro il fronte sovranista peccato che proprio lo stesso Conte avesse debuttato consapevolmente in questa legislatura sulla scena politica come capo di un governo sovranista e populista e lo rivendicava io penso in tutta onestà che sia sincero oggi Conte ha mentito prima e prima che ha violentato la propria identità e prima che si è svenduto per la bramosia di diventare presidente del consiglio e questa sua arte del mentire a se stesso prima che agli italiani lo rende pericoloso Presidente Conte lei non ha limiti morali Conte lei ha mentito allora per il potere esattamente come adesso sta mentendo agli italiani su un'emergenza sanitaria che governo e comitati vari hanno reso più drammatica di quella che è Conte mente agli italiani quando parla di casse integrazioni pagate di ristori pagati di soldi disponibili ma lo sa che fuori da questi palazzi ci sono i soldi degli usurai e della criminalità i soldi degli italiani non privilegiati e non garantiti stanno finendo e stanno finendo perché avete chiuso tutto e state facendo pagare tutto basta ipocrisia è colpa vostra perché state dalla parte del più forte delle multinazionali perché la vostra debolezza ha bisogno di un protettore di un'elite massonica di una loggia politica avete offeso la memoria delle vittime del ponte Morandi a Genova proteggendo ancora oggi Benetton e i suoi uomini avete tradito i risparmiatori truffati dalle banche perché adesso brigate con il sistema bancario che tra l'altro abbandonerà due milioni di famiglie sovraindebitate tradite sull'ILVA insomma dove c'è un padrone voi siete lì siete genuflessi coi cinesi avete dato i soldi a FCA e a strane società di mediazione per consegnare agli italiani delle mascherine che avete pagato più del loro valore lì i soldi li avete cacciati anche in anticipo bravi pagate multinazionali come la Pfizer che nell'assoluta segretezza dei contratti vi prende anche per i fondelli tagliando le dosi vaccinali del resto ragazzi non capita mica tutti i giorni di avere a che fare con un super commissario tanto incapace come Mimmo Arcuri per continuare nelle vostre doppiezze userete i servizi segreti contro i liberi parlamentari e contro chi farà resistenza con passi e servizi messi assieme producono dossier e le abbiamo già viste queste cose per chiudere delle due luna o non è seria l'emergenza Covid oppure non lo è questa maggioranza la risposta ce la daranno le poltrone che spartirete con i costruttori caro Movimento 5 Stelle siete passati da Casaleggio a Tabacci da Dario Fo a Mario Monti bastava un po' di pedagogia europeista Conte non sei tu a dirmi basta Conte e Covid 5 lettere che bastano per rovinare gli italiani Italexit le dice no ha chiesto di parlare in dissenso dal gruppo il senatore Ricchetti ne ha facoltà grazie presidente Presidente Conte vorrei restare alla larga da questo scambio di accuse di riferimenti ad una crisi incomprensibile ad un senato lontano dal paese reale detto dal senato a se stesso e vorrei invece stare al suo discorso di oggi premesso che abbia qualche interesse e le considerazioni che sto per farle ha parlato di un governo europeista ha lanciato un appello ai liberali ai popolari ai socialisti difficile rimanere indifferente io voterei la fiducia se a promettermi europeismo non fosse lo stesso premier che mi ha spiegato in quest'aula il valore e la bontà del sovranismo io la voterei la fiducia se l'appello ai liberali non lo facesse il premier che ha portato lo Stato nell'Ilva nelle autostrade in Alitalia nelle banche che non è proprio l'impianto dei liberali io la voterei la fiducia se l'appello ai socialisti lo facesse un premier che mette al centro e mette le risorse sul lavoro e non sull'assistenza improduttiva e sul rete di cittadinanza io la voterei la fiducia presidente se l'appello ai popolari lo facesse un premier garantista e non un premier giustizialista lei oggi ha detto in premessa questo paese merita un governo coeso e nella replica ha spiegato come il governo non è coeso sul mess e non perché lo dice lei ma perché lo dicono le dichiarazioni dei suoi ministri e le dichiarazioni di Derri o del collega Marcucci che vanno in direzione opposta a altri esponenti della maggioranza i veri eroi non sono né noi né i ministri sono probabilmente i medici gli infermieri gli insegnanti le forze dell'ordine presidente lei si è candidato ad essere avvocato del popolo ma con la ringa di oggi io temo che condanni l'Italia alla vacuità e alla inconcludenza il ministro Di Maio ha proposto il modello Ursula ministro Di Maio io la prendo in parola però non si può fare il modello Ursula con il premier che fu di Salvini volete coinvolgere allargare volete una maggioranza sul modello europeo beh salite al Quirinale chiedete un premier realmente europeista e liberale e allora metteremo via il pallottoliere non ci sarà più bisogno di 149 152 157 ci saranno maggioranti ampie europeiste e contro i sovranisti e i nazionalisti realmente e alla fine rimetteremo l'Italia nel posto che merita ai sensi dell'articolo 161 del regolamento indico la votazione nominale con appello sulla proposta di risoluzione numero 1 Marcucci Liccheri De Petris e Unterberger sull'approvazione della quale il governo ha posto la questione di fiducia coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì coloro i quali sono contrari risponderanno no coloro i quali intendono astenersi risponderanno di conseguenza come stabilito dalla conferenza dei capigruppo ciascun senatore potrà votare esclusivamente dal proprio posto io vedo troppi assembramenti non continuo a dirlo però mi sembra che siano parole al vento estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio la chiama Pazzalini invito il senatore e il segretario a procedere all'appello iniziando dal senatore Pazzalini 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 no Segre 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 sì Pellegrini Emanuele Pellegrini Emanuele no Pellegrini Marco Pellegrini Marco sì Pepe Pepe no Pepe Pergreffi Pergreffi no Perilli Perilli sì Perosino 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 no Pesco Pesco sì Petrenga Petrenga no Petrocelli Petrocelli sì Pianasso Pianasso no Piano 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 assente Piarulli Piarulli sì Piarulli sì Pichetto Frattin Pichetto Frattin no Pichetto Frattin no Pilon no Pilon no Pinotti 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 sì Pinotti Pirovano Pirovano no Pirovano Pirro sì Pisani Giuseppe Pisani Pisani Giuseppe sì Pisani Pietro no Pisani Pietro no Pitella Pitella sì Pitoni no Pizzol no Pizzol no Pizzol no Tresutto sì Pucciarelli Pucciarelli no Puglia Puglia sì Puglia Quagliarello 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 no Quarto Quarto sì Quarto sì Rampi Rampi sì Rampi Rauti Rauti no Renzi Renzi assente Riccardi 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 Ricchetti Ricchetti no Ricchetti Ripamonti Ripamonti no Rivolta Rivolta no Rivolta Sì Romagnoli 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 Romani Romani no Romano Romano sì Romeo Romano Romano Ronzulli Ronzulli no Rossi Rossi sì Rossi sì Rossomando Rossomando sì Rubbia Rubbia assente Rubbia Rufa Rufa no Rufa Rotolo 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 sì Rotolo sì Ruspandini Rufa no Ruspandini no Russo sì Rufa sì Saccone Saccone no Salvini no Sant'Angelo sì Sant'Angelo sì Sant'Illo sì Sant'Illo sì Saponara 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 no Saviane no Saviane no Saviane no Sbrana Sbrana no Sbrana Sbrollini Sbrollini assente Sbrollini assente Schifani Schifani no Schifani no Schascia no Schascia assente Serafini no Serafini no Serafini no Serafini Siclari no Siclari no Sileri 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 Sieri no Sieri Stabile Stabile no Stabile Stefani Stefani no. Stefano? Stefano sì. Steger? Steger sì. Sudano? Sudano assente. Taricco? Taricco sì. Taverna? Taverna sì. Testo? Testo no. Tiravoschi? Tiravoschi no. Toffanin? Toffanin no. Toninelli? Toninelli sì. Tosato? Tosato no. Totaro? Totaro no. Trentacoste? Trentacoste sì. Turco? Turco sì. Unterberger? Unterberger sì. Uraro? Uraro no. Urso? Urso no. Vaccaro? Vaccaro sì. Valente? Valente sì. Valardi? Valardi no. Vanin? Vanin sì. Batuone? Batuone sì. Verducci? Verducci sì. Vescovi? Vescovi no. Vitali? Vitali no. Bono? Bono assente. Zaffini? Zaffini no. Zaffini no. Zanda? Zanda sì. Zanda sì. Zuliani? Giuliani no. Abate? Abate? Abate sì. 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 Abate sì Airola, sì. Alderisi? Alderisi, no. Alessandrini? Alessandrini, no. Alfieri? Alfieri, sì. Anastasi? Anastasi, sì. Angrisani? Angrisani, sì. Arrigoni? Arrigoni, no. Astorre? Astorre, sì. Audino? Audino, sì. Augustori? Augustori, no. Bagnai? Bagnai, no. Balboni? Balboni, no. Barachini? Barachini, no. Barbaro? Barbaro, no. Barboni? Barboni, no. Batistoni? Batistoni, no. Belanova? Belanova, assente. Berardi? Berardi, no. Bergesio? Bergesio, no. Bernini? Bernini, no. Berrutti? Berrutti, no. Berrutti, no. Biasotti? Biasotti, assente. Biasotti, assente. Binetti? Binetti, no. Bini? Bini, sì. Biti? Biti, sì. Biti, sì. Boldrini? Boldrini, sì. Boldrini, sì. Buongiorno. Buongiorno, no. Bonifazi? Bonifazi, assente. Bonifazi, assente. Bonino? Bonino, no. Bonino, no. Borghesi? Borghesi, no. Borgonzoni? Borgonzoni, no. Bossi, Simone? Bossi, Simone, no. Bossi, Simone, no. Bossi, Umberto, assente. Botti, sì. 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 Botti, sì Sì. Calandrini. Calandrini. No. Calderoli. Calderoli. No. Caliendo. No. Caligiuri. Caligiuri. Campania. Campari. No. Candiani. No. Candura. No. Cangini. No. Cantù. No. Carbone. Carbone. Assente. Cario. Cario. Sì. Casini. Casini. Sì. Casolati. Casolati. No. Castaldi. Castaldi. Sì. Castellone. Castellone. Sì. Castiello. Castiello. Assente. Catalfo. Catalfo. Sì. Catanio. Catanio. Sì. Causin. Causin. Sì. Centinaio. 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 No. Centinaio. No. Cerno. Cerno. Sì. Cerno. Sì. Cesaro. Cesaro. No. Cesaro. No. Ciampolillo. Ciampolillo. Assente. Cioffi. Sì. Cioffi. Sì. Ciriani. Ciriani. No. Cirinà. Cirinà. Sì. Cirinà. Sì. Collina. Colina. Sì. Coltorti. Coltorti. Sì. Coltorti. Sì. Comincini. Comincini. Assente. Comincini. Assente. Consatti. Consatti. Assente. Corbetta. Corbetta. Sì. Corrado. Corrado. Sì. Corrado. Sì. Corrado. Sì. Corti. No. Corti. No. Craxi. Craxi. No. Crimi. Sì. Crimi. Sì. Crimi. Sì. Coatti. Coatti. Sì. Coatti. Sì. Cuccioli. Cuccioli. Sì. Cucca. 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 Assente. D'Alfonso. 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 Sì. D'Angelo. D'Angelo. Sì. D'Arienzo. Sì. D'Arienzo. Sì. D'Arienzo. De Bonis. Sì. D'Carlo. No. D'Alfonso. No. De…Caro. No. De Falco. No. De Falco. De Falco. Sì. D'Alfonso. Sì. D'Arienzo. Sì. D'Arienzo. Yes. D'Arienzo. Sì. D'Arienzo. No, di Siano. De Siano, no. De Vecchis? De Vecchis, no. De L'Oglio? De L'Oglio, sì. De Sì? De Sì, sì. Di Girolamo? Di Girolamo, sì. Di Marzio? Di Marzio, sì. Di Micco? Di Micco, sì. Di Nicola? Di Nicola, sì. Di Piazza? Di Piazza, sì. Donno? Donno, sì. Doria? Doria, no. Drago? Drago, no. Durnwalder? Durnwalder, sì. Endrizzi? Endrizzi, sì. Erani? Erani, sì. Evangelista? Evangelista, sì. Faggi? Faggi, no. Faggi, no. Fantetti? Fantetti, sì. Fantetti, sì. Faraone? Faraone, assente. Faraone, assente. Fattori? Fattori, sì. Fattori, sì. Fattori, no. Fazzone, no. Fazzone, no. Fede? Fede, sì. 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 Ferro no, Ferro no, Ferro no, Ferro no, Floridia no, Floridia sì, Floris no, Floris no, Fregolent no, Fusco no, Fusco no, Galiani no, Galiani no, Galicchio sì, Galone no, Galone no, Garavini assente, Garnero Santanchè no, Garutti sì, Gasparri no, Gasparri no, Gaudiano sì, Gaudiano sì, Ghedini no, Giacobbe sì, Giacobbe sì, Giarusso no, Giarusso no, Ginnetti, Ginnetti assente, Giro? Giro no. Girotto. Girotto sì. Granato sì. Granato sì. Grassi no. Grasso sì. Grasso sì. Grimani. Girimani assente. Guidolin. Guidolin sì. Giannone. Giannone no. Iori. Iori sì. I Vobi. I Vobi no. L'Abbate. L'Abbate sì. La Mura. La Mura sì. La Pietra. La Pietra no. La Russa. La Russa no. La Forgia. La Forgia sì. Lanzi sì. Lanzi sì. Lanzi sì. La Russa. La Russa sì. Leone sì. Leggi sì. Leggi sì. Sì, Liccheri. Liccheri, sì. Lomuti. Lomuti, sì. Leonardo. Leonardo, sì. Lorefice. Lorefice, sì. Lucidi, no. Lunesu, no. Lupo, sì. Maffoni, no. Magorno, assente. Maiorino, sì. Malan, no. Malegni, no. Malpezzi, sì. Manca, sì. Mangialavori, no. Mantero, sì. Mantero, sì. Mantovani, sì. Mantovani, sì. Marcucci. Marcucci, sì. Marcucci, sì. Marin, no. Marin, no. Marinello, sì. Marinello, sì. Marinello, sì. Marino. Marino, assente. Martelli, no. Martelli, no. Martelli, no. Marti, no. Marti, no. Marti, no. Marti, no. Masini no, Matriciano sì, Mautone sì, Mautone sì, Merlo sì, Messina Alfredo no, Messina Suntela sì, Mininno sì, Mininno sì, Minuto no, Mirabelli sì, Misiani, Misiani sì, Modena, Modena no, Moles, Moles no, Molame, Molame sì, Montani, Montani no, Montovecchi, Montovecchi sì, Monti, Monti sì, Moronese sì, Morra, Morra sì, Nanicini Nanicini sì, Napolitano, Napolitano assente, Nastri, Nastri no, Naturale, Naturale sì, Nincini, Nincini assente, Nisini, Nisini no, Nocerino, Nocerino sì, Nunez sì, Nunez sì, Ortis sì, Ortis sì, Ostelari no, Ostelari no, Pacifico no, Pacifico no, Pagano no, Pagano no, Papateu no, Papateu no, Paragone no, Paragone no, Paragone no, Parente, Parente assente, Paroli no, Paroli no. Parini? Parini sì. Patuanelli? Patuanelli sì. Pavanelli? È terminata la prima chiama. Piano? Piano assente. Renzi? Renzi? Astenuto? Rubbia? Rubbia assente. Rubbia assente. Sbrolini? Sbrolini, astenuta. Sciascia? Sciascia assente. Sudano? Sudano, astenuta. Vono? Vono, astenuta. Bellanova? Bellanova, astenuta. Bellanova, astenuta. Bellanova, astenuta. Biasotti? Biasotti, assente. Bonifazi? Bonifazi, astenuto. Bossi Umberto? Bossi Umberto, assente. Carbone? Carbone? Carbone, astenuto. Castiello? Castiello? Castiello, assente. Castiello, assente. Ciampolillo? Ciampolillo, assente. Comincini? 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 Comincini, astenuto. Comincini, astenuto. Conzatti, astenuta. Cucca? Cucca, astenuto. Cucca, astenuto. Faraone? Faraone, astenuto. Faraone, astenuto. Garavini? Garavini, astenuta. Ginetti, astenuta. Ginetti, astenuta. Grimani? Grimani, astenuto. Grimani, astenuto. Magorno? Magorno, astenuto. Magorno, astenuto. Marino, assente. Marino, assente. Napolitano? Napolitano, assente. Napolitano, assente. Napolitano, assente. Nencini? Nencini, assente. Nencini, assente. Parente? Parente, astenuta. Parente, astenuta. Parente, astenuta. Piano assente. È terminata anche la seconda chiama. C'è qualcuno che non ha ancora votato. Se abbiamo votato tutti... Dichiaro chiusa la votazione. Ciampolillo. Faccia la sua dichiarazione di voto. Ciampolillo. 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 Per la verità avevo già chiuso la votazione. Per la verità avevo richiamato dicendo che c'era qualche di un altro e stavo dichiarando e chiusa la votazione. Invito i senatori e i segretari a procedere al computo dei voti. Era stato... ... ... ... Scusate, io avevo chiesto chi doveva ancora votare. E stavo dicendo, dichiaro chiusa la votazione. Mi sto confrontando con i senatori. Se una persona è là e non si evidenzia. No, non mi piace che veniate sotto a protestare. Sto parlando con i senatori segretari che sono qua. E stiamo parlando di questo. Calmatevi, calmatevi. Non credo che sia una tragedia. Calmatevi. Per cortesia, non mi piace che veniate sotto qui. State al vostro posto. ... ... ... ... ... Al riguardo di questo voto io blocco e guardo il video perché qua ci stanno esprimendo dicendo anche i senatori segretari stanno dicendo questo e sono qua proprio per controllare quindi smettiamolo con le polemiche state seduti e lasciateci lavorare per cortesia Allora se i senatori e i questori possono venire qua con me per cortesia Senatore e i questori Grazie 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 Per cortesia abbiate solo un attimo di pazienza perché facciamo controllare Trattandosi di un voto importante allora i senatori questori vanno adesso in sala Tannini e dicono loro perché anche i senatori segretari hanno delle incertezze su questo Allora ci facciamo dire da loro quello che è successo e decidiamo per quello che riguarda questo voto Grazie 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 Per cortesia vi pregherei di invitare assembramenti in aula sedetevi al vostro corpo che stiamo aspettando i senatori questori per cortesia grazie a tutti 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 grazie grazie a tutti 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 grazie a tutti